capitolo 1 sul vetro smerigliato della porta è scritto in lettere nere un po scrostate philip marlow e investigatore è una porta passabilmente scalcinata in fondo a un corridoio passabilmente scalcinato in un edificio che era nuovo pressa poco nell'anno in cui le stanze da bagno a tutte piastrelle sono diventate la base della civiltà la porta è chiusa a chiave ma vicino ce n'è un'altra che non lo è venite pure avanti non disturbate ci siamo solo io e un grosso moscone irridato ma non entrate se siete di manattan kansas era una di quelle mattine chiare luminose quasi estive che abbiamo qui in california all'inizio della primavera prima che comincino i nebbioni le piogge sono terminate le colline ancora verdi e dalla vallata che taglia le alture di hollywood si vede la neve sulle montagne le pelliccerie fanno pubblicità le liquidazioni annuali le case d'appuntamento specializzate in vergini sedicenni fanno affari a rotta di collo e a beverly hills gli alberi di giacaranda cominciano a fiorire facevo la posta al moscone ridato da cinque minuti aspettando che si posasse ma lui non voleva posarsi voleva solo far picchiate e cabrate e cantare il prologo dei pagliacci io mi ero preparato con la paletta in posizione a mezz'aria c'era una macchia viva di sole su un angolo della scrivania e sapevo che presto o tardi sarebbe andato a finire in quel punto ma quando ci arrivò sulle prime non lo vidi nemmeno il ronzio cessò e lui era là e proprio allora suonò il telefono avanzai la mano sinistra centimetro per centimetro una mano lenta paziente alzai ad agio il ricevitore e dissi sottovoce nel microfono un momento prego deposi l'apparecchio gentilmente sulla cartella marrone lui era ancora là verde bluastro lucente e pieno di peccati trassi un profondo respiro e lasciai cadere il colpo quel che rimase del moscone schizzò in mezzo alla stanza e cadde sul tappeto mi alzai lo raccolsi per l'ala buona e andai a gettarlo nel cestino della carta straccia grazie per aver aspettato dissi al telefono parla il signor marlow l'investigatore era una vocetta esile piuttosto frettolosa da ragazzina risposi che ero il signor marlow l'investigatore quanto chiedete per i vostri servizi signor marlow che cosa vorreste farmi fare la voce divenne un poco più aspra non ve lo posso dire al telefono è molto confidenziale prima di perdere tempo a venire nel vostro ufficio vorrei avere un'idea 40 dollari al giorno più le spese a meno che non sia un lavoro che si possa fare per un forfait è veramente troppo dichiarò la vocina e sì potrebbe venire a costare centinaia di dollari io guadagno poco e dove siete ora ma in un drugstore nel palazzo di fianco al vostro ufficio avreste potuto risparmiare un nichelino l'ascensore gratis io io come avete detto ripetei tutto da capo venite su e lasciate che vi dia un'occhiata soggiunsi se vi trovate in un guaio di quelli che so sistemare posso darvi una discreta idea di devo sapere qualche cosa di voi dichiarò la vocina con fermezza si tratta di una faccenda molto delicata molto personale non posso parlarne al primo venuto se è delicata a questo punto forse vi occorre un'investigatrice cielo non sapevo che ce ne fossero ma non credo proprio che un'investigatrice possa andare vedete signor marlow orrin abitava in un quartiere molto malfamato perlomeno a me è parso malfamato il direttore della pensione è un individuo quanto mai sgradevole puzza di liquore voi bevete signor marlow beh ora che ne parlate e non mi sentirei di assumere un investigatore che faccia uso di alcol in nessuna forma non approvo nemmeno il tabacco avete niente in contrario se pelo un'arancia colsi un'aspirazione brusca all'altro capo del filo potresti almeno parlare come un gentiluomo osservò la voce vi conviene provare al circolo universitario consigliai ho sentito dire che laggiù di gentiluomini ne sono avanzati un paio ma non so se vi permetteranno di metterci le mani sopra e deposi il ricevitore fu un passo nella giusta direzione ma non andai abbastanza lontano avrei dovuto chiudere la porta a chiave e nascondermi sotto la scrivania capitolo 2 cinque minuti dopo sono il campanello alla porta del mezzo ufficio che mi serve da sala d'aspetto udì il battente richiudersi poi più nulla l'uscio tra la mia stanza e quell'altra era semi aperto ascoltai e venni alla conclusione che qualcuno aveva guardato dentro si era accorto di aver sbagliato ufficio e se n'era andato senza entrare poi risuonò un toc toc soffocato sul legno seguì la tossetta che si usa per il medesimo scopo tirai giù i piedi dalla scrivania mi alzai e guardai fuori la ragazza era là non fu necessario che aprisse bocca per dirmi chi era e nessuno aveva mai somigliato meno a lady macbeth era una ragazzetta linda dall'aria piuttosto affrettata con capelli castani pudicamente lisci e un paio di occhiali dalla montatura invisibile portava un abito a giacca marrone evidentemente comprato fatto e da una cinghia sulla spalla le pendeva una di quelle goffe borse quadrate che fanno pensare a una sorella della carità che porta i primi soccorsi ai feriti sui capelli lisci marrone posava un cappellino che era stato strappato dalle mani della mamma in troppo tenera età niente trucco niente rossetto niente gioielli erano gli occhiali non cerchiati a darle quell'aria da bibliotecaria non è il modo di parlare alla gente per telefono mi disse in tono austero dovreste vergognarvi sono troppo orgoglioso per farlo vedere replicai venite avanti le tenni la porta aperta poi le offerse una poltrona lei si appollaiò sull'orlo del sedile su una strisciolina di sì e no 5 centimetri se parlassi così a un paziente del dottor zagmit perderei il posto dichiarò tiene in modo particolare al mio contegno coi pazienti persino con quelli difficili come sta il vecchio non l'ho più visto dalla volta che sono cascato dal tetto del garage lei parve sorpresa ma rimase perfettamente seria ma non potete conoscere il dottor zag smith la punta di una lingua piuttosto anebica fece capolino tra le labbra e andò furtivamente in cerca del nulla conosco un certo dottor george zagmit di stanta rosa affermai oh no io parlo del dottor alfred zagmit di manhattan manhattan kansas sapete non manhattan new york deve essere un altro dottor zag smith osservai e il vostro nome non so ancora se ve lo dirò state solo dando un'occhiata alle vetrine suppongo che si possa dire così se devo raccontare i miei affari di famiglia un perfetto estraneo avrò perlomeno il diritto di decidere se è una persona di cui posso fidare ve l'ha mai detto nessuno che siete una pupetta in gamba voglio sperare di no presi una pipa e cominciai a riempirla sperare non è il termine esatto affermai buttate via quel cappellino e compratevi un paio di occhiali con la montatura colorata sapete quelli obliqui che fanno tanto orientale il dottor zag smith non mi permetterebbe mai una cosa del genere disse lei in tono frettoloso poi soggiunse credete davvero e arrossì impercettibilmente accesi la pipa e soffiai una boccata di fumo di fronte a me la ragazza sbatte le palpebre se mi assumete le dissi io sono l'uomo che assumete io così come sono se pensate di poter trovare dei fabbricieri di parrocchia del mio ramo siete pazza ho appeso il telefono senza lasciarvi finire ma siete venuta su ugualmente quindi avete bisogno di aiuto come vi chiamate e in che grana siete lei si limitò a guardarmi fisso datemi retta ripresi voi venite da manhattan kansas l'ultima volta che ho studiato l'almanacco del mondo era una cittadina poco distante da topeca popolazione 12.000 abitanti circa voi lavorate per il dottor alfred zagmit e state cercando una persona che si chiama orrin ma nattane molto piccola deve esserlo per forza solo una mezza dozzina di città nel kansas non lo sono ho già in mano abbastanza informazioni su di voi da poter scoprire tutta la storia della vostra famiglia ma perché doverste farlo io non ne ho la minima voglia sono stufo marcio della gente che viene a raccontarmi storie me ne sto seduto qui perché non so dove andare non ho voglia di lavorare non ho voglia di niente parlate troppo sì ammisi parlo troppo sempre i solitari parlano troppo oppure non parlano affatto non ci conviene occuparci di affari non mi sembrate il tipo che si rivolge a un investigatore privato soprattutto un investigatore privato che non conosce lo so rispose lei quietamente e se orrin ne lo sapesse diverrebbe il livido di bile anche mamma andrebbe su tutte le furie ho scelto il vostro nome sulla guida dei telefoni in base a quale principio mi informai e tenevate gli occhi aperti o chiusi la ragazza mi fissò per qualche secondo come se fossi stato un fenomeno vivente 7 e 13 rispose con calma cosa marlow ha 7 lettere e philip marlow ne ha 13 7 più 13 fa come vi chiamate domandai quasi con un ruggito offre me a quest strizzo gli occhi come se stesse per piangere e mi spiegò come si scriveva il suo nome vivo con mia madre riprese poi parlando più in fretta come se il mio tempo le costasse denaro mio padre è morto quattro anni fa era medico mio fratello orrin avrebbe dovuto diventare chirurgo ma è passato a ingegneria dopo due anni di medicina poi un anno fa orrin è venuto qui a lavorare per la società aerea cal western non ne aveva veramente bisogno aveva un buon impiego a weichita credo che più che altro ci tenesse a vedere la california quasi tutti ci tengono pressoché tutti corressi se insistete a portare gli occhiali senza montatura dovete almeno cercare di esprimervi secondo il vostro tipo lei diede una risatina soffocata da scolaretta e tracciò una riga attraverso la scrivania con un dito tenendosi gli occhi bassi volete dire quegli occhiali obliqui che danno un po di orientale precisamente ma torniamo a orrin l'abbiamo trasferito in california gli abbiamo fatto prendere alloggio a bay city e ora che ne facciamo di lui la visitatrice ci pensò sopra un momento corrugando la fronte poi studiò il mio viso come per decidersi finalmente le parole sgorgarono come il getto di una fontana non era nel carattere di orrin non scrivere regolarmente a casa viceversa negli ultimi sei mesi ha scritto solo due volte a mamma e tre a me noi abbiamo cominciato a preoccuparci così quanto mi sono toccate le vacanze sono venuto a trovarlo non avevo mai lasciato il kansas prima d'ora si interruppe non prendete appunti domandò feci un versaccio credevo che gli investigatori annotassero sempre ogni cosa su un tacquino piccolo piccolo le barzellette le dirò io voi raccontate la storia dunque siete venuta qui approfittando delle vacanze e poi avevo scritto a orrin annunziandogli il mio arrivo ma non ha risposto gli ho mandato un telegramma da salt lake city ma non ha risposto nemmeno a quello così non ho potuto fare altro che andare dove abitava è stato un tragitto orribilmente lungo orrin stava a bay city idaho street 449 si interruppe di nuovo ripete l'indirizzo e di nuovo io non ne presi nota mi limitai a starmene seduto osservando i suoi occhiali i capelli lisci castani lo stupido cappellino sguernito le unghie senza colore la bocca senza rossetto e la punta della piccola lingua che andava e veniva tra le labbra pallide forse non conoscete bay city signor marlow oh sospirai di bay city so solo che ogni volta che ci vado devo comprarmi un cranio nuovo volete che termini la storia per voi cosa gli occhi si spalancarono tanto che dietro gli occhiali fecero l'effetto di pesci d'acqua profonda orrin ha cambiato casa disse voi non sapete dove si è trasferito e avete paura che vive in una vita di peccato in un lussuoso attico dei quartieri alti in compagnia di una creatura con una lunga pelliccia di visone e un profumo travolgente per l'amor del cielo sono volgare vi prego signor marlow fece la ragazza dopo un po io non penso niente di simile nei riguardi di orrin e se orrin vi sentisse vi farebbe pentire sa essere tremendamente cattivo a volte ma io sono certa che deve essere accaduto qualcosa era una pensione di infimo ordine e il direttore non mi è piaciuto affatto è un uomo disgustoso ha detto che orrin se n'era andato due settimane fa che lui non sapeva dove e non gli importava affatto di saperlo e tutto quel che voleva era un bel cicchettone di gin non capisco proprio perché orrin se sia adattato a vivere in un posto simile avete detto cicchettone di gin la ragazza arrossì così ha detto il direttore io sto solo riferendovi d'accordo continuate beh allora sono andata al posto in cui lavora la società aerea cal western sapete lì mi hanno detto che mio fratello era stato licenziato insieme a moltissimi altri e questo era tutto quello che sapevano così sono stata all'ufficio postale per sentire se orrin aveva notificato un cambiamento di indirizzo e mi hanno risposto che non potevano darmi nessuna informazione era contro il regolamento ho spiegato chi ero e l'impiegato ha detto che se ero la sorella sarebbe andato a dare un'occhiata c'è andato infatti e quando è tornato mi ha detto di no orrin non aveva notificato nessun cambiamento di indirizzo allora ho cominciato ad avere un po di paura può essergli accaduto un incidente o qualcosa di simile non vi è venuto in mente di rivolgervi alla polizia non oserei mai rivolgermi alla polizia orrin non me lo perdonerebbe più è già una persona abbastanza difficile quando si trova nelle migliori disposizioni la nostra famiglia esitò e nei suoi occhi apparve un'espressione che lei fece di tutto per mandare indietro poi continuò col fiato corto la nostra famiglia non è il genere di famiglia che datemi retta interruppi stancamente non voglio dire che il ragazzo abbia soffiato il portafogli a qualcuno pensavo che potesse essere stato investito da una macchina e avesse perso la memoria o fosse ferito troppo gravemente per poter parlare lei mi lanciò un'occhiata decisa tutt'altro che ammirata se fosse successo qualcosa di simile lo sapremmo affermò tutti hanno in tasca qualcosa che stabilisce la loro identità a volte tutto quel che rimane sono le tasche sta cercando di spaventarmi signor marlu in tal caso sto facendo una magnifica serie di buchi nell'acqua voi cosa pensate che sia accaduto di preciso lei si portò l'indice snello alle labbra e lo sfiorò cautamente con la punta della linguetta anemica se lo sapessi non sarei venuta da voi quanto vorreste per ritrovarlo per un istante non risposi poi domandai intendete da solo senza parlarne a nessuno si intendo da solo e senza parlarne a nessuno già già beh dipende ve l'ho detto quali sono le mie tariffe lei intrecciò le mani sull'orlo della scrivania le strinse forte aveva forse il repertorio di gesti più insulsi che avessi mai visto pensavo che essendo un investigatore tutto quanto avreste potuto trovarlo immediatamente affermò non posso dare più di 20 dollari devo pagarmi i pasti qui e l'albergo e il biglietto di ritorno sapete bene come sono costosi gli alberghi e il ristorante il treno dove alloggiate io io preferirei non dirvelo se non vi dispiace perché così preferirei di no ho una paura terribile delle collere di orin beh posso sempre telefonarvi no già già di che cosa avete paura oltre alle collere di orin signorina quest avevo lasciato spegnere la pipa accesi un fiammifero e l'accostai al fornello osservando la ragazza fumare la pipa non è un'abitudine poco pulita mi domandò lei probabilmente ammisi ma ci vorrebbero ben più di 20 dollari per farmela smettere e non cercate di eludere le mie domande non vi permettete a parlarmi così scattò la ragazza fumare la pipa è davvero poco pulito mamma non ha mai permesso a papà di fumare in casa nemmeno negli ultimi due anni dopo che gli era venuto il colpo e a volte lui se ne stava seduto con la pipa vuota in bocca ma mamma in fondo non piaceva nemmeno questo avevamo tanti debiti anche e lei diceva che non poteva permettersi di dargli denaro per una cosa inutile come il tabacco la chiesa ne aveva molto più bisogno di lui sto cominciando a capire dissi lentamente in una famiglia come la vostra per forza qualcuno deve essere la pecora nera la ragazza balzò in piedi di scatto stringendosi al petto la sua cassettina di pronto soccorso non mi piacete dichiarò credo proprio che non vi assumerò state insinuando che orrin abbia fatto qualcosa di male ebbene vi posso assicurare che non è orrin la pecora nera della nostra famiglia non batte i ciglio lei fece dietro fronte si avviò alla porta a passo di marcia posò le dita sulla maniglia poi fece di nuovo dietro fronte torno indietro sempre a passo di marcia e improvvisamente scoppiò a piangere io reagì esattamente come un pesce imbalsamato reagisce all'esca la ragazza tirò fuori un fazzolettino e si fece il solletico agli angoli degli occhi e ora immagino che chiamerete la polizia disse con voce rotta il giornale di manattan verrà a sapere tutto e stamperà qualcosa di disgustoso sul nostro conto voi non immaginate niente di simile smettetela di straziarmi il cuore su vediamo una foto del giovanotto lei ripose alla svelta il fazzoletto pescò qualcos'altro nella borsa e me lo passò una busta molto sottile però poteva contenere due istantanee non vi guardai dentro descrivetemelo come lo vedete voi dissi la ragazza si concentrò questo le diede modo di fare qualche mossa inutile con le sopracciglie orin ha compiuto ventott'anni nel maggio scorso ai capelli castano chiari molto più chiari dei miei e viene spazzolati all'indietro anche gli occhi li ha di un azzurro più chiaro e molto più alto più di 1 85 ma pesa solo 73 chili è piuttosto ossuto una volta portava un paio di baffetti biondi ma mamma gliel'ha fatti tagliare sosteneva non me lo dite il prevosto ne aveva bisogno per imbottire un cuscino non potete parlare così di mia madre scattò lei bianca di rabbia oh su non fatela stupida c'è un mucchio di cose che non so sul conto vostro però potete subito piantarla di fingervi un angioletto dell'oratorio ha qualche segno particolare orin un porro una cicatrice o il tatuaggio del ventesimo terzo salmo sul petto e non disturbatevi ad arrossire beh non è necessario che alziate la voce perché non guardate la fotografia probabilmente ai panni addosso dopo tutto voi siete sua sorella dovreste saperlo ebbene non ce l'ha rispose a fatica a una piccola cicatrice sulla mano sinistra dove gli hanno tolto una cisti e che mi dite delle sue abitudini che cosa fa oltre a non fumare a non bere e non andare a ragazze ma come fate a saperlo me l'ha detto vostra madre lei sorrise avevo appunto cominciato a chiedermi se sapesse farlo aveva i denti piccoli e non metteva in mostra troppe gengive era già qualcosa che sciocco che siete morborò orin studia parecchio è una macchina fotografica molto costosa con la quale si diverte a fotografare la gente di sorpresa a volte manda fuori dai gangheri ma orin dice a tutti che dovrebbero vedersi come sono realmente speriamo che non capiti mai a lui osservai che tipo di macchina usa una di quelle piccole piccole con un obiettivo molto buono si possono prendere istantanee quasi con ogni luce una leica ha persi la busta e ne trassi un paio di foto molto chiare queste non sono state fatte con un arnese del genere oh no quelle le ha prese philip philip anderson un ragazzo col quale sono andata attorno per un certo periodo fece una pausa e sospirò immagino che sia questa la vera ragione per cui sono venuta qui signor marlow anche voi vi chiamate philip io mi limitai ad osservare già già ma mi sentì vagamente commosso e che ne è stato di philip anderson ma si tratta di orin lo so interruppi ma che ne è stato di philip anderson è ancora manattan la ragazza guardò altrove alla mamma non piace molto sapete com'è sì affermai so com'è potete piangere se volete non ve ne vorrò per questo anch'io sono uno stupido sentimentale guardai le due foto in una il soggetto guardava a terra e non mi serviva a niente l'altra era l'istantanea piuttosto ben riuscita di un tizio alto e angoloso con gli occhi molto vicini la bocca dritta e sottile e il mento a punta orin aveva esattamente l'espressione che mi aspettavo se vi foste dimenticato di pulirvi il fango dalle scarpe lui era il ragazzo che ve l'avrebbe fatto notare mesi da parte le due foto e guardai orfamei quest cercando di scoprire qualcosa nel suo viso che mi ricordasse lontanamente il fratello non ci riuscì tra loro non esisteva la minima somiglianza il che naturalmente non significa nulla non ha mai significato nulla d'accordo dissi andrò laggiù a dare un'occhiata ma voi dovreste intuire quello che è accaduto il ragazzo è in una città forestiera per un certo periodo guadagna parecchio più di quanto abbia mai guadagnato in vita sua forse incontra gente come non ne ha mai incontrata prima e la città credetemi conosco bei city non ha niente in comune con manattan kansas così orrin smette di fare il bravo e non vuole che la sua famiglia lo venga a sapere ma si rimetterà in carreggiata la visitatrice mi fissò per un istante in silenzio poi scosse il capo no orrin non è il tipo da fare una cosa simile signor marlow tutti lo siamo obiettai specialmente un ragazzo come orrin e il santificetur di provincia che ha vissuto tutta la vita fra le cocche del grembiale di mamma col curato che lo teneva per manina da queste parti si sente solo a soldi in tasca gli viene voglia di comprarsi un po di dolcezza e di luce ma non il tipo di luce che viene dalle finestre al levante di una cattedrale non che io abbia qualcosa contro una luce simile voglio soltanto dire che lui ne aveva già avuto a sufficienza o mi sbaglio lei fece di sì col capo in silenzio così comincia a spassarsela continuai ma non sa come si fa anche per questo ci vuole esperienza così perde un po la trebisonda con una ragazzetta leggera e una bottiglia di liquore e dopo gli parve di aver rubato le mutande al vescovo dopo tutto il ragazzo ha quasi 29 anni e se vuole fare qualche porcheriola è affar suo dopo un po troverà qualcuno cui dare la colpa mi fa orrore credervi signor marlou disse la ragazza lentamente mi fa orrore per mamma avevamo detto qualcosa a proposito di 20 dollari interruppi lei parve scandalizzata devo pagarvi ora come si farebbe a manhattan kansas non abbiamo investigatori privati a manhattan c'è solo la polizia regolare cioè non credo che abbiamo investigatori frugò di nuovo nella sua cassettina degli arnesi e pescò un borsellino rosso dal quale trasse un certo numero di banconote piegate con cura una per una tre fogli da cinque e cinque da uno tene la borsa in modo che potessi vedere quanto era vuota poi spiegò i biglietti di banca sulla scrivania li mise uno sopra l'altro e li spinse verso di me molto lentamente con infinita tristezza come se stesse annegando il micino prediletto vi darò una ricevuta dissi non mi occorre una ricevuta signor marlow ma a me sì non volete darmi il vostro indirizzo perciò ho bisogno di qualcosa con la vostra firma per farne cosa per dimostrare che vi rappresento presi un blocco di ricevute compilai un modulo e le porsi il libretto per farle firmare il duplicato lei non ci teneva affatto dopo un momento prese la matita con riluttanza e scrisse off my quest con una grafia ordinata da segretaria attraverso la facciata del duplicato sempre niente indirizzo domandai preferirei di no telefonatevi quando volete allora sulla guida c'è anche il mio numero di abitazione casa albergo bristol appartamento 28 quarto piano non è molto probabile che venga a farvi visita dichiarò lei freddamente non ve l'ho ancora chiesto le feci osservare chiamatemi verso le quattro se vi fa comodo può darsi che abbia qualche notizia può anche darsi di no la ragazza si alzò spero che mamma non pensi che ho fatto male dissi tormentandosi un labbro ora con un'unghia pallida a venir qui intendo non mi elencate altre cose che a vostra madre non piacciono l'invitai tirate un pietoso velo su questo punto ma dico e smettetela di dire ma dico per me siete un individuo estremamente villano non è vero niente voi pensate che sono molto carino non credete che io faccia questo lavoro per i 20 dollari vero a un mi lanciò un'occhiata fredda decisa e allora perché poi quando vide che non rispondevo aggiunse perché c'è la primavera nell'aria continuai a tacere lei arrossì lievemente poi diede una risatina non ebbi cuore di dirle che ero semplicemente stufo di non far nulla forse era anche la primavera e qualcosa nei suoi occhi che era molto di più antico di manattan kansas mi siete molto simpatico davvero mormorò poi si voltò di scatto e quasi corse fuori dall'ufficio i suoi passi nel corridoio esterno facevano un rumorino secco ritmato come mamma che tamburella le dita sul bordo della tavola da pranzo quando papà lavora in di diplomazia per conquistarsi una seconda fetta di pasticcio e lui senza più un soldo senza più nulla semplicemente seduto su una sedia ad ondolo sotto il portico verso strada laggiù a manattan kansas ad ondolare sotto il portico verso strada con calma lentamente perché quando si è avuto un colpo bisogna prendere le cose con calma lentamente e aspettare il prossimo colpo e in bocca la pipa vuota niente tabacco niente solo aspettare infilai i 20 dollari di orf make est guadagnati con tanto sudore in una busta ci scrissi il suo nome sopra e la lasciai cadere in un cassetto della scrivania non mi garbava l'idea di andarmene in giro con tanto danaro addosso capitolo 3 si può conoscere bei city da molto tempo senza conoscere idaho street e si può conoscere molto bene idaho street senza conoscere il numero 449 l'asfalto della via davanti al portone era tutto corroso e mostrava la terra la staccionata sbilenca di un magazzino di legname costeggiava il marciapiedi pieno di crepe all'altro lato della strada più avanti circa a metà dell'isolato le rotaie rugginose di un binario di servizio svoltavano verso un alto cancello di legno bloccato da una catena che aveva l'aria di non essere stato aperto da 20 anni i ragazzini avevano riempito di scritte di disegni i battenti del cancello e tutta la staccionata il numero 449 aveva un portico poco profondo di legno grezzo sotto il quale 45 sedia dondolo di vimini e legno ozziavano con aria dissoluta tenute insieme dallo spago e dall'umido dell'aria marina gli avvolgibili verdi delle finestre a pian terreno erano abbassati per tre quarti e pieni di spiragli accanto alla porta d'ingresso c'era un grande avviso a stampatello tutto esaurito anche quello era là da molto tempo era sbiadito e pieno di macchie di mosche la porta si apriva sul lungo vestibolo in fondo al quale parteva una rampa di scale sulla destra c'era uno stretto scaffale con vicino una matita copiativa appesa al muro per una catenella c'era il pulsante di un campanello e sopra di esso un cartellino giallo e nero che diceva direttore era attaccato con tre puntine da disegno scompagnate sul muro di fronte c'era un telefono a gettone premetti il pulsante il campanello suonò in un punto imprecisato ma non accadde nulla suonai di nuovo di nuovo non accadde nulla avanzai lentamente verso una porta con un cartellino di metallo bianco e nero direttore bussai poi presi a calci la porta parve che nessuno se ne avesse a male per le mie pedate tornai ad uscire e mi avviai verso il fianco della casa dove un sentierino di cemento conduceva un ingresso di servizio mi pare che fosse nel punto giusto per essere quello dell'appartamento del direttore il resto dell'edificio doveva essere composto esclusivamente distanze d'affitto sotto il piccolo portico c'erano una pattumiera sudicia e una cassetta di legno piena di bottiglie di liquore la porta posteriore oltre la grata era aperta dentro era buio e tetro appoggiai la faccia alla grata e spiai nell'interno attraverso l'uscio oltre il portico di servizio scorgeva una sedia da cucina con una giacca da uomo appesa alla spalliera e sul sedile c'era un uomo in maniche di camicia col cappello in testa un tipo piuttosto piccolo e smilzo non riuscivo a vedere quel che stava facendo ma mi parve che fosse seduto a un tavolo a muro nell'angolo della prima colazione bussai sulla grata l'uomo non se ne diede per inteso bussai di nuovo più forte questa volta lo sconosciuto inclinò la sedia all'indietro e mi lasciò vedere un viso pallido con una sigaretta piantata in bocca cosa volete la trò il direttore non c'è bel giovane voi chi siete che ve ne importa voglio una stanza tutto esaurito non sapete leggere io avrei informazioni diverse dichiarai davvero l'uomo fece schizzar via la cenere della sigaretta con l'unghia senza nemmeno togliere il mozzicone dalla piccola bocca triste e allora prendetevi le vostre informazioni e andate al limbo raddrizzò la sedia e tornò a fare quel che stava facendo io feci parecchio rumore scendendo dal portico e nessun rumore risalendovi tastai la grata con attenzione era chiusa con un gancio con la lama di un temperino sollevai l'uncino e lo sfilai dall'occhiello tintinnò un poco ma dalla cucina venivano altri tintinni più forti entrai attraversai il portico di servizio e varcai la soglia della cucina l'ometto era troppo indaffarato per accorgersi di me il locale conteneva un fornello a gas a tre fuochi qualche scaffale carico di piatti unti una ghiacciaia di legno e l'angolo della prima colazione il tavolo a muro era coperto di danaro erano quasi tutti biglietti di banca ma c'erano anche monete di tutte le dimensioni fino a un dollaro l'ometto contava i soldi li riuniva in mucchietti e prendeva note in un quadernetto bagnava la punta alla matita senza disturbare la sigaretta che gli abitava in bocca dovevano esserci parecchie centinaia di dollari su quel tavolo giorno d'affitti domandai con aria brillante l'omino si voltò di scatto per un istante sorrise senza dire bah aveva il sorriso di un uomo ai cui pensieri non sorridono si tolse di bocca il mozzicone di sigaretta lo lasciò cadere al suolo e lo pestò col piede trasse una sigaretta nuova dalla camicia l'introdusse nello stesso buco in mezzo alla faccia e cominciò a frugarsi addosso in cerca di un cerino siete entrato gentilmente osservò di un tono cordiale poiché non riusciva a trovare il cerino si voltò distrattamente senza alzarsi e infilò una mano in una tasca della giacca qualcosa di pesante batte contro il legno della sedia riuscì ad afferrargli il polso prima che l'oggetto pesante uscisse di tasca l'ometto si gettò all'indietro con tutto il suo peso e la tasca della giacca cominciò a sollevarsi verso di me gli feci partire la sedia di sotto lui cadde a sedere secco sul pavimento e batte la testa contro lo spigolo del tavolo questo non gli impedì di tentare di assestarmi un calcio al basso ventre mi tirai indietro con la sua giacca in mano e levai dalla tasca la 38 con la quale aveva giocherellato non restare seduto per terra solo per mostrarvi ospitale dissi lui si alzò lentamente fingendosi più stordito di quanto non fosse pasticciò un istante col colletto vicino alla nuca e la luce ammiccò sul metallo mentre il suo braccio si alzava rapidissimo verso di me era un ometto molto vivace gli accarezzai una mascella con la sua stessa pistola e lui tornò a sedersi sull'impiantito posai un piede con tutto il mio peso sulla mano che stringeva il coltello l'omino contraste il viso per il dolore ma non ha perse bocca così io spedì il coltello in un angolo con una pedata era un coltello lungo e sottile e pareva molto appuntito dovreste vergognarvi a puntare rivoltelle e pugnali contro la gente che va in cerca di un buco per vivere protestai anche di questi tempi è un'esagerazione fuori luogo lui si infilò la mano ferita tra le ginocchia la strinse e cominciò a fischiettare tra i denti a quanto pareva la botta alla mascella non gli aveva fatto né caldo né freddo d'accordo brontolò d'accordo mica sono perfetto prendete il grano e filate ma non crediate di averla fatta franca diedi un'occhiata alle banconote di piccolo e medio taglio e alle monete d'argento sulla tavola dovete incontrare una quantità di cattivi pagatori a giudicare dall'arsenale che vi portate dietro osservai mi diressi verso la porta che dava all'interno della casa e tentai la maniglia ma era chiusa a chiave mi voltai vi lascerò la pistola nella cassetta delle lettere promisi è la prossima volta chiedete di vedere il tesserino lui stava ancora fischiettando gentilmente fra i denti e stringendosi la mano mi lanciò un'occhiata acuta pensosa poi spazzò il denaro in una borsa di pelle malandata e fece scattare la serratura si tolse il cappello lo rabbeciò e tornò a piantarselo spavaldamente sulla nuca poi mi rivolse un sorriso rapido e efficiente non vi disturbate per la pistola la città è piena di ferri vecchi il coltello invece potete lasciarlo a closen ho dovuto sudarci sopra parecchio per permetterlo a punto e dopo l'avete usato molto può darsi agito un dito al mio indirizzo allegramente forse ci incontreremo ancora un giorno l'altro magari quando sarò con un amico ditegli che si metta una camicia pulita consigliai e che ve ne presti una o cielo o cielo fece l'omino con aria di disapprovazione come diventiamo cattivi appena abbiamo la patacca dietro al risvolto mi passò davanti senza rumore e scese i gradini di legno del portico i suoi passi risonarono lungo la strada e pian piano si spensero somigliavano molto al ticchettio delle scarpine di orfamai lungo il corridoio del mio ufficio e per qualche misteriosa ragione io provei un senso di vuoto come se avessi calcolato male le briscole ma non c'era nessuna ragione nessuna forse era la durezza dell'omino niente gemiti niente proteste solo quel sorriso quel fischiettare fra i denti la voce non curante e gli occhi che non dimenticavano andai a raccogliere il coltello la lama era lunga rotonda e sottile come una lima che fosse stata levigata l'impugnatura e la guardia erano di materia plastica leggera e parevano tutte d'un pezzo afferrai l'arma per l'impugnatura e assestai una rapida pugnalata al tavolo la lama si staccò e rimase infissa nel legno vibrando trassi un profondo respiro infilai di nuovo il manico sul fittone di metallo e riuscii a scalzare la lama dal tavolo un coltello curioso con un disegno e uno scopo ben definiti e tutt'altro che gradevoli apersi la porta che dava nell'interno della casa e varcai la soglia col coltello e la pistola in una mano sola mi trovai in un salotto con un letto a muro e il letto era tirato giù e mezzo disfatto c'era una poltrona imbottita con un buco bruciacchiato in un bracciolo una scrivania alta di quercia con gli sportelli obliqui come le porte di una cantina all'antica era appoggiata al muro vicino alla finestra di strada poco distante c'era un divano e sul divano giaceva un uomo i suoi piedi avvolti in calzini grigi pieni di protuberanze sporgevano dall'orlo della sedile la testa aveva mancato il cuscino di mezzo metro buono non era stata una gran perdita a giudicare dal colore della federa l'uomo portava una camicia senza colore e una giacca di maglia grigia molto lisa aveva la bocca aperta il viso lustro di sudore e respirava come una vecchia ford col dotto della benzina guasto su un tavolo al suo fianco c'era un piatto pieno di mozziconi di sigaretta alcuni dei quali avevano l'aria di essere fatti a mano sul pavimento una bottiglia di gin quasi piena e una tazza che pareva aver contenuto caffè ma tutt'altro che di recente nella stanza dominavano l'odore di gin e l'aria viziata ma c'era anche una vaga reminescenza di fumo di marijuana apersi una finestra e appoggiai la fronte all'imposta per respirare una boccata d'aria più fresca e osservai la strada due ragazzini compivano evoluzioni in bicicletta lungo la staccionata del magazzino di legname fermandosi di tanto in tanto per studiare gli esemplari di arte da caserma sull'assito nient'altro si muoveva nel vicinato nemmeno un cane all'angolo della via c'era una nuvola di polvere nell'aria come se fosse appena passata un'automobile mi avvicinai alla scrivania in un cassetto c'era il registro degli ospiti sfogliai le pagine all'indietro finché arrivai al nome orrin p quest vergato in una scrittura appuntita e meticolosa e le parole numero 14 piano 2 aggiunte a matita da un'altra grafia che non era né appuntita né meticolosa di lì tornai alle ultime pagine ma non trovai nuove registrazioni per la camera 14 nella camera 15 abitava un certo gwx riposi il registro e mi avviai al divano l'uomo smise di russare di gorgogliare si gettò un braccio attraverso il petto come se stesse per fare un discorso michinai gli afferrai il naso ben stretto fra l'indice e il medio gli ficca in bocca un lembo del suo golf lui smise definitivamente di russare spalancò gli occhi di scatto erano vitrei e iniettati di sangue cercò di sottrarsi alla mia mano quando fui certo che era sveglio del tutto lo lasciai andare presi la bottiglia di gin dal pavimento e versai un po di liquore in un bicchiere che gli giaceva su un fianco accanto alla bottiglia poi mostra il bicchiere all'uomo la sua mano scattò in avanti con la bella ansia di una madre che dà il benvenuto a un figlioletto perduto tirai indietro il bicchiere e domandai siete il direttore lui si lecco le labbra a fatica come si appiccicassero e disse tentò di nuovo di afferrare il bicchiere io lo deposi sul tavolo di fronte a lui lui lo prese cautamente con entrambe le mani e si versò il gin in gola poi scoppiò in una grassa risata e mi gettò il bicchiere riuscì ad afferrarlo e lo deposi nuovamente sul tavolo l'uomo mi esaminò sforzandosi di fare il severo ma senza successo che cosa c'è gracchiò in tono annoiato siete il direttore annoi e per poco non cadde dal divano devo essere un po sbronzino disse sbronzino un pochino pochino non siete poi tanto conciato osservai respirate ancora l'uomo posò i piedi a terra e si rizzò a fatica improvvisamente scoppiò in una risatina rauca divertita fece tre passi incerti cadde carponi e tentò di mordere la gamba di una sedia lo tirai su di nuovo lo feci sedere sulla poltrona imbottita dal bracciolo bruciacchiato e gli versai un'altra dose della sua medicina lui la beve fu scosso da un brivido violento e a un tratto i suoi occhi parvero diventare ragionevoli astuti gli ubriachi di quel tipo hanno dei momenti di lucidità in cui sono perfettamente equilibrati non si può mai sapere quando arriveranno né quanto potranno durare che diavolo siete mugolò sto cercando un certo orrin p cast che ripetei la frase lui si passò le mani sulla faccia sporcandosela e annunziò laconicamente andato via dove e quando l'uomo agitò una mano e quasi cadde dalla sedia poi agitò la mano nell'altro senso per riprendere l'equilibrio datemi un cicchetto brontolò versai un'altra dose di gin ma tenne il bicchiere in modo che non potesse prenderlo datemi balbettò con ansia sono molto giù tutto quello che voglio è l'attuale indirizzo di orrin p quest ma pensa un po esclamò lui con l'aria di dire una barzelletta e fece un debole tentativo per afferrare il bicchiere che tenevo in mano deposi il bicchiere sul tavolo e trassi di tasca un biglietto da visita di quelli d'ufficio questo forse vi aiuterà a concentrarvi dissi il direttore scrutò il cartoncino attentamente lo piegò a metà poi lo piegò ancora lo tenne sul palmo della mano aperta per un istante ci sputò sopra e lo buttò via facendoselo volare dietro la spalla gli porsi il bicchiere di gin lui beve alla mia salute annui con aria solenne e si buttò anche il bicchiere dietro la spalla il bicchiere rotolò sul pavimento e andò a urtare il bordo del legno della parete l'uomo si alzò con sorprendente facilità punto un pollice contro il soffitto e strinse a pugno le altre dita emettendo un suono aspro con la lingua ai denti filate ordinò ho degli amici io diede un'occhiata al telefono al muro poi si voltò a guardarmi con aria astuta un paio di ragazzi che vi sistemeranno spiegò in tono sprezzante io non ha persi bocca non mi credete ruggì montando improvvisamente in collera scossi il capo l'uomo si diresse al telefono strappò il ricevitore dal gancio e compose le prime cinque cifre di un numero lo osservai attentamente 1 3 5 7 2 questo consumò tutte le sue energie per il momento lasciò ricadere il ricevitore contro il muro con fracasso e si sedette sul pavimento di fianco ad esso poi vi posò sopra l'orecchio e mugolò rivolto alla parete fatevi parlare col dottore ascoltai in silenzio vince il dottore urlò l'uomo rabbiosamente scosse il ricevitore l'oggetto lontano da sé poi posò le mani sul pavimento e cominciò a girare in tondo carponi quando mi scorse parve sorpreso irritato si alzò di nuovo in piedi tremando e tese una mano datemi un cicchetto recuperai il bicchiere e munsi di nuovo la bottiglia del gin l'uomo accettò il liquore con la dignità di una vedova ubriaca e lo buttò giù con un gran gesto poi si diresse tranquillamente verso il divano e si sdraiò usando il bicchiere per cuscino si addormentò di colpo riappesi i ricevitori al suo gancio diedi un'altra occhiata in cucina poi perquisì l'uomo sdraiato e in una tasca pescai un mazzo di chiavi una era un passepartout la porta del corridoio aveva una serratura a scatto la sistemai in modo da poterla riaprire e mi incamminai su per le scale lungo il tragitto mi fermai per scrivere su una busta dottor vince 13 572 forse era un indizio tutta la casa era in silenzio mentre salivo capitolo 4 la chiave universale del direttore girò silenziosamente nella serratura della camera 14 spinsi la porta la camera non era vuota un uomo tozzo robusto era chino su una valigia posata sul letto e dava le spalle all'uscio camice calzini altri capi di biancheria erano stesi sulla coperta e l'uomo stava riponendoli in valigia ordinatamente senza fretta fischiettando tra i denti una nenia sommessa senza melodia quando sentì un cardine cigolare si irrigidì la sua mano sfrecciò verso il cuscino vogliate scusare esclamai il direttore mi aveva detto che questa stanza era libera l'uomo era calvo come un'arancia portava un paio di calzoni grigi con le bretelle di plastica trasparente sopra una camicia blu la sua mano uscì di sotto al cuscino si accostò al capo e tornò giù l'uomo si voltò e aveva i capelli erano incredibilmente naturali lisci bruni senza scriminatura lo sconosciuto mi guardò male da sotto la sua chioma potevate almeno bussare protestò aveva la voce profonda un porrauca e un viso largo circospetto che aveva visto molte cose perché avrei dovuto se il direttore mi ha detto che la stanza era vuota lui accennò di sì soddisfatto e smise di guardarmi male mi fece avanti senza essere invitato un giornaletto d'amore giaceva faccia in giù sul letto vicino alla valigia un sigaro fumava dentro un portacenere la stanza era ben tenuta e ordinata e per quella casa pulita il direttore deve aver creduto che ve ne foste già andato dissi cercando di sembrare un elemento pieno di buone intenzioni con un certo talento per la verità tra mezz'ora me ne vado avete niente in contrario se mi guardo un po' attorno lui sorrise senza allegria non è molto che siete in città vero perché siete nuovo di questi paraggi eh perché vi piacciono la casa e il quartiere non molto affermai la stanza però mi ha all'aria di andar bene l'uomo sogghignò mettendo in mostra una rivestitura di porcellana molto più chiara degli altri denti da quanto tempo cercate alloggio ho appena cominciato ma perché tante domande mi fate ridere dichiarò l'uomo senza ridere in questa città non si stanno a esaminare le stanze si arraffano senza neanche vederle questo paesaccio è così affollato anche al giorno d'oggi che io potrei guadagnare dieci dollari solo andando in giro a dire che qui c'è un posto libero è un vero peccato affermai è stato un certo or in p quest a parlarmi di questa camera e così voi perdete un decione davvero non ha battuto ciglio non aveva mosso muscolo tanto mi sarebbe valso parlare una tartaruga non fate il villano con me consigliò l'uomo io sono un osso duro per i villani presa il sigaro dal portacenere di vetro verde e soffiò una boccata di fumo poi mi fissò attraverso la nuvola con i suoi occhi freddi e grigi io trassi di tasca una sigaretta e me ne servì per grattarmi il mento che cosa capita a quelli che fanno i villani con voi mi informai li costringete a reggervi il parrucchino lasciate stare il mio parrucchino fece l'uomo con violenza dolentissimo c'è un cartello con tutto esaurito sulla porta riprese l'uomo com'è che voi siete venuto qui a cercare alloggio non avete capito bene il nome che vi ho detto insistei or in p quest e gli spiegai come si scriveva nemmeno questo lo rese felice vi fu una pausa stagnante elettrica l'uomo si voltò di scatto e trasferì una pila di fazzoletti nella valigia quando tornò a rivolgersi a me aveva una luce circospetta negli occhi ma erano stati occhi circospetti fin dall'inizio è un vostro amico chiese con aria non curante siamo cresciuti insieme un tipo quieto osservò l'uomo con disinvoltura ho passato giornate intere con lui lavora la società aerea cal western no ci lavorava corressi o ha dato le dimissioni lo hanno licenziato continuamo a fissarci la cosa non servì a niente né a lui né a me ed entrambi l'avevamo fatto troppe volte in vita nostra per aspettarci miracoli l'uomo si piantò il sigaro in bocca e si sedette sul letto accanto alla valigia aperta lanciai un'occhiata nell'interno e scorsi il calcio quadrato di un'automatica che spuntava di sotto a un paio di mutande mal piegate questo se ne è andato dieci giorni fa mormorò l'uomo pensoso e così crede che la camera sia ancora libera anche secondo il registro è libera l'uomo emise un mugolio sprezzante quella spugna giù da basso molto probabilmente un mese che non guarda il registro e dico un momento gli occhi gli si fecero più acuti una mano vagò pigramente verso la valigia aperta e diede un colpetto ancora più pigro a qualcosa che molto vicino alla pistola quando la mano si scostò l'arma non era più in vista è tutta la mattinata che ho la testa fra le nuvole altrimenti l'avrei capito subito voi voi siete un piedipiatti benissimo facciamo conto che sia un piedipiatti c'è qualcosa che non va niente solo ero curioso di sapere come mai avevate questa stanza mi sono trasferito qui dal 15 dall'altra parte del pianerottolo questo locale è migliore ecco tutto semplice no siete soddisfatto soddisfattissimo affermai tenendo d'occhio la mano che volendo avrebbe potuto tornare vicino alla pistola che tipo di piedipiatti siete della polizia locale vediamo un po la patacca non dissi nulla non credo che l'abbiate il pataccone e se ve lo mostrassi voi sareste il tipo da dire che è falso dunque siete x l'uomo parve sorpreso george w x ripresi è scritto nel registro camera 15 secondo piano avete appena finito di dirmi che vi siete trasferito qui dal numero 15 mi guardai attorno se aveste una lavagna ve lo metterei per iscritto a rigor di termini non è obbligatorio che si faccia chi urla di più spiego lui certo che sono x lieto di conoscervi voi vi chiamate mi porse la mano la presi e la strinzi ma non con l'aria di aver aspettato con ansia l'evento marlowe dissi philip marlowe voi sapete qualcosa dichiarò x educatamente siete un maledetto bugiardo gli risi in faccia non otterrete niente con quelle arie da men in pipo con chi siete in contatto trassi di tasca il portafogli e gli porsi un biglietto da visita dell'ufficio lui lo lesse con aria pensosa e lo battè di spigolo contro il dente di porcellana può darsi che è andato da qualche parte senza dirmelo osservò in un tono meditabondo la vostra grammatica è scarsa quasi quanto il vostro parrucchino commentai non tirate in ballo il mio parrucchino se non volete guai mica volevo mangiarlo ribattei non sono affamato fino a questo punto x fece un passo verso di me lasciando ricadere la spalla destra poi contraste il viso in una smorfia di collera e lasciò cadere anche il labbro inferiore inutile picchiarmi sono assicurato lo informai oh all'inferno un altro suonato si strinse nelle spalle e riportò il labbro in posizione normale che cosa c'è sotto infine devo trovare orrin p quest perché non risposi dopo un istante lui disse e vabbè anch'io sono un tipo prudente per questo sto traslocando forse non vi garba l'odore della marihuana questo ed altro fece x con aria vaga ed è la ragione per cui quest se n'è andato un tipo rispettabile come me credo che un paio di ragazzi duri gli abbiano fatto prendere uno spago capisco affermai questo spiegherebbe perché non ha lasciato il suo nuovo indirizzo e perché gli avrebbero fatto prendere uno spago avete accennato alla puzza della marihuana vero questo non era il tipo d'andare a lamentarsi al commissariato per una cosa del genere a bei city e perché avrebbe dovuto beh grazie mille signor x andate lontano no non molto lontano quel tanto che basta in che traffico avete le mani gli domandai traffico x pareva offeso sicuro con che sistema fregate il prossimo come la tirate a casa alla grana vi siete sbagliato sul mio conto figliolo sono un ottico in ritiro per questo tenete un'automatica calibro 45 la dentro domandai indicando la valigia non c'è niente da dire per quella pistola replicò lui arcidamente è in famiglia da anni posò di nuovo lo sguardo sul mio biglietto da visita investigatore privato è brontolò con aria pensosa che tipo di lavoro svolgete principalmente qualsiasi lavoro purché sia ragionevolmente onesto x a noi ragionevole è una parola discutibile è così pure onesto vi lanciai un'occhiata di traverso greve di malignità quanto avete ragione esclamai vediamo di trovarci un bel pomeriggio tranquillo e discutiamone gli sfilai il mio biglietto da visita di tra le dita e me lo ficcai in tasca grazie per l'intervista uscì chiusi la porta e rimasi in ascolto non so che cosa mi aspettassi di dire ma fosse quel che fosse non lo udì avevo la sensazione che l'altro fosse rimasto esattamente dove lo avevo lasciato con gli occhi fissi sul punto in cui avevo pronunziato la mia battuta d'uscita percorsi il vestibolo con un certo rumore e mi fermai in capo alle scale una macchina si avviò davanti alla casa e si allontanò in un punto imprecisato una porta si chiuse mi diressi in punta di piedi alla camera numero 15 e mi servì del passepartout per entrare poi richiusi a chiave senza rumore e rimasi in attesa vicino al battente capitolo 5 meno di due minuti dopo george x se ne andò per i fatti suoi se ne andò così quietamente che non l'avrei udito se non fossi stato in ascolto aspettando appunto quello udì il lieve suono metallico della maniglia che girava poi qualche passo lento poi l'uscio che si chiudeva molto delicatamente i passi si allontanarono udì a distanza lo scricchiolio delle scale poi più nulla aspettai il suono della porta di strada non venne uscì dal numero 15 e percorsi il vestibolo diretto nuovamente alle scale dal piano inferiore venne il cigolio di una porta che si apriva con estrema prudenza guardai giù e vidi x entrare nell'appartamento del direttore l'uscio si richiusi alle sue spalle aspettai di udire delle voci niente mi strinsi nelle spalle e tornai alla camera 15 sul comodino c'era una piccola radio di sotto al letto disfatto spuntava un paio di pantofole un vecchio accappatoio era appeso all'avvolgibile verde pieno di spiragli per parare il riverbero del sole esaminai tutto questo come se significasse qualcosa poi usci sul pianerottolo e richiusi la porta col passepartout dopodiché feci un altro pellegrinaggio alla camera 14 ora la porta non era più chiusa a chiave perquisì il locale con meticolosa attenzione e non trovai nulla che avesse a che vedere con orry p quest non mi aspettavo di trovarlo non vi era ragione perché dovessi trovarlo ma bisogna sempre guardare scesi a pian terreno ascoltai dietro la porta del direttore e non udì nulla entrai andai a deporre le chiavi sulla scrivania lester b closen giaceva di fianco sul divano col viso rivolto al muro morto per il mondo perquisì la scrivania trovai un vecchio mastro che pareva riguardare gli affitti ricevuti e le spese fatte e nient'altro sfogliai di nuovo il registro degli ospiti non era aggiornato ma il tipo che dormiva sul divano bastava spiegare questa negligenza orry p quest se n'era andato un'altra persona aveva occupato la stanza registrata a nome di x l'ometto che contava il denaro in cucina si intonava magnificamente col quartiere il fatto che girasse con una pistola e un pugnale in saccoccia era un'eccentricità mondana che non avrebbe causato alcun commento in head out street presi la piccola guida telefonica di bay city che pendeva da un gancio accanto alla scrivania pensavo che non sarebbe stato molto faticoso pescare l'individuo che si faceva chiamare dottore o vince e aveva un numero di telefono che cominciava con 13 572 innanzitutto sfogliai il registro degli ospiti una cosa che avrei dovuto fare prima la pagina con la registrazione di orrin p quest era stata strappata un tipo prudente il signor george x molto prudente chiusi il registro lanciai un'altra occhiata all'ester b close arricciai il naso all'aria viziata all'odore dolciastro e nauseante del gin e di svariate altre cose e mi avviai alla porta d'ingresso come vi giunsi mi venne improvvisamente un'idea un ubriaco del tipo di close and avrebbe dovuto russare molto forte avrebbe dovuto russare da spellarsi la laringe con un bel assortimento di grugniti gorgogli e sbuffamenti e invece non emetteva alcun suono aveva una coperta marrone dell'esercito avvolta intorno alle spalle alla parte inferiore del capo sembrava molto tranquillo molto a suo agio gli andai vicino e guardai giù qualcosa che non era una piega della stoffa fatta a caso gli rialzava la coperta sul collo scostai un lembo della stoffa un'impugnatura quadrata di legno giallo sporgeva dalla nuca di lester b close sul fianco dell'impugnatura una scritta diceva omaggio della ferramenta kramzen ec l'oggetto spuntava proprio sotto il rilievo cipitale era il manico di uno scalpello da ghiaccio lasciai il quartiere guidando tranquillamente a 50 all'ora ai margini della città mi chiusi in una cabina telefonica stradale e chiamai il comando di polizia polizia di bay city parlamut annunziò una voce velata io dissi idaho street numero 449 nell'appartamento del direttore si chiama klausen e con questo chiese la voce noi che si fa non saprei risposi è un problema per me ma l'uomo si chiama lester b close l'avete annotato e perché è tanto importante domandò la voce senza alcun sospetto il giudice istruttore ci terrà a saperlo risposi e attacca il ricevitore capitolo 6 ritornai a hollywood e mi chiusi a chiave in ufficio con la guida telefonica di bay city mi ci volle un quarto d'ora per scoprire che l'utente del numero 13572 a bay city era un certo dottor vincent lagardier che si dichiarava neurologo e aveva abitazione e studio in new wyoming street una via che secondo la mia mappa non si trovava nel centro del quartiere più aristocratico ma non era completamente al di fuori chiusi la guida di bay city nella scrivania e scesi al bar dell'angolo per un panino imbottito e una tazza di caffè poi mi servì del telefono a gettone per chiamare il dottor lagardier mi rispose una donna ed ebbi qualche difficoltà per comunicare col dottore in persona quando arrivò all'apparecchio era impaziente era molto occupato mi disse era nel bel mezzo di una visita non ho mai conosciuto un medico che non lo fosse conosceva per caso un certo lester b closen no non l'aveva mai sentito nominare per quale ragione gli rivolgevo quella domanda il signor closen ha cercato di telefonarvi questa mattina spiegai ma era troppo ubriaco per parlare in maniera intelligibile ma io non conosco il signor closen rispose la voce fredda del medico pareva che non avesse più tanta premura adesso tutto bene allora dichiarai volevo solo assicurarmene qualcuno gli ha piantato uno scalpello da ghiaccio nel collo vi fu una pausa di silenzio la voce del dottor lagardier era gentile ora quasi untuosa il fatto è stato denunziato alla polizia certo l'assicurai ma la cosa non deve preoccuparvi a meno che non si tratti del vostro scalpello da ghiaccio naturalmente lui non raccolse l'insinuazione chi parla si informò in tono suave hicks risposi george hicks me ne sono appena andato di là non voglio trovarmi mischiato in certe faccende solo ho pensato quando clausen ha cercato di telefonarvi prima che morisse ben inteso ho pensato che la cosa potesse interessarvi mi duole signor hicks disse la voce del dottor lagardier ma io non conosco il signor clausen non l'ho mai sentito nominare e non ho mai avuto niente a che fare con lui eppure ho una memoria eccellente per i nomi beh è una gran bella cosa affermai e ora non avrete più occasione di fare la sua conoscenza però può darsi che qualcuno desideri sapere perché aveva tentato di telefonarvi a meno che io mi dimentichi di passare l'informazione a chi di dovere vi fu una pausa di silenzio assoluto poi il dottor lagardier disse non riesco a trovare un commento da fare a questo proposito nemmeno io replicai può darsi che vi telefoni ancora ma non mi fraintendete dottor lagardier non sto cercando di ricattarvi sono solo un pover uomo un po confuso che ha bisogno di un amico avevo pensato che un dottore come un prete sono a vostra completa disposizione dichiarò lagardier prego consultatemi pure liberamente grazie mille dottore resposi con slancio tante 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 grazie e deposi il ricevitore se il dottor vincent lagardier aveva la coscienza pulita ora avrebbe telefonato alla centrale di pulizia di bay city e avrebbe raccontato tutto se non avesse telefonato alla pulizia voleva dire che non aveva la coscienza pulita il che poteva essere utile a sapersi come poteva non esserlo capitolo 7 il telefono sulla mia scrivania squillò alle 4 in punto avete trovato orrin signor marlow non ancora dove siete ma nel drugstore vicino al venite su e piantatela di fare l'amata ari possibile che non riusciate mai ad essere educato scattò lei deposi il ricevitore mi versai un bicchierino di whisky per prepararmi i nervi al colloquio stavo ancora centellinando quando udì i passi della ragazza attichettare lungo il corridoio mi alzai e andai ad aprirle la porta venite per di qua e fuggite la folla urlante invitai la signorina cast si sedette con affettata modestia e aspettò tutto quel che sono riuscito a scoprire è che in quel buco di dao street spacciano paglia annunziai sigarette di marijuana voglio dire oh che disgusto nella vita bisogna accettare sia il buono che il cattivo sentenziai orrin deve essersene accorto e deve aver minacciato di denunziare tutto alla polizia volete dire che possono avergli fatto del male per questo chiese con voce da bambinette beh è molto probabile che per prima cosa gli abbiano fatto prendere una bella paura oh non possono aver spaventato orrin signor marlow affermò la ragazza con aria decisa mio fratello diventa molto cattivo con la gente che tenta di imporglisi già bofunchiai ma non stiamo parlando delle stesse cose noi due si può spaventare chiunque con la giusta tecnica lei strinse le labbra testardamente no signor marlow non possono aver spaventato orrin d'accordo dissi non l'hanno spaventato poniamo allora che gli abbiano tagliato via una gamba e se ne siano serviti per pestargliela sulla testa che farebbe vostro fratello in un caso simile si rivolgerebbe all'ufficio reclami state prendendovi gioco di me osservò la ragazza educatamente la sua voce era fredda come la minestra di una pensione non avete fatto altro in tutto il giorno avete solo scoperto che orrin ha traslocato e che abitava in un quartiere di dubbia fama perbacco questo l'avevo scoperto da me signor marlow pensavo che essendo un investigatore e tutto quanto si interruppe lasciando il resto della frase come sospeso a mezz'aria ho qualcosa di più rettificai ho dato qualche soldo di jean al direttore della pensione ho sfogliato il registro degli ospiti e ho parlato con un certo hicks george w hicks un tizio che porta la parrucca forse non l'avete conosciuto abitava o meglio abita nella camera di orrin così ho pensato che forse fu il mio turno di lasciare la frase sospesa a mezz'aria lei mi fissò coi suoi palli di occhi azzurri ingranditi dalle lenti la sua bocca era piccola ferma dura le mani annodate strettamente sulla scrivania davanti alla grossa borsa quadra tutto il corpo rigido impettito e formale esprimeva disapprovazione vi ho pagato 20 dollari signor marlow disse in tono gelido ritenevo si trattasse del pagamento per una giornata di lavoro non mi pare che abbiate compiuto una giornata di lavoro no ammisi è vero ma non è ancora venuto sera e non vi preoccupate per i 20 dollari potete riprenderli se ci tenete non li ho nemmeno sfiorati apersi il cassetto tirai fuori i suoi soldi e li spinsi verso di lei la ragazza guardò il mulchietto di banconote ma non lo toccò i suoi occhi si alzarono lentamente a incontrare i miei non intendevo questo so che state facendo del vostro meglio signor marlow ecco gli elementi che ho ma vi ho detto tutto quel che sapevo non credo beh io non posso farci niente se non la pensate così ribatte lei con aria petulante dopotutto se avessi saputo quel che volevo sapere non sarei venuto qui a chiedervi di scoprirlo vi pare non dico che voi sappiate tutto quel che volete sapere replicai e il fatto è che io non so tutto quello che vorrei sapere per compiere il lavoro che mi avete affidato e quel che mi avete detto non ha senso che cosa non ha senso vi ho detto la verità sono la sorella di orrin lo saprò che tipo è quanto tempo ha lavorato per la cal western ve l'ho detto è venuto in california circa un anno fa ha cominciato a lavorare subito perché praticamente aveva già l'impiego prima di partire scriveva spesso a casa prima di smettere di scrivere intendo tutte le settimane a volte anche più spesso scriveva a turno alla mamma e a me ma le lettere erano per tutte e due naturalmente di che trattava volete dire che cosa trattava nelle sue lettere che cosa credevate che intendessi beh non è necessario che alziate la voce ci raccontava del suo lavoro delle officine dei suoi colleghi e ogni tanto di qualche spettacolo al quale aveva assistito oppure ci parlava della california parlava anche della chiesa a volte niente ragazze non credo che orrin si interessi molto alle ragazze da che in california ha cambiato mai indirizzo la ragazza tentennò il capo perplessa è molto che ha smesso di scrivere la risposta richiese un certo periodo di meditazione la signorina cast strinse la bocca e premette la punta di un dito nel bel mezzo del labbro inferiore circa tre o quattro mesi disse infine in che data era la sua ultima lettera ma ecco temo di non ricordarla con esattezza ma come vi ho detto saranno tre o quattro mesi agitai una mano per interromperla c'era niente di eccezionale in quell'ultimo messaggio qualcosa di insolito che diceva o non diceva ma no era come tutti gli altri non avete amici o parenti in questa parte dell'america lei mi lanciò un'occhiata strana fece per dire qualcosa poi scosse il capo bruscamente no benissimo ora vi dirò che cosa non va sorvoleremo sul fatto che non mi avete voluto rivelare il vostro indirizzo dato che probabilmente avete solo temuto che mi presentassi con un litro di liquore sotto il braccio e cercassi di portarvi a nanna non è un modo simpatico di parlare il vostro niente di quel che dico è simpatico io non sono una persona simpatica secondo i vostri canoni nessuno che non possieda come minimo tre libri di preghiere è simpatico però io sono un tipo indagatore quello che stona nel quadro è il fatto che non abbiate paura né voi personalmente né vostra madre e invece dovreste avere una fifa d'inferno lei si strinse la borsa al petto con le piccole dita dure volete dire che gli è successo qualcosa la sua voce si perse in una sorta di malinconico mormorio come quella di un imprenditore di pompe funebri che chiede un pagamento in contanti per ora non mi consta ma se fossi nei panni vostri sapendo che tipo era orrin e vedendo cessare le sue lettere di colpo dopo che erano sempre arrivate così regolarmente beh non credo che avrei aspettato le vacanze estive per mettermi in giro a far domande non credo che avrei scartato la polizia che ha un'intera organizzazione apposta per ritrovare le persone scomparse per rivolgermi invece a un agente sconosciuto che lavora da solo e chiedergli di frugare nel fango per suo conto e non riesco a immaginare la vostra dolce vecchia mamma che se ne sta seduta una settimana dopo l'altra a manattan kansas ad agucciare la biancheria d'inverno del curato niente lettere da orrin nessuna notizia e lei tira un profondo sospiro e rammenda un altro paio di mutande la ragazza balzò in piedi di scatto siete un essere disgustoso rivoltante esclamò con rabbia siete un miserabile vi proibisco di dire che io e mamma non eravamo in pena ve lo proibisco assolutamente spinsi sui 20 dollari un po più avanti dall'altro lato della scrivania voi eravate in pena per il valore di 20 dollari dolcezza le dissi ma la ragione proprio non la so e in fondo non ci tengo nemmeno a saperla su rimettete questa parte del malloppo nel vostro tascapane e dimenticatevi di avermi incontrato può darsi che domani decidiate di prestarla un altro investigatore lei chiuse la borsa sul danaro di scatto con un gesto cattivo non è molto probabile che dimentichi la vostra villania si bilò fra i denti nessuno ha mai osato parlarmi così mi alzai e girai pigramenti attorno alla scrivania non ci pensate troppo può darsi che finisca col piacervi alzai una mano e le strappai gli occhiali lei fece un mezzo passo indietro inciampò e io le passai un braccio intorno alle spalle per puro istinto gli occhi le si fecero più grandi mi appoggiò le mani contro il petto e mi respinse sono stato respinto con maggior forza da un micino senza le lenti questi occhioni sono davvero notevoli esclamai in tono di riverente ammirazione lei si mise tranquilla portò il capo all'indietro e schiuse leggermente le labbra immagino che facciate così con tutte le clienti disse con voce soffocata aveva lasciato ricadere le braccia lungo i fianchi la borsa mi sbatté con violenza contro una gamba la ragazza si appoggiò al mio braccio con tutto il suo peso se voleva che la lasciassi andare aveva sbagliato tecnica non volevo che perdeste l'equilibrio spiegai lo sapevo che eravate un tipo previdente la signorina quest si abbandonò ancora gettò il capo decisamente all'indietro le palpebre si abbassarono ebbe come un palpito e le labbra si apersero un tantino di più su di esse apparve il sorriso vago provocante che le donne non hanno bisogno di imparare da nessuno certo credete che l'abbia fatto apposta che cosa di inciampare beh ecco mi passò rapidamente un braccio attorno al collo e cominciò a tirare così la baciai non c'era niente da fare o baciarla o darle una mazzata in testa la ragazza premette forte la bocca contro la mia per un lungo istante poi quietamente molto a suo agio si annidò fra le mie braccia e trasse un lungo respiro a manattan kansas potreste venire arrestato per quel che avete fatto disse se ci fosse un po di giustizia dovrei essere arrestato solo perché mi trovo a manattan kansas lei diede una risatina e mi premette un dito sulla punta del naso immagino che preferiate le ragazze facili osservò guardando in su per il mio viso con la coda dell'occhio ma almeno con me non dovete pulirvi la bocca dal rossetto chissà forse la prossima volta me ne metterò un po forse ci conviene sederci sul pavimento dichiarai comincio ad avere il braccio stanco la ragazza diede un'altra risatina e si sciolse agilmente dall'abbraccio penserete che io sia stata baciata un'infinità di volte mormorò e quale ragazza non lo è stata lei accennò di sì e mi lanciò un'occhiata dal sotto in su in modo che le ciglia le ombreggiassero l'iride anche le feste di parrocchia si fanno dei giochi di società che finiscono con un bacio disse altrimenti non ci andrebbe nessuno replicai ci guardammo un istante senza nessuna espressione particolare bene cominciò finalmente la ragazza le restituì gli occhiali e lei se li infilò aperse la borsa si guardò in uno specchietto poi frugò nell'interno e ne trasse il pugno chiuso mi dispiace di essere stata cattiva affermò e fece scivolare qualcosa sotto la cartella della scrivania mi regalò un altro breve fragile sorriso poi si diresse alla porta e la perse vi telefonerò promise in tono di intimità e se ne andò tacchettando lungo il corridoio tornai alla scrivania sollevai la cartella e lisciai le banconote accartocciate non era stato un granché come bacio ma a quanto pareva mi si offriva un'altra opportunità di mettere le mani su quei 20 dollari il telefono squillò prima che io cominciassi a preoccuparmi seriamente del signor lester b closen alzai il ricevitore con un gesto assente la voce che udì era spiccia e decisa ma mi giungeva rauca e soffocata come se dovesse farsi strada attraverso una tenda o una lunga barba bianca marlowe in persona avete una cassetta di sicurezza marlowe ne avevo abbastanza di fare l'educato quel pomeriggio smettetela di chiedere e cominciate a spiegare dissi vi ho rivolto una domanda marlowe e io non ho risposto replicai così premetti con una mano la forcella del telefono e la tenne abbassata mentre con l'altra cercava una diretta sapevo che avrebbe richiamato sempre lo fanno quando credono di essere tipi duri non hanno avuto modo di pronunciare la loro battuta d'uscita quando il telefono suonò di nuovo cominciai immediatamente a parlare se avete una proposta da farmi fatemela e finché non mi avete dato quattrini chiamatevi signor marlowe non lasciatevi trasportare dei nervi amico sono in un pasticcio ho bisogno d'aiuto ho bisogno che mi teniate al sicuro una certa cosa solo per pochi giorni e in cambio voi guadagnerete alla svelta una piccola somma quanto piccola mi informai e quanto alla svelta un centone è qui che vi aspetta sto tenendo velo in caldo lo sento che fa le fusa dissi e dove mi aspetta era come se ascoltassi quella voce due volte una volta mentre mi parlava e una volta mentre risuonava nei miei ricordi camera 32 terzo piano albergo van nice bussate due colpi brevi e due lunghi non troppo forte ho bisogno di un lavoro spiccio quando potete che cosa volete darmi in custodia lo saprete quando verrete qui vi dico che ho fretta come vi chiamate camera 32 è sufficiente grazie della compagnia dissi addio e un momento non è quel che pensate voi niente di compromettente né brillanti né pendenti di smeraldi è solo una cosa che per me vale un sacco di soldi e per gli altri non ha nessun valore l'albergo ha una cassaforte volete morire povero marlo e perché no rockefeller è pur finito così di nuovo addio la voce mutò perse la velatura di raucedine disse rapidamente in tono aspro come vanno le cose a bay city non parlai rimasi in attesa lungo il filo venne una risatina chioccia sommessa lo pensavo che questo vi avrebbe interessato marlo camera 32 spicciatevi amico venite a rotta di collo udì uno scatto metallico riappesi anch'io senza nessuna ragione una matita rotolò giù dal piano di vetro e si spezzò la punta sull'aggeggio di cristallo sotto un piede della scrivania la raccolsi lentamente con la massima cura la punti di nuovo al temperamatite automatico avvitato all'intellaiatura della finestra girandola e rigirandola per ottenere una punta acuminata e precisa poi la deposi nel vassoietto sullo scrittoio e mi pulì le mani avevo tutto il tempo del mondo guardai fuori dalla finestra non vidi niente non udì niente poi ancora a minor ragione vidi il viso di orfamai cast senza occhiali dipinto rifinito i capelli biondi rialzati sulla fronte e una crocchia di trecce in mezzo alla testa e gli occhi da alcova tutte pare che debbono averli quegli occhi cercai di immaginare quel viso in un primissimo piano divorato da un virile campione degli spazi sconfinati del bar di romanov ci misi 29 minuti per arrivare all'albergo van nice capitolo 8 una volta parecchi anni prima il van nice doveva aver avuto un certo stile ma ora non più le memorie dei vecchi sigari defunti rimanevano fedeli al vestibolo come le dorature sudici al soffitto e le molle ciondolanti alle ampie poltrone di cuoio il marmo del banco era diventato giallo brunastro col tempo ma il tappeto sul pavimento era nuovo e aveva un'aria dura coriacea come l'impiegato del bureau scartai l'impiegato mi avvicinai pigramente al chiosco dei tabacchi in un angolo e deposi una moneta da un quarto di dollaro sul banco per un pacchetto di camel la commessa era una bionda paglia col collo lungo e gli occhi stanchi mi porse le sigarette aggiunse un pacchetto di cerini e lasciò cadere il resto nella fessura di una cassettina con la scritta il fondo della comunità vi ringrazia voi volevate che lo facessi vero chiese con un sorriso paziente senz'altro volevate regalare i vostri spiccioli ai poveri bambini diseredati con le gambe storte e tanti altri mali vero e se non avessi voluto chiesi ripescherei i settecentesimi spiegò la ragazza e sarebbe molto penoso aveva una voce bassa lenta umidamente carezzevole come un asciugamani bagnato infilai un quarto di dollaro dietro ai settecentesimi la ragazza mi gratificò del suo sorriso più smagliante allora offrendomi una prospettiva ancora più vasta delle sue tonsille siete una brava persona disse si vede subito una quantità di giovanotti sarebbero entrati qua dentro e avrebbero tentato di fare gli sporcaccioni pensate un po per settecentesimi chi è il poliziotto dell'albergo le domandai senza accogliere l'implicito invito e ce ne sono due la ragazza compì un'operazione imprecisata ma lenta ed elegante nei paraggi della nuca mettendo in mostro un numero che mi parve esorbitante di unghie rosso sangue il signor edy di notte è il signor flac di giorno adesso è giorno quindi deve essere di servizio il signor flac dove potrei trovarlo la commessa si chinò sul banco permettendomi di odorarle i capelli e indico il gruppo degli ascensori con un'unghia lunga un paio di centimetri all'ufficio in quel corridoio laggiù vicino alla stanza del custode la stanza del custode dovete notarla per forza perché ha una porta a due battenti con sopra scritto custode a lettere d'oro solo che adesso un battente è aperto quindi forse non la potete vedere la vedrò l'assicurai a costo di scardinarmi il collo che aspetto ha flac beh è un ometto tozzo coi baffi tipo tarchiato robusto ma non molto alto le sue dita si mossero languidamente sul banco e si fermarono in un punto dove avrei potuto arrivare a toccarle senza fare i salti mortali non è interessante perché occuparsene affari spiegai e me la battei prima che mi agguantasse con una presa di lotta quando arriva agli ascensori mi voltai la commessa mi seguiva con lo sguardo con un'espressione che senza dubbio lei avrebbe definito pensosa la stanza del custode era a metà del corridoio che dava su spring street la porta attigua era semi aperta sbirciai dentro e poi entrai e mi richiusi il battente alle spalle un uomo era seduto davanti a una piccola scrivania che reggeva un enorme porta cenere molta polvere e quasi nient'altro era basso e tarchiato sotto al naso aveva una specie di spazzolino scuro ersuto lungo due centimetri abbondanti mi sedetti di fronte a lui e pose il mio biglietto da visita sul piano della scrivania lui lo prese senza emozione lo lesse lo voltò e lesse il retro con la stessa attenzione non c'era assolutamente nulla da leggere dietro poi prese un mezzo sigaro dal porta cenere e si scottò il naso accendendolo qualcosa che non va mi disse con un brontolio sordo va tutto bene siete flac non si prese il disturbo di rispondere mi incollò addosso uno sguardo che avrebbe potuto nascondere i suoi pensieri o anche no sempre che avesse avuto dei pensieri vorrei sapere qualcosa ad uno dei vostri clienti dissi nome chiese flac senza entusiasmo non so che nome abbia usato qui sta nella camera 32 al terzo piano che nome usava prima di venire qui volle sapere flac non so nemmeno quello beh che aspetto ha flac era pieno di sospetti ora rilessa il mio biglietto da visita ma non apprese niente di nuovo non l'ho mai visto che io sappia devo aver lavorato troppo dichiarò il mio collega non arrivo a capire mi ha telefonato spiegai ha detto che voleva vedermi ve lo impedisco forse datemi retta flac nel nostro mestiere ci si fanno dei nemici alle volte dovreste saperlo ora questo tizio ha un incarico da darmi mi dice di venire qui si dimentica di dirmi come si chiama e mette giù il telefono così ho pensato di fare un piccolo controllo prima di salire flac si tolse il sigaro di bocca e sospirò con aria paziente sono in condizioni disastrose non ho ancora capito niente ha più senso per me mi chinei sulla scrivania e dissi ad agio molto chiaramente tutta la faccenda potrebbe essere un sistema pratico ed efficace per attirarmi in una camera d'albergo farmi la pelle e poi uscire tranquillamente dalla comune voi non vorrete che una cosa simile accadesse al vostro albergo vero flac ammesso che la cosa non mi interessi fece lui siete proprio convinto di essere così importante fumate quel pezzo di vecchia gomena perché vi piace o perché credete che vi dia un'aria coriacea per 45 dollari alla settimana come faccio a fumare qualcosa di meglio domandò flac e mi fissò intensamente niente conto spese le informai non ho ancora fatto l'affare lui emise un'esclamazione di tristezza si alzò stancamente e uscì dalla stanza accesi una sigaretta e aspettai flac tornò di lì a poco e lasciò cadere sulla scrivania una chiedina di registrazione sopra c'era scritto a inchiostro da una mano a ferma e tondeggiante dottor g w ableton è il centro california l'impiegato aveva preso nota di altre cose e vi compreso il numero della camera e la retta giornaliera flac mi indicò qualcosa con un dito che aveva gran bisogno di una manicure o almeno di uno spazzolino per le unghie è arrivato alle 2 47 pomeridiane annunciò proprio oggi insomma non c'è ancora segnato niente sul suo conto ha pagato la retta di un giorno niente telefonate niente di che che cosa volete che aspetto ha non l'ho visto credete che me ne stia fuori vicino al banco e prenda fotografie di tutti i clienti che si presentano grazie dissi dottor g w ableton è il centro molto obbligato e gli restituì la schedina qualsiasi informazione vi occorra se posso disse flac mentre uscivo non dimenticatevi dove vivo cioè se per voi questa è vita accennai di sì e me ne andai capitano i giorni così tutti quelli che si incontrano sono suonati finisce che ci si guarda nello specchio e ci si domanda la camera 32 era sul retro dell'edificio vicino alla porta della scala di soccorso il corridoio che vi conduceva puzzava di tappeti vecchi di olio da mobili e della tetra anonimità di mille vite meschine il secchiello di sabbia sotto all'estintore era pieno di mozziconi di sigari e sigarette una collezione che risaliva parecchi giorni da uno sfiatatoio aperto veniva la musica assordante di una radio dietro un altro sfiatatoio alcune persone ridevano da farsi venire convulsioni e in fondo nelle vicinanze della camera 32 tutto era tranquillo bussai due colpi lunghi e due brevi secondo le istruzioni non accadde nulla mi sentivo vecchio e sfinito mi sentivo come se avessi passato tutta la vita a bussare alle porte degli alberghi di quarto ordine dove nessuno si prendeva il disturbo di aprire riprovai a bussare poi girai la maniglia ed entrai una chiave con un cartellino rosso di fibra era infilata nella toppa dalla parte interna ero in una piccola anticamera con uno stanzino da bagno sulla destra oltre l'anticamera si intravedeva la metà superiore di un letto con un uomo che dormiva in calzoni e maniche di camicia il dottor hambleton chiesi ad alta voce l'uomo non rispose oltrepassai la porta del bagno per andargli vicino un'ondata di profumo mi investì e io feci per voltarmi ma troppo tardi una donna che era stata nascosta nella stanza da bagno era apparsa improvvisamente reggendosi un asciugamano davanti alla parte inferiore del viso sopra l'asciugamano un paio di occhiali neri poi l'ala di un cappello di paglia a larghe tese di un colore azzurro un po smorzato sotto la tesa una massa di capelli biondi rigonfi due orecchini a bottone azzurri scintillavano in un punto imprecisato nell'ombra gli occhiali da sole avevano una montatura bianca con le stanghette piatte molto larghe l'abito era della stessa sfumatura del cappello sopra la ragazza indossava un soprabito di seta e di rion ricamato aperto portava un paio di guanti piuttosto lunghi e nella mano destra stringeva un'automatica con l'impugnatura di osso bianco pareva una 32 voltatevi e portate le mani dietro la schiena ordinò da dietro l'asciugamano la voce soffocata dalla stoffa non significava niente per me come gli occhiali neri non era la voce che mi aveva parlato al telefono non mi mossi non crediate che scherzi continuò la ragazza vi do esattamente tre secondi per obbedirmi non potreste fare un minuto mi piace guardarvi lei fece un gesto minaccioso con la rivoltella voltatevi comandò e alla svelta anche la vostra voce mi piace benissimo fece in tono pericoloso se preferite così è affar vostro non dimenticatevi che siete una signora dissi e mi voltai portandomi le mani alle spalle la bocca della pistola mi premette contro la nuca il fiato della ragazza mi sfiorava per poco non mi faceva il solletico il suo profumo era di una marca elegante non forte ma deciso la rivoltella si scostò dal mio collo e per un istante una fiamma candida mi arse negli occhi emisi un gemito soffocato caddi carponi e portai rapidamente le mani all'indietro le mie dita sfiorarono una gamba inguainata di nylon ma mi scivolarono via subito e mi parve un peccato al ritattola si sarebbe detta una bella gamba una seconda botta in testa cancellò ogni impiacere da questa esperienza e io emisi il gemito rauco di un uomo in condizioni disperate mi afflosciai sul pavimento la porta si aperse una chiave tintinò la porta si chiuse la chiave girò silenzio mi alzai e passai nello stanzino da bagno mi inumidi la nuca con un asciugamano intriso d'acqua fredda avevo l'impressione di essere stato colpito con un tacco di una scarpa certo non era stato il calcio di una rivoltella il taglio aveva sanguinato un poco ma non granché sciacquai l'asciugamano e rimasi impalato a tastarmi le scoriazioni a chiedermi come mai non avessi rincorso la ragazza urlando ma più che altro stavo fissando l'armadietto farmaceutico sopra il lavabo la parte superiore di un barattolo di talco era stata scalzata via c'era talco su tutto il piano della mensola un tubo di dentifricio era stato sventrato qualcuno era andato in cerca di qualche cosa tornai nella piccola anticamera e mossi la maniglia della porta era chiusa a chiave dall'esterno mi chinai e guardai dal buco della chiave era una serratura doppia di quelle con la toppa esterna e quella interna a diversi livelli la ragazza dagli occhiali sculi non era molto esperta in fatto di alberghi girai lo scrocco per la notte che apriva la serratura esterna spalancai la porta diede un'occhiata al corridoio vuoto e tornai a chiudere poi mi diressi verso l'uomo sul letto non si era mosso in tutto quel tempo per una ragione piuttosto evidente al di là della piccola anticamera il locale si allargava verso due finestre dalle quali il sole entrava obliquo come una lama che quasi tagliava il letto e andava a posarsi subito sotto il collo del dormiente l'oggetto sul quale il sole induggiava era bianco e azzurro tondo e lustro l'uomo giaceva placidamente quasi bocconi con le mani lungo i fianchi e senza scarpe aveva una guancia affondata nel cuscino e pareva riposare profondamente portava la parrucca quando lo avevo visto l'ultima volta si chiamava george w hicks ora era il dottor g w embleton le stesse iniziali non che la cosa avesse importanza ormai non gli avrei parlato mai più non c'era sangue nemmeno una goccia e uno dei pochi lati simpatici di un lavoretto di scalpello eseguito da un professionista gli tocca il collo era ancora caldo in quel momento lo spiraglio di sole lasciò il manico dello scalpello e si spostò nelle vicinanze dell'orecchio sinistro mi voltai a osservare la stanza la scatola del telefono era stata aperta e nessuno l'aveva più richiusa la bibbia dell'albergo era finita in un angolo la scrivania era stata perquisita andai all'armadio a muro e vi guardai dentro conteneva alcuni abiti e una valigia che avevo già vista non trovai nulla che mi paresse importante raccolsi un cappello floscio dal pavimento lo deposi sulla scrivania e tornai nello stanzino da bagno l'unico punto interessante consisteva nello scoprire se le persone che avevano pugnalato il dottor embleton avessero trovato quel che cercavano avevano avuto ben poco tempo a disposizione perquisì lo stanzino da bagno con molta cura tolsi il coperchio al serbatoio dell'acqua del gabinetto e vi guardai dentro non vidi nulla sbirciai giù lungo il canale di scarico non c'era nessun filo con un oggetto minuscolo appeso in fondo perquisì il cassettone conteneva solo una vecchia busta sganciai gli scuri delle finestre e tastai per di sotto i davanzali raccolsi la bibbia e la sfogliai di nuovo esaminai il retro dei quadri e studiai il bordo del tappeto era inchiodato al muro e c'erano delle coppette di polvere nelle depressioni lasciate dai chiodi mi inginocchiai sul pavimento ed esaminai la parte di tappeto che passava sotto il letto era identica al resto montai in piedi su una sedia e guardai nella boccia del lampadario conteneva polvere e falene morte esaminai il letto era stato rifatto da una persona del mestiere e non era più stato toccato tastai il cuscino sotto la testa del morto poi trassi un altro cuscino dell'armadio a muro ed esaminai le cuciture niente la giacca del dottor ambleton pendeva dallo schienale di una sedia la perquisì sapendo benissimo che ero il posto meno probabile per trovarvi qualcosa qualcuno con un coltello si era dato da fare con la fodera e le imbottiture delle spalle nelle tasche c'erano dei fiammiferi un paio di sigari un paio di occhiali scuri un fazzoletto da dozzina pulito e un biglietto di un cinema di bay city un pettinino e un pacchetto di sigarette nuovo lo guardai bene alla luce non mostrava segni di manomissione lo manomisi io strappai l'involucro lo feci passare tutto e non trovai che sigarette così restava solo il dottor ambleton in persona gli passai le mani sopra e gli frugai nelle tasche dei calzoni qualche spicciolo fiammiferi un mazzo di chiavi un volantino con gli orari degli autobus in un portafogli di cinghiale c'era un libriccino di franco bolli un secondo pettine ecco un uomo che trattava con vero amore il suo parrucchino tre bustine di una polvere bianca sette biglietti da visita che dicevano dottor g w ableton dustin palace è il centro california ore 9 12 14 16 e per appuntamento telefono è il centro 50 406 niente patente di guida niente assicurazione sulla vecchiaia sulla vita niente che lo potesse identificare veramente il portafogli conteneva 164 dollari in banconote lo riposi dove l'avevo trovato presi il cappello del dottor ambleton dalla scrivania ed esaminai la fascia interna e il nastro il nodo era stato staccato con un temperino e aveva lasciato una riga di fili pendoli dentro non c'era niente non vi di segni di scuciture ricuciture antecedenti questo era tutto se gli assassini sapevano quel che cercavano doveva trattarsi di una cosa che poteva essere contenuta in una scatola di telefono in un tubo di dentifricio o nel nastro di un cappello tornai nello stanzino da bagno e mi esaminai di nuovo il taglio perdeva ancora un sottile filo di sangue applicai dell'altra acqua fredda e mi asciugai con un po di carta igienica che dopo buttai nel gabinetto e feci sparire tirando la catena poi passai in camera da letto e rimasi un lungo istante a fissare il dottor ambleton chiedendomi che errore poteva aver commesso mi era parso un individuo con la testa sul collo il sole si era spostato al capo estremo della stanza ora aveva lasciato il letto e si era rifugiato in un angolo triste e polveroso a un tratto sorrisi mi chinae sul morto di scatto e conservando sempre il mio sorriso per fuori luogo che fosse gli sfilai il parrucchino e lo rovesciai era così semplice un foglietto di carta color arancio protetto da un quadretto di cellofan era attaccato alla fodera della parrucca con due pezzi di carta gommata lo staccai lo voltai e vidi che si trattava di uno scontrino del negozio tutto per la foto di bay city lo riposi nel mio portafoglio e calzai di nuovo con cura la parrucca sulla testa pelata come un uovo lasciai la porta chiusa con la sola maniglia perché non c'era modo di chiuderla a chiave fuori la radio vociava sempre dallo sfiatatoio e le risa degli ubriachi dall'altra parte del pianerottolo le facevano l'accompagnamento capitolo 9 al telefono l'impiegato di tutto per la foto mi disse sì signor x sono pronte sei ingrandimenti su carta lucida dalla vostra negativa a che ora chiudete domandai oh fra cinque minuti circa apriamo alle nove di mattina allora verrò a ritirarle domattina grazie appesi la cornetta portai automaticamente la mano alla fessura e trovai un nichelino dimenticato da chissà chi andai al bar e col nichelino mi pagai una tazza di caffè rimasi seduto a sorseggiarlo e ad ascoltare i clacson delle automobili che si lagnavano nella via era l'ora di rincasare stridevano fischietti rombavano motori vecchi freni cigolavano sul marciapiede risonava uno scalpiccio tetro costante erano le cinque e mezzo appena passate terminai il caffè riempì la pipa e mi incamminai lentamente verso l'albergo van nice a mezzo isolato di distanza nella sala di scrittura infilei lo scontrino arancione del fotografo in una busta intestata dell'albergo e l'indirizzai a me stesso vi applicai un fracobollo espresso e la lasciai cadere nella cassetta delle lettere vicino agli ascensori poi tornai nell'ufficio di flac di nuovo richiusi la porta e di nuovo mi sedetti di fronte a lui pareva che flac non si fosse mosso di un centimetro masticava con aria assente lo stesso mozzicone di sigaro e i suoi occhi erano ancora pieni di nulla riaccesi la pipa sfregando un cerino contro il fianco della sua scrivania lui si accigliò il dottor ambleton non risponde annunziai che flac mi guardò con aria vacua il cliente del numero 32 ricordate beh non risponde cosa dovrei fare mettermi a piangere ho bussato varie volte spiegai nessuna risposta ho pensato che stesse facendo il bagno qualcosa di simile per quanto non si sentisse niente e sono andato a fare un giretto poi sono tornato e ho riprovato di nuovo nessuna risposta flac consultò un orologio a cipolla che aveva tratto dal panciotto termino alle sette brontolò gesù ancora un'ora e passa ragazzi che fame è naturale osservai lavorando come lavorate dovete mantenervi in forze sono riuscito ad attirare la vostra attenzione sulla camera 32 avete detto che il cliente non c'era replicò flac irritato e con questo non c'era non ho detto che non c'era rettificai ho detto che non rispondeva la porta flac si chinò in avanti con estrema lentezza si tolse di bocca gli avanzi del sigaro e li depose nel portacenare di vetro continuate cercate di interessarmi disse con aria cauta forse vi può far piacere venire di sopra a dare un'occhiata dissi forse è un pezzo che non vedete un lavoro di scalpello di primo ordine flac posò le mani sui braccioli della sedia e strinse forte il legno au disse dolorosamente au si tirò in piedi e aperse il cassetto della scrivania ne trasse un grosso revolver nero aperse il cilindro controllò i proiettili sbirciò nell'interno della canna richiusi il cilindro di scatto si sbottonò il panciotto e infilo la rivoltella ben fonda dentro la cintura dei calzoni in caso di emergenza probabilmente sarebbe riuscito a tirarla fuori in poco meno di 60 secondi si piantò il cappello in testa con fermezza e mi indicò la porta col pollice salimmo al terzo piano in silenzio percorremmo il corridoio nulla era cambiato nessun suono era aumentato diminuito di volume flac si affrettò verso il numero 32 bussò per forza dell'abitudine poi tentò la maniglia dopodiché si voltò a guardarmi con la bocca contratta ma avete detto che la porta non era chiusa a chiave si lagnò non ho detto precisamente questo però non era chiusa la chiave e ora lo è annunziò flac tirando fuori una chiave appesa una lunga catena la fece girare nella serratura e guardò su e giù lungo il corridoio girò la maniglia lentamente senza rumore e aperse la porta di qualche centimetro rimase in ascolto dall'interno non venne alcun suono flac fece un passo indietro e sfilò il revolver nero dalla cintura trasse la chiave della serratura e spalancò il battente con una pedata alzando la canna dell'arma lentamente con la cupa decisione di uno sbirro da operetta andiamo ordinò lasciando cadere le parole da un angolo della bocca da sopra la sua spalla constatai che il dottor ambleton non si era mosso di un millimetro il manico dello scalpello però non era visibile dall'ingresso flac si curvò in avanti ed avanzò cautamente arrivò alla porta del bagno accostò un occhio allo spiraglio poi spinse il battente così forte che lo fece rimbalzare contro la vasca entrò nello stanzino ne uscì e passò decisamente in camera da letto un uomo cauto energico che non correva rischi inutili posò la mano sulla maniglia dell'armadio a muro mise in posizione la pistola e spalancò il battente di violenza niente sospetti nell'armadio a muro guardate sotto al letto consigliai flac si chinò rapidamente guardò sotto al letto guardate sotto al tappeto soggiunzi mi prendete per il naso domandò con aria cattiva mi piace il vostro modo di lavorare ecco tutto lui si chinò sul morto e studiò lo scalpello da ghiaccio qualcuno ha chiuso a chiave quella porta osservò in tono sprezzante a meno che voi mentiate dicendo che era aperta non feci commenti beh immagino che bisognerà chiamare la polizia concluse flac lentamente questo altarino non lo si può proprio coprire non è colpa vostra lo consolai succede nei migliori alberghi capitolo 10 il dottorino dai capelli rossi compilò il certificato di morte agganciò la stilografica al taschino del camice bianco poi chiuse il blocchetto dei moduli ridacchiando mi do lo spinale lacerato immediatamente sotto lo cipite dichiarò con aria distratta un punto molto vulnerabile per chi lo sa trovare bene inteso e io sono certo che voi lo trovereste il tenente christy french della squadra omicidi mugolò credete che sia la prima volta che vedo qualcosa del genere no forse no concesse il dottorino diede un'ultima rapida occhiata al cadavere girò sui tacchi e lasciò la stanza farò venire il magistrato disse senza voltarsi la porta si chiuse le sue spalle per i medici un morto all'importanza che ha per me un piatto di cavoli riscaldati commentò christy french in tono acido rivolto all'uscio chiuso il suo socio un altro tenente che si chiamava fred bifus se ne stava con un ginocchio al suolo vicino alla scatola del telefono l'aveva spruzzata di polvere per le impronte digitali aveva soffiato via la polvere di troppo e ora stava osservando una macchia con una piccola lente di ingrandimento scosse il capo poi sfilò qualcosa dalla molla di chiusura guanti di cotone grigio da becchino annunziò in tono disgustato quattro centesimi al paio all'ingrosso figurarsi che belle impronte ha lasciato han cercato qualcosa nella scatola del telefono evidentemente qualcosa che poteva starci dentro rispose french non mi aspettavo impronte questi lavoretti di scalpello sono roba da specialisti chiameremo i tecnici tra un po la nostra è appena un'occhiatina d'insieme il tenente stava vuotando le tasche del morto e ne deponeva il contenuto sul letto accanto al cadavere cereo e tranquillo fleck era seduto su una poltrona accanto alla finestra e guardava fuori con aria tetra il vice direttore dell'albergo era venuto su non aveva detto niente con aria preoccupatissima e se ne era andato per i fatti suoi io me ne stavo appoggiato al muro del bagno a contarmi le dita a un tratto fleck sbottò per me in un delitto come questo c'è sotto una donna se ne trovano dappertutto di scalpelli da ghiaccio a dieci cents volendo averne uno sotto mano sempre pronto basta infilarselo in una giarrettiera e lasciarlo là christy french gli lanciò un breve sguardo vagamente meravigliato bifus domandò ma che genere di ragazze frequenti tesoro col prezzo che hanno oggi le calze una donna preferirebbe nascondersi un'ascia nella scollatura non ci avevo pensato brontolò fleck lascia pensare noi amore l'invitò bifus ci vuole un certo equipaggiamento sai non è necessario che mi maltrattiate protestò fleck bifus si scappellò inchinandosi non dovete negarci i nostri piccoli piaceri signor fleck inoltre intervenne christy french una donna avrebbe continuato a colpire non avrebbe capito quando bastava una quantità di mezze cartucce non lo capiscono l'individuo che ha fatto questo lavoro era un asso ha beccato il midollo spinale al primo colpo e un'altra cosa bisogna che il soggetto sia tranquillo per farcela questo significa che c'è voluto più di una persona a meno che la vittima non fosse narcotizzata o l'assassino non fosse amico suo non vedo come avrebbe potuto essere narcotizzato se è stato lui a parlarmi al telefono osservai french e bifus mi guardarono tutte e due con la stessa espressione annoiata e paziente se disse french e dal momento che a sentire voi non lo conoscevate c'è pur sempre la vaga possibilità che non conoscesse la sua voce o il mio ragionamento è troppo sottile non saprei risposi non ho letto le lettere dei vostri ammiratori french sorrise non sprecare la bella notizia con lui consigliò bifus risparmiatela per la tua conferenza al circolo del venerdì molte vecchie signore della lega dei nasi lustri vanno pazze per gli aspetti più raffinati del delitto french si fabbricò una sigaretta e l'accesse con un fiammifero da cucina che sfregò contro lo schienale di una sedia poi trasse un sospiro questa tecnica è stata elaborata a brooklyn spiegò ci si erano specializzati i ragazzi del sole monstein e avevano finito con l'esagerare si era arrivati al punto che non si poteva attraversare un'area da costruzione deserta senza trovare qualcuno dei loro lavoretti e in seguito sono venuti da queste parti qualche rimane della banda perlomeno chissà perché proprio qui forse abbiamo un numero maggiore di aree da costruzione deserte insinuò bifus è strano però proseguì french con aria sognante quando frignamoyer ha fatto saldare il conto a sole monstein in franklin avenue nel febbraio scorso l'assassino ha usato la pistola a mo non deve essere piaciuto affatto scommetto che è per questo che aveva un'espressione tanto delusa quando gli abbiamo lavato via il sangue dalla faccia osservò bifus chi è frignamoyer volle sapere fleck veniva subito dopo mo nella banda gli spiegò french è molto probabile che questo macello sia opera sua non che l'abbia eseguito personalmente e perché no chiese fleck in tono acido non li legge mai giornali moyer è un gentiluomo ora frequenta la migliore società ha persino un altro nome e per quanto riguarda sole monstein si dà il caso che il giorno della sua morte moyer fosse al fresco accusato di gioco d'azzardo non siamo riusciti a provare niente a questo proposito in compenso gli abbiamo fornito uno splendido alibi in ogni caso adesso è un gentiluomo come vi ho detto e i gentiluomini non vanno in giro piantando scalpelli da ghiaccio nel collo alla gente pagano un altro perché lo faccia avete mai avuto prove solide contro moyer domandai french mi lasciò un'occhiata penetrante perché mi era venuta un'idea affermai ma debolina debolina french mi studiò lentamente proprio fra noi ragazzi nel segreto della nostra cameretta vi confiderò che non siamo neppure riusciti a provare che il tizio che avevamo arrestato era effettivamente moyer ma non andate a urlarlo ai 420 nessuno lo sa all'infuori di lui del suo legale del procuratore distrettuale della polizia in servizio effettivo della giunta comunale di altre due o trecento persone si battea il portafogli vuoto di ambleton contro una coscia e si sedette sul letto si appoggiò distrattamente a una gamba del cadavere accessi una sigaretta e la puntò contro il suo collega basta commedia ora ecco i dati che abbiamo fred e innanzitutto questo bravo uomo non era troppo sveglio girava il mondo facendosi chiamare dottor g w ambleton e sui biglietti da visita aveva un indirizzo un numero telefonico di il centro ci sono voluti due minuti esatti per scoprire che sia l'indirizzo che il numero del telefono erano falsi un vero dritto non gioca così allo scoperto punto secondo il nostro uomo era decisamente in bolletta qui nel portafogli ci sono 14 verdoni esatti e per le tasche altri due dollari in spiccioli nel portachiavi non c'è né la chiavetta di accensione di un'automobile né quella di una cassetta di sicurezza né una chiave di casa ci sono la chiave di una valigia e sette passepartout yale limati e limati di recente anche secondo me il nostro uomo aveva intenzione di ripulire l'albergo credete che questi aggeggi servirebbero nella vostra locanda fleck fleck si fece avanti e fissò le chiavi due sono delle dimensioni giuste affermò ma così a occhio non posso dire se funzionerebbero se ho bisogno di un passepartout devo chiederlo in direzione io ho appena una chiave universale posso servirmene solo se il cliente è fuori trasse una chiave di tasca una chiave appesa a una lunga catena e la confrontò con quelle di ambleton poi scosse il capo così come sono non servono a niente bisognerebbe limar via ancora parecchio metallo french scosse la cenere della sigaretta sul palmo di una mano poi la soffiò via in una novoletta grigia fleck tornò alla sua poltrona accanto alla finestra punto 3 annunziò christy french il morto non aveva né la patente di guida né un documento d'identità nessuno dei suoi vestiti era stato comprato al centro certo svolgeva un'attività poco pulita ma non aveva né l'aspetto né la personalità necessari per spacciare assegni a vuoto non l'hai visto nei suoi momenti migliori protestò bifus e in ogni caso questo albergo non è adatto per un lavoro del genere continuò french ha una fama molto dubbia ma dico un momento scattò fleck french l'interruppe con un gesto conosco tutti gli alberghi della città fleck è il mio mestiere conoscerli per 50 verdoni potrei organizzare un doppio spettacolo di spogliarello con piacevolezze varie di tipo francese in qualsiasi stanza di quest'albergo nel giro di un'ora non cercate di farmi fesso voi vi guadagnate il vostro pane e io guadagno il mio solo non cercate di farmi fesso siamo intesi il nostro uomo era in possesso di qualcosa che aveva paura a tenersi addosso questo significa che qualcuno gli stava dietro e cominciava ad avvicinarsi un po troppo e lui lo sapeva così ha offerto un cetone a marlow perché mettessi al sicuro l'oggetto che gli stava a cuore ma hambleton non aveva la somma necessaria in tasca perciò deve aver pensato di indurre marlow a dividere il rischio con lui ragion per cui non poteva trattarsi di gioielli rubati deve essere stato qualcosa di semi legittimo dico bene marlow potete tralasciare il semi french fece un mezzo sorriso così l'oggetto in questione doveva essere qualcosa che si poteva nascondere di piatto o arrotolato in una scatola del telefono nel nastro di un cappello in una bibbia o in un barattolo di talco noi non sappiamo se sia stato trovato o no però sappiamo che c'è stato ben poco tempo per cercarlo non più di mezz'ora sempre che sia stato il dottor hambleton a telefonarmi intervenni l'avete sollevata voi questa questione la cosa non avrebbe molto senso altrimenti certo gli assassini non avevano nessuna urgenza di farci trovare il morto perché avrebbero dovuto invitare qualcuno a venire in questa stanza si rivolse a flec c'è modo di controllare i visitatori flec scosse il capo con aria tetra non è nemmeno necessario passare davanti al banco del portiere per arrivare alle ascensori forse è una delle ragioni per cui il nostro amico è venuto qui commentò bifus questo è l'atmosfera di famiglia e va bene concluse french la persona che l'ha fatto fuori ha potuto andare e venire senza che nessuno le domandasse niente tutto quel che le occorreva sapere era il numero della camera e questo più o meno è tutto quello che sappiamo d'accordo fred bifus a noi io dissi non proprio tutto tutto è un parrucchino molto ben fatto ma è sempre un parrucchino french e bifus si voltarono di scatto contemporaneamente french allungò una mano con cautela sfilò la parrucca dalla testa del morto e diede un fischio prolungato mi ero domandato che cosa aveva da ridere quell'accidente di dottore brontolò e non ci ha detto niente quella brutta carogna vedi anche tu quel che vedo io fred per me vedo solo un tizio pelato rispose bifus forse non l'hai mai conosciuto e fila via marston faceva il galoppino per asso del vol ma sicuro bifus ridacchiò sichino in avanti per dare una pacca amichevole alla testa calva dove sei stato tutto questo tempo fila via sono tanti anni che non ti vedo che mi ero quasi dimenticato di te ma tu mi conosci amico bello fesso una volta fesso per sempre l'uomo sul letto pareva vecchio grinzoso e risecchito senza il suo parrucchino la maschera gialla della morte stava cominciando a comporre il viso in una serie di linee rigide beh questo mi leva un bel peso dallo stomaco disse french con calma non dovremo lavorare 24 ore su 24 per scoprire chi ha fatto fuori questo farabuttello che vada all'inferno restituì il parrucchino al suo proprietario calzandoglielo tutto inclinato su un occhio e si alzò dal letto con voi due ho finito annunziò a me e a fleck fleck si alzò grazie per il delitto tesoro gli disse beifus se ne scopri qualcun altro nel tuo simpatico alberghetto non fare torto alla nostra organizzazione non sempre il servizio è buono però è molto rapido fleck percorse la piccola anticamera e spalancò la porta io lo seguì lungo il corridoio non aprimo bocca e nemmeno durante la discesa in ascensore lo accompagnai fino al suo minuscolo ufficio lo seguì nell'interno e chiusi la porta lui parve sorpreso si sedette alla scrivania allungò una mano verso il telefono devo fare un rapporto al vice direttore annunziò desiderate qualcosa feci scorrere una sigaretta tra le dita l'accesi e soffiai una boccata di fumo verso di lui 150 dollari dissi gli occhi piccoli intenti di fleck divennero due buchi rotondi in un viso che aveva perso improvvisamente ogni espressione non fate dello spirito fuori luogo beh dopo aver ascoltato quei due commedianti di sopra non potreste biasimarmi se lo facessi ma io non scherzo cominciai a tamburellare con le dita sull'orlo dello scrittoio e aspettai una linea di perline di sudore apparve sul labbro superiore di fleck sopra i baffetti ho da lavorare insistè lui con voce più ingoiata filate e non fatevi più vedere che ometto coriaceo esclamai e soggiunzi il dottor embleton aveva 164 dollari nel portafogli quando l'ho perquisito me ne aveva promessi 100 ricordate ora nello stesso portafogli si sono trovati 14 dollari io poi avevo veramente lasciato la porta aperta e qualcun altro la chiusa chiave voi l'avete chiusa fleck fleck afferrò i bracciali della poltroncina li strinse forte la sua voce pareva venire dal fondo di un pozzo e disse non potete provare un cavolo di niente devo provarmici sfilò la rivoltella dalla cintura la depose sulla scrivania di fronte a sé poi la fissò ma non aveva alcun messaggio per lui fleck alzò gli occhi su di me e chiese con voce rotta facciamo a mezzo eh vi fu un istante di silenzio fra noi lui trasse di tasca un vecchio portafogli malandato e vi frugò dentro ne pescò una manciata di spiccioli e banconote e li sparse sulla scrivania poi li divise in due mucchietti e ne spinse uno verso di me io dissi li voglio tutti fleck si afflosciò sulla sua poltroncina e fissò un angolo della scrivania dopo una lunga pausa trasse un sospiro riunì i due mucchietti di danaro e li spinse davanti verso di me a lui non servivano a niente disse su prendete il malloppo e filate mi ricorderò di voi bel giovane i tipi della vostra risma mi fanno voglia di vomitare chi mi dice che non gli abbiate soffiato un foglio da mille avrei portato via tutto e l'assassino avrebbe fatto lo stesso perché lasciare 14 dollari e perché avrei dovuto lasciarli io chiese fleck con voce stanca muovendo le dita in gesto vago lungo il bordo dello scrittoio io ho preso il denaro lo contai e glielo gettai perché siete del mestiere e avete valutato il vostro uomo sapevate che come minimo doveva avere in tasca abbastanza da pagare la camera e qualche dollaro per spese extra anche la polizia avrebbe fatto lo stesso ragionamento qua non li voglio questi soldi voglio qualcos'altro lui mi fissò con la bocca spalancata levatemi di torno questi quattrini fleck agguantò le banconote le ficcò disordinatamente nel portafogli che sarebbe questo qualcos'altro domandò aveva gli occhi piccoli pensosi con la lingua spingeva avanti il labbro inferiore non mi sembrate in una posizione così brillante da dettar legge forse vi sbagliate se io tornassi di sopra e dicessi a christy french bifus che ero già stato in camera di empleton e avevo perquisito il cadavere mi prenderei senz'altro una bella strigliata però capirebbero che non ho tenuto il becco chiuso solo per fare lo spiritoso saprebbero che dietro le mie spalle c'è un cliente che desidero proteggere mi tirerei addosso insulti e minacce a non finire d'accordo ma a voi toccherebbe qualcosa di molto diverso tacqui e osservai il debole luccichio del sudore che ora gli si stava formando sulla fronte fleck deglutì a fatica aveva gli occhi di un malato piantatela di blaterare mettete le carte in tavola scatto poi d'un tratto sorrise con un'aria vagamente oscena siete arrivato un po in ritardo per proteggerla eh la smorfia grassa ironica che abitava in permanenza sul suo viso stava tornando a casa ora lentamente ma con gioia spensi la sigaretta ne trassi di tasca un'altra e compì uno per uno tutti i gesti lenti inutili che dovrebbero salvare la faccia accendere gettar via il cerino aspirare una boccata lunga profonda come se quell'ufficetto lurido fosse stato la vetta di una collina che sovrastava l'oceano spumeggiante tutti cliché logori e frusti del mio mestiere e va bene dissi infine ammetto che si tratta di una donna ammetto persino che entrate in quella camera quando ambleton era già morto se vi può far piacere deve essere stata l'emozione a farla scappar via così ma sicuro convenne fleck con aria odiosa la sua smorfia grassa ironica era tornata a casa del tutto ora o forse era un mese che non scannava più nessuno con uno scalpello da ghiaccio aveva un po perso lo stile ma perché portare via la chiave della camera chiesi come parlando a me stesso e perché lasciarla al portiere perché non se n'è andata più semplicemente piantando tutto come stava come mai si è ritenuta in dovere di chiudere la porta perché non gettare la chiave in una sputacchiera e coprirla con la sabbia oppure portarsela dietro e perderla da qualche parte perché occuparsi comunque di quella chiave che avrebbe provato la sua presenza nella stanza del delitto abbassai gli occhi e fissai fleck con uno sguardo intenso duro immobile a meno che naturalmente qualcuno l'abbia vista lasciare la stanza con le chiavi in mano e l'abbia seguita fuori dall'albergo e perché l'avrebbe fatto quel qualcuno chiese fleck perché la persona che l'ha vista ha potuto entrare in quella stanza quasi subito dopo di lei aveva un passepartout gli occhi di fleck si alzarono su di me e tornarono ad abbassarsi in un solo movimento così quella persona deve aver seguito la ragazza continuai deve averla vista lasciare la chiave al banco del portiere uscire dall'albergo e deve averla seguita per un tratto di strada come fate ad essere così meravigliosamente astuto chiese fleck intorno di scherno mi sporsi in avanti e tirai il telefono verso di me mi conviene chiamare christy e farla finita una volta per tutte dissi più ci penso e più ho paura forse embleton l'ha accoppato davvero la ragazza non posso proteggere un'assassina sollevai il ricevitore dalla forcella la zampa sudaticcia di fleck mi piombò di violenza sul dorso della mano il ricevitore rimbalzò sulla scrivania e lasciate stare la sua voce era quasi un singhiozzo l'ho seguita fino alla macchina ferma in fondo alla strada ho preso il numero per l'amor di dio lasciatemi una via di uscita amico una via qualsiasi stava frugandosi in tasca freneticamente sapete quanto prendo con questo lavoro quel che mi basta per le sigarette stop quasi nient'altro su aspettate un minuto credo abbasso lo sguardo giocò un solitario con alcune buste unte finalmente ne scelse una e me la gettò ecco la targa disse in tono stanco e se può farvi piacere vi dirò che non mi ricordo più nemmeno che numero è diedi un'occhiata alla busta c'era effettivamente scarabocchiato un numero d'automobile il tratto era malfermo esile sbilenco proprio come quando si scrive frettolosamente in strada col solo foglio in mano diceva 6 n 3 3 3 california 1947 soddisfatto era la voce di fleck perlomeno il suono era uscito dalla sua bocca strappai via il lembo col numero e gli gettai indietro la busta 4 p 3 2 7 dissi studiando attentamente i suoi occhi nessuna luce improvvisa gli si accese alle pupille non vidi tracce di ironia di finzione ma come faccio io a sapere che non si tratta di un numero che avevate già in tasca dovete dovete contentarvi della mia parola descrivetemi la macchina cadillac trasformabile non nuova col soffietto chiuso modello del 42 o giù di lì di un colore azzurro polvere descrivetemi la donna pretendete parecchio per i vostri quattrini è bel giovane per i quattrini del dottore embleton lui strabuzzò gli occhi e va bene bionda soprabito bianco con le cuciture degli orli colorate cappello grande di paglia azzurra occhiali neri alta circa 1 e 60 una figura che fa scintille la riconoscereste senza occhiali chiesi con una certa prudenza lui fece finta di pensare poi scosse il capo no e allora volete ripetermi quel numero di targa fleck l'avevo preso alla sprovvista quale numero mi chinai in avanti e lasciai cadere un po di cenere sulla sua rivoltella poi lo fissai di nuovo negli occhi intensamente ma ormai sapevo di averlo battuto pareva che lo fosse anche lui prese il revolver soffiò via la cenere lo ripose in un cassetto avanti correte si bilò tra i denti andate a dire ai poliziotti che ho perquisito il morto e con questo forse perdo l'impiego forse anche mi sbattono dentro e con questo quando esco sono a posto il caro piccolo fleck non dovrà più preoccuparsi per il pane e il compagnatico non vi sognate che quei paraocchi neri l'abbiano ingannato per un momento il caro piccolo fleck sono andato troppo al cinema per non riconoscere quella bella bambolina e se volete il mio parere vi dirò che la vedremo ancora per un pezzo è destinata a far carriera e chissà mi lanciò un sorriso trionfante forse uno di questi giorni avrà bisogno di una guardia del corpo di un bravo uomo sempre a sua disposizione che tenga d'occhio le cose e che le impedisca di mettersi nei guai qualcuno che abbia una certa influenza e non sia irragionevole in fatto di denaro che c'è avevo chinato il capo da un lato e mi ero curvato in avanti in ascolto mi era perso di sentire la campana di una chiesa spiegai non ci sono chiese da queste parti annunziò fleck con disprezzo sarà il vostro cervellone di platino che si riempie di una campana sola continuai molto lenta ha morto fleck ascoltò con me non sento nulla disse aspramente o non è possibile che la sentiate esclamai voi siete l'unica persona al mondo che non la può sentire non mi rispose rimase seduto a fissarmi coi piccoli occhi malvagi semi chiusi coi piccoli baffi malvagi che lucicavano aggressivamente una mano gli si contrasse sullo scrittoio in un gesto senza senso lo lasciai ai suoi pensieri che probabilmente erano piccoli brutti e spauriti come lui capitolo 11 la casa albergo era in donay drive ai piedi della collina sotto lo strip in realtà si trattava di due edifici collegati da un patio pieno di fiori con una fontana nel mezzo e una statua costruita proprio sopra l'arco nel vestibolo di finto marmo c'erano le cassette delle lettere coi campanelli 3 su 16 non portavano nome i nomi che lessi non significavano niente per me tentai la porta d'ingresso e scopersi che non era chiusa a chiave ma nonostante questo l'impresa richiedeva del lavoro supplementare fuori in strada c'erano due cadillac una lincoln continental e una packard clipper nessuna delle cadillac aveva il numero giusto o la tinta giusta dall'altro lato della via un tale in calzoni alla cavallerizza era sdraiato su una lancia molto bassa e spenzolava le gambe oltre lo sportello fumava e guardava in su verso le stelle pallide che hanno abbastanza buon senso da tenersi lontano da hollywood mi incamminai lungo la ripida collina verso il boulevard percorsi un isolato e mi chiusi in una cabina telefonica stradale che pareva un bagno turco composi il numero di un tale che tutti chiamano peoria smith perché è balbetta un altro piccolo mistero che non ho mai trovato il tempo di risolvere mavis world gli dissi voglio il numero di telefono parla marlow sicuro rispose mavis world vuoi il suo numero quanto facciamo dieci dollari dimentica che t'ho chiamato aspetta un momento ho l'ordine di non non dargli numeri di quelle pupe per essere un vice trovarobe corrombe il rischio aspettai e tornai a respirare il fiato che avevo buttato fuori l'indirizzo è compreso nel prezzo pagnuccolò peoria dimenticandosi di balbettare cinque dollari ribattei l'indirizzo ce l'ho già e non fare lo strozzino se credi di essere il solo malvivente nel tuo ramo a vendere i numeri segreti delle dive lascia perdere fece lui in tono stanco e andò a prendere il suo tacquino rosso un balbuzziente alla rovescia peoria tartagliava solo quando non era eccitato poco dopo torno all'apparecchio e mi diede il numero un numero della centrale di crestview naturalmente se non si ha un numero di crestview a hollywood sia considerati pezzenti ha persi la porta di vetro e acciaio cromato per far passare un po d'aria mentre componevo un altro numero dopo due squilli mi rispose una voce cantilenante piena di sexy appeal chiusi la porta della cabina si tubò la voce la signorina weld per cortesia e chi desidera la signorina weld prego ho qui alcune pose che whitney vuole farle avere in serata witty e chi sarebbe witty amico il ritrattista capo dello studio replicai come fate a non saperlo se mi dite il numero dell'appartamento vengo subito sono un paio di isolati da casa vostra e la signora weld sta facendo il bagno la ragazza rise probabilmente era un tintinio argentino nelle sue vicinanze dove mi trovavo io faceva pensare a qualcuno che mettesse via delle pignate ma portate le foto naturalmente sono certa che la signorina muore dalla voglia di vederle l'appartamento è il numero 14 ci sarete anche voi ma certo ma naturale perché me lo domandate appesi ricevitore uscì quasi a tentoni nell'aria fresca scesi la collina il tizio in pantaloni alla cavallerizza era ancora adagiato nella lancia ma una delle cadillac se n'era andata e due buic trasformabili si erano uniti alla schiera premetti il campanello dell'appartamento 14 e attraversai il patio dove un caprifoglio cinese color porpora era illuminato da un riflettore un altro riflettore splendeva sull'ampia piscina ornamentale piena di pingui pesci rossi e di silenziose ninfee accanto c'era un paio di sedili di pietra e un'altalena da giardino la casa non aveva un'aria particolarmente costosa a parte il fatto che tutte le case erano costose quell'anno l'appartamento di mavis weld era al secondo piano una delle due porte che si guardavano al di là di un ampio vestibolo il campanello squillò gentilmente e una ragazza alta in pantaloni da equitazione venne ad aprirmi dire che trasudava sex appeal e non dir nulla i calzoni come i suoi capelli erano d'un nero carbone portava una camicetta di seta bianca con una sciarpa scarlata annodata mollemente intorno al collo il colore della sciarpa era aggressivo ma non come quello delle labbra fumava una lunga sigaretta marrone stretta in un paio di minuscole mollette d'oro le dita che le reggevano erano inanellate più che a sufficienza i capelli corvini erano divisi nel mezzo e la scriminatura bianca correva lungo tutta la testa e andava a perdersi dietro sulla nuca due grosse trecce nere lucidissime pendevano ai lati dell'esile collo bruno le aveva legate con un nastrino rosso eppure era passato molto tempo dai giorni della sua infanzia la ragazza lanciò un'occhiatina penetrante alle mie mani vuote i ritratti degli studi cinematografici in genere sono troppo grandi per poterli portare in tasca io dissi e la signorina weld prego potete dare a me le fotografie la sua voce era fredda strascicata insolente ma gli occhi avevano tutt'altra espressione era una ragazza difficile come un compito di prima elementare spiacente devo consegnarle alla signorina weld in persona ve l'ho detto sta facendo il bagno aspetterò siete proprio sicuro di avere quelle foto amico sicurissimo perché il vostro nome la sua voce svanì all'ultima parola come una piuma che si innalza presa da un vortice improvviso di vento poi tubò indugiò si alzò e gorgheggiò l'invito silenzioso d'un sorriso le rialzò delicatamente gli angoli della bocca molto ad agio come un bimbo che cerca di raccogliere un bioccolo di neve il vostro ultimo film era meraviglioso signorina gonzalez un sorriso rapido come un lampo le mutò completamente il viso il corpo si eresse vibrante di soddisfazione ma era uno schifo replicò con aria radiosa assolutamente un maledetto schifo mio caro e amabile giovanotto e voi lo sapete benissimo che era uno schifosissimo schifo nessun film è uno schifo per me quando ci lavorate voi signorina gonzalez lei si scostò dalla soglia e mi fece segno di entrare beviamo qualcosa mi disse sicuro venite beviamo qualcosa io adoro l'adulazione per quanto disonesta entrai una pistola nelle reni non mi avrebbe affatto sorpreso la ragazza si mise in modo che per varcare la soglia dovetti praticamente spingere da parte le sue ghiandole mammarie aveva un profumo che ricordava un bosco sacro indiano al chiaro di luna richiuse l'uscio e si accostò a un piccolo bar portatile quasi a passo di danza whisky scozzese o preferite un cocktail io so preparare un martini perfettamente disgustoso il whisky va benissimo grazie preparò due beveraggi in un paio di bicchieri che avrebbero quasi potuto servire da porta ombrelli mi sedetti su una poltrona ricoperta di shins e mi guardai attorno era un locale all'antica c'era un caminetto falso con i ceppi che nascondevano una stufa a gas e la mensola di marmo qualche crepa nell'intonaco un paio di croste vigorosamente colorate abbastanza repellenti per essere costate un occhio e uno stanway intagliato che per una volta tanto non era adorno di uno scialle spagnolo una quantità di libri dall'aria nuova e dalle copertine vivaci erano sparpagliati per la stanza e una doppietta dal calcio elegantemente lavorato era appoggiata in un angolo con un nastro di raso bianco annodato intorno alle canne spirito hollywoodiano la dama bruna in pantaloni mi porse il bicchiere si appollaio sul bracciolo della mia poltrona vi permetto di chiamarmi dolores se volete disse bevendo una generosa sorsata di liquore grazie e io come devo chiamarvi sorrisi senza rispondere naturalmente continuò lei so benissimo che siete un bugiardo matricolato e che non avete nessuna foto in saccoccia non che io desideri ficare il naso negli affari vostri senza dubbio privatissimi davvero buttai giù quattro dita di liquore che specie di bagno sta facendo la signorina world un bagno all'antica con l'acqua e il sapone o un'abluzione complicata con essenze orientali lei agitò quel che rimaneva della sigaretta bruna stretta nelle molle d'oro forse vi piacerebbe aiutarla il bagno è da quella parte a destra dopo l'arco molto probabilmente la porta non è chiusa chiave se è così facile non ci tengo la ragazza mi fece di nuovo omaggio del suo sorriso radioso vi piacciono le cose difficili nella vita devo ricordarmi di essere meno adorabile vero si alzò elegantemente dal bracciolo della mia poltrona e spense la sigaretta chinandosi profondamente in modo da farmi notare la linea dei fianchi non vi disturbate signorina gonzalez sono venuto qui solo per affari non ho intenzione di violentare nessuno no il sorriso divenne morbido pigro e se non riuscite a trovare una parola migliore provocante però sto cominciando a pensare che non sarebbe una cattiva idea siete una canaglia molto divertente dichiarò la ragazza scrollando le spalle e se ne andò attraverso l'arco portando con sé il suo mezzo litro di whisky e acqua sentivo bussare gentilmente a un uscio e poi la sua voce gioia c'è qui un giovanotto che ti ha portato alcuni ritratti dallo studio così dice muy simpatico muy guapo también con cogones una voce che avevo già udita ordinò aspramente sta zitta cagnetta tra un secondo arrivo la gonzalez ricomparve sotto l'arco canticchiando a bocca chiusa aveva finito il whisky e tornò al bar ma voi non bevete esclamò guardando il mio bicchiere ho già cenato e in ogni caso il mio stomaco tiene solo due litri sono un po spagnolo lei gettò indietro la testa siete scandalizzato roteò gli occhi poi mossa le spalle in una curiosa figura di danza non è facile scandalizzarmi ma avete capito quel che ho detto madre di dios sono desolatissima l'avrei scommesso lei terminò di prepararsi un altro whisky e soda e si sono desolatissima sospirò cioè credo di esserlo a volte non ne sono tanto sicura a volte non me ne frega niente di niente è così imbarazzante gli amici mi dicono che sono bloccata vi scandalizzo vero si era appollaiata di nuovo sulla mia poltrona no ma se volessi scandalizzarmi saprei dove venire la ragazza aveva deposto il bicchiere alle sue spalle con indolenza e si era chinata verso di me ma io non abito qui mi informò abito a shotau bercy da sola mi diede uno schiaffetto delicato sulla punta del naso un secondo dopo l'avevo in grembo che cercava di mordermi via un pezzo di lingua siete un'adorabile canaglia mormorò aveva una bocca come non ne avevo mai provate le labbra bruciavano come ghiaccio secco premeva la lingua forte contro i miei denti i suoi occhi mi parevano neri enormi e il bianco risaltava sotto le iridi sono tanto stanca mi alitò in bocca così sfinita così incredibilmente affranta senti la sua mano nel taschino interno della giacca la spinsi indietro duramente ma mi aveva già preso il portafogli si allontanò a passo di danza ridendo col portafogli in mano poi la perse di scatto e ne fece passare il contenuto tra le dita che scattavano come piccole serpi lietissima che abbiate già fatto conoscenza disse una voce fredda di fianco a noi mavis weld era apparsa sotto l'arco non si era presa il disturbo di truccarsi e aveva appena arrabbiato la capigliatura rigonfia portava un'elegantissima vestaglia e ben poco d'altro ai piedi aveva un paio di pantofoline verdi argento gli occhi erano vuoti le labbra sdegnose ma era indubbiamente la stessa ragazza occhiali neri o non occhiali neri la gonzalez le lanciò un'occhiata rapida chiuse il mio portafogli e me lo gettò la ferrai al volo e lo rimisi in tasca la bruna si avvicinò pigramente a un tavolo raccolse una borsa nera con una lunga cinghia se la misi a tracolla e si incamminò verso la porta mavis weld non si mosse non la guardò guardò me invece ma nel suo viso non c'era la minima espressione la gonzalez aperse l'uscio diede un'acchiata fuori e tornò a richiuderlo si chiama philip marlow annunziò carino vero non sapevo che ti scomodassi a domandare come si chiamano osservò mavis weld ben di rado frequenti gli uomini abbastanza a lungo per poterlo fare capisco rispose l'altra con gentilezza si voltò e mi sorrise un modo molto grazioso per dar della sgualdrina una ragazza non vi pare mavis weld non disse nulla il suo viso pareva di marmo se non altro continuò la gonzalez mentre tornava ad aprire la porta io non sono andata a letto con nessun sicario in quest'ultimi tempi sei sicura di ricordartene chiese mavis weld esattamente nello stesso tono apri la porta gioia oggi è il giorno che mettiamo fuori l'immondizia la gonzalez si voltò le rivolse uno sguardo lento sicuro che pareva una coltellata poi emise un rumorino soffocato schioccando le labbra e spalancò l'uscio un istante dopo il battente si chiudeva con un rumore assordante il fracasso non spostò di un millimetro lo sguardo azzurro duro ostinato di mavis weld e ora che ne direste di fare altrettanto ma con più garbo mi domandò trassi di tasca il fazzoletto e mi ripulì il viso dal rossetto aveva esattamente il colore del sangue del sangue fresco può capitare a tutti spiegai non ero io a pomiciarla era lei a pomiciare me la ragazza andò alla porta con passo deciso e la spalancò fuori di qui prigioniero del sogno cercate di andarvene coi vostri piedi sono venuto per affari signorina weld già me l'immaginavo fuori non vi conosco e non voglio conoscervi e se anche avessi voglia questo non sarebbe il momento adatto l'ora il luogo e l'essere amato non si trovano mai insieme citai che roba è cercò di cacciarmi via con un gesto altero del mento ma neppure lei era l'altezza di tanto browning spiegai il poeta non l'automatica sono certo che voi preferireste l'automatica sentite un po buon uomo devo chiamare il direttore dello stabile per farvi buttare fuori a pedate le andai vicino e chiusi l'uscio con una spinta lei tenne fino all'ultimo non arrivò a darmi un calcio in uno stinco ma le costò uno sforzo non farlo cercai di indurla ad allontanarsi dalla porta ma senza averne l'aria lei non si lasciò indurre a un bel niente mantenne le sue posizioni con una mano sempre pronta per la maniglia e gli occhi grevi di collera azzurra se avete intenzione di starmi così vicina forse vi conviene vestirvi un po consigliai lei portò indietro una mano e mi colpì duramente lo schiaffo risuonò come la porta sbattuta della signorina gonzalez ma mi fece male e mi ricordò che avevo un punto indolenzito sulla nuca vi ho fatto male mi chiese mavis vuelta a bassa voce accennai di sì magnifico portò indietro la mano e mi schiaffeggiò di nuovo più forte se possibile credo che vi convenga baciarmi alitò i suoi occhi erano chiari limpidi arrendevoli abbassai lo sguardo distrattamente la sua mano destra era stretta in pugno nell'aria molto decisa e non era nemmeno un pugno troppo piccolo da non fare effetto credetemi c'è una sola ragione per cui non vi bacio affermai e non vi bacerei nemmeno se aveste in mano la vostra solita rivoltellina nera o il pugno di ferro che certo tenete sul coltellino maris weld sorrise educatamente potrebbe persino darsi che io stessi lavorando per voi soggiunzi inoltre non corro dietro un paio di gambe che vedo guardai giù verso le sue gambe le potevo vedere senza nessuna difficoltà erano splendide anche dove non si chiamavano più gambe lei riunì le falde della vestaglia si voltò e andò verso il bar tentennando il capo sono libera bianca e maggiorenne dichiarò ho provato tutti i sistemi di approccio esistenti credo proprio di sì ma se non riesco a spaventarvi a umiliarvi a sedurvi si può sapere che cosa vi posso comprare ebbene non me lo dite si interruppe di scatto e si voltò con un bicchiere in mano beve scossa i capelli sciolti e mi sorrise un sorriso breve fragile quattrini naturalmente che stupida non averci pensato i quattrini potrebbero servire concessi la bocca le si contraste dal disgusto ma la sua voce divenne quasi affettuosa quanto 100 dollari potrebbero andare come inizio siete a buon mercato siete un piccolo mascalzone a buon mercato e 100 dollari d'accordo sono danaro 100 dollari nel vostro ambiente tesoro fate 200 allora con una somma simile mi potrei ritirare a vita privata sempre a buon mercato ogni settimana naturalmente in una bella busta pulita potete lasciar stare la busta non farei che sporcarla e che cosa otterrei io in cambio di quei quattrini mio caro e affascinante piedipiatti so benissimo chi siete naturalmente otterrete una ricevuta chi vi ha detto che sono un piedipiatti per un istante mi fissò come se guardasse fuori dai suoi stessi occhi poi riprese a recitare deve essere stata la puzza sorseggiò la sua bibita e mi guardò da capo a piedi con vaga aria di disprezzo comincio a credere che vi scriviate da sola le battute dissi fino a questo momento mi sono chiesto come mai il dialogo era tanto barboso mi scostai di scatto alcune gocce mi spruzzarono il bicchiere andò in frantumi contro il muro alle mie spalle i pezzi caddero senza rumore e con questo disse mavis weld perfettamente tranquilla ho completamente esaurito le mie riserve di fascino andai a prendere il cappello non ho mai pensato che fosse stata voi a ucciderlo dichiarai però potrebbe tornarmi utile una ragione qualsiasi per non dire a nessuno che eravate là può servirmi a ricevere abbastanza danaro per una caparra tanto per avere una posizione ufficiale nonché una certa quantità di informazioni per giustificare il fatto che ho accettato la caparra mavis weld prese una sigaretta da una scatola la gettò in aria la afferrò con le labbra senza sforzo e l'accese con un cerino che pareva essere sorto dal nulla oh santa pazienza mi sospetta che io abbia assassinato qualcuno domandò avevo ancora il cappello in mano e la cosa mi fece sentire molto stupido chissà perché me lo calcai in testa e mi avviai alla porta spero che abbiate gli spiccioli del tram per tornare a casa mormorò la sua voce sprezzante alle mie spalle non risposi e proseguì la mia via quando ebbe aperto l'uscio mavis weld soggiunse spero inoltre che la signorina gonzalez vi abbia dato il suo indirizzo e il numero di telefono dovreste riuscire a ottenere praticamente tutto da lei danaro compreso a quanto mi si dice lasciai andare la maniglia di scatto e tornai rapidamente sui miei passi lei rimase ferma sulle sue posizioni anche il suo sorriso non si spostò di un millimetro datemi retta l'apostrofai so che farete una fatica tremenda a credermi ma io sono venuto qui con la strana idea che voi foste una ragazza che aveva bisogno di aiuto e avrebbe avuto molte difficoltà a trovare qualcuno su quale fare affidamento avevo immaginato che foste andata in quella camera d'albergo per pagare il prezzo di un ricatto o qualcosa di simile il fatto che ci siate andata da sola poi correndo il rischio di venire riconosciuta e siete stata riconosciuta infatti dal poliziotto dell'albergo un individuo che moralmente è dritto come un ramo di vite tutto mi ha fatto pensare che vi trovaste in una di quelle grane stile hollywood che finiscono una persona senza vie di scampo ma voi non siete in una grana voi siete nel bel mezzo del palcoscenico sotto il riflettore a ripetere tutte le guitterie trite ritrite che avete usato nei film di secondo ordine in cui avete recitato sempre se il vostro si chiama recitare tacete si bilò lei stringendo i denti fino a farli stridere tacete sporco ricattatore lurido spione non avete bisogno di me continuai non avete bisogno di nessuno siete così maledettamente abile che a forza di chiacchiere riuscireste a uscire da una cassetta di sicurezza e va bene tiratevi fuori a forza di chiacchiere io non ve lo impedisco basta che non mi costringiate ad ascoltarvi scoprire il lacrime al pensiero che una povera ragazzina ingenua alta un soldo di cacio può essere così intelligente voi mi commuovete dolcezza proprio come margaret o'brien lei non si mosse non fiatò nemmeno quando andai alla porta e nemmeno quando la persi non so perché la mia tirata non era efficace fino a quel punto scesi le scale attraversare il cortile uscendo dal portone per poco non cozzai contro un ometto snello dagli occhi neri che si era fermato ad accendere una sigaretta scusatemi dissi con calma temo di impedirvi la via feci per girargli attorno poi mi accorsi che nella destra alzata stringeva una chiave allungai una zampa e senza nessuna ragione al mondo gli feci saltare la chiave di mano guardai il numero che vi era inciso numero 14 l'appartamento di mavis weld la gettai via dietro una macchia di cespugli non vi occorre dissi la porta non è chiusa naturalmente fece l'omino c'era un curioso sorriso sulle sue labbra che sciocco sono già con benni siamo stupidi entrambi tutti sono stupidi quelli che si occupano di quella donnaccia non direi osservò l'altro quietamente mentre i suoi piccoli occhi tristi mi studiavano senza nessuna espressione particolare non è necessario che lo diciate continuai l'ho detto io per voi vi prego di scusarmi vado a riprendervi la chiave girai dietro i cespugli e ritrovai la chiave e la porsi all'omino mille grazie murmurò lui a proposito esitò io mi fermai spero di non aver interrotto un interessante litigio mi dispiacerebbe proprio no sorrise beh al momento che la signora weld è un'amica comune sarà bene che mi presenti mi chiamo steel grave non vi ho già visto in qualche posto no non mi avete visto in nessun posto signor steel grave mi chiamo marlowe philip marlowe è estremamente improbabile che ci siamo conosciuti e strano a dirsi io non vi ho mai sentito nominare signor steel grave e di voi non me ne importa un fico e non me ne importerebbe nemmeno se vi chiamaste frigna moyer non ho mai capito perché avessi detto una cosa simile non c'era nessuna ragione a parte il fatto che avevo sentito quel nome poche ore prima il viso dell'ometto divenne stranamente immobile i suoi occhi neri silenziosi si fecero singolarmente fissi lo sconosciuto tolse la sigaretta di bocca ne studiò la punta scosse via un po di cenere sebbene non vi fosse cenere da scuoter via e sempre con gli occhi bassi osservò frigna moyer che nome curioso non mi pare di averlo mai sentito è qualcuno che dovrei conoscere e no a meno che non abbiate una passione particolare per gli scalpelli da ghiaccio risposi e lo piantai in asso scesi i gradini attraversai la strada raggiunsi la macchina e prima di salirvi mi voltai l'omino era fermo allo stesso punto e guardava giù verso di me con la sigaretta fra le labbra da quella distanza non potevo vedere se vi fosse un'espressione qualsiasi sul viso quando mi voltai non si mosse non fece il più piccolo gesto non distolse nemmeno lo sguardo rimase semplicemente dov'era io montai in macchina e partì capitolo 12 mi diressi a est verso il sunset boulevard ma non andai a casa all'abrea voltai a nord puntai verso island superai chawenga pass scesi su ventura boulevard e costeggiai studio city sherman hawks e ensino non fu un tragitto solitario niente solitario su quel percorso i fanatici della velocità sulle loro ford ridotte all'essenziale schizzavano dentro e fuori dalle colonne di traffico mancando i parafanghi altrui per frazioni di centimetro ma in modo o nell'altro riuscendo sempre a mancarli uomini stanchi in due posti o berline impolverate strabuzzavano gli occhi e stringevano più forte il volante mentre arrancavano in direzione nord o in direzione est verso casa la cena e una serata in compagnia della pagina sportiva dei giornali e della radio che garriva fra i piagnistei dei loro ragazzini viziati e le chiacchiere insulse delle loro stupide mogli oltrepassai le chiassose in segno al neon e le facciate false dietro di esse le rosticcerie fatte di sputo che parevano palazzi sotto le luci brillanti e colorate i ristoranti circolari per automobilisti gai come circhi equestri con le servette vivaci dagli occhi bruni banchi luminosi e le cucine unte sudaticce che avrebbero avvelenato un rospo grossi autocarri a rimorchio scendevano rombando a wilmington e da san pedro verso sepolveda e tagliavano verso la ridge ruth partendo dai semafori al minimo corruggito dei leoni dello zoo dietro insino qualche rara luce ammiccava dalle colline fra gli alberi folti le case delle dive del cinema dive del cinema le veterane di migliaia di alcove pianta la marlo non sei umano questa sera l'aria si fece più fresca lo stradone si restrinse le macchine erano così rade ora che i fari abbagliavano fino a far male il pendio saliva fra contraforti di argilla e sulla vetta una brezza che l'oceano non mitigava danzava distrattamente nella notte mi fermai per la cena in un locale poco lontano da thousand oaks cattiva ma spiccia riempiteli e buttateli fuori affari vertiginosi non possiamo stare ad aspettare mentre indugiate sulla seconda tazza di caffè signore lo spazio rende vedete quelle persone laggiù dietro la corda vogliono mangiare credono di doverlo fare se non altro sa dio perché vogliono mangiare qui farebbero un pasto più decente a casa con un di roba in conserva ma sono irrequieti come voi devono per forza tirar fuori la macchina e andare da qualche parte sono polli fin troppo facili da pelare per gli imbroglioni che han messo le mani sui ristoranti ecco che ci risiamo non sei umano questa sera marlow pagai il conto e più avanti mi fermai a un bar per buttar giù un brandy appoggiato a un bancone d'acciaio tipo new york perché poi new york pensai l'acciaio lo si lavora a detroit uscì nell'aria della notte sulla quale nessuno finora è riuscito a far valere un diritto di prelazione ma chissà quanti stanno tentando l'impossibile e un giorno l'altro ci arriveranno giunsi fino all'interruzione di oxnard poi presi la via del ritorno lungo l'oceano gli autotreni a 8 e 16 ruote correvano in processione verso nord tutti costellati di fanalini arancioni sulla destra l'ampio grasso solido oceano pacifico arrancava stancamente verso la spiaggia come una donna ore che era in casa niente luna niente confusione quasi nemmeno l'eco della marea nessun odore neanche l'aspro selvatico odore del mare un oceano californiano la california lo stato grande magazzino quasi tutto di tutto è il meglio di niente ecco che ricominci non sei umano questa sera marlow e va bene perché dovrei esserlo me ne sto in ufficio a giocare con una mosca morta ed ecco che mi compare una ragazzetta malmessa di manattan kansas e mi induce ad accettare 20 dollari lisi per trovarle il fratello lui ha tutta l'area di un menagramo ma lei lo vuole trovare così con quel gran patrimonio stretto al seno me ne vado fino a bay city e il lavoro che compio è un'ordinaria amministrazione così frusta e vieta che dormo in piedi faccio conoscenza di alcune amabili persone con e senza scalpelli da ghiaccio nel collo poi me ne vado ma resto con le palle scoperte dopo torna la ragazza mi porta via i 20 dollari mi dà un bacio e finisce col darmi indietro anche quattrini perché non ho compiuto un'intera giornata lavorativa così vado a trovare il dottor embleton ottico in ritiro e come di el centro e mi imbatto in un altro esemplare di fermagli da colletto all'ultima moda e non lo dico alla polizia mi limito a perquisire il parrucchino del morto e a incenare una commedia perché per chi la rischio brutta questa volta per una bionda con gli occhi invitanti e troppe chiavi del portello per una ragazza di manattan kansas non lo so so solo che qualcosa non è come sembra e l'istinto vecchio stanco ma sempre degno di fede mi dice che se la mano la si gioca come sono messe le carte perde la posta la persona che non lo merita è affar mio beh ma che cos'è affar mio lo so l'ho mai saputo sorvoliamo su questo punto non sei umano questa sera marlowe forse non lo sono mai stato e non lo sarò mai forse sono un ectoplasma con la licenza di investigatore privato forse diventiamo tutti così in questo mondo freddo illuminato solo a metà dove accadono sempre cose sbagliate e mai quelle giuste malibù altre dive del cinema altre vasche da bagno rosa e azzurre altri letti trapunti altro chanel numero 5 altre lincoln continental e cadillac altre capigliature rigonfie occhiali neri e pose e voci pseudo raffinate e moralità da taverna di porto ma no un momento molte brave persone lavorano nel cinema l'hai presa sbagliata marlowe non sei umano questa sera senti l'odore di los angeles prima di arrivarci era l'odore vecchio e stantio di un salotto buono che è rimasto chiuso per troppo tempo ma le luci colorate avrebbero ingannato chiunque le luci erano meravigliose dovrebbero fare un monumento all'uomo che ha inventato le luci al neon un monumento alto 15 piani tutto di marmo perché effettivamente è un ragazzo che ha creato qualcosa dal nulla così andai al cinema e doveva proprio capitarmi un film con mavis world uno di quei polpettoni con cristalli e cromature dove tutti sorridevano troppo parlavano troppo e lo sapevano le donne non facevano che salire lunghi scaloni ricurvi per andare a cambiarsi d'abito gli uomini non facevano che tirar fuori sigarette monogrammate da astucci di lusso e accendersele l'un l'altro con accendisigari di lusso e la servitù si era fatta la gobba a forza di portare vassoi di bibite lungo la terrazza fino a una piscina che aveva le dimensioni del lago euron ma era molto più lunga il primo attore era un amabile guitto carico di un fascino che pian piano stava diventando rancido la diva era una bruna arrogante dagli occhi dispettosi che in un paio di cattivi primi piani mostrava i segni dei suoi sforzi herculei per tener lontana la cinquantina mavis world aveva il ruolo della seconda donna e lo sosteneva col silenziatore era brava ma avrebbe potuto esserlo dieci volte di più ma se fosse stata dieci volte più brava metà delle sue scene sarebbe stata tagliata per proteggere la diva era un'impresa da equilibrista alla sua una delle migliori cui avessi mai assistito ebbene d'ora in avanti mavis world non avrebbe più fatto dell'equilibrismo su un cavo irregolare su una corda da pianoforte l'avrebbe fatto una corda tesa molto in alto e non ci sarebbe stata una rete sotto capitolo 13 avevo una ragione per tornare in ufficio un espresso che conteneva uno scontrino color arancio doveva essere già arrivato a destinazione ormai la maggior parte delle finestre del palazzo erano buie ma non tutte in parecchi mestieri oltre al mio si lavora di notte l'uomo nell'ascensore tiro fuori un salve dal fondo della gola e mi portò al mio piano nel corridoio c'erano varie porte aperte illuminate dietro le quali le donne di servizio stavano ancora spazzando i detriti delle ore perdute voltai l'angolo accompagnato dal ronzio bavoso di un aspirapolvere ed entrai in ufficio buio e apersi le finestre restai seduto alla scrivania senza far nulla senza nemmeno pensare niente espresso tutti i rumori del palazzo all'infuori dell'aspirapolvere parevano essere scesi fluttuando nella strada ed essersi persi nel volgere di innumerevoli ruote poi in un punto imprecisato del vestibolo esterno un uomo cominciò a fischiettare lili marlène con eleganza e virtuosismo sapevo chi era e il guardiano notturno che controlla le porte degli uffici accesi la lampada da tavolo e lui passò senza controllare la mia i suoi passi si allontanarono poi ritornarono con un suono diverso più strascicato trillò il campanello della sala d'aspetto che era ancora aperta doveva essere l'espresso andai fuori a prenderlo solo che non era l'espresso un grassone in calzoni azzurro cielo stava chiudendo la porta con la magnifica flemma che solo i grassi riescono a raggiungere non era solo ma al primo momento guardai solo lui era un uomo di proporzioni generose né giovane né bello però aveva un'aria solida sopra i pantaloni di gabardin portava una giacca da riposo a due colori che sarebbe stata rivoltante su una zebra il colletto della camicia giallo canarino era tutto aperto ma non poteva essere diversamente se doveva permettere a un collo di quelle dimensioni di spuntare fuori l'uomo era capo scoperto e il suo grosso cranio era decorato con un ragionevole quantità di capelli color salmone pallido il naso era stato rotto e rimesso a posto molto bene ma in ogni caso non era mai stato un esemplare da esposizione insieme al grassone c'era una creatura sparuta con gli occhi rossi e il naso intasato circa vent'anni statura 1 e 80 esile come una canna da pesca aveva un tic al naso una alla bocca uno alle mani e pareva molto infelice il grassone mi sorrise con aria brillante il signor marlo vero e chi altri chiesi è un po tardi per una visita d'affari dichiarò lui e aperse le mani nascondendomi mezzo ufficio spero che non ve ne abbiate a male o forse siete troppo impegnato per accettare altri incarichi non prendetemi in giro ho i nervi a pezzi dissi chi è il vostro amico vieni avanti alfred ordinò il grassone al suo compagno e smettila di comportarti come una ragazzina col cavolo borbottò alfred l'omone si rivolse a me con aria placida perché tutti i pivellini continuano a dire così non è divertente non è spiritoso non significa niente un bel problema alfred sono riuscito a fargli smettere la polverina temporaneamente almeno di tanto piacere al signor marlow alfred si impicchi disse alfred il grassone sospirò mi chiamo todd annunciò joseph p todd non fece commenti avanti ridete mi invitò ci sono abituato mi porto dietro questo nome da quando sono nato venne verso di me con la mano tesa la presi e lui mi guardò negli occhi sorridendo amabilmente benissimo alfred disse senza voltarsi alfred esegui quel che mi parve un gesto molto vago e insignificante alla fine del quale mi trovai una grossa automatica puntata addosso attenzione alfred ordinò il grassone tenendo la mia mano in una stretta che avrebbe piegato una putrella non ancora col cavolo disse alfred la pistola puntava contro il mio petto il dito del ragazzo si irrigidì intorno al grilletto io lo guardai contrarsi sapevo di preciso al secondo quando la pressione avrebbe fatto scattare il cane ma mi pareva che non facesse nessuna differenza tutta quella scena stava accadendo altrove in un film di quarto ordine non accadeva a me il cane dell'automatica scattò con un minorino secco sul nulla alfred abbassò la pistola con un verso di disappunto e l'arma sparì per dove era venuta il ragazzo cominciò di nuovo con i suoi tic non vi era stata ombra di nervosismo nel suo modo di manovrare la rivoltella mi domandai quale stupefacente avesse cessato di prendere il ceccione mi lasciò libera la mano sempre con lo stesso sorriso cordiale sul viso rubicondo si diede una pacca su una tasca ce l'ho io il caricatore spiegò c'è stato poco da fidarsi di alfred ultimamente magari vi avrebbe sparato quella carognetta alfred si sedette su una sedia le inclinò contro il muro e si mise a respirare per la bocca io riportai calcagne sul pavimento scommetto che vi ha spaventato disse joseph p todd sentivo un sapore di sale sulla lingua non siete poi così coriaceo affermò todd piantandomi un dito polposo nello stomaco mi tirai da parte per sottrarmi al dito e studiai gli occhi del visitatore andiamo nel mio salotto privato invitai gli voltai le spalle varcai la soglia e andai nell'altro ufficio fu una fatica improba ma ci arrivai sudai per tutto il tragetto girai attorno alla scrivania e rimasi in piedi in attesa il signor todd mi seguì placidamente il tossicomane entrò dietro di lui sempre scosso dai suoi tic non avete in giro qualche fumetto di avventure chiese todd lo tengono tranquillo sedetevi invitai adesso guardo lui posò le mani sui braccioli della poltrona io a persi di scatto un cassetto e strinsi le dita intorno al calcio della luger la sollevai lentamente fissando alfred alfred non mi degnò di uno sguardo stava contemplando un angolo del soffitto e cercava di dominare le contrazioni della bocca più avventuroso di così non ce la faccio dichiarai non vi servirà disse l'omone cordialmente magnifico risposi e mi parve che parlasse un altro molto lontano da dietro un muro udivo a malapena le parole ma se per caso dovesse venire utile eccola qua e questa è carica devo provarvelo il grassone parve preoccupato per quanto poteva esserlo un tipo come lui mi spiace che la prendiate così dichiarò io sono tanto abituato ad alfred che non ci faccio più neanche caso ma forse avete ragione forse dovrei fare qualcosa per lui già avreste dovuto farlo oggi nel pomeriggio prima di venire qui è troppo tardi ormai ma no un momento marlow todd avanzò una mano io le assestai un colpo con la luger lui fu svelto ma non abbastanza col mirino della pistola gli ha persi la pelle sul dorso della mano e il ceccione l'afferrò con l'altra e cominciò a succhiarsi il taglio ehi vi prego alfred è mio nipote e il figlio di mia sorella è un po' sotto la mia responsabilità non farebbe male a una mosca vi do la mia parola la prossima volta che venite a trovarmi terrò una mosca pronta così lui si divertirà a non farle male non fate così signore vi prego non fate così ho una propostina molto simpatica silenzio ordinai mi sentivo la faccia bruciare facevo fatica a parlare chiaro mi pareva ad essere un po' ubriaco un mio amico dissi lentamente con la lingua grossa un mio amico mi ha raccontato la storia di un tale al quale avevano fatto uno scherzo come questo era seduto alla scrivania come me aveva una pistola proprio come ce l'ho io c'erano due uomini dall'altra parte della scrivania come voi e alfred a un certo punto l'uomo dalla mia parte della scrivania ha cominciato a perdere la calma è stato più forte di lui ha cominciato a tremare non è più riuscito a dire una parola e in mano aveva una pistola così senza una parola ha sparato due colpi da sotto lo scrittoio mirando proprio all'altezza del vostro ventre l'omone diventò verdastro in faccia e fece l'atto di alzarsi ma poi cambiò idea trasse di tasca un fazzoletto dei colori strazianti e si asciugò il viso l'avete visto al cinema disse precisamente convenni ma l'uomo che aveva scritto il soggetto mi ha raccontato dove aveva preso l'idea quella non l'aveva trovata in nessun film deposila luger lungo lo scrittoio davanti a me e dissi con voce più naturale dovete fare attenzione con le armi da fuoco signor todd non si può mai sapere che effetto può fare a un uomo vedersi scattare in piena faccia una 45 dell'esercito specialmente se non sa se è carica a me mi ha innervosito un po per un istante non ho più fatto una puntura di morfina dall'ora di colazione todd mi studiò attentamente streggendo gli occhi il giovane alfred si alzò si avvicinò a un'altra sedia la voltò con una pedata si sedette appoggiò la testa unta contro la parete ma il suo naso e le mani non cessarono mai di contrarsi ho sentito dire che eravate un tipo piuttosto duro dichiarò todd lentamente con gli occhi freddi allerta vi hanno informato male sono un ragazzo sensibilissimo per un non nulla vado in convulsioni già capisco todd mi fissò a lungo senza aprir bocca forse questa partita l'abbiamo giocata male posso mettere una mano in tasca non sono armato accomodatevi dissi mi farebbe un piacere immenso vedere che cercate di puntarmi una pistola contro todd si accigliò poi molto lentamente sfilò di tasca un portafogli di cinghiale ne trasse un biglietto da 100 dollari nuovo e frusciante lo depose sull'orlo dello scrittoio poi ne tirò fuori un altro identico poi uno per uno altri tre li depose accuratamente in fila sulla scrivania facendoli combaciare alfred riportò sul pavimento le gambe anteriori della sedia e fissò il denaro con le labbra tremanti cinquecentoni disse todd chiuse il portafogli e se lo ficcò in tasca io seguì con lo sguardo ogni suo singolo gesto per niente solo per badare i fatti vostri chiaro io mi limitai a guardarlo voi non state cercando nessuno proseguì il grassone non riuscite a trovare nessuno non avete tempo di lavorare per nessuno non seguite niente non vedete niente siete fuori da tutto pulito una pulizia da 500 dollari d'accordo nell'ufficio non si udiva alcun suono solo alfred che tirava su col naso l'omone girò il capo a metà sta buono alfred ti darò un pizzico di polverina quando ce ne andremo cerca di fare il bravo e si succhiò di nuovo il taglio sulla mano con voi per modello dovrebbe essergli facile dichiarai impiccati mi invitò alfred vocabolario limitato osservò l'omone molto limitato allora capita l'idea compare mi indico il danaro io pasticciai col calcio della lugger lui si chinò un poco in avanti mettetevi calmo da bravo è molto semplice si tratta di una caparra voi non fate nulla per meritarla non far niente è il vostro compito principale se continuate a non far nulla per un lasso ragionevole di tempo alla fine riceverete altri 500 dollari semplice no per conto di chi non dovrei fare nulla per me joseph p todd che mestiere fate potete chiamarmi consulente commerciale e come potrei chiamarvi ancora oltre agli epiteti che inventerei da me potreste definirmi un tizio che vuole aiutare un tizio che non vuole creare difficoltà a un altro tizio e come posso chiamare quell'ammirevole creatura mi informai joseph p todd riunì le cinque banconote da 100 dollari ne pareggiò bene i margini e spinse il pacchetto verso di me lungo la scrivania potreste chiamarlo un tale che preferisce sparger denaro piuttosto che sangue spiegò però non avrebbe scrupoli a sparger sangue se capisse che non può farne a meno e come se la cava con uno scalpello da ghiaccio lo vedo per mio conto che disastro è con una 45 lomone si addentò il labbro inferiore poi lo tirò all'infuori col pollice e l'indice e ne mordicchiò l'interno delicatamente come una mucca che rumina non stavamo parlando di scalpelli di ghiaccio riprese finalmente stavamo dicendo che voi potreste partire col piede sbagliato e farvi male molto male ma se non partite con nessun piede vi trovate seduto bello comodo e vi arrivano soldi in tasca chi è la bionda domandai lui ci pensò sopra e tentennò il capo forse siete già andato troppo in là sospirò forse è troppo tardi per fare affari dopo un istante si protese verso di me disse con gentilezza e va bene mi metterò in contatto col principale sentirò fin dove vuole spingersi forse possiamo ancora concludere comunque finché non avrete mie notizie restiamo intesi così chiaro quella gliela passai per buona lui puntellò le mani sulla scrivania e si alzò molto lentamente con gli occhi fissi sulla pistola che facevo scorrere sulla cartella i quattrini potete tenerli disse andiamo alfred si voltò e uscì pesantemente dall'ufficio gli occhi di alfred lo seguirono con uno sguardo obliquo poi si posarono di scatto sul denaro come per incanto la grossa automatica riapparve nella sua fragile destra con un guizzo d'anguilla alfred si accostò alla scrivania sempre con la pistola puntata contro di me afferrò le banconote con la mano sinistra se le fece sparire in tasca mi rivolse un sorriso freddo gentile vuoto chinò brevemente il capo e si allontanò a quanto pareva senza rendersi conto per un solo istante che anch'io avevo una rivoltella in mano andiamo alfred chiamò aspremente il grassone dall'ingresso dell'altro ufficio il ragazzo varcò la soglia e sparì l'uscio che dava sul corridoio si aperse e si richiuse lungo l'atrio risuonarono dei passi poi silenzio rimasi seduto al mio posto ripensando alla scena cercando di decidere se si trattava di pure idiozia o era una nuova tecnica per far prendere uno spavento a una persona cinque minuti dopo squillò il telefono una voce robusta simpatica disse oh a proposito signor marlow voi conoscete sherry ballou vero no sheridan ballou e soci il grande agente teatrale dovreste conoscerlo un giorno o l'altro rimasi con ricevitore in mano in silenzio per un momento poi domandai e il suo agente può darsi dichiarò joseph p todd e fece una breve pausa certo avrete capito che siamo una coppia di attori da strapazzo signor marlow ecco tutto due attori da strapazzo qualcuno voleva scoprire qualcosa sul vostro conto e questa era sembrata la via più semplice ora non ne sono tanto sicuro non risposi mesi giù il ricevitore il telefono riprese a suonare immediatamente una voce provocante disse io non vi piaccio molto vero amico certo che mi piacete ma non continuate a tormentarmi sono a casa al cedo bercy mi sento sola fatevi mandar su una dama di compagnia ma vi prego non è il modo di parlare è una questione della massima importanza non ne dubito ma non è di quelle che si trattano nel mio ramo è quella sporcacciona che cosa vi ha detto di me sibilò la ragazza niente o forse vi è chiamata sgualdrinella meticcia vi dispiace la cosa la divertì la sua risatella argentina durò per qualche secondo sempre la battuta pronta voi non è così ma vedete io non sapevo allora che voi foste un investigatore questo fa una grande differenza avrei potuto spiegarle quanto si sbagliava invece dissi soltanto signorina gonzalez avete accennato qualcosa a proposito di affari di che affari si tratta ammesso che non stiate prendendomi in giro vi piacerebbe guadagnare molto danaro una somma enorme di danaro intendete senza farmi prendere a revolverate il suono di un'ispirazione aspra improvvisa giunse lungo il filo sì mormorò lei in tono pensoso c'è anche questo da considerare ma voi siete coraggioso così forte così sarò in ufficio domani mattina alle 9 signorina gonzalez sarò infinitamente più coraggioso domattina ora se volete scusarmi avete un appuntamento è bella più bella di me oh per cristo scattai pensate sempre soltanto a quello crepa tesoro ribatte lei e appese di scatto ricevitore spensi le luci e me ne andai a metà del corridoio incontrai un uomo che stava guardando i numeri aveva un espresso in mano così dovetti tornare in ufficio a riporre la busta in cassaforte e mentre lo stavo facendo suonò il telefono lo lasciai suonare ne avevo abbastanza per un giorno non ne volevo sapere ecco poteva anche essere la regina di saba in pigiama di celofan o senza pigiama ma ero troppo stanco per occuparmene mi sembrava di avere una secchia di sabbia bagnata al posto del cervello il telefono stava ancora suonando quando arrivai alla porta niente da fare dovetti tornare indietro l'istinto fu più forte della stanchezza sollevai ricevitore la vocetta tremula dio fa mai chiesto disse oh signor marlow è tanto tempo che sto cercando di parlarvi sono così sconvolta sono domattina interruppi l'ufficio è chiuso vi prego signor marlow solo perché ho perso la pazienza un momento domattina ma vi dico che devo vedervi la vocina urlava quasi è tremendamente importante importantissimo lei tiro su col naso voi voi mi avete baciata ne ho baciate di meglio da allora all'inferno lei all'inferno tutte le donne ho avuto notizie di orrin questo mi lasciò interdetto per un momento poi scoppiai a ridere siete un'adorabile bugiarda saluti ma è vero mi ha chiamato al telefono qui dove abito ottimo dissi quindi non avete più bisogno di un investigatore e se anche vi occorresse ne avete uno più bravo di me in famiglia io non sono nemmeno riuscito a scoprire dove abitate vi fu una breve pausa se non altro le stavo ancora parlando era riuscita a impedirmi di mettere giù la cornetta questo dovevo riconoscerlo gli avevo scritto dove avrei alloggiato disse orfamai finalmente già solo che la lettera non gli è arrivata perché si è trasferito e non ha lasciato il nuovo indirizzo ricordate riprovate qualche altra volta quando sarò meno stanco buonanotte signorina questa e non è più necessario che mi diciate dove abitate ormai non lavoro per voi benissimo signor marlow sono pronta a chiamare la polizia ora e delitto è una gran brutta parola non credete venite su dissi vi aspetto deposi il ricevitore e tirai fuori la bottiglia del whisky non c'era nessuna traccia di flemma nel mio modo di versare il liquore e di buttarlo giù capitolo 14 entrò con una discreta vivacità questa volta i suoi gesti erano brevi rapidi decisi sorrideva uno di quei sorrisi fragili lustri misurati depose la borsa con fermezza si accomodò nella poltrona destinata ai clienti e continuò a sorridere siete stato molto carino ad aspettarmi disse scommetto che non avete ancora cenato errore risposi ho cenato e ora sto bevendo whisky voi non approvate i bevitori di whisky vero e sicuramente no magnifico esclamai speravo proprio che non aveste cambiato parere deposi la bottiglia sulla scrivania e mi versai un altro cicchetto ne bevi qualche sorso e lanciai un'occhiata poco raccomandabile alla ragazza al di sopra del bicchiere se continuate così non sarete in condizione di ascoltare quel che vi dirò scattò lei a proposito di quel delitto risposi è qualcuno che conosco a quanto vedo voi non siete stata assassinata per ora prego non siate inutilmente macabro non è colpa mia voi avete mostrato di dubitare di me al telefono e ho dovuto convincervi orin mi ha davvero chiamata ma non ha voluto dirmi né dove si trova né cosa fa non so perché voleva che lo scopriste da voi sta cercando di temprarvi il carattere non è una risposta spiritosa e nemmeno intelligente però dovete ammettere che offensiva replicai chi è stato assassinato o è un segreto anche questo lei giocarelo con la borsetta ma non abbastanza per nascondere il suo imbarazzo perché non era imbarazzata però riusci a indurmi a versarmi dell'altro liquore quell'essere disgustoso della pensione è morto il signor il signor ho dimenticato come si chiama dimentichiamolo tutti e due consigliai facciamo qualcosa insieme per una volta tanto lasciai cadere la bottiglia del whisky nel cassetto e mi alzai sentite orfamei io non vi domando come fate a sapere tutto questo o meglio come fa a saperlo orin o se effettivamente lo sa avete trovato vostro fratello è quello che volevate da me forse è stato lui a trovare voi ma a conti fatti è la stessa cosa non è la stessa cosa esclamò vivamente la ragazza non l'ho ritrovato del tutto non ha voluto dirmi dove abita beh se è un posto come l'altra pensione non posso abiasimarlo lei strinse le labbra in una linea dura di disgusto e in fondo non ha voluto dirmi niente di niente vi ha solo parlato di delitti e altre bazzecole del genere diede una risatina che pareva una cascatella l'ho detto per farvi paura non intendevo veramente che avessero assassinato qualcuno signor marlow mi eravate perso così freddo e distante ho temuto che non voleste più aiutarmi e ebbene ho inventato tutto trassi un paio di respiri profondi e mi guardai le mani stesi le dita molto lentamente poi mi alzai in piedi senza una parola siete in collera con me chiese la ragazza timidamente disegnando un circolino con un dito sul piano della scrivania dovrei portarvi via la faccia schiaffi dissi e piantatela di fare l'innocentina altrimenti gli schiaffi non vi arriveranno in faccia lei si muzzò il fiato di colpo ma dico come vi permettete è una battuta che avete già usato replicai anzi l'usate troppo spesso e ora chiudete il becco e levatevi dai piedi credete che mi diverta prendere certi spaventi oh già ecco qua spalanca il cassetto di colpo tirai fuori i suoi 20 dollari e glieli gettai davanti portatevi via questi quattrini fateci un reddito vitalizio per un ospedale un laboratorio di ricerche o qualcosa di simile mi rende nervoso averli in giro la sua mano si posò automaticamente sul denaro dietro le lenti gli occhi erano tondi perplessi o cielo disse raccogliendo la borsetta con graziosa dignità non immaginavo proprio che vi spaventaste tanto facilmente mi credevo un tipo energico è tutta una commedia mugolai girando attorno alla scrivania lei si ritrasse sulla poltrona come per proteggersi da me sono energico solo con le ragazzine come voi che tengono le unghie troppo corte ma dentro sono pura acqua di rose la ferrai per un braccio e la feci alzare di scatto il capo le si rovesciò all'indietro le labbra le si schiusero ero un pericolo pubblico per le donne quel giorno mi troverete or in vero sbisbigliò lei erano tutte bugie tutto quel che vi ho detto erano bugie or in non mi ha telefonato io io non so niente profumo dissi fiutando ma come piccola cara ti sei messa il profumo dietro le orecchie è tutto per me lei accennò di sì col mento pareva che gli occhi le si sciogliessero levami gli occhiali philip sussurrò non mi importa se bevi un po di whisky ogni tanto davvero non mi importa c'erano sì e no dieci centimetri tra i nostri visi avevo paura a levarle gli occhiali paura di darle un pugno sul naso sì dissi con una voce che pareva quella di orson welles con la bocca piena di croccanti te lo troverò dolcezza se ancora vivo è gratis neanche un centesimo di spese in cambio ti chiedo solo una cosa che cosa philip chiese sommessamente e aperse un poco di più le labbra chi è la pecora nera della tua famiglia si strappò da me come una gazzella spaventata ammesso che io spaventi una gazzella e quella si strappi da me poi mi fissò con un viso che pareva di pietra avete detto che orrin non era la pecora nera della vostra famiglia ricordate e con un'enfasi tutta particolare in seguito poi quando avete accennato a vostra sorella lei la avete tirato via alla svelta come se si fosse trattato di un argomento sgradevole io e non ricordo di aver detto niente di simile rispose molto lentamente così io ho cominciato a chiedermi come si fa chiamare vostra sorella leila nel cinema cinema disse con aria vaga ah volete dire nei film ma io non ho mai detto che lavorasse nei film non ho mai detto niente di lei le rivolsi il mio consueto brutto largo sorriso un po' storto improvvisamente lei montò su tutte le furie lasciate stare mia sorella leila mi sgridò come un gatto che soffia non toccate mia sorella leila con le vostre luride insinuazioni quali luride insinuazioni domandai o devo provarmi a indovinare voi pensate soltanto ai liquori alle donne strillò vi odio si precipitò alla porta la perse con violenza e uscì percorse il corridoio esterno quasi correndo tornai alla scrivania e mi lasciai cadere sulla poltroncina una ragazzetta molto strana molto strana davvero dopo qualche istante il telefono suonò come era prevedibile al quarto trillo allungai la mano mi portai ricevitori al viso con un gesto maldestro impresa pompe funebri mckinley dissi una voce femminile esclamò cosa e scoppia in una risata stridula quella battuta aveva avuto un successo travolgente fra i funzionari di polizia nel 1921 che spirito acuto come la punta di un materasso spensi le luci e me ne andai a casa capitolo 15 alle 8 e 45 la mattina seguente ero fermo con la macchina a poca distanza dal negozio di tutto per la foto a bay city tranquillo e con la pancia piena che leggevo il giornale locale attraverso un pan di occhiali neri avevo già spulciato il giornale di los angeles ma non avevo trovato niente a proposito di scalpelli da ghiaccio all'albergo van nice o in qualsiasi altro albergo non dicevano nemmeno morte misteriosa in un albergo del centro senza particolari come i nomi o l'arma usata il news di bay city invece aveva trovato il tempo di occuparsi di un delitto l'aveva messo in prima pagina proprio vicino al prezzo della carne pugnalato un concittadino in una pensione di idaho street nelle tarde ore di ieri una telefonata anonima ha fatto accorrere la polizia in uno stabile di idaho street di fronte al magazzino di legname della ditta scammans e jansing gli agenti trovavano la porta aperta accostata ed entrati nell'appartamento del direttore della pensione lesterby clausen di anni 45 lo rinvenivano morto sul divano clausen era stato pugnalato al collo con uno scalpello da ghiaccio tuttora infisso nella ferita dopo un breve esame preliminare il giudice istruttore frank l crowdy annunciava che clausen aveva ingerito una grande quantità di alcol ed era probabilmente fuori conoscenza al momento del decesso la polizia non riscontrava alcun segno di lotta il tenente moses maglashan della squadra investigativa assumeva immediatamente la direzione delle indagini e procedeva all'interrogatorio degli ospiti della pensione man mano che tornavano dal lavoro fino a questo momento però tali interrogatori non hanno gettato alcuna luce sulle circostanze del delitto intervistato dal nostro reporter il giudice istruttore crowdy ha dichiarato che la morte di clausen potrebbe anche venire considerata un suicidio ma la posizione della ferita tenderebbe a svalutare questa ipotesi e in seguito veniva esaminato il registro degli ospiti della pensione e si scopriva che una rapina era stata strappata di recente il tenente maglashan dopo un esauriente interrogatorio dei pensionati ci ha detto che un uomo tarchiato di mezza età dai capelli scuri ed allineamenti grossolani era stato notato varie volte nei corridoi della pensione però nessuno degli ospiti ne conosceva il nome e l'occupazione dopo un attento esame delle camere il tenente maglashan veniva la conclusione che un ospite se n'era andato nelle ultime ore con una certa fretta la pagina mancante del registro però l'ambiente in cui è avvenuto il fatto e la mancanza di una descrizione precisa del ricercato rendono estremamente arduo il compito di rintracciarlo non ho idea fino a questo momento delle ragioni per cui clausen è stato assassinato ha dichiarato il tenente maglashan a tardanotte però avevo messo gli occhi sul nostro uomo da parecchio tempo e mi è nota l'identità di molti suoi amici è un caso duro ma lo sbroglieremo era un bel servizio e nominava il tenente maglashan solo 14 volte nel testo e altre due volte nelle didascalie delle illustrazioni c'era una foto del tenente a pagina 3 che reggeva uno scalpello da ghiaccio e lo contemplava con profonda concentrazione aggrottando le sopracciglia c'era una foto del numero 449 di idaho street che faceva più che giustizia all'ambiente e c'era la foto di un oggetto in forme coperto da un lenzuolo accanto al tenente maglashan che l'indicava con piglio severo c'era anche un primo piano del sindaco più direttoriale che mai assiso alla sua scrivania in municipio nonché un'intervista con lui sul tema dei delitti post bellici diceva esattamente quel che ci si aspetta di sentir dire da un sindaco una parafrasi annacquata di j edgar over con una congrua aggiunta di errori di grammatica alle 9 meno 3 la porta di tutto per la foto si è perse e un vecchio negro cominciò a spazzare il marciapiedi gettando l'imbondizia nel rigagnolo alle 9 precise un giovanotto occhialuto dall'aria linda sbloccò la molla della serratura e io entrai nel negozio con lo scontrino arancione che il dottor g w ambleton aveva incollato alla parrucca il giovanotto dall'aria linda mi lanciò un'occhiata indagatrice mentre scambiavo lo scontrino e un po di denaro con una busta che conteneva una minuscola negativa e mezza dozzina di copie ingrandite otto volte la negativa non disse una parola ma ebbe l'impressione che ricordasse che non ero stato io a lasciare la negativa uscì mi sedetti in automobile ed esaminai la mia preda le copie mostravano un uomo e una ragazza bionda seduti nel separesse bicircolare di un ristorante con del cibo davanti guardavano in su come se qualcosa avesse attratto improvvisamente la loro attenzione e loro avessero avuto appena il tempo di reagire prima che l'otturatore scattasse era chiaro dalle ombre che non era stato usato il flash la ragazza era mavis weld l'uomo era piuttosto piccolo piuttosto bruno piuttosto inespressivo non lo riconobbi non avevo ragione di riconoscerlo il divano di pelle era cosparso di minuscole figure di coppie che ballavano dunque si trattava del ristorante alle danze questo non faceva che accrescere la confusione un fotografo dilettante che avesse cercato di scattare istantanea in un locale di classe come quello senza il permesso della direzione sarebbe stato buttato fuori con una tale violenza che avrebbe continuato a rimbalzare fino a hollywood immaginai che la foto fosse stata presa macchina nascosta con un trucco come quello che era servito per ritrarre ruth snyder sulla sedia elettrica l'operatore doveva aver avuto una macchinetta fotografica appesa al collo sotto la giacca con l'obiettivo che spuntava appena fra le falde e doveva aver manovrato l'otturatore con una peretta da una tasca non mi fu troppo difficile indovinare chi avesse preso l'istantanea il signor orrin p quest doveva essersi mosso con molta grazia e velocità per essere uscito da quel ristorante con la faccia ancora nella parte anteriore della testa riposi la foto in tasca del panciotto e le mie dita sfiorarono un foglio sgolcito lo tirai fuori e lessi dottor vincent lagardier wyoming street 965 bay city era il vince al quale avevo parlato al telefono forse lo stesso vince che aveva cercato di chiamare lester b clousen un piedipiatti piuttosto in età camminava lungo la fila di macchine ferme marcando i copertoni con un gesso giallo mi disse dove era wyoming street e io mi avviai da quella parte era una via che tagliava perpendicolarmente la città molto al di fuori del centro commerciale e correva parallela a due strade numerate il numero 965 era una casa ad angolo di legno grigio sulla porta una targa diceva vincent lagardier medico chirurgo orario 10 12 14 30 16 la casa era tranquilla e decorosa una donna con un ragazzino recalcitrante stava salendo ai gradini d'ingresso lesse la targa consultò un orologetto appuntato a un risvolto e si mordicchiò un labbro con aria indecisa il ragazzino si guardò attorno attentamente poi le mollò un calcio in uno stinco la donna strabuzzò gli occhi ma parlò con voce paziente su johnny non devi fare così alla tua zia fern aperse la porta e trascinò dentro il piccolo brutto diagonalmente al di là dell'incrocio c'era una grande villa bianca in stile coloniale con un portico ricoperto da un tetto e di gran lunga troppo piccolo nel prato antistante alla casa erano piazzati alcuni riflettori il viale d'accesso era fiancheggiato da cespugli di rose in boccio un insegna nera e argento sopra il portico diceva la casa della pace garland mi chiesi come poteva piacere al dottor lagardier guardare su una cappella funeraria dalle finestre di strada forse la cosa lo rendeva prudente svoltai all'incrocio ritornai a los angeles e salino ufficio a dare un'occhiata alla posta e a chiudere il mio bottino nella vecchia cassaforte verde e malandata riposi tutto meno una copia quella me la portai alla scrivania e la studiai con una lente nonostante l'ingrandimento del fotografo e quello della lente i particolari erano ancora chiari c'era un giornale un news chronicle sul tavolo davanti all'uomo magro e inespressivo che sedeva accanto a mavis weld potevo leggere per quanto a malapena un titolo a tutta pagina muore un medio massimo per ferite riportate sul ring solo un'edizione del pomeriggio una delle ultime edizioni sportive avrebbe usato un titolo del genere tirai il telefono verso di me sono proprio mentre stavo appoggiandovi la mano sopra marlo parla christy french della centrale avete qualche nuova idea da suggerirci questa mattina no se le vostre telescriventi funzionano ho visto un giornale di bei city già siamo stati informati fece lui con non curanza pare lo stesso tizio no stesse iniziali stessa descrizione stesso metodo di morte anche l'elemento tempo pare che quadri spera in dio che questo non significhi che la banda di soul mo stane ha ricominciato a darsi da fare in questo caso ha cambiato tecnica affermai mi sono documentato un po in proposito ieri sera la banda stane aveva l'abitudine di ridurre le sue vittime come colabrodi una è stata trovata con più di cento pugnalate per il corpo possono sempre essersi perfezionati obiettò french con aria di un po evasiva come se non ci tenesse a parlarne ma io vi ho chiamato per via di flac l'avete più visto da ieri pomeriggio no se l'è battuta non si è presentato al lavoro e l'albergo ha chiamato la sua padrona di casa pare che abbia fatto fagotto e se ne sia andato ieri sera destinazione ignota non l'ho visto e non ho avuto sue notizie dissi non vi è sembrato strano che il nostro cadavere avesse soltanto 14 dollari in saccoccia beh un po sì ma poi voi avete spiegato tutto parlavo tanto per parlare ma non ci credo più ora fleck ha preso paura oppure ha fatto soldi di colpo o ha visto qualcosa che non ci ha detto ed è stato pagato per levarsi di torno oppure ha soffiato il peculio il nostro uomo lasciando 14 dollari per dare un tocco di verità alla scena una delle due ipotesi ve la do per buona magari tutte e due la persona che ha perquisito così a fondo quella stanza chiunque fosse non cercava denaro perché no perché quando il nostro dottor embleton mi ha telefonato gli ho consigliato di servirsi della cassaforte dell'albergo la cosa non l'ha interessato è un tipo come lui non vi avrebbe mai assunto per tenergli al sicuro i quattrini comunque affermò french non vi avrebbe assunto per tenergli al sicuro niente aveva bisogno di qualcuno che lo proteggesse oppure gli occorreva un complice magari voleva soltanto un messaggero spiacente replicai a me ha detto solo quello che vi ho riferito e dal momento che quando siete arrivato in albergo era già morto continuò il tenente strascicando la voce con l'esagerata non curanza ben difficilmente avreste potuto dargli il vostro biglietto da visita di ufficio strinsi troppo forte ricevitore rivissi rapidamente il mio colloquio con x nella pensione di town street lo vidi col mio biglietto da visita tra le dita che lo studiava poi vidi me stesso che glielo facevo saltare di mano di scatto prima che ci si addormentasse sopra ispirai profondamente e lasciai andare il fiato a poco a poco ben difficilmente convenne e piantatela di cercare di farmi morire di paura ma ne aveva davvero uno amico piegato in quattro nel taschino dell'orologio dei calzoni sulle prime non ce ne eravamo accorti ho dato un biglietto a fleck dichiarai con labbra rigide vi fu una pausa di silenzio sentivo sullo sfondo delle voci il ticchettio di una macchina da scrivere finalmente french disse in tono asciutto abbastanza plausibile arrivederci a più tardi e mise giù il ricevitore di scatto deposi il ricevitore anch'io molto lentamente sulla forcella e sgranchi le dita che parevano irrigidite da un crampo abbassai gli occhi e fissai la fotografia davanti a me ma mi diceva soltanto che due persone una delle quali mi era nota facevano colazione al ristorante alle danze e il giornale sul tavolo mi diceva la data o perlomeno me l'avrebbe detta chiamai il news chronicle e chiesi la redazione sportiva quattro minuti dopo scrivevo su un blocco d'appunti richie bellù giovane e popolare medio massimo è morto all'ospedale delle buone sorelle poco prima di mezzanotte 19 febbraio in seguito a ferite riportate sul ring la sera prima durante il combattimento principale di un torneo all'hollywood legon stadium la notizia con titolo a tutta pagina è stata data dall'edizione sportiva di mezzogiorno del news chronicle del 20 febbraio chiamai di nuovo lo stesso numero e chiesi di kenny hast in cronaca kenny era un ex reporter di nera che conoscevo da anni parlammo del più e del meno per qualche minuto poi io domandai chi ha seguito l'assassinio di soul moonstein da voi todd barrow è passato al sun dispatch da un po perché vorrei particolari se ce ne sono kenny disse che sarebbe passato in archivio a vedere e mi avrebbe richiamato cosa che fece di lì a 10 minuti gli hanno sparato due revolverate nella testa mentre era fermo nella sua macchina circa due isolati da chuteau bercy in franklin avenue ora 11 e un quarto pomeridiano circa data 20 febbraio corrente anno dissi o mi sbaglio tutt'altro esattissima nessun testimone oculare nessun arresto a parte la solita banda di alibratori agenti di pugilato disoccupati altri sospetti di professione cari alla polizia che cosa c'è sotto non si mormorava che un amico di mo fosse in città circa in quel periodo qui non ne sa nessuno niente di chi si tratta fregna moyer un poliziotto mio amico mi ha detto qualcosa a proposito di un riccone di hollywood fermato per sospetti e poi rilasciato per mancanza di prove aspetta un momento esclamò kenny mi sta tornando in mente qualcosa sì un certo steelgrave padrone di alle danze sospetto ad essere un giocatore d'azzardo e via di seguito o una cara persona me l'hanno presentato ma il fermo è stato un fiasco che cosa vuol dire con fiasco qualcuno ha soffiato alla polizia che steelgrave era fregna moyer e l'hanno fermato per dieci giorni senza un'accusa specifica a disposizione della polizia di cleveland poi cleveland ha detto di lasciar correre che non ne voleva sapere questo non ha niente a che vedere con la fine di stain steelgrave era al fresco quella settimana non c'è nessun legame tra le due cose il tuo amico poliziotto ha letto troppi libri gialli tutti i poliziotti li leggono affermai per questo hanno un vocabolario così truculento grazie kenny ci salutammo e io deposi il ricevitore e rimasi seduto appoggiato allo schianale della poltrona a fissare la fotografia dopo un po presi un paio di forbici ritagliai il pezzo che conteneva il giornale piegato col titolo e infilai due ritagli in due buste separate e me le ficcai in tasca insieme al foglio che avevo strappato dal blocco d'appunti composi il numero di mavis world dopo parecchi squilli mi risposi una voce di donna era una voce remota e formale che forse avevo già udito e forse no tutto quel che disse fu pronto qui è philip marlow è in casa la signorina weld la signorina weld non rincaserà fino a questa sera tardi volete lasciare un messaggio è molto importante dove posso trovarla mi spiace non ne ho idea credete che il suo agente lo sappia è possibile siete sicura di non essere la signorina weld la signorina weld non è in casa e interruppe la comunicazione rimasi seduto e riascoltai la voce dentro di me da principio ero per il sì poi per il no più ci pensavo meno ne sapevo scesi al parcheggio e tirai fuori la macchina capitolo 16 sulla terrazza di alle danze qualche cliente mattiniero stava preparandosi a far colazione a base di liquori il salone all'ultimo piano che aveva un'intera parete di vetro era riparato da un tendone passai oltre e imboccai la curva dello strip e andai a fermarmi di fronte a un edificio a due piani di mattoni rosa carico con delle piccole finestre veranda a vetri bianchi impiombati e un portico greco davanti alla porta d'ingresso nonché un arnese che dall'altro lato della strada mi parvi un antico pomolo da porta in peltro sopra l'uscio c'era uno sfiatatoio a mezzaluna col nome sheridan balu e soci il lettere nere in legno severamente stilizzate chiusi la macchina mi diressi alla porta principale era alta bianca larga e aveva una toppa che avrebbe lasciato passare un topo dentro c'era la vera serratura cerca il batacchio ma avevano pensato anche a quello era tutto d'un pezzo e non bussava affatto era solo un ornamento quindi diedi una pacca una colonna bianca esile molto rastremata ed entrai direttamente nella sala d'aspetto che teneva tutta la parte verso la strada dell'edificio era arredata all'antica con mobili neri e molte sedie divanetti rivestiti di stoffa trapunta simile a cinz alle finestre pendevano tendoni di pizzo inquadrati da volanti di cinz che richiamavano il cinz dei sedili c'era un gran tappeto a fiori e una quantità di persone che aspettavano di vedere il signor sheridan balu alcune di esse erano allegre vivaci e piene di speranza altri avevano l'aria di essere lì da mesi una ragazza piccola e bruna piangeva in un angolo nascondendo il viso nel fazzoletto nessuno le badava ebbi modo di vedere un paio di profili ineleganti prospettive prima che la compagnia decidesse che non ero venuto per comprare e che non ero impiegato lì una rossa dall'aria pericolosa sedeva languidamente dietro una scrivania del settecento e parlava in un telefono candido mi avvicinai e lei mi trafisse con le lame azzurre dei suoi occhi poi fissò la cornice che correva tutto intorno alla stanza no disse al telefono no dolentissima mi spiace ma non è possibile è troppo troppo occupato depose il ricevitore spuntò una voce su un elenco e mi gratificò di nuovo del suo sguardo admantino buongiorno vorrei parlare col signor ballù dissi deponendo sulla scrivania il mio biglietto da visita personale lei lo prese per un angolo e lo lesse sorridendo divertita oggi chiese in tono amabile questa settimana quanto ci vuole di solito beh ci sono voluti anche sei mesi rispose allegramente non può esservi utile qualcun altro no spiacentissima è impossibile provate a ripassare quando vi pare verso novembre portava una gonna di panno bianco una camicetta di seta color borgogna e una giacca molle di velluto nero con le maniche corte i suoi capelli erano un tramonto di fuoco portava un bracciale d'oro e topazzi orecchini di topazzi e un anello di topazzi in forma di scudo le unghie erano esattamente del colore della camicetta aveva l'aria di metterci un paio di settimane a vestirsi devo parlargli insistei la ragazza lesse di nuovo il mio biglietto da visita poi mi rivolse un sorriso sfolgorante tutti debbono parlargli affermò ma perbacco signor marlow guardate questa bella gente sono qui tutti da quando si è aperto l'ufficio due ore fa è importante non ne dubito e perché è importante se è lecito voglio smerciare un po di indecenze la ragazza prese una sigaretta da una scatola di cristallo e l'accese con un accendisigaro di cristallo smerciare volete dire per danaro qui a hollywood può darsi che genere di indecenze non abbiate paura di scandalizzarmi è un po sceno signorina signorina allunga il collo per leggere la targa sulla scrivania ellen greedy mi informò lei beh un pizzico di raffinate oscenità non ha mai fatto male a nessuno vi pare non ho detto che fossero raffinate la rossa si chinò in avanti con cautela e mi soffiò una boccata di fumo in faccia insomma in due parole è un ricatto e trasse un sospiro perché non filate via in quarta a cocco prima che vi metta alle calcagna una dozzina di poliziotti grandi e grossi mi sedetti su un angolo della scrivania mi feci schermo al viso con le mani e le soffiai nei capelli il fumo della sua sigaretta lei si scostò rabbiosamente fuori dai piedi animale mi disse con una voce che sarebbe potuta servire come solvente per vernici oh oh che cosa ne è stato del vostro accento aristocratico senza voltarsi la rossa chiamò seccamente signorina vein una ragazza alta snella elegante dalle sopracciglia altere sollevò lo sguardo era entrata un istante prima da una porta che fingeva di essere un finestrone a vetri colorati ci venne vicino e la signorina grady le porse il mio biglietto sping la signorina vein sparì dietro la porta a vetri col mio biglietto sedetevi e riposate un po i fettoni grand'uomo mi invitò la signorina grady può darsi che dobbiate star qui tutta la settimana mi sedetti su una poltrona di cinz lo schienale mi sorpassava la testa di una ventina di centimetri e mi faceva sentire piccolo e raggrenzito la signorina grady mi regalò un altro sorriso dai bordi taglienti e tornò a chinarsi sul telefono mi guardai attorno la ragazza nell'angolo aveva smesso di piangere e stava rifacendosi il viso placidamente un uomo molto alto e molto distinto sollevò un braccio con un gesto aggraziato per consultare un elegante orologio da polso scivolò in piedi e calzò un cappello omburg grigio perla inclinandolo spavaldamente su un occhio poi lanciò un'occhiata scrutatrice ai propri guanti di camoscio giallo e al bastone dal pomo d'argento e si incamminò languidamente verso la ricevitrice dei capelli rossi sono due ore che aspetto di parlare col signor balù disse in tono gelido con una voce dolce ricca modulata da anni di esercizio non è mia abitudine aspettare due ore per parlare con chi che sia spiacentissima signor fortesca il signor balù è terribilmente occupato questa mattina mi duole non potergli lasciare un assegno dichiarò l'elegantone in tono di stanco disprezzo probabilmente è l'unica cosa che potrebbe interessarlo ma in mancanza di questo un istante pupo la rossa sollevò la cornetta del telefono e protestò nel microfono e chi lo dice oltre a goldwin non potete chiederlo a qualcuno che non sia completamente pazzo beh provate ancora e mise giù il ricevitore di scatto l'uomo alto non si era mosso in mancanza di questo riprese come se non fosse mai stato interrotto vorrei lasciargli un breve messaggio personale ma certo gli disse la signorina gredi vedrò di farglielo pervenire in un modo o nell'altro fategli i miei più sentiti omaggi e ditegli che è una fedita moffetta fate puzzola tesoro consigliò la ragazza lui non sa geologia e allora facciamo puzzola una lurida e fetentissima puzzola replicò fortesca con una piccola aggiunta di idrogeno solforato e di profumo di bordello da poco prezzo si assestò il cappello e lanciò un'occhiata di controllo al proprio profilo in uno specchio e con questo vi auguro il buongiorno e possa sprofondare tutta l'agenzia sheridan baloo e soci l'attore uscì a lunghi passi eleganti aprendo la porta con il bastone ma che cosa gli è preso domandai la rossa mi lanciò un'occhiata piena di pietà a billy fortesca niente da un po di tempo non trova più parti così viene qui ogni giorno e ripete tutta la scena spera che qualcuno la veda e la trovi di suo gusto chiusi la bocca lentamente si può vivere molto tempo a hollywood e non conoscere mai la vera faccia del cinema la signorina vain apparve sulla soglia della porta interna e mi chiamò con un cenno del mento la raggiunsi e varcai la soglia e da questa parte seconda a destra rimase ad osservarmi mentre percorrevo il corridoio fino alla seconda porta che era aperta entrai e la chiusi alle mie spalle un uomo paffuto dai capelli bianchi era seduto dietro una scrivania e mi sorrideva teneramente omaggi disse sono moss spink che cosa mi raccontate di bello parcheggiatevi in quella poltrona sigaretta ha perse un affare che pareva un baule mi fece omaggio di una sigaretta lunga più di una spanna era chiusa in un tubo di vetro no grazie risposi fumo tabacco lui sospirò e va bene parlate vediamo un po vi chiamate marlo 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 ho mai sentito nominare un certo marlo io probabilmente no ribattei e io non ho mai sentito nominare un certo spink ho chiesto di parlare con un tale che si chiama balù vi pare che balù somiglia spink io non sono in cerca di nessun spink è proprio tra noi al diavolo tutti quelli che si chiamano spink antisemita eh chiese il paffuto agitò una mano in un gesto generoso facendo baluginare un brillante paglierino che pareva la luce arancione di un semaforo non fate così mi pregò sedetevi e riordinate un po le idee voi non mi conoscete e dite che non avete voglia di conoscermi d'accordo mica mi offendo in un'impresa come questa deve esserci pur qualcuno che non si offende voglio balù ripetei su siate ragionevole figliolo sherry balù è un ragazzo molto occupato lavora 20 ore al giorno e nonostante questo è sempre in ritardo col programma sedetevi e raccontate tutto al vostro spinkie che cosa siete voi qua dentro la barriera protettiva di sherry figliolo devo per forza proteggerlo sherry non può ricevere tutti e io ricevo la gente in sua vece sono l'alter ego di sherry fino a un certo punto capite può darsi che quanto ho da dirgli io vada da quel punto in poi può darsi convenne spink cordialmente strappo lo spesso cerotto di chiusura da un astuccio di alluminio ne trasse un sigaro quasi con tenerezza e lo studiò in cerca di eventuali nei non dico di no perché non mi date una piccola dimostrazione poi lo sapremmo più di preciso fino a questo momento non avete fatto che recitare una parte e qui ci siamo tanto abituati che non significa più niente per noi rimasi a osservarlo mentre spuntava e accendeva il suo sigaro di lusso come posso essere certo che non gli fate il doppio gioco chiesi con aria astuta i piccoli occhi intensi di spinka mi carano e non avrei potuto giurare che non mi fosse spuntata una lacrima fare il doppio gioco a sherry balù io chiese in tono desolato con una voce sommessa da funerale da 600 dollari io ma farei il doppio gioco a mia madre prima questo non vuol dire molto per me replicai non conosco vostra madre spink depose il sigaro in un portacenere che aveva le dimensioni di una bagnarola e agitò le braccia il dolore lo divorava oh figliolo son cose da dire vaggi io voglio bene a sherry balù come se fosse mio padre anzi di più mio padre beh lasciamo correre su via figliolo siate buono abbiate un po di fiducia siate mio amico raccontate tutta la porcheriola al piccolo spink eh trassi di tasca una busta la feci scorrere verso di lui lungo il piano della scrivania spink ne trasse la foto ritagliata e la fissò con aria solenne poi tornò a deporla sullo scrittoio alzò gli occhi su di me li abbassò sulla foto tornò ad alzarli su di me bene disse rigidamente con una voce che a un tratto priva di fiducia e dell'amicizia che avevo invocato che cos'ha di straordinario questa roba devo dirvi chi è la ragazza chi è l'uomo rimbeccò spink non risposi chi è l'uomo ho detto ripete spink quasi urlando sputate bel giovane sputate il rospo continuai a tacere spink allungò una mano lentamente verso il telefono tenendomi incollati in faccia gli occhietti duri e luminosi avanti chiamateli invitai chiamate la centrale e chiedete del tenente christy french della squadra omicidi e un altro ragazzo piuttosto duro da convincere spink tolse la mano dal telefono si alzò lentamente e uscì portando con sé la fotografia aspettai fuori sul sunset boulevard il traffico rumoreggiava lontano monotono i minuti cadevano silenziosi nel fondo di un pozzo il profumo del sigaro appena acceso di spink giocò nell'aria per un istante poi venne succhiato dal ventilatore dell'impianto d'aria condizionata sfiorai con lo sguardo le innumerevoli fotografie alle pareti tutte dedicate a sherry d'ambaloo con l'imperituro affetto di questo e di quello dovevano essere celebrità passate di moda mi dissi se le avevano messe nell'ufficio di spink capitolo 17 dopo un certo tempo spink ricomparve e mi accennò di seguirlo percorremmo il corridoio attraversammo una doppia porta e arrivamo in un'anticamera con due segretarie da lì raggiungemmo un'altra doppia porta di grosso cristallo nero con due pavoni d'argento incisi nei pannelli mentre ci avvicinavamo i battenti si apersero da soli scendemmo tre gradini coperti da un tappeto e arrivamo in un ufficio che conteneva tutto all'infuori di una piscina era alto due piani e circondato da una balconata carica di scaffali di libri c'era uno stainway da concerto in un angolo una quantità di mobili di cristallo e legno decorato dappertutto una scrivania che aveva le dimensioni di uno sferisterio e sedie divani tavolini e un uomo adagiato su uno dei divani in maniche di camicia con una cravatta all'ultima moda di seta così morbida che la si sarebbe potuta ritrovare al buio solo ascoltandola farle fusa l'uomo aveva un panno bianco sulla fronte e sugli occhi e una bionda snella come un salice stava strizzando un altro panno in una boccia d'argento piena d'acqua di accia posata su un tavolino accanto al divano l'uomo era grande robusto e ben fatto coi capelli neri ondulati e un viso bruno dai lineamenti decisi sotto il panno bianco aveva lasciato ricadere una mano sul tappeto e tra le dita stringeva una sigaretta che esalava un sottile ricciolo di fumo la bionda cambiò il panno abilmente l'uomo sul divano diede un gemito spink disse ecco il ragazzo sherry si chiama marlow l'uomo sul divano gemette di nuovo che cosa vuole non parla e allora perché me l'hai portato sono stanco beh sai com'è sherry ogni tanto devi come hai detto che era il suo dolcissimo nome chiese l'uomo del divano spink si rivolse a me potete dirci quel che volete adesso e cercate di sbrigarvi marlow io non ha persi bocca dopo un istante l'uomo del divano alzò lentamente la mano che posava sul tappeto si portò stancamente la sigaretta alle labbra e aspirò una boccata di fumo con l'infinito languore di un aristocratico decadente che si lascia morire di media in un castello e rovina parlo con voi bel giovane mi apostrofo spink con voce rauca la bionda cambiò di nuovo il panno senza guardare nessuno il silenzio gravava sulla stanza acre come il fumo della sigaretta avanti bel tomo sgancia trassi di tasca una delle mie carnei l'accesi e mi accomodai su una poltrona poi stesi una mano e l'osservai e il pollice si contraeva su e giù lentamente a intervalli di pochi secondi la voce furiosa di spink interruppe la mia contemplazione sherry non ha tutto il giorno da perdere sapete perché che cosa da fare per tutto il resto della giornata mi sentì dire se ne sta adagiato su un divano di raso bianco a farsi dorare le unghie la bionda si voltò di scatto e mi guardò spink spalancò la bocca poi ammiccò violentemente l'uomo sul divano alzò con mano lenta un angolo delle pezzuola la scostò quel tanto che bastava perché un occhio nero pece potesse osservarmi poi il panno ricadde non potete parlare qui così mi investì spink con voce dura mi alzai e dissi ho dimenticato di portare il libro di preghiere è la prima volta che sento dire che il padre eterno lavora su commissione tutti tacquero per un minuto la bionda cambiò di nuovo la pezzuola da sotto al suo panno l'uomo del divano ordinò con perfetta calma fuori dalle scatole angioletti tutti meno il mio nuovo amico spink mi lanciò un'occhiata intensa carica di odio la bionda uscì senza rumore perché non lo sbattiamo fuori a calci nel di dietro chiese spink la voce stanca di sotto alla pezzuola replicò me lo sono chiesto per tanto tempo che ormai il problema non riveste più alcun interesse per me fila benissimo capo fece spink e si ritirò con riluttanza sulla porta si fermò un istante mi lanciò un ultimo ringhio silenzioso e poi scomparve l'uomo sul divano ascoltò l'uscio richiudersi poi disse quanto non avete nulla da comprare l'uomo si tolse la pezzuola dagli occhi la getto da parte si rizzò a sedere lentamente appoggiò le scarpe all'ultima moda fatte su misura sul pavimento e si passò una mano sulla fronte aveva un'aria stanca ma non viziosa tirò fuori da chissà dove un'altra sigaretta l'accese e fissò il pavimento con aria cupa attraverso il fumo avanti disse non so perché abbiate sprecato tutta questa messa in scena per me dichiarai ma immagino abbiate abbastanza cervello da sapere che non potete comprare qualcosa e poi essere matematicamente sicuro che l'acquisto tenga balù prese le foto che sping aveva deposto accanto a lui sul lungo tavolo basso poi mi tese una mano con gesto languido il pezzo mancante e il numero d'attrazione senza dubbio trassi di tasca la seconda busta gli porsi l'angolo ritagliato e l'osservai mentre faceva combaciare i due frammenti con una lente si può leggere il titolo l'informai ce n'è una sulla mia scrivania prego andai alla scrivania e gli portai la lente siete abituato a farvi servire in tutto vero signor balù pago la gente apposta studiò la fotografia attraverso la lente e sospirò mi pare di aver assistito a quella partita dovrebbero avere più cura di quei ragazzi come voi avete cura dei vostri clienti lui mise giù la lente si appoggiò all'indietro per fissarmi con gli occhi freddi per nulla preoccupati questo tipo è il proprietario di alle danze si chiama steelgrave la ragazza è una mia cliente sicuro fece un gesto vago all'indirizzo di una poltrona io mi sedetti che cosa pensavate di chiedere signor marlow perché cosa le copie e la negativa tutta la baracca dieci bigliettoni risposi e gli fissai la bocca la bocca sorrise in maniera piuttosto simpatica sarà necessaria qualche piccola spiegazione supplementare non vi sembra qui io vedo soltanto due persone che mangiano in un locale pubblico non mi pare una situazione disastrosa per la reputazione della mia cliente suppongo che voi pensiate a questo no sorrisi non potete comprare niente signor balù io potrei aver fatto fare una positiva della negativa e una seconda negativa della positiva se questa istantanea serve a provare qualcosa non potrete mai essere certo di averla distrutta non è un sistema astuto di farsi la piazza per un ricattatore osservò balù senza smettere di sorridere mi son sempre chiesto perché la gente paga i ricattatori tanto non può comprare niente eppure li paga in certi casi li continua a pagare per un pezzo e alla fine si ritrova esattamente al punto di partenza la paura di oggi è sempre più forte della paura del domani affermò balù alla base delle emozioni drammatiche sta il fatto che la parte è più grande del tutto voi vedete una stella di prima grandezza sullo schermo correre un pericolo mortale e tremare per lei con una parte della vostra mente la parte emotiva avete paura nonostante la vostra parte razionale sappia che quella è la protagonista del film e quindi non le può succedere niente di grave se l'ansia e l'incertezza non sconfiggessero la ragione avremmo ben pochi drammi verissimo immagino commentai e soffiai in giro un altro po di fumo della mia camel il mio compagno strizzò levemente gli occhi quanto all'essere in grado di far tenere una compravendita riprese se io vi pagassi una grossa somma e poi non ottenessi il valore di quel che ho comprato vi farei servire a dovere vi farei battere come un materasso e all'uscita dall'ospedale se vi sentisti ancora abbastanza aggressivo potreste cercare di farmi arrestare mi è successo affermai sono un investigatore privato so quel che volete dire perché avete consentito a parlarmi balù rise aveva una risata bassa simpatica spontanea sono un agente teatrale il ragazzino io tendo sempre a credere che chi vende tenga qualcosa di riserva ma non è neanche il caso di parlare di 10 bigliettoni la ragazza non li ha guadagna solo mille dollari la settimana per ora però ammetto che tra poco farà quattrine appalate una faccenda come questa la insabbierebbe di colpo osserva indicando la foto niente quattrine appalate niente piscina coi riflettori subacquei niente visione platinato niente nome in caratteri al neon niente di niente tutto in cenere balù scoppiò in una risata sprezzante allora non avete niente in contrario se mostro questa roba ai ragazzi della centrale domandai lui smise di ridere strinse gli occhi e domandò con molta calma perché dovrebbero interessarsene non credo che finiremo col fare affari signor balù dissi alzandomi e voi siete molto occupato vi levo il disturbo la gente si alzò dal divano e si stiracchiò per tutto il suo 1 e 90 di statura era veramente un bel pezzo d'uomo fece qualche passo e venne a piantarsi vicino a me nei suoi occhi nero pece brillavano delle minuscole pagliuzze dorate vediamo chi siete ragazzino mi tese la mano vi lasciai cadere il mio portafogli aperto balù lesse la copia fotostatica della mia licenza trasse qualche altro documento dalle tasche interne del portafogli e li scorse poi mi rese il tutto che cosa succederebbe se mostraste quella graziosa istantanea ai ragazzi della polizia beh innanzitutto dovrei dimostrare che ha un legame con un caso al quale stanno lavorando attualmente un fatto avvenuto all'albergo van nice ieri nel pomeriggio l'esistenza del legame la dimostrerei per mezzo della signorina la quale si rifiuta di discutere con me per questo sto parlando con voi me l'ha detto ieri sera sospirò lui quanto vi ha detto che un investigatore privato un certo marlo aveva cercato di costringerla ad assumerlo spiegandole che era stata vista in un albergo del centro troppo vicino al luogo in cui si era commesso il delitto quanto vicino chiesi non ha precisato figurarsi balù si scostò da me si diresse a un altro vaso cilindrico in un angolo pieno di sottili bastoni di malacca ne scelse uno e si misi a camminare in su e giù facendoselo oscillare abilmente davanti al piede destro tornai a sedermi spensi il mozzicone della sigaretta e trassi un profondo respiro poteva succedere solo a hollywood borbottai lui fece un elegante dietro fronte mi lanciò una rapida occhiata prego avete detto che poteva succedere solo hollywood di vedere un uomo apparentemente in senno camminare su e giù in casa come se stesse passeggiando in piccadilli con un bastone in mano balù annui mi ha attaccato la malattia un regista della metro un uomo affascinante almeno così mi hanno detto si fermò e mi puntò il bastone contro voi mi divertite alla follia marlo sul serio siete così trasparente state cercando di servirvi di me per tirarvi fuori da una grana c'è qualcosa di vero ma la grana in cui mi trovo non è niente al confronto della grana in cui si troverebbe la vostra cliente se io non avessi fatto la cosa che mi ha messo in una grana per un istante balù rimase completamente immobile poi gettò via il bastone si avvicinò a un mobile bar e lo spalancò versò qualcosa in due bicchieri panciuti e me ne portò uno poi tornò indietro prese il suo e andò a sedersi sul divano armagnac spiegò se mi conosceste apprezzereste il complimento questa roba è rarissima al giorno d'oggi se la sono spazzata quasi tutte i tedeschi e i nostri alti papaveri hanno fatto il resto alla vostra si portò il bicchiere alle labbra e beve un sorso infinitesimale io ingollai il mio liquore in un sorso sapeva di cognac francese di buona qualità balù parve scandalizzato santo cielo questa roba la si centellina non la si butta giù di un fiato io la butto giù di un fiato dichiarai spiacente tornando alla ragazza vi avrà certo detto che se qualcuno non mi chiude la bocca a lei si troverà in un mare di guai la gente a noi vi ha anche suggerito il sistema per chiudermi la bocca ho avuto l'impressione che fosse favorevole all'uso di uno strumento contundente così io ho provato un misto di minacce e lusing in questa via abbiamo una ditta specializzata nel proteggere la gente del cinema ma a quanto pare i nostri uomini non sono riusciti a spaventarvi e il prezzo offerto per corrompervi non era sufficiente mi hanno spaventato anche troppo ribattei per poco non li ho minacciati con una lugher il tossicomane con la 45 recita da dio e quanto al danaro che non era sufficiente è una questione di come me lo si offre balù sorseggiò qualche altra goccia di armagnac poi indicò la foto che giaceva di fronte a lui con i due pezzi riuniti siamo arrivati al punto in cui voi andate alla polizia e poi non mi pare che siamo così avanti siamo solo arrivati a chiederci come mai la signorina si rivolta a voi anziché al suo amico tanto più che lui è arrivato mentre io me ne andavo alla chiave di casa a quanto pare ha preferito non dirglielo balù si accigliò e guardò dentro il bicchiere dell'armagnac sono contento dichiarai e lo sarei ancora di più se quel tizio non avesse la chiave di casa la gente alzò gli occhi con un'aria piuttosto triste anch'io tutti noi saremmo più contenti ma l'ambiente artistico è sempre stato così tutti gli ambienti artistici se questa gente non vivesse in una vita intensa e disordinata se non si lasciasse trascinare dalle proprie emozioni in maniera anche eccessiva beh non sarebbero in grado di afferrare queste emozioni al volo e imprimerle su qualche metro di celluloide o ricrearle sulle tavole di un palcoscenico non sto parlando della sua vita sentimentale obiettai dicevo che non era obbligatorio che si prendesse un bandito per amico non ci sono prove di questo marlow puntai un dito contro la fotografia l'uomo che ha preso questa istantanea è sparito e non si riesce a trovarlo probabilmente è morto altri due uomini che abitavano nella sua stessa pensione sono morti uno di loro stava cercando di vendere queste foto poco prima di volare al creatore la signorina è andata di persona al suo albergo per farsene consegnare altrettanto ha fatto colui o colei che l'ha ucciso la nostra amica non ha trovato quel che voleva e neppure l'assassino non sapevano dove cercare voi invece lo sapevate sono stato fortunato avevo visto la vittima senza parrucca nulla di tutto questo si può teoricamente definire una prova forse potreste far tutta una disquisizione per sostenere il contrario ma perché prendersi tanto disturbo sono stati assassinati due uomini tre forse la ragazza ha corso un rischio enorme perché voleva quella fotografia per ottenerla valeva la pena di correre un rischio enorme di nuovo perché rappresenta solo due persone che fanno colazione un certo giorno in cui soul monstein è stato ucciso e rivoltellate in franklin avenue il giorno in cui un certo steelgrave era al fresco perché qualcuno aveva soffiato alla pulizia che lui steelgrave era frigno a moyer un gangster ricercato dalle autorità di gliveland questo dicono i verbali ma la foto ci dice che il nostro uomo non era in gatta buia e rivelando questo di lui in quel giorno particolare ci rivela automaticamente chi è e la ragazza lo sa e steelgrave continua ad avere la sua chiave di casa feci una pausa e restammo a fissarci duramente per qualche minuto poi ripresi voi in fondo non desiderate che i poliziotti vedano quella foto vero per una ragione o per l'altra finirebbero col mettere in croce la ragazza e a cose finite non avrebbe nessuna importanza se effettivamente steelgrave e moyer e se moyer ha assassinato stain o l'ha fatto assassinare da qualcun altro o era semplicemente in libertà perché aveva ottenuto per caso un permesso dalle autorità carcerarie proprio per quel giorno anche se se la cavasse un mucchio di gente continuerebbe a credere che era tutto combinato e la ragazza non se la caverebbe affatto agli occhi del pubblico resterebbe sempre l'amante di un gangster e per quel che riguarda il vostro lavoro sarebbe finita in eterno e senza remissione balu rimase un attimo in silenzio fissandomi con occhi inespressivi e che cosa fareste voi durante tutto lo scompiglio questo dipende in gran parte da voi signor balu che cosa volete infine la sua voce era amare e sottile ora quello che volevo dalla ragazza e non sono riuscito a ottenere qualcosa che mi dia il diritto di agire nel suo interesse e fin dove ritengo di potermi spingere sopprimendo prove chiese balu con un certo sforzo seppure si tratta di prove la polizia non può scoprire la verità senza macchiare la signorina weld io forse posso la polizia non si disturberebbe nemmeno a tentare perché la cosa non le interessa a me invece interessa perché diciamo che il mio modo di guadagnarmi da vivere può darsi che io abbia altre ragioni ma questa è sufficiente e il suo prezzo quello che mi avete offerto ieri sera allora non ho voluto accettarlo ora lo accetto con una lettera firmata in cui mi si incarica di svolgere indagini circa un tentativo di ricatto ai danni di una vostra cliente mi alzai e andai a deporre il bicchiere vuoto sulla scrivania mentre mi chinavo udì un ronzio sommesso girai dietro al mobile spalancai un cassetto un incisore a filo scivolò fuori su una mensola scorrevole il motore era in funzione il sottile cavo d'acciaio correva senza sosta da una spola all'altra mi voltai a guardare balù potete spegnerlo e portarvi via la registrazione mi disse lui non potete biasimarmi se prendo certe precauzioni girai l'interruttore di riavvolgimento il filo cambiò direzione e prese velocità finché arrivò a passare così in fretta che non riuscivo più a vederlo faceva un verso acuto lamentoso come una coppia di invertiti che si azzuffa per una sciarpa di seta può darsi che ne abbiate un altro osservai ma dovrò correre il rischio siete molto sicuro di voi stesso vero marlo vorrei esserlo premete quel bottone in fondo la scrivania vi spiace premetti quel bottone la porta di cristallo nero si aperse dentro una ragazza bruna con un quaderno di stenografia senza guardarla balù incominciò a dettare lettera al signor philip marlowe col suo indirizzo egregio signor marlowe con la presente la nostra agenzia vi affida all'incarico di svolgere indagini su un tentativo di ricatto ai danni di una persona sua cliente secondo i particolari che vi sono stati comunicati a voce il vostro compenso sarà di 100 dollari giornalieri con una caparra di 500 dollari di cui ci favorirete una ricevuta sulla copia della presente lettera eccetera 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 basta così eilin subito prego diedi il mio indirizzo e la ragazza se ne andò trassi di tasca la spola dell'incisore e andai a riporla nel cassetto balù accavellò le gambe e fece oscillare su e giù la punta lustra di una scarpa fissandola attentamente poi si passò una mano tra i capelli neri e crespi uno di questi giorni disse commetterò l'errore che uno del mio ramo teme più di ogni cosa al mondo mi troverò a trattare affari con un uomo di cui potrò fidarmi e sarò troppo schifosamente furbo per fidarmene qua è meglio che la teniate voi e mi porse i due pezzi della fotografia cinque minuti più tardi me ne andai le porte di cristallo si apersero quando ero più di un metro di distanza attraversai la camera con le due segretarie in fondo al corridoio passai davanti alla porta aperta dell'ufficio di spink lì tutto era in silenzio ma potevo sentire l'aroma del suo sigaro nella sala d'aspetto pareva che vi fossero esattamente le stesse persone sedute sulle poltrone di shins la signorina elen grady mi regalò il sorriso delle sere di libera uscita il suo sorriso dei giorni festivi la signorina vain mi occhieggiò con aria radiosa ero stato 40 minuti in compagnia del capo e questo mi rendeva più fatale di un divo alla moda capitolo 18 il poliziotto dello studio seduto a una scrivania chiusa da un cristallo semicircolare depose il ricevitore del telefono e scrisse qualcosa su un blocco d'appunti poi strappò il foglio e me lo porse attraverso la fessura alta non più di due centimetri la sua voce attraverso il microfono incastrato nel vetro aveva un timbro metallico andate dritto in fondo al corridoio disse troverete una fontanella d'acqua potabile in mezzo a un patio george wilson verrà a prendervi grazie risposi questo vetro è a prova di proiettile sicuro perché ero curioso di saperlo non ho ancora sentito che qualcuno si è fatto strada nel cinema revolverate alle mie spalle risuono una risatina soffocata mi voltai e vidi una ragazza in pantaloni con un garofano rosso dietro l'orecchio mi sorrideva oh fratello se bastasse una pistola mi diressi a una porta verde oliva completamente sprovvista di maniglie quando le fui vicino la porta emise una specie di ronzio e mi permise di aprire il battente con una spinta al di là c'era un corridoio verde oliva con i muri nudi e un'altra porta in fondo una trappola per topi se entravate in quel corridoio qualcosa non andava facevano ancora in tempo a fermarvi l'uscio di fondo emise lo stesso ronzio e lo stesso scatto mi domandai come facesse il poliziotto a sapere che era arrivato a destinazione così alzai lo sguardo e vidi i suoi occhi che mi fissavano da uno specchio inclinato come toccai il battente lo specchio si oscurò pensavano proprio a tutto fuori nel sole ardente di mezzogiorno i fiori spiccavano in maniera aggressiva nel piccolo patio dei vialetti di mattoni con uno stagno una panchina di marmo nel mezzo la fontanella era vicino alla panca di marmo un uomo anziano superbamente abbigliato riposava placido sul sedile di marmo e osservava tre boxers fulvi che sterravano belle begonie color tè il suo viso aveva un'espressione di appagamento intenso ma sereno non mi guardò mentre mi avvicinavo uno dei boxers il più grosso gli si accostò e bagnò il marmo della panchina vicino ai suoi calzoni l'uomo si chinò in avanti accarezzò la grossa testa ispida dell'animale il signor wilson domandai l'uomo alzò gli occhi verso di me con aria vaga il boxer medio arrivò trotterellando fiutò la panchina e bagnò dove aveva bagnato l'altro wilson l'uomo aveva una voce pigra con un'ombra di cantilena oh no non mi chiamo wilson perché dovrei scusate andai alla fontanella e mi spruzzai violentamente il viso con uno zampillo mentre mi stavo asciugando il boxer più piccolo fece quel che doveva fare contro la panchina di marmo l'uomo che non si chiamava wilson osservò in tono adorante la fan sempre nello stesso ordine è meraviglioso che cosa domandai pipì rispose l'uomo è una questione di anzanità a quanto sembra sono molto ordinati prima mesi e la mamma poi mec ha un anno in più di gioc il pupo sempre così anche nel mio ufficio nel vostro ufficio chiesi e mai nessuno ebbe un'aria più stupida facendo una domanda l'uomo mi guardò inarcando le sopracciglia biancastre si tolse di bocca un sigaro scuro ordinario ne staccò un'estremità coi denti e la sputò nello stagno non farà molto bene ai pesci osservai il mio compagno mi guardò dal sotto in su io allevo boxer al diavolo i pesci pensai che era l'aria di hollywood accesi una sigaretta e mi accomodai sulla panchina nel vostro ufficio ripetei beh ogni giorno una nuova idea no contro l'angolo della mia scrivania la fanno continuamente le mie segretarie diventano matte rovina il tappeto dicono ma che cosa hanno addosso le donne al giorno d'oggi a me non dà nessun fastidio in un certo senso mi piace quando ci si affeziona ai cani fa piacere guardarli anche quando fanno danno un cane trascinò una pianta di begonia in piena fioritura lungo il vialetto di mattoni e la depose ai piedi del padrone lui la raccattò e la gettò nello stagno i giardinieri si seccheranno immagino osservò mentre tornava a sedersi al diavolo se non sono contenti possono sempre si interruppe di colpo e osservò una snella porta ordini in calzoni gialli compiere una deliberata deviazione allo scopo di attraversare il patio la ragazza gli diede una rapida occhiata e si allontanò muovendo i fianchi con un'armonia quasi musicale sapete qual è il malanno del cinema mi chiese l'uomo nessuno lo sa troppo sesso affermò lui il sesso è un'ottima cosa a tempo e al luogo ma qui ce lo scaraventano addosso a vagoni ci nuotiamo in mezzo ne abbiamo fin sopra i capelli finisce col diventare una specie di carta moschicida si alzò e abbiamo troppe mosche per sopra mercato beh piacere di avervi conosciuto signor marlow dissi temo che non mi conosciate non conosco nessuno dichiarò lui la memoria se ne va mi presentano troppa gente mi chiamo oppenheimer jules oppenheimer l'uomo a noi precisamente prendete un sigaro e me ne porse uno gli mostrai la sigaretta lui gettò il sigaro nello stagno poi si accigliò la memoria se ne va ripete tristemente ho sprecato 50 centesimi non avrei dovuto siete il padrone dello studio oppenheimer a noi con aria assente avrei dovuto risparmiare il sigaro risparmiate 50 centesimi e che cosa avete 50 centesimi risposi domandandomi di che cosa diavolo stesse parlando non nel cinema risparmiate 50 centesimi nel cinema e tutto quello che otterrete sono 5 dollari di spese di ragioneria tacque e fece un cenno ai tre boxers i cani smisero di sradicare quel che stavano sradicando e lo guardarono conviene occuparsi della parte finanziaria riprese io mi occupo solo della parte finanziaria non è difficile andiamo bambini torniamo al vecchio bordello trasse un sospiro 1500 teatri di posa soggiunse dovevo avere di nuovo una faccia da stupido oppenheimer agitò una mano in un gesto largo e mi informò 1500 teatri sono tutto quello che ci vuole è infinitamente più facile che allevare boxers di razza pura l'industria cinematografica è l'unica industria del mondo in cui si possono commettere tutti gli errori possibili e guadagnare ancora danaro deve essere l'unica industria del mondo in cui si possono ottenere tre cani che fanno pipì contro la scrivania bisogna avere 1500 teatri di posa e questo rende un po difficili gli inizi osservai oppenheimer parve compiaciuto sì questa è la parte difficile guardo oltre il prato verde a un edificio a quattro piani che delimitava un lato della piazza ci sono tutti gli uffici là dentro spiegò non ci vado mai non fanno altro che cambiare decorazioni mi fa venire male guardare la roba che qualcuno di quei signori si fa mettere nelle sue stanze i più costosi talenti del mondo date loro quel che desiderano tutti i quattrini che vi chiedono perché non c'è ragione solo abitudine non me ne importa un corno di quel che fanno e non fanno a me basta avere 1500 teatri volete che questa vostra dichiarazione sia citata signor oppenheimer siete un giornalista no peccato solo per il gusto di vedere quel che accadrebbe vorrei che qualcuno cercasse di far stampare sui giornali queste semplici ed elementari verità della vita fece una pausa e sbuffò non le pubblicherebbe nessuno avrebbero paura su andiamo bambini il cane più grosso mesi si avvicinò e andò a fermarsi accanto a lui il cane medio si soffermò a rovinare un'altra begonia poi trotterello accanto a mesi il piccolo gioc si allineò secondo l'ordine poi colto da un'ispirazione improvvisa alzò una gamba contro il risvolto dei calzoni del padrone mesi lo scostò con aria distratta visto esclamò oppenheimer radioso gioca cercato di saltare un turno mesi non ha potuto tollerarlo si chinò e carezzò la testa di mesi la grossa cagna lo fissò con aria adorante gli occhi del vostro cane osservò il vecchio meditabondo gli occhi che non dimenticherete mai si allontanò pigramente lungo il vialetto di mattoni coi tre cani che gli trotterellavano quietamente alle calcagne il signor marlow mi voltai e scopersi che un giovanotto alto coi capelli rossastri e un naso che pareva a una prua era spuntato al mio fianco sono george wilson piacere di conoscervi vedo che siete amico del signor oppenheimer ho fatto quattro chiacchiere con lui mi ha insegnato come si fa a dirigere l'industria cinematografica a quanto pare basta possedere 1500 teatri di posa lavoro qui da cinque anni non sono mai riuscito a rivolgergli la parola e che non vi fate fare pipì addosso dai cani influenti forse avete ragione che cosa posso fare per voi signor marlow vorrei parlare con mavis wilde è sul set sta girando posso vederla sul set per qualche minuto wilson mi parve in dubbio che tipo di lasciapassare vi hanno dato un lasciapassare ordinario credo e glielo porsi lui lo studiò vi manda balù è il suo agente credo che possiamo farcela teatro 12 volete che ci andiamo ora se avete tempo sono l'incaricato dei rapporti dello studio col pubblico il mio tempo è destinato ai visitatori come voi percorremmo il vialetto di mattoni diretti verso due edifici gemelli da lì partiva un viale più lungo di cemento che correva tra i tre atri di posa e le aree per le costruzioni provvisorie lavorate nell'ufficio di balù sono uscito di lì mezz'ora fa un'organizzazione notevole mi hanno detto ho pensato varie volte di tentare anch'io un lavoro del genere qui più che seccature non si ottengono passamo davanti a due puliziotti in uniforme poi imboccammo uno stretto vicolo fra due teatri una bandierina meccanica rossa oscillava in mezzo alla via sulla porta contrassegnata col numero 12 c'era una fanale rosso acceso e sopra di esso un campanello squillava ininterrottamente wilson si fermò accanto alla porta un altro agente seduto su una sedia inclinata contro il muro lo salutò con un cenno e mi guardò da capo a piedi con quell'espressione grigia morta che si forma sui puliziotti come la melma sull'acqua di un serbatoio il campanello e la bandierina smisero di funzionare e il fanale rosso si spense wilson spinse una grossa porta io passai prima di lui nell'interno c'era un altro uscio cammo anche quello e dopo la luce del sole mi parve di essere piombato nell'oscurità più completa poi notai una concentrazione di luci nell'angolo più lontano il resto dell'enorme teatro pareva completamente vuoto ci dirigemmo verso le luci dei riflettori man mano che ci avvicinavamo il pavimento era sempre più ingombro di grossi cavi neri incontrammo una fila di sedie pieghevoli un gruppo di camerini mobili coi nomi sulle porte eravamo sul retro del set e io vedevo soltanto l'impalcatura di legno e due grandi schermi ai lati due macchine per la proiezione intrasparente ronzavano a poca distanza una voce urlò si gira una campana suonò chiassosamente i due schermi si animarono di marine in movimento un'altra voce più calma disse badate alla vostra posizione prego dovremmo finire pressa poco come si vede in questo schizzo avanti azione wilson si fermò di botto mi posò una mano su un braccio le voci degli attori sorsero dal nulla né forti né chiare un murmurio senza importanza e senza significato improvvisamente uno degli schermi del trasparente si spense la voce tranquilla senza cambiare tono ordinò alt la campana suonò e si udì un brusio generale wilson ed io riprendemmo il cammino il mio compagno mi sussurrò in un orecchio se ned gammon non termina questa ripresa prima di colazione finisce col dare un pugno sul naso a torrens oh c'è torrens in questo film dick torrens a quell'epoca era un divo di secondo ordine di ordinaria amministrazione il tipo piuttosto comune ad hollywood dell'attore che nessuno desidera in modo particolare ma che alla fine molti devono scritturare per mancanza di meglio ti spiace ripetere la scena dick chiese la voce tranquilla mentre giravamo l'angolo del set e vedevamo la scena il ponte di un panfilo da di porto vicino a poppa c'erano due ragazze e tre uomini in azione uno era un signore di mezza età in abiti sportivi mollemente adagiato su una poltrona a sdraio uno portava una divisa bianca aveva i capelli rossi e aveva l'aria di essere il capitano della nave il terzo era il navigatore dilettante col berretto all'ultima moda la giacca blu dai bottoni d'oro le scarpe calzoni candidi e il fascino altero quello era torrence delle ragazze una era una bellezza bruna che aveva visto giorni migliori susan crowley l'altra era mavis weld portava un costume da bagno di bianco ryan lucido ed era evidentemente appena salita a bordo un truccatore le stava spruzzando acqua sulla faccia e sulle punte dei capelli biondi torrence non aveva risposto a un tratto si voltò e fissò la macchina da presa credi che non sappia le mie battute un uomo dai capelli grigi e dall'abito grigio avanzò dall'ombra del teatro nel cerchio di luce dei riflettori i suoi occhi bruciavano ma la voce era priva di calore a meno che non le cambi di proposito rispose con gli occhi fissi in quelli di torrence può darsi che io non si è abituato a recitare davanti a un trasparente che ha l'abitudine di esaurire il film a metà ripresa è giusto dichiarò ned gummon il guaio è che nella macchina ci sono solo 150 metri di pellicola e la colpa è mia se tu potessi accelerare un po i tempi oh sbuffò torrence se io potessi accelerare un po forse se si potesse convincere la signorina weld a salire a bordo impiegando un po meno di quel che ci è voluto per costruire la maledettissima nave mavis weld gli lanciò un rapido sguardo greve di disprezzo il tempo della weld è esatto dichiarò gammon e anche la sua interpretazione va bene susan crowley si strinse elegantemente nelle spalle io ho l'impressione che potrebbe metterci un po più di vita va bene ma potrebbe andar meglio se andassi meglio carissima le disse mavis weld con pericolosa dolcezza qualcuno potrebbe dire che recito e tu non vorresti mai che succedesse una cosa simile in un tuo film vero torrence scoppiò in una risata susan crowley si voltò e lo con gli occhi che cosa c'è da ridere signor 13 il viso di torrence si trasformò in una macchiera di ghiaccio ancora quel nome similò o santo cielo vuol dire che non lo sai mormorò susan crowley con aria sognante ti chiamano signor 13 perché ogni volta che fai una parte vuol dire che 12 attori prima di te l'hanno rifiutata vedo fece torrence freddamente poi scoppiò di nuovo a ridere e si rivolse a ned gammon e va bene ned adesso che tutti hanno sputtato fuori il loro veleno forse potremmo recitare come desideri il regista annui non c'è come una piccola pagliacciata per schiarire l'atmosfera benissimo ricominciamo torno dietro la macchina da presa il suo vice gridò si gira e la scena andò liscia come l'olio alt gridò gammon stampate questa intervallo per la colazione per tutti gli attori scesero gli scalini di legno grezzo salutando wilson con un cenno mavis world venne per ultima perché si era fermata ad infilare un accappatoio di spugna e un paio di sandali da spiaggia quando mi vide si fermò di botto wilson fece un passo avanti salve george disse mavis world fissando me ti occorre qualcosa il signor marlow vorrebbe dirti due parole hai tempo il signor marlow wilson mi lanciò un'occhiata rapida e penetrante e dell'ufficio di balù credevo che lo conoscessi può darsi che l'abbia visto stava ancora fissandomi che c'è non ha perso in bocca dopo un istante la ragazza disse grazie george vi conviene accompagnarmi al mio camerino signor marlow si voltò e si diresse verso l'estremità opposta del set contro il muro era appoggiato un camerino bianco e verde sulla porta era scritto miss world quando vi giunse la ragazza tornò a voltarsi e si guardò attorno attentamente poi mi piantò in faccia i suoi splendidi occhi azzurri e adesso signor marlow dunque vi ricordate di me mi pare di sì riprendiamo da dove eravamo rimasti o iniziamo una partita nuova con un mazzo pulito qualcuno vi ha permesso di entrare qui chi perché occorrono spiegazioni io lavoro per voi mi è stata pagata una caparra e la ricevuta la in tasca balù che pensiero gentile e ammesso che io non desideri che voi lavoriate per me qualunque sia il vostro lavoro e va bene fate la spiritosa trasse di tasca la foto di alle danze e gliela porsi lei mi fissò intensamente per un lungo attimo prima di abbassare gli occhi poi guardò l'istantanea che mostrava a lei e steel grave nel separé la guardò gravemente senza un gesto poi molto ad agio alzò una mano e sfiorò le ciocche di capelli bagnati che le ricadevano ai lati del viso ebbe un brivido quasi impercettibile la mano si abbassò prese la foto mavis weld la fissò a lungo poi sollevò di nuovo lo sguardo molto molto lentamente ebbene domandò o in mano la negativa e alcune altre copie le avreste voi ora se aveste avuto più tempo e aveste saputo dove cercare o se lui fosse vissuto abbastanza a lungo per vendervele ho un po freschino mormorò e devo mangiare un boccone e mi porse la foto avete un po freschino e dovete mangiare un boccone ripetei mi parve che la gola le pulsasse ma la luce non era molto buona poi mavis weld abbozzò un sorriso molto vago distante il tocco dell'aristocratica annoiata il senso di tutto questo mi sfugge sospirò passate troppo tempo sui panfili in realtà voi volete dire dal momento che conosco still grave conosco voi che cosa questa foto per indurre tutti a farmi ponti d'oro appunto fece lei che cosa non lo so risposi ma se scoprirlo servirà a farvi smettere queste arie da duchessa lo scoprirò e nel frattempo voi avete ancora freschino e dovete ancora mangiare un boccone e voi avete aspettato troppo mormorò lei tranquillamente non avete più niente da vendere eccetto la vostra vita forse quella la vendo a buon mercato per amore di un paio di occhiali neri di un cappello color per vinca ed una botta in testa con una scarpina attacco alto la bocca le vibrò come se stesse per ridere ma nei suoi occhi non c'era allegria per non contare tre schiaffi in piena faccia aggiunse addio signor marlow siete arrivato troppo tardi troppo troppo tardi per me o per voi allungò una mano dietro di sé e aperse la porta del camerino per entrambi penso ed entrò rapidamente lasciando l'uscio aperto venite dentro e chiudete l'uscio chiamò la sua voce dall'interno obbedì non era un camerino elaborato fatto su ordinazione come quelli delle dive era rigidamente funzionale conteneva un piccolo divano disadorno una poltrona un tavolino da toletta con uno specchio e due lampade e una sedia schienale rigido e su un vassoio quel che avanzava di un caffè mavis weld si chinò infilò nella presa la spina di un radiatore elettrico poi afferrò una salvietta e cominciò ad asciugarsi le punte dei capelli io mi sedetti sul divano e aspettai datemi una sigaretta la ragazza gettò da parte l'asciugamano i suoi occhi erano vicini ai miei mentre le accendevo la sigaretta vi è piaciuta la scena a soggetto che abbiamo improvvisato sullo yacht schifosa siamo tutti degli schifosi alcuni sorridono più degli altri ecco tutto è l'ambiente artistico a qualcosa di meschino lo ha sempre avuto c'è stato un tempo in cui gli attori passavano per la porta di servizio la maggior parte di loro dovrebbe passarci ancora grandi tensioni grandi ansie grandi odi e vengono fuori così in piccole scenate odiose non significano niente chiacchiere da ballatoio mavis weld alzò una mano mi passò un dito lungo la guancia bruciava come un ferro rovente quanto guadagnate marlow 40 dollari al giorno più le spese questo è quel che chiedo ma ne accetto 25 ne ho presi anche meno e pensai ai 20 dollari lisi di orfe mei lei fece di nuovo un gesto col dito io arrivai a non abbracciarla poi si scostò da me e si sedette sulla poltrona stringendosi addosso l'accappatoio il radiatore elettrico stava riscaldando forte la stanza 25 dollari al giorno mormorò con aria pensosa piccoli dollari solitari sono molto solitari come un faro in alto mare a cavallo le gambe e il vago splendore della sua pelle parve riempire la stanza su cominciate l'interrogatorio disse senza far nemmeno il gesto di aprirsi le cosce chi è steelgrave un uomo che conosco da anni e che mi piace da anni possiede varie cose un albergo o due ma da dove venga non lo so però lo conoscete molto bene perché non mi domandate se vado a letto con lui io non faccio certe domande rise e scosse via la cenere dalla sigaretta la signorina gonzalez sarebbe bellietta di dirvelo al diavolo la signorina gonzalez è bruna bella e ardente e molto molto gentile ed esclusiva come un marciapiedi completai che va dall'inferno tornando a steelgrave ha mai avuto grane chi non ne ha avute con la polizia spalancò gli occhi con un'aria un tantino troppo innocente la sua risata era un tantino troppo squillante non siate ridicolo quell'uomo possiede più di due milioni di dollari come li ha guadagnati e come faccio a saperlo e va bene era prevedibile che non lo sapeste quella sigaretta finirà col bruciarvi le dita mi chinai in avanti e le portai via il mozzicone la sua mano giaceva aperta sulla gamba nuda le tocca il palmo con la punta di un dito lei si ritrasse da me chiudendo il pugno non fate così comandò aspramente perché lo facevo alle ragazzine quando andava a scuola lo so le si era accelerato un po il respiro e io mi sento giovane e innocente è come se stessi facendo qualcosa che non devo e ormai ne è passato del tempo da quando ero giovane innocente allora voi non sapete proprio niente di steelgrave vorrei che vi metteste un po di ordine in testa e decideste se mi state facendo la corte un interrogatorio di terzo grado la mia testa non ha niente a che vedere in tutto questo ci fu una pausa di silenzio poi lei disse devo mangiare qualcosa sul serio marlo lavoro nel pomeriggio non vorreste che io svenissi sul set vero solo le dive lo fanno mi alzai e va bene me ne vado non vi dimenticate che lavoro per voi non avrei accettato l'incarico se fossi stato convinto che avevate ucciso qualcuno però eravate là e avete corso un grosso rischio c'era qualcosa che volevate assolutamente lei prese la foto e la fissò di nuovo mordendosi un labbro poi alzò gli occhi senza sollevare il capo beh difficilmente poteva essere questa era l'unica cosa tanto ben nascosta che nessuno è riuscito a trovare ma che senso ha ci siete voi un certo steel grave seduti in un separé di alle danze non c'è nulla di male assolutamente nulla convenne lei quindi deve trattarsi di qualcosa che riguarda steel grave oppure la data abbassò gli occhi di scatto e tornò a studiare la foto non c'è niente qui che indichi la data disse rapidamente sempre che significhi qualcosa a meno che il pezzo tagliato ecco qua le porsi il ritaglio ma vi occorrerà una lente mostrate la steel grave chiedetelo a lui se significa qualcosa o chiedetelo a balù mi incamminai verso la porta non vi fate illusioni la data si può stabilire molto facilmente dissi senza voltarmi e steel grave lo sa benissimo state costruendo un castello di sabbia marlowe davvero mi voltai a guardarla senza sorridere credete proprio no non è possibile voi siete andata ed eravate armata la l'uomo era morto assassinato ed era un noto malvivente e io ho trovato una cosa che la polizia sarebbe felice di sapere che le ho nascosto perché deve essere piena di moventi come l'oceano è pieno di sale finché la polizia non la scopre io conservo la mia licenza e finché non la scopre qualcun altro io non mi trovo uno scalpello da ghiaccio infilato nel collo vi pare che la mia professione sia esageratamente redditizia lei rimase seduta a guardarmi stringendosi una mano su un ginocchio l'altra mano si muoveva ininterrottamente sul bracciolo della poltrona un dito dopo l'altro tutto quel che mi restava da fare era girare la maniglia e uscire non so perché dovesse essere tanto faticoso capitolo 19 nel corridoio davanti al mio ufficio c'era il solito andi rivieni e quando apersi la porta ed entrai nel silenzio ammuffito della piccola sala d'aspetto provai la consueta sensazione di essere stato gettato in un pozzo prosciugato vent'anni prima un pozzo al quale nessuno mai sarebbe più tornato un odore di vecchia polvere incombeva nell'aria greve raffermo come un'intervista con un calciatore apersi la porta interna e nel mio studio trovai la stessa aria morta la stessa polvere nelle imbottiture dei mobili la stessa promessa mancata di una vita di agi apersi le finestre e accesi la radio quando si riscaldò si mise a urlare troppo forte e appena ebbe regolato il volume sentì suonare il telefono come se stesse suonando da un po mi tolsi il cappello e presi il ricevitore era ora di avere sue notizie la sua voce fredda e contenuta annunziò questa volta parlo sul serio prima ho mentito ma ora non mentisco ho avuto davvero notizie di orrin avanti voi non mi credete lo capisco dalla voce dalla mia voce non potete capire niente sono un investigatore avete avuto sue notizie come per telefono da bei city aspettate un momento deposi il ricevitore sulla cartella di cuoio marrone costellata di macchie e accesi la pipa con comodo le bugie sono sempre pazienti poi ripresi il ricevitore questa commedia l'abbiamo già recitata tutta dissi avete poca memoria per la vostra età non credo che il dottor zag smith approverebbe vi prego non mi punzecchiate è una cosa molto seria orrin ha ricevuto la mia lettera è andato all'ufficio postale e ha chiesto la sua corrispondenza sapeva dove avrei alloggiato e pressapoco l'epoca in cui sarei stata qui così mi ha telefonato abita con un dottore che ha conosciuto a bei city fa del lavoro per lui ve l'ho detto che aveva frequentato due anni di medicina questo dottore ha un nome sì un nome strano dottor vincent lagardier un momento per cortesia c'è qualcuno alla porta misi giù il ricevitore con infinita precauzione come se fosse fragile trassi un fazzoletto di tasca e mi asciugai il palmo della mano quella che aveva tenuto il ricevitore mi alzai andai all'armadio a muro e mi guardai nello specchio macchiato ero proprio io avevo un'espressione ansiosa tirata vivevo troppo intensamente dottor vincent lagardier wyoming street 965 a due passi dalla casa della peace garland una palazzina di legno sull'angolo tranquilla paraggi distinti amico del defunto closen forse non a sentir lui ma ugualmente forse tornai al telefono e mi costrinzi a parlare con calma come si scrive domandai lei compitò il nome con facilità e precisione non c'è altro da fare allora no dissi tutto è bello per gli angeli o come diavolo si dice a manattan kansas smettetela di trattarmi così orin è in un guaio serio certi la voce le tremò lievemente il suo respiro mi giunse un po affannoso certi gangster gli danno la caccia non fate la sciocca orfe mei non ci sono gangster a bay city lavorano tutti nel cinema qual è il numero di telefono del dottor lagardier mi diede il numero era esatto non voglio dire che i pezzi del rompicapo cominciassero a combaciare ma perlomeno cominciavano ad aver l'aria di far parte dello stesso rompicapo il che è tutto quello che ottengo di solito o quel che chiedo vi prego andate laggiù a parlargli e aiutatelo ha paura uscire di casa dopo tutto vi ho pagato vi ho dato indietro i soldi beh ve li ho offerti di nuovo voi mi avete più o meno offerto altre cose che sono molto più di quanto possa accettare vi fu di nuovo silenzio d'accordo dissi d'accordo ci andrò se riuscirò a rimanere in libertà per tanto tempo sono in un mare di guai anch'io perché ho detto bugie e ho taciuto la verità sono cose che finisco sempre col pagare ma sono fortunato come certa gente ma io non mentisco philip non mentisco sono fuori di me tirate un respiro profondo e uscite di voi in modo che io possa sentirvi possono ucciderlo disse la ragazza quietamente e in questo frattempo che cosa fa il dottor vincent lagardier lui non lo sa naturalmente vi prego andateci subito ho qui l'indirizzo aspettate un secondo dentro di me squillò un campanello quello che suona l'estremità più lontana del corridoio e che non suona forte ma è bene sentire non importa quanti altri rumori vi siano attorno è bene sentirlo sarà sulla guida telefonica dissi è per strana coincidenza io possiedo una guida telefonica di bay city chiamatemi alle 4 o alle 5 meglio alle 5 deposi in fretta il ricevitore mi alzai e spensi la radio senza aver sentito una sola parola di quel che aveva detto tornai a chiudere le finestre apersi il cassetto della scrivania tirai fuori la mia liuger e indossai la fondina a tracolla mi misi il cappello e mentre mi dirigevo alla porta mi soffermai per darmi un'occhiata allo specchio avevo la faccia di uno che ha deciso di buttarsi a mare capitolo 20 stavano giusto terminando un funerale alla casa della pace un grande carro fune begrigio aspettava la porta di fianco vi erano vari automobili allineate ai lati della strada e tre grandi berline nere di fronte alla palazzina del dottor vincent lagardier un gruppo di persone compute scendeva lungo il viale della cappella funeraria e montava sulle automobili mi fermai a mezzo isolato di distanza e aspettai per ultime uscirono tre persone con una donna velatissima tutta in nero e la condussero quasi portandola a una grande limousine l'impresario di pompe funebri fluttuava in giro facendo tanti piccoli gesti con le mani e col corpo gesti graziose come un finale di chopin il suo viso grigio e composto era così lungo che avrebbe potuto avvolgerselo un paio di volte attorno al collo i necrofori dilettanti portarono il ferretro fuori dalla porta laterale e quelli professionisti li liberarono dal carico e lo fecero scivolare elegantemente nel carro funebre come se non pesasse più di un piatto di frittelle i fiori cominciarono ad ammonticchiarsi sopra la cassa le portiere di vetro si chiusero e i motori si avviarono lungo tutto l'isolato pochi minuti dopo non restava più nulla all'infuori di una berlina all'altro capo della via e dell'impresario di pompe funebri che si era soffermato ad annusare un cespuglio di rose prima di rientrare a contare il malloppo poi con un sorriso radioso svanì oltre l'elegante porta in stile coloniale e il mondo fu di nuovo immobile e vuoto la berlina rimasta non si era mosse percorsi un tratto della strada feci una svolta u e andai a fermarmi dietro la berlina il guidatore portava un abito blu e un berretto molle con la visiera lucida stava facendo il gioco di parole incrociate del giornale del mattino e inforcai un paio di occhiali da sole di specchio trasparente gli passai accanto molto ad agio diretto alla casa del dottor lagardier l'autista non alzò gli occhi quando mi fui allontanato di alcuni metri mi tolsi gli occhiali e inizi di pulirli col fazzoletto captai la sua immagine in una delle lenti di specchio non aveva alzato gli occhi stava semplicemente facendo le parole incrociate e infilai di nuovo gli occhiali e andai alla porta d'ingresso del dottor lagardier il cartello sul battente diceva suonare ed entrare io suonai ma la porta non mi lasciò entrare aspettai suonai di nuovo aspettai di nuovo all'interno era tutto muto poi molto lentamente si è perse uno spiraglio nella porta e un viso magro e inespressivo sopra un uniforme bianca fece capolino e mi guardò mi spiace il dottore oggi non riceve l'infermiera sbatté le palpebre fissando i miei occhiali di specchio non le piacevano dietro le labbra la lingua si muoveva ininterrottamente cerco il signor quest orin p quest chi nei suoi occhi passò un rapido lampo di sorpresa quest q come quintessenziato u come ultraterreno e come extrasensorio s come subliminale t come trallallà mettete tutto insieme e leggete fratello l'infermiera mi guardò come se fossi emerso dal fondo dell'oceano con una sirena annegata sotto il braccio vogliate scusare il dottor lagardier non una mano invisibile la tolse di mezzo e un uomo alto magro dall'aria aspiritata apparve nel vano dell'uscio semi aperto sono il dottor lagardier che c'è prego gli porsi un biglietto da visita lui lo lesse poi mi guardò aveva la faccia bianca tirata di un uomo che aspettava la rovina ci siamo già parlati al telefono dissi a proposito di un certo closen prego entrate invitò frettolosamente non ricordo ma entrate entrai il locale era buio gli scuri abbassati le finestre chiuse era buio e freddo l'infermiera arretrò e andò a sedersi dietro una piccola scrivania era una comune stanza di soggiorno coi serramenti dipinti di bianco serramenti che erano stati scuri un tempo a giudicare dall'età della casa un arco quadrato divideva la stanza di soggiorno dalla sala da pranzo vi erano alcune poltrone un tavolo centrale cosparso di riviste l'insieme aveva l'aria di quel che era la sala d'aspetto di un medico che tiene l'amburatorio in un'ex casa privata il telefono squillò sulla scrivania dell'infermiera lei allungò la mano ma poi si fermò e fissò l'apparecchio dopo un certo tempo gli squilli cessarono che nome avete detto prima mi chiese il dottor lagardier a bassa voce orrin quest sua sorella mi ha detto che lavora per voi dottore sono giorni che lo cerco ieri sera lui le ha telefonato da qui dice la signorina in questa casa non c'è nessuno che si chiami così annunziò educatamente il dottor lagardier non c'è mai stato non lo conoscete nemmeno non l'ho mai sentito nominare non capisco perché abbia detto una cosa simile a sua sorella l'infermiera si asciugò gli occhi furtivamente il telefono sulla sua scrivania gracchiò e la fece di nuovo trasalire non rispondete ordinò il dottor lagardier senza voltarsi aspettammo mentre il telefono suonava tutti aspettano quando un telefono suona dopo un po smise perché non andate a casa signorina watson non avete niente da fare qui grazie dottore la ragazza rimase seduta immobile fissando il piano della scrivania chiuse gli occhi stringendoli forte poi li riaperse sbattendo le palpebre e scosse il capo con aria di sconforto il dottor lagardier tornò a rivolgersi a me andiamo nel mio studio passammo un'altra porta che dava su un corridoio mi pareva di camminare sulle uova l'atmosfera della casa era greve di presentimenti funesti il dottore aperse una porta e mi fece passare in un locale che doveva essere stato una camera da letto solo che ora non faceva più pensare a una camera da letto era lo studio di un medico piccolo raccolto da una porta aperta si scorgeva parte di un gabinetto di consultazione in un angolo funzionava una sterilizzatrice c'era un'enorme quantità di aghi a bollire una bella quantità di aghi osservai pronto come sempre accomodatevi signor merlo il medico andò a sedersi dietro la scrivania e cominciò a giocherellare con un tagliacarte lungo e sottile poi mi guardò dritto in faccia con i suoi occhi dolorosi no non conosco nessuno che si chiami orrin quest signor marlow non riesco a immaginare una sola ragione per cui una persona di questo nome debba dire che si trova in casa mia si nasconde affermai lagardier al sole sopracciglia da che cosa da alcuni individui che potrebbero decidere di punto in bianco di piantargli uno scalpello da ghiaccio nella nuca per il fatto che lui è un po troppo svelto con la leica e scatta foto alla gente che vorrebbe mantenere l'incognito o forse si tratta di qualcos'altro ad esempio il giovane può essersi accorto che qualcuno traffica in paglia o parlo per enigmi siete stato voi a mandarmi qui la polizia disse il medico freddamente non ha perso in bocca siete stato voi a denunziare la morte di closen io dissi esattamente quel che avevo detto prima siete stato voi a telefonarmi per sapere se conoscevo closen e io vi ho risposto di no ma non era vero non ero tenuto a darvi informazioni signor marlow accennai di sì trassi di tasca una sigaretta e la accesi il dottor lagardier diede un'occhiata all'orologio si voltò sulla poltrona e spense la sterilizzatrice guardai gli aghi un mucchio di aghi già una volta bay city aveva avuto dei guai con un tale che bolliva troppi aghi da dove viene gli chiesi dal porto lui riprese tra le dita il suo tagliacarte dall'aria malvagio l'impugnatura d'argento rappresentava una donna nuda lagardier si punse il polpastrello del pollice sulla puntura si formò una perla scura di sangue lui la portò il dito alla bocca e lo lambì mi piace il sapore del sangue disse sottovoce si udì un cigolio lontano come se la porta d'ingresso si aprisse e si richiudesse entrambi ascoltammo con attenzione ascoltammo l'eco dei passi che scendevano ai gradini esterni ascoltammo con orecchie tese la signorina watson è andata a casa annunziò il dottore siamo in casa soli meditò un poco sul fatto e tornò a lambirsi il pollice depose il tagliacarte con cura sulla cartella porta assorbenti ah la domanda del porto riprese pensavate alla vicinanza del messico senza dubbio la facilità con cui la marioana non ci pensavo quasi più alla marioana ormai tornai a fissare gli aghi lui seguì il mio sguardo e si strinse nelle spalle perché tanti aghi domandai e affar vostro niente affar mio però sembra che aspettate una risposta alle vostre domande parlo per parlare affermai mentre aspetto che accada qualcosa sta per accadere qualcosa in questa casa lo sento nell'aria il dottor lagardier lecò via un'altra perla di sangue dal pollice lo fissai intensamente questo non mi ha perse una via nei suoi pensieri era nero chiuso e tranquillo e nei suoi occhi c'era tutta l'infelicità della vita ma continuava a essere gentile lasciate che vi parli degli aghi dissi fate pure riprese in mano la lunga lama sottile basta ordinai duramente mi date i brividi come vedere accarezzare i serpenti lui mise di nuovo giù il tagliacarte con delicatezza e sorrise mi pare che non veniamo mai al punto osservò ci arriveremo ma torniamo agli aghi un paio di anni fa mi è capitato un caso che mi ha portato da queste parti che mi ha fatto conoscere un certo dottor almor abitava in altair street lavorava in maniera strana usciva la notte con una borsa piena di siringhe tutte pronte all'uso cariche di medicina una clientela curiosa la sua ubriachi ricchi tossicomani e ce n'è più di quanti la gente non creda persone sovrecitate che si erano ridotti al punto di non riuscire più a riposare sofferenti d'insonnia tutti tipi di neurotici che non sapevano affrontare la vita a freddo gente che doveva avere la sua pilloletta o la sua punturina nel braccio gente che doveva farsi dare una mano per superare le difficoltà e tutto diventa difficile dopo un certo tempo buoni affari per il medico e almor era appunto il medico di quella gente lo si può dire ormai è morto un anno fa della sua stessa medicina e voi pensate che io abbia ereditato la sua clientela beh qualcuno deve pur averla ereditata finché ci saranno pazienti ci saranno medici la gardie pareva più esausto di prima per me voi siete un asino amico mio non conoscevo il dottor armor non faccio il lavoro di cui l'accusate quanto agli aghi tanto per spiegare questa sciocchezza una volta per tutte i medici li usano continuamente oggigiorno nell'esercizio della loro professione e a volte per medicine innocentissime come le iniezioni di vitamina e gli aghi si spuntano e quando sono spuntati fanno male perciò nel corso di una giornata può capitare di usarne una dozzina e anche di più senza che una sola siringa contenga narcotici al sol lentamente il capo e mi fissò con disprezzo posso sbagliarmi affermai ma dopo aver sentito odore di marijuana in casa di closen ieri e averlo visto comporre il vostro numero al telefono poi averlo sentito che vi chiamava per nome è probabile che tutto questo mi abbia fatto arrivare a una conclusione errata ho avuto a che fare con i tossicomani disse la gardie quale medico non ne ha avuti in cura ma è una completa perdita di tempo a volte riescono a guarire possono avvenire privati dello stupefacente alla fine dopo infinite sofferenze arrivano a farne a meno ma questo non significa guarirli amico mio non significa rimuovere la causa la tara nervosa o sentimentale che ha fatto di loro dei tossicomani significa ridurli a creature inerti negative che se ne stanno sedute al sole a far girare i pollici e muoiono di noia e di naniazione è una teoria piuttosto semplicistica dottore voi avete sollevato la questione io l'ho risolta ora solleverò io un'altra questione forse avrete notato una certa atmosfera di tensione in questa casa l'avrete notata nonostante quegli stupidi occhiali di specchio che ora potete togliervi non vi aiutano affatto a somigliare a gary grant levai gli occhiali me ne ero completamente dimenticato è stata qui la polizia signor marlo un certo tenente maglashan che sta svolgendo indagini sulla morte di closen gli farebbe piacere conoscervi devo chiamarlo sono certo che ritornerebbe volentieri avanti chiamatelo invitai mi sono soffermato qui un istante mentre stavo andando a impiccarmi la sua mano si mosse verso il telefono ma fu attratta da un lato dai poteri magnetici del tagliacarte finì col prenderlo di nuovo non riusciva a lasciarlo stare a quanto sembrava potreste uccidere un uomo con quell'arnese osservai o molto facilmente convenne con un mezzo sorriso affondandolo tre centimetri nella luca proprio in centro sotto lo cipite uno scalpello da ghiaccio andrebbe meglio affermò la gardie soprattutto uno corto e molto affilato non si piegherebbe ma se si manca il midollo spinale non si fa gran danno allora ci vuole un minimo di preparazione medica no trassi di tasca un pacchetto di camel misero e vecchio e districai una sigaretta dal cellophane il medico continuò a sorridere un sorriso molto vago piuttosto triste non il sorriso di un uomo che ha paura potrebbe tornare utile convenne ma chiunque sia dotato di una certa destrezza potrebbe impadronirsi della tecnica in dieci minuti or in questa ha frequentato due anni di medicina disse vi ho detto che non conosco nessuno che si chiami così già ma io non vi ho creduto lui scrollò le spalle ma come sempre gli occhi finirono col posarsi sulla lama siamo due bei tipi noi due affermai ce ne stiamo qui a far la scena del colloquio amichevole come se non avessimo un pensiero al mondo e invece prima di sera saremo entrambi in gattabuia il medico inarcò di nuovo le sopracciglia io continuai voi perché closen vi conosceva abbastanza bene da chiamarvi per nome e può darsi che siate l'ultima persona con la quale ha parlato io perché ho fatto tutte le cose che un investigatore privato non può fare impunemente nascondere prove trattenere informazioni scoprire cadaveri e non presentarmi col cappello in mano ad annunziarlo alla cara incorruttibile polizia di bay city sono finito più che finito ma c'è un profumo selvaggio nell'aria quest'oggi pare che non me ne importi niente o forse sono innamorato così pare che non me ne importi niente avete bevuto disse la gardia lentamente solo chanel numero 5 e baci è il palido splendore di due belle gambe e l'ironico invito di due profondi occhi azzurri cosucce innocenti come queste lui parli più triste che mai le donne possono indebolire terribilmente la volontà di un uomo vero parliamo di closen un alcolizzato senza speranza certo conoscete il tipo bevono continuamente e non mangiano mai e a poco a poco la carenza di vitamine porta al delirium tremens c'è una sola cosa per loro si voltò a guardare la sterilizzatrice punture e poi ancora punture mi fanno sentire sporco sono un laureato alla sorbonne ma esercito in una cittadina piccola e sudicia in mezzo a gente piccola e sudicia perché per un fatto accaduto anni fa in un'altra città non chiedetemi troppo signor marlow closen vi chiamava per nome è un'abitudine comune fra la gente di una certa classe fra gli ex attori special modo e fra gli ex malviventi oh feci è tutto qui tutto qui allora il fatto che sia venuta la polizia non vi preoccupa per via di closen voi avete paura per l'altra cosa quella accaduta altrove tanti anni fa o forse vi tormentate per amore amore parve che la gardiesi lasciasse cadere la parola dalle labbra con infinita lentezza assaporandola fino all'ultimo e dopo la parola sulle labbra rimase un piccolo sorriso amaro come l'odore di polvere nell'aria dopo uno sparo poi il medico si strinse nelle spalle e trasse da dietro lo schedario una scatola da tavolo di sigarette e la spinse verso di me niente amore allora dissi sto cercando di leggervi nel pensiero eccovi qua un uomo con tanto di laura la sorbonne è una clientela ristretta e meschina in una cittaducola meschina e malvagia la conosco bene bei city che cosa fate qui che cosa fate con gli individui come closen di che cosa siete accusato dottore stupefacenti aborti o per caso eravate il medico di una gang in una città dell'est piuttosto movimentata ad esempio chiese con un sorriso fragile ad esempio cleveland un'insinuazione molto arrischiata amico mio la sua voce pareva di ghiaccio ora bestialmente arrischiata convenne ma un tipo dal cervello limitato come me ha la tendenza a cercare di inquadrare le cose che conosce in uno schema prestabilito spesso prende delle cantonate ma è una malattia professionale per me lo schema sarebbe questo se volete ascoltarmi vi sto ascoltando la gardie impugnò di nuovo il tagliacarte punsecchiò delicatamente la cartella sulla scrivania voi conoscevate closen closen è stato ucciso molto abilmente con uno scalpello da ghiaccio ucciso mentre io ero nella sua pensione al piano di sopra a parlare con un piccolo truffatore un certo hicks hicks se l'è battuta a gran velocità portandosi via una pagina del registro degli ospiti la pagina col nome di orrin quest nel tardo pomeriggio hicks è stato assassinato a los angeles con uno scalpello da ghiaccio la sua camera era stata perquisita la ho trovato una ragazza che era andata a comprare qualcosa da hicks ma non aveva trovato niente io ho avuto più tempo per cercare e l'ho trovata ipotesi a closen e hicks sono stati uccisi dalla stessa persona non necessariamente per lo stesso motivo hicks è stato ucciso perché si era intrufolato nei traffici sporchi di un altro soppiantandolo in tronco closen è stato ucciso perché era un ubriacone che blatterava senza controllo e avrebbe potuto riconoscere la persona che aveva deciso di uccidere hicks niente di buono fin qui la cosa non mi interessa minimamente dichiarò il dottor lagardier però mi ascoltate per pura educazione immagino e va bene ora che cosa ho trovato io la foto di una diva del cinema e di un ex gangster di cleveland attualmente proprietario di un ristorante di hollywood che fanno colazione insieme un certo giorno un giorno in cui questo ex gangster era ufficialmente al fresco nella prigione della contea un giorno inoltre in cui un antico complice dell'ex gangster viene ucciso a revolverate in franklin avenue a los angeles perché era al fresco il nostro uomo qualcuno aveva informato la polizia della sua vera identità e dite quel che volete contro la polizia di los angeles ma effettivamente fa di tutto per rispedire al loro paese i banditi dell'est chi aveva fatto la spia alla polizia era stato l'arrestato stesso per vie traverse perché il suo ex socio stava dandogli delle noie e bisognava eliminarlo e trovarsi al fresco al momento del fatto era un alibi di primo ordine tutto fantastico il dottor lagardier abbozzò un sorriso stanco assolutamente fantastico sicuro e lo sarà sempre di più i questurini non riescono a provare niente contro l'ex gangster di cleveland alla polizia di cleveland la cosa non interessa così la polizia di los angeles lo rimette in libertà ma certo non l'avrebbe fatto se avesse visto quella foto ergo la foto è una splendida arma di ricatto anzitutto contro l'ex gangster di cleveland sempre che si tratti di un ex gangster e in secondo luogo contro la diva del cinema che è stata vista in pubblico con lui un elemento abile potrebbe guadagnare una fortuna con quella foto x non è abbastanza abile punto e a capo ipotesi b or in quest il ragazzo che sto cercando è l'autore di quella foto la scattata senza flash e senza che i soggetti se ne accorgessero quest possedeva una leica e gli piaceva far cose di questo genere nel caso specifico però aveva una ragione più commerciale domanda come mai ha avuto la possibilità di fare quell'istantanea risposta la diva del cinema e sua sorella gli avrebbe certo permesso di salire in albergo a parlarle lui era senza lavoro aveva bisogno di danaro è probabile che la ragazza gli abbia dato una certa somma a condizione che non le andasse più tra i piedi non vuole saperne della sua famiglia è sempre assolutamente fantastico dottore lui mi fissò con aria tetra non saprei disse lentamente la cosa comincia a presentare qualche possibilità ma perché mi raccontate questa storia piuttosto pericolosa prese una sigaretta dalla scatola e ne gettò una anche a me con un gesto distratto la ferrai al volo e l'esaminai egiziana ovale spessa un po troppo ricca per il mio sangue non l'accesi rimasi seduto stringendola tra le dita studiando gli occhi neri e malinconici del mio compagno la gardie accese la propria sigaretta e ne aspirò il fumo nervosamente ora ricondurremo tutto a voi annunziai voi conoscevate closen per ragioni professionali dite io gli ho mostrato che era un poliziotto lui ha cercato immediatamente di telefonarvi ma era troppo ubriaco per parlare ho preso nota del numero e più tardi vi ho chiamato per annunziarvi che closen era morto perché se aveste avuto la coscienza a posto avreste chiamato la polizia invece non l'avete fatto perché conoscevate closen potevate benissimo conoscere qualcuno dei suoi pensionanti non ci sono prove né pro né contro punto e a capo ipotesi c voi conoscevate x o or in quest o tutti e due la polizia di los angeles non ha potuto o non ha voluto stabilire l'identità dell'ex gangster di cleveland chiamiamolo col suo vero nome steel grave ma qualcuno doveva essere in grado di farlo se valsa la pena di assassinare della gente per quella foto avete mai esercitato a cleveland dottore sicuramente no la sua voce pareva venire da molto lontano anche il suo sguardo era remoto le labbra si schiusero solo quel tanto che bastava per far passare la sigaretta le gardie era quasi immobile c'è un'intera sala piena di guide nella direzione dei telefoni dichiarai guide di tutta l'america ho cercato il vostro nome avevate uno studio di lusso in un palazzo del centro a cleveland soggiunsi dopo una breve pausa ed ora questo lavorate quasi di nascosto in una cittadina balneare avreste voluto cambiare nome ma era impossibile farlo mantenendo la possibilità di esercitare ci deve essere una mente direttiva dietro gli avvenimenti degli ultimi giorni dottore closen era un alcolizzato x un truffatore ottuso orrin quest un menagrammo gretto e malintenzionato però potevano essere manovrati voi non potevate andare contro steelgrave direttamente non sareste rimasto vivo nemmeno il tempo necessario per pulirvi il naso dovevate levare la castagna dal fuoco con le zampe del gatto zampe piuttosto costose beh abbiamo fatto qualche passo avanti il dottore lagardier mi sorrise debolmente si appoggiò allo schienale della poltrona con un sospiro supposizione di signor marlow disse quasi bisbigliando voi siete un perfetto idiota sorrisi e cercai un fiammifero per accendere la sigaretta egiziana e come se questo non bastasse continuai la sorella di orrin mi telefona e mi dice che il ragazzo è in casa vostra ammetto che sono argomenti ben poco approbativi presi uno per uno però nel complesso ho proprio l'aria di puntare tutti verso di voi e asperai placidamente il fumo della sigaretta il medico mi studiava il suo viso parve fluttuare andare molto lontano poi tornare senti irrigidirmi sì qualcosa nello stomaco il mio cervello rallentò e marciò a passo di tartaruga che cosa sta succedendo mi udì borbottare posai le mani sui braccioli della poltrona e mi tirei su stato idiota eh chiesi con la sigaretta ancora in bocca fumandola ancora idiota non era precisamente la parola dovrò coniarne una nuova mi ero alzato dalla poltrona e avevo i piedi presi in due barili di cemento quando avevo parlato mi era parso che la mia voce mi facesse strada attraverso la bambagia lasciai andare i braccioli e cercai di prendere la sigaretta la mancai in tronco un paio di volte poi riuscì a chiuderle intorno una mano ma non pareva una sigaretta pareva la gamba posteriore di un elefante con le unghie affilate vi si piantavano nella carne scossi la mano e l'elefante ritirò la gamba una figura vaga ma enormemente alta parvi a un tratto di fronte a me e un mulo mi diede una pedata nel petto mi sedetti sul pavimento un po di acido cianidrico disse una voce al telefono transatlantico non è fatale nemmeno pericoloso aiuta soltanto a riposare cercai di alzarmi dal pavimento dovreste provarvi qualche volta ma prima di ti a qualcuno di inchiodare il pavimento quello dove ero io faceva il giro della morte dopo un certo tempo si calmò un poco si stabilizzò a un angolo di 45 gradi mi rimisi in sesto e cercai di andare in qualche posto all'orizzonte c'era una cosa che poteva essere la tomba di napoleone era una meta possibile mi avviai da quella parte il cuore mi batteva forte in fretta e faticavo a far funzionare i polmoni come quando si scoppia giocando al calcio si pensa che il fiato non tornerà mai più mai 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 più poi non era più la tomba di napoleone era una zattera in balia delle onde c'era un uomo sopra una cara persona eravamo andati così bene d'accordo mi incamminai verso di lui e urtai una parete con la spalla questo mi fece girare su me stesso cercai di afferrare qualcosa per sostenermi non c'era nulla all'infuori del tappeto come mai ero arrivato laggiù inutile chiederlo è un segreto ogni volta che fate una domanda di questo genere vi sbattono un pavimento in faccia e va bene cominciai a trascinarmi carponi sul tappeto mi appoggiavo su quelle che un tempo erano state le mie mani e le mie ginocchia ora non le sentivo più mi trascinai verso un muro di legno nero o forse era un marmo nero di nuovo la tomba di napoleone che male avevo fatto a napoleone perché continuava a tirarmi dietro la sua tomba voglio un bicchiere d'acqua dissi ascoltai per sentire l'eco niente eco nessuno disse nulla forse non avevo parlato forse era stata un'idea che poi avevo scartato acido cianidrico sono due parole molto lunghe da rimurginare mentre si sta strisciando in un tunnel niente di fatale aveva detto lui d'accordo si fa per ridere è quel che si può definire semi fatale philip marlow di anni 38 investigatore privato di dubbia reputazione è stato arrestato dalla polizia la notte scorsa mentre stava strisciando attraverso la grande grondaia interplanaria con un piano a coda sulla schiena interrogato al posto di polizia delle alture universitarie marlow ha dichiarato che stava portando il piano al marajà di cuciberar richiesto del perché portasse speroni marlow ha dichiarato che le confidenze del cliente sono sacre marlow è trattenuto in stato di fermo per ulteriori indagini il capo corno secco ha annunziato che la polizia non era disposta a dare altri particolari ai giornalisti che gli chiedevano se il piano fosse accordato il capo corno secco ha risposto che vi aveva suonato sopra il balzer del minuto in 35 secondi per quanto gli constava la cassa armonica non conteneva corde il capo ha lasciato capire che la cassa conteneva qualcos'altro una esauriente comunicato per la stampa verrà emesso entro 12 ore ha promesso bruscamente il capo corno secco ovunque si sussurra che marlow stesse cercando di occultare un cadavere un viso fluttuò verso di me uscendo dall'oscurità cambiai direzione e mi incamminai a quella volta ma il pomeriggio era troppo avanzato e il sole stava tramontando si faceva notte rapidamente il viso non c'era più non c'era più il muro più la scrivania poi non ci fu più il pavimento non ci fu più nulla anch'io non ero più là capitolo 21 un enorme gorilla nero mi aveva piantato in faccia un enorme zampa nera e spingeva cercando di prendermi la nuca io spinsi in direzione opposta sostenere il lato più debole di una questione è sempre stata la mia specialità poi mi accorsi che il gorilla stava cercando di impedirmi di aprire gli occhi decisi di aprirli ugualmente gli altri l'avevano fatto perché io no raccolsi tutte le mie forze con estrema lentezza irrigidendo la spina dorsale flettendo le ginocchia usando le braccia come gomene sollevai il peso mortale delle mie palpebre guardavo il soffitto mentre giacevo supino sul pavimento una posizione in cui mi ero trovato altre volte per motivi professionali voltai il capo mi sentivo il polmone rigidi la bocca secca la stanza era solo lo studio del dottor legardier la stessa poltrona la stessa scrivania le stesse pareti le stesse finestre lo stesso silenzio claustrale gravava nell'aria mi rizzai su un fianco mi tenni saldo al pavimento e scossi il capo il pavimento partì in vite piatte precipitò così per 3000 metri poi riuscì a bloccarlo e a rimetterlo in carreggiata sbattei le palpebre stesso pavimento stessa scrivania stesse pareti ma niente dottor legardier mi omettai le labbra ed emisi una specie di suono molto vago al quale nessuno badò poi mi tirai in piedi ero stordito come un derviscio debole come una lavandaia stanca depresso come il fondo di una marcita timido come uno scricciolo e destinato a riuscire come un danzatore classico con una gamba di legno mi trascinai quasi a tastoni dietro la scrivania del dottor legardier e cominciai a pasticciare nervosamente nel suo armamentario alla ricerca di una bottiglia di fertilizzante liquido niente da fare mi alzai di nuovo il peso del mio corpo era tremendo da sollevare come un elefante morto mi aggirai per la stanza barcollando guardando dentro gli armadietti lustri di smalto bianco che contenevano tutte le cose di cui altri avevano bisogno urgente finalmente dopo quelli che mi parvero quattro anni di lavori forzati la mia mano si chiuse intorno a un mezzo litro di alcol etilico tolsi il tappo dalla bottiglia e fiutai alcol di grano proprio come diceva l'etichetta tutto quel che mi occorreva ora era un bicchiere e un po d'acqua un uomo in gamba avrebbe dovuto farcela puntai verso la porta diretto all'ambulatorio l'aria aveva ancora l'aroma delle pesche troppo mature urtai contro i due stipiti della porta mentre la attraversavo e mi fermai per prendere di nuovo la mira e in quel momento mi accorsi che dei passi si avvicinavano lungo il corridoio mi appoggiai esausto al muro e rimasi in ascolto passi lenti strascicati con una lunga pausa tra l'uno e l'altro sulle prime mi parvero furtivi poi mi parvero solo molto molto stanchi un vecchio che cerca di arrivare per l'ultima volta alla sua poltrona così eravamo in due e in quel momento senza nessuna ragione al mondo pensai al padre di orph may cast sotto il portico della sua casa a manattan kansas che si dirigeva quietamente alla sedia a dondolo con la pipa fredda in mano per guardare fuori sul prato e farsi una bella fumatina economica senza tabacco né fiammiferi e senza sporcare il tappeto del salotto buono gli sistemai la sedia all'ombra in fondo al portico dove le belle di notte erano più folte poi l'aiutai a sedersi lui guardò su e mi ringraziò con la parte non paralizzata del viso le sue unghie graffiarono i braccioli della sedia mentre si appoggiava allo schienale le unghie graffiavano ma non i braccioli di una sedia era un suono reale era vicino sull'uscio chiuso che portava dall'ambulatorio al corridoio era un graffiare mite sommesso come di un gattino molto piccolo che volesse entrare ma sì marlo tu hai sempre voluto bene agli animali va alla porta e lascia entrare il micio mi avviai ce la feci con l'aiuto del lettino da visite il grazioso lettino con tanto di annellini a un capo e i bel insoletti puliti il fruscio era cessato povero micino piccino chiuso fuori e che voleva entrare una lacrima mi si formò negli occhi e corse giù lungo le guance segnate mi staccai dal lettino e feci quattro metri buoni senza inciampi fino alla porta il cuore mi batteva a martello ai polmoni avevano ancora l'aria di essere rimasti in magazzino per un paio danni trassi un profondo respiro afferrei la maniglia e la girai proprio all'ultimo minuto mi venne in mente di tirar fuori la pistola mi venne in mente ma non andai più in là io sono un tipo che ci tiene a portare le idee sotto la luce esaminarle bene prima di accettarle mi parvi un'impresa troppo complicata preferì girare la maniglia e spalancare il battente il ragazzo era aggrappato allo stipite con quattro dita ad artiglio quattro dita di cera bianca aveva gli occhi incredibilmente fondi e sbarrati di un grigio azzurro pallido gli occhi mi guardarono e non mi videro i nostri visi erano a pochi centimetri di distanza i nostri fiati si incontrarono a mezz'aria il mio era affrettato aspro il suo era un mormorio lontano che non ha ancora cominciato a perder colpi dalla bocca gli usciva sangue a bollicine e correva giù lungo il mento qualcosa mi fece abbassare lo sguardo e il sangue gli colava lentamente lungo una gamba dei calzoni sopra una scarpa e dalla scarpa fluiva sul pavimento senza fretta ce n'era già una piccola pozza non riuscivo a vedere dove erano entrati i proiettili il ragazzo batteva i denti come se stesse per parlare o cercasse di parlare ma fu l'unico suono che venne da lui aveva smesso di respirare la mascella gli si allentò poi cominciò il rantolo e non è affatto un rantolo naturalmente non somiglia neppure lontanamente a un rantolo i suoi tacchi di gomma stridettero sul linoleum fra il tappeto e la soglia le dita bianche scivolarono via dallo stipite il corpo cominciò a ripiegarsi sulle gambe le gambe rifiutarono di sostenerlo si apersero a forbice il torso girò a mezz'aria come quello di un nuotatore in un'onda poi il ragazzo mi si balzò addosso nello stesso istante l'altro braccio quello che non era mai stato in vista si alzò sopra la testa e piombò in avanti in una contrazione galvanica dietro la quale pareva non esservi alcuna carica vitale un'ape mi punze fra le scapole qualcosa oltre la bottiglia d'alcol che avevo tenuto in mano fino a quel momento cadde al suolo e rotolo con un rumore secco contro la parete strinsi i denti mi piantai a gambe larghe afferrai il ragazzo sotto le ascelle pesava come cinque uomini feci un passo indietro e cercai di reggerlo era come tentare di sollevare l'estremità di un albero abbattuto caddi col mio carico la testa del ragazzo rimbalzò sul pavimento non potei farci nulla non era presente abbastanza parte di me per impedirlo lo adagiai meglio e mi scostai da lui poi mi inginocchiai ad ascoltare il rantolo cessò vi fu lungo silenzio poi un sospiro soffocato molto quieto indolente senza premura un altro silenzio poi un altro sospiro ancora più lento languido e sereno come il vento d'estate che passa tra gli inchini delle rose qualcosa accadde al suo viso e dietro il suo viso la cosa è indefinibile che invariabilmente accade nell'attimo sempre meraviglioso e inscrutabile in cui tutto si appiana e l'uomo recede negli anni fino all'età dell'innocenza sul viso c'era ora un'ombra segreta di divertimento gli angoli della bocca erano piegati all'insù un'espressione quasi da monello e tutto questo era molto stupido perché io sapevo anche troppo bene che orrin p quest non era mai stato un ragazzo così in lontananza ululò una sirena rimasi in ginocchio ad ascoltare la sirena ululò ancora e se ne andò mi alzai e mi accostai alla finestra laterale a guardare fuori davanti alla casa della pace si stava formando un altro funerale la strada era di nuovo affollata di macchine varie persone risalivano lentamente il viale tra i cespi di rose avanzavano ad agio gli uomini col cappello in mano molto prima di arrivare al minuscolo portico in stile coloniale lasciai ricadere la tendina andai a raccogliere la bottiglia di alcol etilico la ripulico il fazzoletto e la misi da parte l'alcol non mi interessava più ora mi chinai di nuovo e la puntura d'ape tra le scapole mi ricordò che c'era qualcos'altro da raccogliere un oggetto con un'impugnatura cilindrica di legno bianco giaceva contro il bordo della parete uno scalpello da ghiaccio con la lama accorciata lunga non più di sei centimetri lo tenne in controluce e osservai la punta accuminata come un ago forse c'era ancora una macchiolina del mio sangue su quella punta vi passai sopra un dito gentilmente niente sangue la punta era molto pungente lavorai ancora un po di fazzoletto poi mi chinai e deposi lo scalpello sul palmo della mano destra del ragazzo bianca e cerea contro la lana scura e opaca del tappeto ma aveva un'aria voluta fittizia scossi il braccio quanto bastava per far rotolare lo scalpello giù dalla mano sul pavimento pensai di perquisire le tasche ma qualcuno che aveva meno scrupoli di me doveva averlo già fatto preso da un panico improvviso perquisì le mie tasche invece non mancava nulla anche la lugher sotto il braccio mi era stata lasciata la trassi dalla fondina e la fiutai non aveva sparato una cosa che avrei dovuto sapere senza guardare non si va molto in giro quando si è stati colpiti da una lugher scavalcai la pozzanghera rosso cupa sulla soglia e guardai nel vestibolo la casa era ancora muta in attesa le tracce di sangue mi condussero dall'altro capo del corridoio a una specie di salottino maschile c'era un divano una scrivania vari libri e giornali di medicina un portacenere con alcuni grossi mozziconi ovali un luccichio metallico accanto a una gamba del divano si rivelò per un bossolo d'automatica calibro 32 ne trovai un altro sotto la scrivania li raccolsi e me li ficcai in tasca salì al primo piano c'erano due camere da letto entrambe in uso da una erano stati portati via tutti gli indumenti con molta cura in un portacenere trovai altri mozziconi ovali del dottor lagardier la seconda camera conteneva il magro guardaroba di orrin quest il completo di ricambio è un soprabito appesi ordinatamente nell'armadio a muro le camicie i calzini e l'altra biancheria riposti con altrettanto ordine nei tiretti di un cassettone sotto le camicie trovai una leica con un obiettivo f.2 lasciai tutto come stava e tornai a pian terreno nella stanza dove giaceva il morto indifferente a queste quisquilie ripulì qualche altra maniglia per puro scrupolo esitai davanti al telefono della sala d'aspetto e finì per non toccarlo il fatto che io fossi ancora in circolazione indicava con notevole chiarezza che il dottor lagardier non aveva ucciso nessuno alcune persone stavano ancora dirigendosi verso il portico assurdamente piccolo della cappella funeraria all'altro lato della strada nell'interno un organo gemeva girai intorno all'angolo della casa montai in macchina e partì guidai lentamente respirando con tutta la capacità dei miei polmoni ma a quanto pareva non riuscivo a immagazzinare abbastanza ossigeno bay city termina circa 6 chilometri dall'oceano mi fermai all'ultimo bar era giunta l'ora di fare un'altra delle mie telefonate anonime venite a prendervi il cadavere ragazzi chi sono sono un giovanotto fortunato che continua a trovare morti al posto vostro e sono modesto anche non voglio nemmeno che si faccia il mio nome guardai all'interno del bar farmacia attraverso la vetrina una ragazza con gli occhiali obliqui all'orientale stava leggendo una rivista somigliava un po a off my cast senti qualcosa stringermi alla gola innestai la marcia e proseguì la ragazza aveva il diritto di saperlo per prima legge o non legge tanto ormai avevo passato da un pezzo i limiti della legge capitolo 22 mi fermai sulla porta dell'ufficio con la chiave in mano poi avanzai lentamente verso l'altra porta quella che non è mai chiusa a chiave e rimasi immobile in ascolto forse lei era già là ad aspettarmi con gli occhi lustri dietro le lenti oblique e la piccola bocca umida che voleva essere baciata avrei dovuto dirle delle cose dure più dure di quanto avesse mai sognato e poi dopo un certo tempo lei se ne sarebbe andata e non l'avrei più rivista non udì nulla tornai sui miei passi aprì raccolsi la posta e la portai alla scrivania non c'era nulla che mi facesse sentire più grande e più bello la piantai dov'era e andai a girare la chiave nella seratura nell'altro uscio dopo un lungo istante aprì e guardai fuori vuoto e silenzio ai miei piedi giaceva un pezzo di carta ripiegato l'avevano fatto passare sotto la porta lo raccolsi e lo spiegai vi prego di telefonarmi immediatamente in albergo è urgentissimo devo vedervi era firmato di chiamai il numero dalla chatuber si e chiesi della signorina gonzalez chi la desidera prego un momento per cortesia signor marlow bazz 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 pronto l'accento esotico è più forte del solito quest'oggi siete voi amico vi ho aspettato tanto nel vostro curioso ufficetto potete venire qui a parlare con me è impossibile aspetta una visita bene posso venire io da voi di che si tratta niente che si possa discutere per telefono amico venite pure rimasi seduto al mio posto aspettando che il telefono suonasse ma non suonò guardai fuori dalla finestra la folla ribolliva sul boulevard la cucina del caffè vicino e fondeva l'odore del piatto azzurro speciale attraverso le bocchette del ventilatore e il tempo passava e io rimanevo seduto curvo sulla scrivania a fissare l'intonaco giallo senape della parete di fronte e vedendovi sopra la figura indistinta di un ragazzo morente con uno scalpello da ghiaccio in mano e sentendo la punta della sua arma bruciarmi tra le scapole è magnifico quello che hollywood sa fare di una nullità fa una radiosa immagine di bellezza femminile di una donnetta trasandata che dovrebbe starsene a stirare le camicie di un camionista fa un campione di virilità dagli occhi splendenti e dal sorriso luminoso traboccante di sex appeal di un ragazzotto troppo cresciuto che era destinato ad andarsene al lavoro col calderino della colazione di una scelerina del texas dotata della profondità culturale di una protagonista di fumetti umoristici fa una cortigiana internazionale sposata sei volte con sei milionari e tanto decatende al blasé che la sua idea di un brivido consiste nel sedurre il facchino che le trasporta immobili con la canottiera intrisa di sudore e per via mediata hollywood può persino prendere un santificiatur di provincia come orrin quest e farne in pochi mesi un asso dello scalpello da ghiaccio elevando la sua meschina malvagità al sadismo classico del plurio omicida le ci vollero poco più di dieci minuti per arrivare da me sentì la porta aprirsi e chiudersi andai nella sala d'aspetto e la gardenia d'america era là fu come ricevere un pugno in mezzo agli occhi quanto i suoi occhi erano profondi neri e senza sorriso era tutta in nero come la sera prima ma in abito a giacca questa volta con un ampio cappello di paglia nera inclinato audacemente su un occhio dal colletto di una blusa di seta bianca rovesciato sopra il bavero della giacca spuntava il collo agile e bruno la bocca era rossa come una macchina dei pompieri nuova vi ho aspettato per molto tempo si lagnò non ho ancora fatto colazione io ho terminato ora replicai cianuro delizioso ho appena smesso di essere blu non sono in vena di divertimento questa mattina amico non è necessario che mi divertiate io mi diverto da me recito da solo una scena due che mi manda invisibilio alla platea su andiamo di là passammo nel mio pensatoio privato e ci sedemmo vi vestite sempre di nero domandai ma sì è più eccitante quando mi spoglio volete proprio parlare come una sgualdrina voi sapete ben poco delle sgualdrine amico sono sempre estremamente rispettabili eccetto quelle di poco prezzo naturalmente già borbottai grazie per l'informazione quale sarebbe l'affare urgente di cui dobbiamo parlare venire a letto con voi non è urgente posso farlo quando mi pare siete di un umore perfido d'accordo sono di un umore perfido trasse dalla borsetta una delle sue lunghe sigarette brune e l'inserì con cura nelle mollette d'oro aspettò che gliela accendessi io non mi mossi e lei finì per arrangiarsi da sola con un accendisigari d'oro poi reggendo il suo aggeggio nella mano guantata mi fissò con gli occhi neri senza fondo che non ridevano più vi piacerebbe venire a letto con me piacerebbe a tutti o quasi ma lasciamo stare il sesso per ora io non tiro una linea molto definita tra il sesso e gli affari dichiarò tranquillamente e voi non potete umiliarmi il sesso è una rete che mi serve per catturare gli sciocchi alcuni sono utili e generosi di tanto intanto ce n'è uno pericoloso e fece una pausa con aria pensosa io dissi se aspettate che mi lasci sfuggire una frase rivelatrice dalla quale possiate capire se so chi è una certa persona d'accordo so chi è e lo potete provare probabilmente no i poliziotti non ci sono riusciti i poliziotti non sempre dicono tutto quello che sanno fece lei in tono sprezzante non sempre provano tutto quello che potrebbero provare immagino sappiate che è stato in prigione dieci giorni nel febbraio scorso sì non vi è parso strano che non si sia fatto rilasciare dietro cauzione non so di che cosa l'avessero accusato se era trattenuto come testimone indispensabile non credete che avrebbe potuto fare commutare l'accusa in un'altra che permettesse la cauzione se proprio avesse voluto non ci ho pensato molto menti non lo conosco non gli avete mai parlato mi domandò pigramente troppo pigramente non risposi scoppiò in una breve risata ieri sera amico davanti alla casa di mavis weld io ero seduta in macchina dall'altra parte della strada devo essermi imbattuto in lui senza rendermene conto era quello il nostro uomo non me la date a bere e va bene la signorina weld mi ha trattato piuttosto rudemente me ne sono andato fuori dai gangheri sulla soglia incontro un estraneo con la sua chiave di casa gliela strappo di mano e me la butto dietro un cespuglio dopodiché mi scuso e gliela vado a riprendere mi è parso un ometto simpatico oh molto simpatico cantile non lei una volta era il mio amico feci un versaccio per strano che vi possa sembrare la vostra vita amorosa non mi interessa signorina gonzalez ritengo che copra un campo vastissimo da stain a still grave stain chiesi a mezza voce chi è stain un gangster ricercato di cleveland che si è fatto imbottire di piombo di fronte alla vostra casa albergo nel febbraio scorso abitava lì in un appartamentino pensavo che poteste averle incontrato lei diede a una breve risata argentina esistono anche degli uomini che non conosco amico persino il shoto bursi la stampa dice che stain è stato ucciso a due isolati di distanza proseguì io preferisco pensare che il fatto sia accaduto proprio davanti a casa vostra e voi eravate alla finestra e avete visto tutto avete visto l'assassino scappare è proprio sotto un lampione ecco che si volta la luce gli batte in faccia e guarda un po proprio il vecchio still grave voi l'avete riconosciuto per via del naso di gomma e perché portava il suo inseparabile cappello a cilindro coi colombi sopra lei non rise se preferite così mormorò come se facesse le fusa potremmo far più quattrini in questo caso ma still grave era in prigione sorrise la signorina gonzalez e se anche non fosse stato in prigione se anche ad esempio io fossi per caso in amichevoli rapporti con un certo dottor chelmers che in quell'epoca era medico del carcere della contea e se questo dottore mi avesse raccontato in un momento di intimità di aver dato a still grave un lascia passare per andare dal dentista il giorno stesso dell'uccisione di stain con un guardiano naturalmente ma il guardiano era una persona ragionevole anche se put a caso tutto questo fosse vero non sarebbe molto puerile servissi dell'informazione per ricattare still grave detesto fare il grande affermai ma io non ho paura né di still grave né di 12 come lui ma io sì amico un testimone oculare a un assassino tra gangster non si trova in una posizione molto sicura in questo paese no non ricatteremo still grave e non diremo niente a proposito del signor stain che forse ho conosciuto o forse no è sufficiente il fatto che mavis weld sia amica intima di un noto gangster e sia stata vista in pubblico in sua compagnia dovremmo provare che si tratta di un noto gangster non possiamo farlo e come fece una piccola smorfia di disappunto ma io ero sicura che negli ultimi giorni aveste cercato di chiarire questo punto perché per ragioni mie personali per me non hanno alcun senso finché rimangono personali la ragazza gettò il mozzicone bruno della sua sigaretta nel mio portacenere mi chinai in avanti e lo stritolai col fondo di una matita lei mi sfiorò delicatamente la mano col dito guantato il suo sorriso era il contrario di un anestetico si appoggiò all'indietro e accavallò le gambe negli occhi cominciarono a danzarle due fiammelle era passato troppo tempo dall'ultimo tentativo di seduzione per lei amore è una parola così insulsa mormorò in tono meditabondo mi meraviglia pensare che la lingua inglese tanto ricca di poesie dell'amore possa accettare un vocabolo così anacquato per definirlo non ha vita non ha risonanza mi fa pensare alle adolescenti vestite da estate con gli abitini increspati e i sorrisetti rosa e le vocine timide e con tutta probabilità con una biancheria intima desolante non fece commenti senza il minimo sforzo lei cambiò argomento e tornò a occuparsi d'affari d'ora in avanti mavis guadagnerà 75 mila dollari per film e finirà col guadagnarne 150 mila ha cominciato a salire niente la può fermare eccetto forse un brutto scandalo allora qualcuno dovrebbe dirle chi è still grave dichiarai perché non l'avvertite voi e incidentalmente posto che noi avessimo tutte le prove necessarie che cosa farà still grave mentre torchieremo la weld è indispensabile che lo sappia non credo che lei gliene parlerebbe anzi penso che troncherebbe tutti i rapporti con lui ma la cosa per noi non avrebbe nessuna importanza se avessimo la nostra brava prova e se lei sapesse che ce l'abbiamo la mano guantata di nero si mosse verso la borsetta nera poi si fermò presi a tamburellare levemente sul bordo della scrivania e tamburellando tornò in un punto da dove poter ricadere in grembo la signorina gonzalez non aveva guardato la borsa nemmeno io l'avevo guardata può darsi che io abbia qualche obbligo verso la signorina weld dissi alzandomi non ci avete mai pensato lei si limitò a sorridere e in tal caso continuai non vi pare che sarebbe ora di levarvi dai piedi la ragazza sempre sorridendo posò le mani sui braccioli della poltrona per alzarsi io spazzai via la borsetta prima che lei potesse fare un gesto gli occhi le si riempirono di astio fece un verso strano come se soffiasse apersi la borsetta vi frugai dentro e trovai una busta bianca che mi parve vagamente familiare la scossi e venne fuori la foto di alle danze i due pezzi erano stati riuniti e incollati su un altro cartoncino chiusi la borsa e la gettai alla ragazza era in piedi ora con le labbra contratte che lasciavano scoperti i denti era silenziosa come una statua interessante osservai puntando un dito contro la superficie lucida dell'istantanea sempre che non sia un falso un fotomontaggio est il grave questo la risatina argentina squillò di nuovo siete infinitamente ridicolo amico sul serio non sapevo che ne fabbricassero ancora di tipi come voi riserva ante guerra risposi diventiamo più rari ogni giorno che passa dove avete preso questa roba dalla borsetta di mavis weld nel camerino di mavis weld mentre era sul set e lei lo sa non sa niente chissà da chi l'ha avuta da voi ma fate il piacere esclamai narcando esageratamente le sopracciglia e dove l'avrei presa io la visitatrice mi tese la mano guantata al di sopra della scrivania rendetemela prego la sua voce era fredda la renderò alla signorina weld e mi si spezza il cuore a dirvelo signorina gonzalez ma io non farò mai carriera come ricattatore sono sprovvisto di magnetismo personale rendetemela comandò in tono aspro altrimenti si interruppe di colpo io aspettai che finisse i suoi lineamenti delicati si composero in una maschera sprezzante benissimo riprese l'errore è stato mio credevo che foste un tipo in gamba ma ora vedo che siete uno dei soliti piedi piatti senza cervello questo ufficio piccolo e miserabile fece un gesto circolare con la mano guantata di nero la piccola miserabile vita che si vive qua dentro avrebbero dovuto dirmelo che specie di idiota siete ve lo dicono lei si voltò lentamente si incamminò verso la porta girai attorno alla scrivania la signorina gonzalez mi permise di tenerle aperto il battente uscì molto lentamente e il modo in cui lo fece non l'aveva imparato alle scuole commerciali percorse il corridoio esterno senza voltarsi mai aveva un magnifico passo la porta rimbalzò contro la molla chiusa automatica poi molto sommessamente la serratura scattò mi pare che ci mettesse degli anni rimasi immobile a guardarla come se non l'avessi mai vista prima a far così poi mi voltai per tornare alla scrivania e in quella suonò il telefono alzai il ricevitore e risposi era christy french marlo vorremmo che faceste un salto qui alla centrale immediatamente anche prima ribatte lui e interruppe la comunicazione trassi la foto di sotto la cartella e andai a riporla nella cassaforte insieme alle altre poi mi misi il cappello e chiusi la finestra non c'era nulla da aspettare guardai la punta verde della lancetta dei secondi sul mio orologio mancava ancora molto alle 5 la lancetta percorreva il quadrante senza sosta come un commesso viaggiatore che va di casa in casa le sfere delle ore segnavano le 4 e 10 avrebbe già dovuto chiamare la ragazzina levai la giacca mi sfilai la fondina a tracolla e la chiusi a chiave nel cassetto della scrivania insieme alla luger i poliziotti non ci tengono che giriate armato nelle loro acque territoriali anche se avete il diritto di farlo a loro piace che vi presentiate tutto umile come si conviene col cappello in mano la voce educata e sommessa e gli occhi pieni di nulla guardai di nuovo l'orologio rimasi in ascolto il palazzo pareva molto tranquillo nel pomeriggio di lì a poco sarebbe stato silenzioso del tutto e allora la madonna dello strofinaccio grigio sarebbe arrivata lungo il corridoio strascicando i piedi e tentando le maniglie tornai a infilarmi la giacca chiusi la chiave la porta di comunicazione staccai il campanello e uscii nell'atrio e proprio allora il telefono suonò per poco non strappai l'uscio dai cardini per correre a rispondere era proprio la ragazzina ma la sua voce aveva un tono che non avevo mai sentito prima un tono freddo equilibrato ma non opaco né vuoto né assente e nemmeno infantile era la voce di una ragazza che non conoscevo e che pure conoscevo il significato di quella voce lo seppi prima che avesse pronunciato tre parole vi ho chiamato perché mi avete detto di farlo esordì ma non dovete dirmi nulla sono stata là reggevo ricevitore con tutte e due le mani siete stata la ripetei sì ho sentito e poi mi sono fatta prestare una macchina e mi sono fermata dall'altra parte della via c'erano tanti automobili che non avreste mai potuto notarmi c'è un'impresa di pompe funebri lì accanto non vi stavo pedinando ho cercato di seguirvi quando siete uscito ma non conosco le strade da quelle parti e vi ho perduto così sono tornata là perché a dire il vero non lo so ma mi è parso che aveste un'aria strana quando siete uscito da quella casa o forse ho avuto un presentimento e in fondo si trattava di mio fratello così sono tornata là e ho suonato il campanello e nessuno è venuto ad aprirmi anche questo mi è sembrato strano forse sono telepatica o qualcosa di simile e a un tratto mi è parso di dover entrare in quella casa a tutti i costi e non sapevo come farlo ma dovevo assolutamente è successo anche a me dissi ed era la mia voce ma qualcuno aveva usato la mia lingua come carta vetrata allora ho telefonato alla polizia ho detto che avevo sentito degli spari continuò lei e la polizia è arrivata e un agente è entrato in casa per una finestra e poi ha fatto entrare l'altro per la porta dopo un po hanno chiamato dentro anche me e dopo non volevano più lasciarmi andare ho dovuto dire tutto chi era lui e che avevo mentito a proposito degli spari ma avevo avuto paura che fosse accaduto qualcosa di male a oren e ho dovuto parlare di voi anche niente di male la rassicurai avevo già intenzione di dire tutto la polizia non appena avessi avuto modo di comunicare con voi è una situazione piuttosto imbarazzante per voi vero sì vi arresteranno qualcosa di simile può darsi l'avete lasciato là per terra morto ci siete stato costretto immagino avevo le mie ragioni affermai forse non vi parlano molto buone ma ne avevo e per lui la cosa non aveva importanza o certo avevate le vostre ragioni disse siete molto abile voi avete sempre una ragione per tutto bene immagino che le dovrete dire alla polizia le vostre ragioni beh non necessariamente o sì dovrete insiste la voce con una nota di piacere che non seppi spiegarmi certo che dovrete vi costringeranno inutile discutere ribattei nel mio mestiere si fa quel che si può per proteggere il cliente a volte si fa un tantino troppo in là come ho fatto io sono andato a mettermi in una posizione vulnerabile ma non l'ho fatto unicamente per voi l'avete lasciato là per terra morto ripete la ragazza e non bene importa di quel che vi faranno se vi metteranno in prigione credo che sarò contenta scommetto che vi mostrerete superbamente coraggioso sicuro affermai sempre un allegro sorriso nelle avversità avete visto che cosa aveva in mano vostro fratello non aveva in mano niente beh vicino alla mano non c'era niente niente di niente che cosa doveva esserci magnifico esclamai mi fa molto piacere beh addio vado alla centrale ora vogliono parlarmi buona fortuna se non vi vedrò più vi conviene tenervela la vostra buona fortuna ribatte lei può darsi che ne abbiate bisogno e in ogni caso io non la voglio ho fatto del mio meglio per voi forse mi aveste detto qualcosa di più in principio lei interruppe la comunicazione mentre stavo parlando deposi il ricevitore sulla forcella gentilmente come se fosse stato un bambino in fasce trassi di tasca un fazzoletto e mi asciugai le palme delle mani poi andai al lavabo a lavarmi mi spruzzai il viso d'acqua fredda l'asciugai strofinandolo duramente con la salvietta e mi guardai nello specchio ti sei proprio buttato a mare dissi alla faccia che mi fissava capitolo 23 nel centro della stanza c'era un lungo tavolo giallo di quercia ai bordi aveva una serie irregolare di bruciature di sigarette dietro di esso con una quantità di scartoffie disordinate sotto il naso stava il tenente fred beifus della squadra investigativa alle spalle del tenente una finestra con i vetri retinati a un'estremità del tavolo appoggiato all'indietro su una sedia braccioli in bilico sulle gambe posteriori c'era un uomo grande e grosso il suo viso aveva per me la familiarità di un'immagine che si è già vista in bianco e nero nei cliché dei giornali aveva una mascella che pareva la panchina di un parco stringeva fra i denti l'estremità di una grossa matita di legno e aveva l'aria di essere vivo e di respirare ma a parte questo si limitava a starsene seduto all'altra estremità del tavolo c'erano una finestra e due scrivanie dalla chiusura a saracinesca una delle due scrivanie era appoggiata contro la finestra accanto a essa una donna coi capelli color arancio stava trascrivendo un rapporto a macchina su un tavolino dietro l'altra scrivania che era posta perpendicolarmente rispetto alla finestra era seduto christy french su una sedia girevole coi piedi su un angolo dello scrittoio stava guardando fuori dalla finestra che era aperta e offriva la meravigliosa visione del parcheggio della polizia e del retro di un cartellone pubblicitario sedetevi lì invitò beifus facendo segno col dito mi sedetti all'altro capo della stanza su una sedia rigida di quercia senza braccioli non era una sedia nuova e da nuova non era stata bella questo è il tenente moses maglashan della polizia di bay city continuò beifus e non vi vuole bene proprio come noi il tenente moses maglashan si tolse di bocca la matita e fissò i segni dei denti nella grossa sticciola ottagonale poi fissò me il suo sguardo mi sfiorò lentamente esplorandomi osservandomi catalogandomi non disse nulla tornò a mettersi la matita in bocca forse non sono normale dichiarò beifus ma per me voi avete meno sex appeal di una tartaruga si voltò per metà verso la donna che scriveva macchina in un angolo milly l'impiegata lasciò la macchina da scrivere per un quaderno da stenografia il nome è philip marlow l'informò il tenente con una e in fondo se proprio ci tiene la precisione numero di licenza si era voltato di nuovo a guardarmi gli dissi il numero la dama arancione scrisse senza alzare gli occhi dire che aveva una faccia che avrebbe fermato un orologio era insultarla avrebbe fermato un cavallo imbizzarrito ora siete nella disposizione adatta riprese beifus potete ricominciare dal principio e raccontare tutto quello che avete lasciato fuori ieri non cercate di dividere i fatti per categorie lasciate che il discorso corra naturalmente abbiamo abbastanza materiale per controllare la vostra storia volete che faccia una deposizione una deposizione molto esauriente precisò beifus che spasso è e questa deposizione deve essere spontanea e senza coercizione appunto tutte le deposizioni sono spontanee sorrise beifus ma glashan mi guardò fisso per un momento la dama arancione riprese a scrivere a macchina non c'era ancora nulla per lei 30 anni di quel lavoro ne avevano fatto un'ottima tempista ma glashan trasse di tasca un pesante guanto di cinghiale usato l'infilò sulla mano destra e fece qualche flessione con le dita a che serve gli chiese beifus mi mangio le unghie a volte rispose ma glashan è strano mi mangio solo quelle della mano destra alzò gli occhi mi fissò con uno sguardo lento alcuni individui sono più spontanei di certi altri osservò pigramente è una questione di reni mi han detto ho conosciuto dei tipi non poco spontanei che erano costretti ad andare al cesso ogni quarto d'ora per settimane dopo essere diventati spontanei pareva che non riuscissero a tenere acqua ma pensa un po fece beifus scompensosa maraviglia poi ci sono quelli che non riescono più alzare la voce e parlano rauchi bisbigliando continuò ma glashan come i vecchi pugilatori rincretiniti che hanno fermato troppe sventole col collo ma glashan mi guardò a quanto pareva era il mio turno poi ci sono i tipi che non ci vanno del tutto al cesso dissi quelli che esagerano se ne stanno seduti in una sedia per 30 ore poi crollano e si inclinano un rene o si fanno scoppiare la vescica collaborano con troppo entusiasmo poi a volte quando han fatto la loro brava deposizione davanti al magistrato e il serbatoio dell'acqua è vuoto li si trovano morti in un angolo buio forse avrebbero dovuto farsi visitare ma non si può prevedere tutto vero tenente noi di bay city siamo molto bravi a prevedere le cose replicò ma glashan quando c'è qualcosa da prevedere naturalmente aveva dei groppi duri di muscolo agli angoli delle mascelle nei suoi occhi splendeva una luce di odio rossastro potrei lavorarvi in maniera deliziosa disse senza levarmi gli occhi di dosso assolutamente meravigliosa ne sono certo tenente ho sempre passato delle ore bellissime a bay city finché riuscivo a non perdere i sensi io vi impedirei di perdere i sensi per un'infinità di tempo cocco ne farei una questione d'onore me ne occuperei di persona christy french si voltò lentamente e sbadigliò come va che alla polizia di bay city siete tutti così feroci domandò vi marinate il cranio nell'acqua di mare bifus mise fuori la punta della lingua e la fece correre fra le labbra siamo sempre stati feroci dichiarò maglashan senza guardarlo ci piace essere feroci e gli spiritosoni come questo bel tipo qui ci tengono di esercizio tornò a occuparsi di me così voi siete quel tesoro che ci ha telefonato per clausen siete molto disinvolto coi telefoni pubblici vero tesoro non ha perso in bocca parlo con te tesoro mi apostrofò maglashan ti ho fatto una domanda tesoro e quando faccio una domanda sono abituato a ricevere risposta capito continuate a parlare e vi risponderete da solo disse christy french e forse la risposta non vi piacerà e sarete così maledettamente feroce che finirete col prendervi a pugni da solo con quel guanto lì tanto per il principio ma glashan si rigidì sulle guance gli si erano accese due macchie rosse dalle dimensioni di un mezzo dollaro sono venuto a chiedervi di collaborare disse a french lentamente per farmi spennacchiare posso rimanere a casa ci pensa mia moglie ma qui non voglio fare le spese delle vostre barzellette e noi collaboreremo affermò french solo non cercate di fare il matador con quelle battute da film del 930 fece un giro sulla sedia e mi guardò voltiamo a pagina e comportiamoci come se stessimo cominciando le indagini adesso le vostre ragioni le conosco tutte non sta a me giudicarle il punto è questo siete disposto a parlare o volete finire al fresco come testimone indispensabile interrogatemi proposi e se le risposte non vi piaceranno potrete mettermi al fresco e se mi mettete al fresco io il diritto di fare una telefonata esatto dichiarò french se vi mettiamo al fresco ma non è necessario possiamo tenervi qui e farvi l'interrogatorio completo ci vorranno dei giorni magari e da mangiare avrete solo guazzetto di carne affumicata intervenne bayfus allegramente a rigor di termini non sarebbe legale riprese french ma noi lo facciamo continuamente come voi fate certe cose che non dovreste fare forse secondo voi siete sempre stato ligio alla legge in questa faccenda no ma glashan si lasciò sfuggire un profondo e ingoiato mi voltai a guardare la dama arancione che era tornata al suo taccuino silenziosa e indifferente avete un cliente da proteggere insinuò french forse o per meglio dire avevate un cliente vi ha piantato in asso non fece commenti si chiamava orfe may quest soggiunse il tenente osservandomi interrogatemi dissi che è successo in idaho street ci sono andato per cercare il fratello della ragazza lei era venuta qui a trovarlo e lui aveva cambiato indirizzo era molto in pena clausen il direttore era troppo ubriaco per parlare in maniera sensata ho guardato il registro della pensione e ho visto che nella stanza di quest ci abitava un altro sono andato a parlare con quest'altro ma non mi ha detto nulla che potesse aiutarmi french allungò una mano cercò un po in giro poi prese una matita dalla scrivania e cominciò a battersela contro i denti e l'avete più rivisto questo tale sì gli ho detto anche chi ero quando sono sceso di nuovo clausen era morto e qualcuno aveva strappato una pagina dal registro la pagina col nome di quest allora ho chiamato la polizia però non siete rimasto sul posto non sapevo nulla di utile sulla morte di clausen ma non siete rimasto sul posto ripete french ma glashan emise un suono selvaggio dal fondo della gola e getto la sua matita contro la parete dall'altro capo della stanza guardai la sticciola di legno rimbalzare contro la parete poi sul pavimento e infine fermarsi esatto dissi a bei city potremmo accopparvi per questo sbottò ma glashan a bei city vi riterreste autorizzati ad accopparmi perché porto la cravatta blu replicai ma glashan fece l'atto di rialzarsi beifus li lanciò un'occhiata di traverso e consigliò lasciate fare a christy si può sempre ricominciare potremmo rovinarvi la carriera per questo mi comunicò french con una voce senza inflessioni consideratemi rovinato dissi è un mestiere che non mi è mai piaciuto d'altronde così siete tornato in ufficio e poi ho fatto il mio rapporto alla cliente poi mi ha telefonato un tizio e mi ha chiesto di raggiungerlo all'albergo banais era lo stesso individuo col quale avevo parlato in idaho street ma aveva cambiato nome questo avreste potuto dircelo no se vi avessi detto questo avrei dovuto dirvi tutto avrebbe significato violare le condizioni alle quali ero stato assunto french a lui e picchiettò con la matita sui denti poi disse ad agio un delitto cancella un impegno di questo genere due delitti dovrebbero cancellarlo due volte e due delitti commessi con la stessa tecnica tre volte non mi piace la vostra situazione marlow non mi piace assolutamente nemmeno alla cliente piaccio dopo quello che è successo oggi che cosa è successo oggi la cliente mi ha avvertito che suo fratello le aveva appena telefonato dalla casa di quel medico il dottor lagardier il fratello era in pericolo io dovevo precipitarmi da lui e levarlo dalla peste mi sono precipitato da lui il dottor lagardier la sua infermiera avevano chiuso l'ambulatorio si comportavano come conigli spaventati la polizia era stata lì a trovarli un'altra delle sue telefonate anonime ringhiò maglashan non mia questa volta rettificai d'accordo continuate disse french dopo una pausa lagardier mi ha giurato di non sapere nulla di orrin quest ha mandato l'infermiere a casa poi è riuscito a infilarmi una sigaretta drogata e io sono andato in un altro pianeta per un po quando sono rinvenuto ero solo in casa poi a un tratto non sono stato più solo orrin quest o quel che era rimasto di lui stava grattando alla porta appena l'ho aperta è caduto sulla soglia ed è morto con l'ultimo guizzo di energia che gli era rimasta ha cercato di pugnalarmi con uno scalpello da ghiaccio mossi le spalle in mezzo ad esse c'era un punto un po rigido e indolenzito niente di più french guardò intensamente maglashan maglashan scosse il capo ma french continuò a fissarlo beifus si mise a zufolare sommessamente non riuscì a distinguere il motivo da principio poi ci arrivai era è morto il vecchio moses french voltò il capo e disse lentamente vicino al morto non è stato trovato nessuno scalpello da ghiaccio l'ho lasciato dove era caduto affermai ho paura che dovrò infilare di nuovo il guanto disse maglashan e lo fece scorrere fra le dita qui c'è un maledetto bugiardo e non sono io va bene brontolò french va bene non facciamo i commedianti ammesso che il ragazzo avesse uno scalpello da ghiaccio in mano questo non prova che sia nato così uno scalpello accorciato spiegai molto accorciato sei centimetri dall'impugnatura alla punta non è così che li vendono nei negozi di ferramente perché mai avrebbe dovuto pugnalarvi chiese bifus con un sorriso di scherno voi eravate dalla sua eravate andato a tirarlo fuori dai guai per conto della sorellina io ero semplicemente un oggetto tra lui e la luce spiegai qualcosa che si muoveva e avrebbe potuto essere la persona che l'aveva ferito stava morendo in piedi non l'avevo mai visto prima e se lui aveva visto me io non lo sapevo avrebbe potuto essere una splendida amicizia sospirò bifus a parte gli scappelli da ghiaccio naturalmente e il fatto che lui ne avesse uno in mano e abbia cercato di pugnalarmi può significare qualcosa ad esempio un uomo nelle sue condizioni agisce per istinto non inventa tecniche nuove mi ha preso tra le scapole un graffietto l'ultimo debole sforzo di un morente forse avrebbe scelto un punto diverso e sarebbe andato molto più a fondo se fosse stato in buona salute per quanto tempo ancora dobbiamo stare a far l'amore con questa pezza da piedi domandò maglashan lo trattate come se fosse un essere umano lasciate che gli parli io a modo mio il capitano non ci tiene mormorò french con aria distratta all'inferno il capitano il capitano non ci tiene ad essere mandato all'inferno dagli sbirri di provincia maglashan strinse i denti e la linea della mandibola gli si dilineò bianca sotto la pelle gli occhi gli si fecero stretti e lucenti tirò un lungo respiro per il naso grazie per la collaborazione disse e si alzò e ora che me ne vada girò intorno al tavolo e venne a fermarsi accanto a me con la mano sinistra mi alzò il mento arrivederci tesoro arrivederci nella mia città mi sferzò sul viso due volte col polsino del guanto i bottoni mi graffiarono penosamente alzai una mano e mi massaggiai il labbro inferiore per cristo maglashan sedetevi e lasciate che quest'uomo ci racconti la sua storia scattò french e tenete le mani a posto maglashan si voltò a guardarlo e domandò credete di potermi comandare french si strinse nelle spalle dopo un istante maglashan si passò una mano spessa sulla bocca e tornò sulla suedia french si rivolse a me sentiamo le vostre opinioni su tutta la faccenda marlow fra l'altro closen probabilmente commerciava in paglia ripresi ho sentito odori di marioana nel suo appartamento quando sono arrivato c'era un ometto molto deciso in cucina che stava contando del denaro aveva una rivoltella e una lima lunga e sottile molto affilata e ha cercato di usare entrambi i suoi gingilli contro di me io glielo sequestrati e lui se n'è andato quello doveva essere l'esattore ma closen ormai era alcolizzato a tal punto che non si poteva più fare affidamento su di lui nelle organizzazioni di quel genere non sono molto teneri verso certe cose l'esattore mi ha preso per un poliziotto e la cricca non voleva che closen venisse arrestato si sarebbe lasciato mungere troppo facilmente dal preciso momento in cui hanno sentito puzza di legge in casa era fatale che closen sparisse della circolazione tutto questo significa qualcosa per voi può essere replicò maglashan immuso nito e ammesso che sia così che cosa c'entra in tutto questo affare or in quest mi domandò french tutti possono fumare paglia dissi se si è annoiati soli depressi e senza lavoro la paglia può avere molte attrattive ma quando la si fuma i sentimenti cambiano si distorcono e la marihuana fa un effetto diverso secondo le persone certi diventano un men in pipo certi diventano cattivi supponete che questa abbia cercato di ricattare qualcuno e abbia minacciato di andare alla polizia è più che probabile che tutte e tre i delitti abbiano un legame con la banda della marihuana questo non concorda con lo scalpello da ghiaccio di quest osservò bifus secondo il tenente qui quest non aveva nessuno scalpello obiettai quindi devo essermelo immaginato in ogni caso può averlo preso su per caso certi arnesi dovevano far parte dell'armamentario chirurgico normale in casa lagardier sapete qualcosa di lui bifus scosse il capo non fino a questo momento non mi ha ammazzato quindi probabilmente non ha ammazzato nessuno affermai quest aveva detto a sua sorella a sentir lei che lavorava per il dottor lagardier ma che alcuni gangster gli stavano dando la caccia e di lagardier disse french punzecchiando la sua cartella da tavolo con una penna che ne pensate di lui un tempo esercitava cleveland in centro in pompa magna deve aver avuto le sue ragioni per andarsi a nascondere a bay city cleveland è cantile no french e si misi a studiare a un angolo del soffitto bifus abbassò gli occhi nelle sue carte ma glashan disse probabilmente uno che procurava aborti gli avevo messo gli occhi sopra da tempo quale occhio domandò bifus in tono mite probabilmente quello che non aveva messo su idaho street disse french ma glashan balzò in piedi violentemente voi ragazzi siete convinti di essere in gamba forse può interessarvi sapere che noi siamo solo un nucleo di polizia di provincia siamo costretti a mandare giù a mare dei pezzi grossi tante volte tuttavia la faccenda della marijuana mi interessa può darsi che finisca col semplificare parecchio il mio lavoro ho intenzione di andare subito a fondo si diresse alla porta a passo marziale e se ne andò french lo seguì con gli occhi bifus fece altrettanto quando l'uscio si fu richiuso i due colleghi si guardarono scommetto che fanno la solita retata questa sera osservò bifus french annui in un appartamento sopra una lavanderia continuò bifus vanno alla spiaggia catturano tre o quattro vagabondi e li piazzano nell'appartamento poi dopo la retata li mettono in fila per i fotografi parli troppo fred lo redarguì french bifus soghignò e tacque l'altro continuò rivolto a me dovendo fare un'ipotesi cosa pensereste che cercavano gli assassini nella camera del van nice uno scontrino di deposito per una valigia piena di paglia mica male commentò il tenente è sempre per ipotesi dove credete che fosse nascosto ci ho pensato sopra quando ho parlato con hicks a bay city non aveva il parrucchino di solito in casa e calvi non lo portano però sul letto del van nice lo aveva può darsi che non se lo fosse messo da sé e con questo chiese french non sarebbe un cattivo posto per nascondere uno scontrino lo si potrebbe incollare con un pezzo di carta gommata mormorò french è un'idea vi fu un intervallo di silenzio la dama arancione riprese a scrivere a macchina io mi guardai le unghie non erano pulite come avrebbero dovuto dopo un po french mi disse lentamente non vi mettete in testa di esservela cavata marlow e continuando con le ipotesi come mai il dottor lagardier vi ha parlato di cleveland mi sono preso la briga di indagare un po sul suo passato un medico non può cambiare nome se vuol continuare a esercitare gli scalpelli da ghiaccio mi hanno fatto pensare a frigna moyer frigna moyer operava cleveland sol moyer stain operava cleveland è vero che la tecnica era diversa ma si trattava pur sempre di scalpelli da ghiaccio l'avevate detto voi stesso che i ragazzi potevano essersi perfezionati e le gang come queste hanno sempre un medico nel retroscena un collegamento piuttosto dubbio osservò french piuttosto cervellotico migliorerei la mia posizione se lo rendessi più plausibile siete in grado di farlo posso provarci french sospirò la piccola quest è a posto disse ho telefonato a sua madre nel kansas la ragazza è veramente venuta qui a cercare il fratello e vi ha veramente assunto ha parlato bene di voi fino a un certo punto sospettava davvero che suo fratello fosse immischiato in qualcosa di poco chiaro avete guadagnato qualcosa da questa faccenda non molto ho restituito il compenso alla ragazza non nuotava nell'oro così evitate di pagare la tassa sul reddito commentò bifus beh togliamo la seduta propose french la mossa seguente tocca al procuratore distrettuale e se conosco handicap ci metterà dieci giorni al minimo prima di decidere che posizione prendere fece un gesto verso la porta io mi alzai mi permettete di non lasciare la città chiesi i due uomini non si presero il disturbo di ribattere rimasi dover e li guardai il graffio sullo scalpello fra le scapole mi doleva e la pelle tutto intorno sera fatta dura la guancia e la bocca bruciavano dove maglashan mi aveva colpito col suo guanto consunto per un nobile uso ero nel fondo del mare e l'acqua torbida era buia e in bocca avevo il sapore del sale i due rimasero seduti e ricambiarono il mio sguardo la dama arancione continuava a pestare sulla macchina i discorsi dei poliziotti non erano più un divertimento per lei come le gambe delle donne per il direttore di un corpo di ballo bifus e french avevano i visi tranquilli e segnati degli uomini sani in condizioni disagiate avevano gli occhi di tutti i poliziotti grigi annebbiati e opachi come l'acqua che sta ghiacciando la bocca ferma decisa alle piccole righe dure agli angoli degli occhi lo sguardo vuoto pietrigno senza significato non del tutto crudele ma ben lungi dall'essere umano gli abiti insignificanti comprati fatti portati senza stile con una specie di disprezzo l'espressione di chi è povero ma orgoglioso del proprio potere e cerca sempre l'occasione di farlo sentire e ve lo pianta dentro come un coltello e lo rigira e sorride quando vi contorcede senza scrupoli ma senza malizia crudeli eppure non sempre privi di gentilezza la civiltà non aveva senso per loro tutto quel che vedevano erano fallimenti la sporcizia le scorie le aberrazioni e il disgusto che cosa aspettate mi chiese bifus sgarbatamente volete che vi diamo un bel bacione umido e tenero non avete la frecciata pronta eh che peccato la sua voce si affievolì divenne un borbottio sordo poi il tenente si accigliò e prese una matita dalla scrivania con un gesto agile la spezzò in due e mi mostrò i mozziconi sul palmo della mano vi diamo fiato ma dovrete scattare così disse sottovoce il sorriso era sparito su andatevene e mettete a posto le cose perché diavolo credete che vi lasciamo libero ma glasian vi ha fatto avere una dilazione approfittatene alzai una mano e mi soffregai le labbra mi pareva di avere troppi denti in bocca bifus abbassò gli occhi sul tavolo prese un foglio e cominciò a leggerlo french fece un giro completo con la sedia appoggiò i piedi sulla scrivania e guardò fuori dalla finestra aperta verso il parcheggio la dama arancione smise di battere a macchina e improvvisamente la stanza si riempì di silenzio greve come un dolce caduto mi diressi alla porta tagliando il silenzio col mio corpo come se stessi facendomi strada in una massa d'acqua capitolo 24 di nuovo il mio ufficio era vuoto niente brune dalle gambe voluttuose niente ragazzine dagli occhiali obliqui niente uomini bruni dagli occhi da sicario mi sedetti alla scrivania e guardai la luce morire i rumori della folla che rincasava si erano spenti fuori le insegne al neon cominciavano a guardarsi con odio ai due lati del boulevard c'era qualcosa da fare ma non sapevo che cosa fosse quel che fosse non sarebbe servito a niente feci ordine sulla scrivania ascoltando lo stridio di un secchio sulle piastrelle del corridoio riposi le mie carte in un cassetto radrezzai il portapenne tirai fuori uno straccio e spolverai il piano di vetro e il telefono era nero e brillante nella luce che svaniva non avrebbe suonato quella sera nessuno mi avrebbe chiamato non ora non questa volta forse mai più riposi lo straccio piegato con la polvere dentro mi appoggia all'indietro e rimasi seduto senza fumare senza nemmeno pensare ero un uomo vuoto negativo non avevo viso né significato né personalità quasi non avevo un nome non mi sentivo di mangiare non avevo nemmeno voglia di un bicchierino ero come il foglio di ieri del calendario accartocciato in fondo al cestino della carta straccia così mi tirai vicino il telefono e formai il numero di mavis weld suonò suonò e suonò nove volte è un bel suonare marlow credo che non ci sia nessuno in casa nessuno è in casa per te deposi ricevitore chi vorresti chiamare ora non è un amico da qualche parte che potrebbe aver piacere di sentire la tua voce no nessuno fate che i suoni il telefono vi prego fate che qualcuno mi chiami e mi trascini di nuovo nella razza umana anche un poliziotto anche maglashan nessuno è obbligato a volermi bene voglio solo andarmene da questa stella di ghiaccio il telefono suonò amico disse la voce di dolores c'è un guaio un guaio grosso lei vuol vedervi le piacete vi considera un uomo onesto dove chiesi non fu veramente una domanda fu solo un suono che mi venne dalla gola succhiai il cannello della pipa spenta e mi chinai con la fronte su una mano covando il telefono era una voce con cui parlare se non altro verrete veglierei un pappagallo malato questa notte dove devo andare verrò io a prendervi sarò davanti a casa vostra fra un quarto d'ora non è facile arrivare dove dobbiamo arrivare e come facciamo a tornare indietro chiesi o la cosa non ha importanza ma lei aveva già riappeso al banco del drugstore ebbe il tempo di buttare giù due tazze di caffè e un tramezzino di formaggio fuso con due fette di surrogato di prosciutto affondate nel mezzo come un pesce morto nella melma in fondo a uno stagno prosciugato ero pazzo e mi piaceva capitolo 25 era una mercurinera trasformabile con il soffietto chiaro il soffietto era rialzato quando mi appoggiò al finestrino dolores gonzalez scivolò verso di me lungo il sedile di pelle guidate voi amico per favore non mi è mai piaciuto guidare la luce del bar farmacia le batte sul viso si era cambiata ancora d'abito ma era sempre in nero a parte una camicetta color fiamma pantaloni e una specie di cappa sciolta come una giacca da riposo maschile mi appoggiò alla portiera della macchina perché non mi ha chiamato lei non ha potuto non sapeva il numero e aveva pochissimo tempo perché a quanto ho capito mi parlava mentre una persona aveva lasciato la stanza per un momento e dove sarebbe il posto da cui chiamava non so il nome della via ma so ritrovare la casa vi prego salite in macchina e spicciamoci forse salgo risposi e forse non salgo affatto la vecchiaia e l'artrite mi hanno reso prudente sempre la battuta pronta osservò lei siete un uomo ben strano sempre la battuta pronta quando è possibile convenne ma in realtà sono un tipo molto comune con una testa sola una testa che è stata messa alla prova molto duramente a volte volte che in genere cominciavano così farete l'amore con me stanotte mi chiese con voce morbida ecco un'altra domanda alla quale è difficile rispondere probabilmente no non perdereste il vostro tempo non sono una di quelle bionde sintetiche con la carnagione che pare carta vetrata quelle ex lavandaie con le mani larghe ossute le ginocchia puntite i seni senza mordente cerchiamo di lasciare in pace il sesso per una mezz'ora proposi è una cosa magnifica come i gelati di cioccolato con la panna montata sopra ma ci sono dei momenti in cui preferireste impiccarvi piuttosto che mangiarli credo che forse mi convenga impiccarmi girai attorno alla macchina mi insinuai sotto al volante e avviai il motore andiamo verso ovest disse la ragazza attraversiamo beverly hills e poi proseguiamo in quella direzione innestai la marcia e voltai l'angolo puntando verso sunset boulevard dolores tirò fuori una delle sue lunghe sigarette marrone avete portato una rivoltella no a che mi servirebbe la mia ascella premeva contro la luger nella fondina a tracolla forse è meglio di no la ragazza infilo la sigaretta nella molle d'oro e l'accese con l'accendisigari d'oro la luce che le batteva sul viso pareva inghiottito dagli occhi neri senza fondo in che specie di grana si trova la signorina weld non lo so mi ha detto solo che era in un guaio che aveva molta paura e aveva bisogno di voi avreste dovuto essere in grado di inventare una frottola migliore non mi rispose mi fermai a un semaforo e mi voltai a guardarla piangeva sommessamente nel buio non torcerei un capello a mavis weld balbettò ma non mi aspetto che mi crediate d'altronde soggiunzi e il fatto che non abbiate una storia pronta depone a vostro favore cominciò a scivolare verso di me lungo il sedile rimanete dalla vostra parte ordinai devo guidare questa baracca non volete che vi appoggi la testa sulla spalla non con questo traffico mi fermai all'angolo di fairfax avenue col semaforo verde per permettere a un pedone di voltare a sinistra dietro di me alcuni clacson suonarono rabbiosamente quando ripartì la macchina che veniva subito dopo la mia mi si portò al fianco e un uomo corpulento in maglione mi gridò ma va a guidare un bidet e mi tagliò la strada così di colpo che dovetti frenare una volta mi piaceva questa città dissi tanto per dire qualcosa per non pensare così intensamente tanto tempo fa allora c'erano due file d'alberi lungo il wilshire boulevard beverly hills era un paesotto di campagna westwood era un gruppo di colline e i suoi lotti di terreno erano in vendita per 1100 dollari e nessuno li voleva hollywood era un gruppo di case di legno lungo la linea del tram interurbano los angeles era un enorme agglomerato di brutte case asciutto e pieno di sole senza stile senza eleganza ma bonario e tranquillo aveva il magnifico clima sul quale si blatera tanto oggigiorno la gente dormiva fuori la notte sotto il portico le conventicole che si ritenevano intellettuali la chiamavano l'atene d'america non lo era ma non era nemmeno un bordello illuminato al neon attraversammo la cienega e imboccammo la curva dello strip alle danze era uno sfolgorio di luci la terrazza era stipata il parcheggio faceva pensare alle formiche su un frutto troppo maturo adesso abbiamo elementi come steel grave che possiedono i ristoranti abbiamo tipi come il grassone che mi ha urlato dietro poco fa c'è il danaro che corre a fiumi e ci sono imbroglioni sicari sfruttatori di donne e gangster di secondo piano immigrati da new york da chicago da detroit da cleveland ci sono i ritrovi di lusso i locali notturni che questi gangster dirigono gli hotel e le case albergo che possiedono e i ladri gli imbroglioni e le donne bandito che vi abitano abbiamo le industrie di lusso gli invertiti decoratori di interni le lesbiche e figuriniste di moda tutte le scorie di una grande città senza cuore che ha meno personalità di un bicchiere di cart e nei quartieri suburbani il caro vecchio papà in ciabatte legge la pagina sportiva dei quotidiani davanti a una finestra ornamentale e pensa che lui è un uomo altolocato perché ha un garage con tre macchine mamma davanti alla toilette a tre specchi cerca di cancellarsi le borse sotto gli occhi a forza di cosmetici e il figlio ed erede è incollato al telefono e chiama tutta una serie di ragazzette delle scuole superiori che parlano un inglese che fa pietà e tengono gli antifecondativi pronti in borsetta tutte le grandi città sono così amico le città vere hanno la loro ossatura sotto la parte deperibile los angeles a hollywood e la odia dovrebbe ritenersi più che fortunata invece senza hollywood sarebbe come quei magazzini che servono le province dietro ordinazione postale tutto quel che c'è nel catalogo lo si potrebbe trovare più bello e altrove siete amaro questa sera amico ho avuto qualche seccatura l'unica ragione per cui guido questa macchina in vostra compagnia è che ho avuto tante grane che una di più mi sembrerà il tocco finale l'insuccheratura della torta avete fatto qualcosa di male domandò la ragazza e scivolò verso di me ho solo collezionato qualche cadavere spiegai dipende dai punti di vista i poliziotti non vedono di buon occhio che i dilettanti facciano il loro lavoro hanno già la loro organizzazione che cosa vi faranno può darsi che mi caccino dalla città e non mi farebbero né caldo né freddo non vi appiccicate così questo braccio mi occorre per cambiare le marce lei si scostò rabbiosamente siete odioso non è facile andare d'accordo con voi protestò a lost canyon road girate a destra dopo un po passammo le university gates tutte le luci della città erano accese ora scendevano lungo il deglivio della collina come un enorme tappeto e correvano verso sud perdendosi in una distanza quasi infinita un aeroplano ronzava sopra di noi perdendo quota e i due fari di segnalazione ammiccavano alternativamente a lost canyon presi a destra sfiorando i grandi cancelli che condugono a bel air la strada cominciò a salire intornanti c'erano troppe automobili i fari gettavano un riverbero rabbioso sull'asfalto bianco che si nodava come una serpe dal passo scendeva una brezza leggera portava il profumo della salvia selvatica l'aroma acri degli eucalipti e il tranquillo odore della polvere sul fianco della collina ammiccavano molte finestre passammo accanto a una casa a due piani in stile spagnolo che doveva essere costata non meno di 70 mila dollari sulla facciata c'erano in segna luminosa cairn terriers di razza la prima a destra ordinò dolores imboccai la svolta la strada divenne più stretta e più ripida vi erano case dietro i muri e le siepi folte di cinta ma non si vedeva niente poi arrivama una biforcazione proprio sulla v era ferma una macchina della polizia col faro rosso acceso sul ramo destro della forcella c'erano ferme altre due macchine ad angolo retto una torcia elettrica oscillò su e giù io rallentai e andai a fermarmi accanto alla macchina della polizia c'erano dentro due agenti che fumavano e non si mossero che cosa succede non ne ho la minima idea amico la voce di dolores era sommessa contenuta come se avesse un po paura non sapevo di cosa un uomo alto quello con la torcia si avvicinò alla nostra macchina mi piantò il fascio di luce in faccia e poi l'abbassò questa strada non è aperta stasera annunziò dove andate innestai il freno e presi la pila che la ragazza aveva tirato fuori da un vano del cruscotto feci scattare l'interruttore illuminai l'uomo alto indossava un paio di calzoni di lusso una camicia sportiva con le iniziali sul taschino e una sciarpa pallini annodata al collo portava gli occhiali e aveva capelli neri ondulati e lucidissimi faceva terribilmente hollywood potete darmi qualche spiegazione o state inventando la legge domandai la legge è là se volete consultarla nella voce dell'uomo c'era una nota di disprezzo noi siamo semplicemente dei privati cittadini abitiamone dintorni questo è un quartiere di abitazione e noi vogliamo che rimanga tale un uomo con un fucile da caccia uscì dall'ombra e si mise accanto allo spilungone teneva il fucile sotto il braccio sinistro con la canna puntata verso terra ma non aveva l'aria di portarlo per zavorra per me va benissimo assicurai non avevo intenzioni diverse vogliamo solo andare in un posto in che posto chiese l'uomo freddamente mi rivolsi a dolores in che posto è una casa bianca sulla collina quasi in vetta e che cosa avete intenzione di fare una volta là chiese lo spilungone l'uomo che ci abita è mio amico replicò la mia compagna in tono provocante lo spilungone le illuminò il viso con la torcia per un istante voi andate benissimo dichiarò ma il vostro amico non ci piace non ci va la gente che cerca di operare delle case da gioco in un quartiere come questo io non so niente di case da gioco ribatte dolores aspramente neanche la polizia dichiarò lo spilungone e non vuole nemmeno interessarsene come si chiama il vostro amico cara e non vi riguarda ribeccò dolores come se sputasse andate a casa a far la calza cara l'invito all'uomo alto e si rivolse a me la strada è bloccata questa sera e ora sapete il perché credete di farcela mantenere il blocco ci vorrà qualcuno più importante di voi per indurci a cambiare programma dovreste vedere le nostre cartelle delle tasse e quegli scimmiotti sulla macchina radiocomandata e ce n'è un'altra quantità in municipio si limitano a fare una faccia da scemi quando si chiede loro di far rispettare la legge girai la maniglia e spalancai la portiera l'uomo si tirò da parte per lasciarmi scendere mi avvicinai alla macchina della polizia i due uomini erano adagiati pigramente contro lo schienale l'altoparlante era bassissimo e mandava un borbottio appena udibile uno dei due masticava gomma ritmicamente che ne direste di rompere il blocco e di lasciar passare i cittadini gli chiesi noi abbiamo ordini bellezza siamo qui solo per mantenere l'ordine se qualcuno fa scoppiare una cagnara la facciamo finire noi dicono che c'è una casa da gioco sulla cresta dicono ripete la gente non ci credete non mi provo nemmeno affermò lui e sputuò al di sopra della mia spalla se io avessi degli affari urgenti lassù l'uomo mi fissò senza espressione sbadigliò grazie mille bellezza tornai alla mercuri trassi di tasca il portafogli e diedi un biglietto da visita allo spilungone lui l'illuminò con la torcia e chiese beh poi spense la torcia e rimase in silenzio il suo amico cominciò a prendere forma pallido e vago nell'oscurità sono qui per affari dissi e sono affari importanti per me lasciatemi passare forse domani non avrete bisogno del posto di blocco siete grande a parole buon uomo vi sembra che io abbia i quattrini per frequentare una casa da gioco o privata lei potrebbe averli l'uomo lanciò un'occhiata rapida a dolores può darsi che vi abbia portato dietro come guardia del corpo si rivolse al suo amico col fucile tu che ne pensi beh rischiamola sono solo due e non hanno bevuto lo spilungone accese di nuovo una torcia e la fece ondeggiare avanti e indietro un motore si avviò una delle macchine del blocco raggiunse a marcia indietro il bordo della via io montai sulla mercuri l'avviai passai attraverso lo spazio libero nello specchietto retrovisore guardai la macchina di blocco che riprendeva posizione e spegneva i fari è l'unica via per andare e venire di qui loro lo credono amico ce n'è un'altra ma è una strada privata che attraversa una tenuta avremmo dovuto girare dalla parte della valle per poco non passavamo brontolai nessuno può essere in un guaio serio sapevo che avreste trovato un mezzo di cavarvela amico qualcosa mi puzza e non sono i lilla selvatici che uomo sospettoso non volete nemmeno darmi un bacio avreste dovuto provare un po di questa tecnica poco fa al posto di blocco il più alto dei due aveva l'aria di sentirsi solo avreste potuto portarlo in un boschetto lei mi diede un malrovescio sulla bocca figlio di un cane disse con non curanza la prima sinistra prego arrivamo al sommo della salita e la strada terminò bruscamente in uno spiazzo nero circolare bordato di pietre dipinte di bianco proprio di fronte a noi c'era una cinta di rete metallica con un cancello nel mezzo e un insegna strada privata di vieto di transito il cancello era aperto da un pilastro pendeva un grosso lucchetto appesa una catena girai con la macchina intorno a un cespuglio di oleandri bianchi e mi trovai nella corte destinata alla macchina sul retro di una bassa casa bianca con il tetto di tegole un garage a quattro posti sotto un terrazzo dalla balaustra di mattoni non veniva luce dalla casa la luna alta nel cielo gettava un chiarore bluastro sui muri intonacati di bianco alcune finestre a pian terreno avevano le imposte chiuse quattro cassette piene di rifiuti erano allineate davanti ai gradini d'ingresso c'era un grande bidone della spazzatura rovesciato e vuoto e c'erano due bidoni di metallo più piccoli pieni di cartacce di giornali vecchi dalla casa non veniva nessun suono nessun segno di vita fermai la mercury spensi i fari e il motore e rimasi seduto al mio posto dolores si ritirò in un angolo pareva che il sedile tremasse allungai una mano verso la ragazza e la sfiorai rabbrividiva che succede scendete scendete prego disse come se stesse battendo i denti e voi aperse la portiera dalla sua parte balzò a terra scesi anch'io e lasciai lo sportello aperto con le chiavi nella serratura dolores girò intorno alla macchina e mi si fece vicina mi parve sentirla tremare prima ancora che mi toccasse poi mi appoggiò contro coscia contro coscia petto contro petto mi passò le braccia intorno al collo sto facendo una terribile sciocchezza sussurrò lui mi ucciderà per questo come ha ucciso stain baciatemi la baciai le sue labbra erano secche brucianti lui è qui sì e chi altro nessuno eccetto mavis ucciderà anche lei sentite baciatemi ancora non ho molto da vivere amico quando si fa da esca per le vittime a un uomo come quello si muore giovani la spin si via ma con delicatezza lei fece un passo indietro e alzò rapidamente la destra stringeva una pistola ora guardai l'arma la luna alta la faceva splendere debolmente la ragazza me la teneva puntata tutta addosso e la mano non le tremava più che amico mi farei se tirassi il grilletto disse quelli del blocco sentirebbero lo sparo scosse il capo no c'è la collinetta in mezzo non credo che sentirebbero amico pensai che la si sarebbe alzata quando dolores avesse tirato il grilletto se mi fossi buttato a terra al momento giusto ma non ero così in gamba non dissi nulla mi sentivo la lingua grossa la ragazza continuò con una voce stanca sommessa costain non ha avuto importanza l'avrei ucciso con le mie mani con piacere quello schifoso morire non è una gran cosa uccidere non è una gran cosa ma adescare gli uomini per condurli alla morte si interruppe con un suono che avrebbe potuto essere un singhiozzo amico voi mi siete piaciuto per qualche strana ragione dovrei avere superato da un pezzo certe stupidaggini mavis mi ha portato via still grave ma non voglio che lui la uccida il mondo è pieno di uomini con tanti soldi mi pare un ometto simpatico osservai tenendo sempre d'occhio la mano che stringeva la rivoltella nemmeno un piccolo fremito ora dolores diede una risata sprezzante naturalmente per questo è quello che è voi credete di essere molto curiaceo amico ma siete tutto latte e burro in confronto a still grave abbassò la rivoltella era il momento di balzare ma continuava non essere abbastanza in gamba ha ucciso una dozzina di uomini riprese la ragazza e per ciascuno ha avuto un sorriso lo conosco da molto tempo l'ho conosciuto a cleveland usava scalpelli da ghiaccio se vi do la rivoltella mi promettete di ucciderlo mi credereste se ve lo promettessi sì da un punto imprecisato ai piedi della collina venne il rombo di una macchina ma mi parve remoto come il pianeta marte senza senso come il cicaleggio delle scimmie in una foresta brasiliana non aveva niente a che vedere con me lo ucciderei se ci fossi costretto dichiarai passandomi la lingua sulle labbra ero un pochino in avanti con le ginocchia piegate di nuovo pronto a balzare buonanotte amico mi vesto di nero perché sono bella cattiva e perduta mi porse la pistola la presi e rimasi immobile stringendola tra le dita per un altro istante restammo in silenzio senza fare un gesto poi lei sorrise scosse il capo e balzò in macchina avviò il motore e chiuse la portiera di scatto portò il motore al minimo e rimase seduta a guardarmi sorrideva ora sono stata brava vero bisbigliò la macchina arretrò con violenza e le gomme stridettero sull'asfalto i fari si accesero l'automobile girò a sinistra nella strada privata e scomparve dietro una macchia d'oleandri la luce dei fari guizzò tra gli alberi e sparì e il rombo del motore si confuse col gracidio strascicato e lamentoso delle raganelle poi anche quello cessò e per un momento non vi fu alcun suono e nessuna luce eccetto la vecchia luna stanca tirai fuori il caricatore dalla rivoltella conteneva sette proiettili un altro era in canna due di meno della carica completa fiutai la canna aveva sparato dopo l'ultima volta che l'avevano pulita aveva sparato due volte forse tornai a infilare il caricatore al suo posto e teni la rivoltella sulla palma della mano aperta impugnatura di osso bianco calibro 32 or in quest era stato colpito due volte i due bossoli che avevo raccolto dal pavimento di quella stanza erano calibro 32 e il giorno prima nel pomeriggio nella camera 32 dell'albergo van nice una ragazza bionda con un asciugamani davanti al viso mi aveva puntato contro un'automatica calibro 32 con l'impugnatura di osso bianco a volte si va troppo in là con la fantasia in certe cose ma si può anche non essere abbastanza fantasiosi capitolo 26 mi avvicinai al garage in punta di piedi e cercai di aprire una delle due grandi porte non c'erano maniglie e perciò dovevano essere manovrate da un interruttore feci scorrere il raggio della mia minuscola pila a matita lungo lo stipide ma non incontrai l'ombra di un interruttore abbandonai la rimessa e mi avvicinai ai bidoni dei rifiuti alcuni gradini di legno portavano la porta di servizio non credevo che la porta sarebbe stata aperta proprio per far comodo a me sotto il portico c'era un altro uscio questo era effettivamente aperto e dava sul buio e sul profumo del legno fresco d'eucalipto chiusi il battente alle mie spalle e accesi di nuovo la pila in un angolo c'era un'altra rampa di scale con vicino un montacarchi complicatissimo che non riuscì a far funzionare mi avviai su per i gradini in un punto remoto una cicala gracchiò mi fermai si fermò anche la cicala mi incamminai di nuovo la cicala non riprese in cima alle scale mi imbatte in una porta senza maniglia che pareva tutta ad un pezzo un altro arnese strampalato questa volta però trovai l'interruttore era una piastra mobile oblunga fissata allo stipide troppe mani l'avevano toccata premetti la piastra e la porta emise un suono metallico il vistello scattò spinsi il battente e la persi con la tenerezza di un neo laureato in medicina che aiuta a venire al mondo il suo primo bambino dall'altra parte c'era un corridoio la luce e la luna che filtrava attraverso le imposte batteva sull'angolo bianco di una stufa e sulla griglia cromata dei fornelli la cucina pareva una piazza d'armi un arco aperto portava una dispensa di servizio piastrellata fino al soffitto incassati nel muro c'erano un acquaio un enorme frigorifero e una quantità di aggeggi elettrici per mischiare cocktail senza faticare si sceglieva il beveraggio si premeva un bottone e quattro giorni dopo si riaprivano gli occhi sul tavolo da massaggio di un bagno turco oltre la dispensa una porta oltre la porta una sala da pranzo che al posto della parete di fondo aveva una veranda tutta di vetro attraverso la quale la luce della luna si riversava come l'acqua dalle porte di una chiusa un vestibolo con un gran tappeto conduceva in un posto imprecisato da un secondo arco partiva una rampa volante di scale che saliva verso dell'altra oscurità ma salendo splendeva debolmente come se fosse stata fatta di acciaio irossidabile vetro cemento finalmente arrivai a quella che doveva essere la stanza di soggiorno i tendaggi delle finestre erano accostati e c'era un buio di pece ma sentì che doveva essere vastissima l'oscurità era densa greve e nell'aria aleggiava un odore che mi diceva che qualcuno era stato l'anno molto tempo prima trattenni il fiato e ascoltai forse nel buio un branco di tigri mi stava osservando o forse degli individui armati di grosse pistole se ne stavano fermi con i piedi ben piantati sul pavimento respirando a bocca aperta senza rumore o forse non c'era nulla e nessuno è troppa fantasia fuori luogo mi appoggiai al muro e testai in giro in cerca di un interruttore della luce c'era sempre un interruttore tutti dovunque hanno un interruttore di solito a destra entrando quando si entra in una stanza buia si desidera la luce d'accordo e allora si trova un interruttore nel punto giusto all'altezza giusta ma non in quella stanza quella era una casa diversa dalle altre aveva un sistema tutto suo di trattare le porte e le luci questa volta forse l'aggeggio funzionava in maniera particolarmente fantasiosa bisognava cantare un accordo in la o do maggiore oppure si posava il piede su un bottone piatto sotto il tappeto o forse ci si limitava a dire sia fatta la luce e un microfono captava la voce trasformandola in un impulso elettrico e un trasformatore dava abbastanza attenzione alla corrente da chiudere un interruttore a mercurio ero telepatico quella sera era un uomo che voleva compagnia al buio ed era disposto a pagare un prezzo molto alto pur di ottenerla la lugger sotto il braccio e la 32 in mano mi rendevano duro aggressivo marlow dalle due pistole il franco tiratore della riva del cianuro ha persi la bocca un po a fatica e dissi di nuovo buonasera c'è nessuno qui che ha bisogno di un investigatore nulla mi rispose nemmeno la controfigura di un eco il suono della mia voce affondò nel silenzio come un capo stanco in un cuscino di piume poi una luce ambrata cominciò a diffondersi dalla cornice che girava tutto intorno all'enorme sala crebbe molto lentamente come se fosse stata controllata da un reostato da teatro le finestre erano nascoste da pesanti tendaggi color albicocca anche i muri erano color albicocca all'altro capo della sala c'era un bar messo d'angolo che occupava parte della dispensa di servizio c'era una grande alcova con alcuni tavolini attorniati da sedili imbottiti vi erano lampode a piedistallo poltrone soffici divani e divanetti e tutto il consueto armamentario di una stanza di soggiorno il centro del locale era occupato da alcune lunghe tavole coperte da drappi di tela che parevano sudari i bravi signori del posto di blocco non erano dei visionari dopo tutto ma la stanza non dava segno di vita era quasi deserta quasi ma non del tutto una bionda avvolta in una pelliccia color cacao era in piedi appoggiata a una poltrona dallo schienale alto all'antica aveva le mani affondate nelle tasche della pelliccia i capelli vaporosi erano appena arrabbiati il viso non era bianco gesso solo perché la luce non era bianca buonasera a voi disse con voce opaca sono ancora del parere che siete arrivato troppo tardi troppo tardi per cosa andai verso di lei un movimento che era sempre un piacere anche allora in quella casa troppo silenziosa siete abbastanza in gamba osservò non avrei creduto avete trovato modo di entrare voi le si ruppe la voce e parve che le morisse in gola ho bisogno di qualcosa di forte disse la ragazza dopo una pausa intensa altrimenti casco a terra che bella pelliccia osservai le ero arrivato vicino ora avanzai una mano e la sfiorai lei non si mosse la bocca tremava martora mormorò 40.000 dollari noleggiata per il film e questa fa parte del film chiesi indicando la stanza con un gesto questo è il film che mette un punto fermo a tutti i film per me io io ho proprio bisogno di qualcosa di forte se cercassi di camminare la voce limpida si perse in un murmurio le palpebre ebbero un fremito coraggio svenite pure dissi vi prenderò al volo un sorriso si sforzò di preparare il suo viso al sorriso la ragazza strinse le labbra lottando per rimanere in piedi perché sono arrivato troppo tardi chiesi troppo tardi per cosa troppo tardi per farvi ammazzare o accidenti e dire che per tutta la sera non ho aspettato altro mi ha accompagnato qui la signorina gonzalez lo so allungai una mano e tocca di nuovo la pelliccia fa piacere toccare 40.000 dollari anche se sono soltanto a nolo dolores resterà terribilmente disillusa osservò lei con le labbra urlate di bianco no vi ha portato al macello come ha fatto con stain forse era partita con quell'intenzione ma poi ha cambiato idea la ragazza rise fu una risatina sciocca futile come quella di un bambino che cerca di darsi importanza una festicciola infantile come le dominate le ragazze mormorò ma come fate uomo meraviglia con le sigarette drogate non possono essere la vostra eleganza il vostro danaro la vostra personalità non ne avete un filo non siete molto giovane e non siete molto bello avete visto i giorni migliori e aveva parlato sempre più in fretta come un motore col controllo guasto alla fine balbettava sillabe senza senso quando si fermò un sospiro stanco corse lungo il silenzio le si piegarono le ginocchia e cadde in avanti tra le mie braccia se era una scena preparata funzionò a meraviglia avrei potuto avere nove pistole una per ogni tasca e mi sarebbero state utili quanto le candeline rosa di una torta di compleanno non accadde nulla nessun sicario con un'automatica spianata mi prese di mira nessuno steel grave mi sorrise col suo sorrisetto vago asciutto remoto da assassino nessun passo furtivo risuonò alle mie spalle la ragazza mi rimase tra le braccia floscia come una tovaglia bagnata meno pesante di or in quest perché era meno morta ma abbastanza pesante da farmi dolere i tendini delle ginocchia aveva gli occhi chiusi quando le scostai la testa dal mio petto il respiro era impercettibile e intorno alle labbra semi aperte aveva un alone bruastro le passai un braccio sotto le ginocchia e andai a deporla su un divano dorato la sestai un po poi mi diressi al bar c'era un telefono in un angolo ma non riuscì a trovare una via d'accesso ai liquori dovetti scavalcare il banco scelsi una bottiglia dall'aria promettente con un'etichetta blu e argento e con 5 stelle il tappo era stato allentato versai il cognac scuro e pungente in un bicchiere destinato a qualcos'altro e scavalcai di nuovo il banco portandomi dietro la bottiglia mavis weld giaceva dove l'avevo lasciata ma aveva gli occhi aperti siete in grado di reggere un bicchiere ci riuscì con un po d'aiuto beve il liquore e premette forte l'orlo del bicchiere contro le labbra come per tenerle ferme guardai il suo respiro annebbiare la coppa di vetro sulle labbra le si formò lentamente un sorriso ho freddo questa sera mormorò fece un mezzo giro e posò i piedi sul pavimento ancora disse tenendomi il bicchiere le versai dell'altro liquore e il vostro dov'è non bevo sono già abbastanza eccitato senza bisogno di alcol il secondo liquore la fece rabbrividire ma l'alone bluastro intorno alla bocca se n'era andato le labbra non splendevano più rabbiosamente come segnale di traffico vietato e le minuscole rughe intorno agli occhi erano di nuovo in movimento chi vi eccita o una quantità di donne che fanno a gara a buttarmi le braccia al collo a svenirmi addosso e a farsi baciare e così via sono stati due giorni piuttosto movimentati pieni per un miserabile piedi piatti senza nemmeno uno yacht nemmeno uno yacht ripete lei non lo potrei sopportare sono stata allevata nel lusso già dissi siete nata con una cadillac in bocca e io ho indovinato dove davvero credevate che fosse un segreto inviolabile io io si interruppe e fece un gesto di sconforto questa sera non riesco a trovare le battute e il dialogo del technicolor spiegai paralizza il cervello non vi pare che stiamo parlando come due pazzi possiamo diventare subito savi dove stil grave lei si limitò a guardarmi mi tese il bicchiere vuoto e io lo presi e lo deposi da qualche parte senza toglierle gli occhi di dosso e lei non tolse gli occhi di dosso a me trascorse un lungo istante è stato qui disse infine mavis lentamente come se dovesse inventare le parole una per una mi date una sigaretta il vecchio trucco della sigaretta per tirare il lungo osservai trassi di tasca due sigarette e le accesi poi mi chinai e gliene infilai una tra le labbra scarlatte non c'è nulla di più puerile convenne la ragazza eccetto i bacini sulle guance forse il sesso è una splendida cosa quando non si vuole rispondere alle domande lei aspirò una boccata di fumo sbatte le palpebre e si portò una mano sulla bocca per sistemare la sigaretta dopo tanti anni non ho ancora imparato a mettere in bocca la sigaretta una ragazza nel punto giusto mavis scosse il capo si lasciò ricadere i capelli morbidi intorno al viso e mi sogguardò per vedere fino a che punto la cosa mi faceva effetto tutto il pallore se n'era andato ormai le guance erano un po accese ma negli occhi c'erano tante cose guardinghe in attesa siete abbastanza simpatico per essere quello che siete osservò quando non feci nulla di sensazionale ma io in fondo non so veramente chi siete no a un tratto scoppiò a ridere e una lacrima spuntò da chissà dove e le scivolò lungo una guancia per quel che ne so io potete essere simpatico pur essendo praticamente chiunque si strappò la sigaretta dalle labbra poi portò una mano alla bocca e vi affondò i denti ma cosa mi succede domandò sono ubriaca state cercando di guadagnare tempo ribattei ma non so decidere se lo fate per dar modo a qualcuno di arrivare qui o per permettere a qualcuno di scappare molto lontano da qui e magari è solo colpa del liquore subito dopo una scossa nervosa siete una povera bambina che ha bisogno di piangere nel grembiule della mamma non di mia mamma protestò tanto verrebbe piangere in una secchia concesso è così dov'esti il grave dovreste essere contento che non ci sia dovunque si trovi doveva uccidervi o almeno credeva di doverlo fare siete stata voi a chiamarmi qui vero gli siete attaccata fino a questo punto lei soffrò via la cenere della sigaretta dal dorso della mano un bioccolo di cenere mi entrò in un occhio mi fece ammiccare devo esserlo stata una volta si posò una mano su un ginocchio allargò le dita studiandosi le unghie con attenzione poi alzò gli occhi lentamente senza muovere il capo mi sembra che siano passati mille anni da quando ho conosciuto un omino simpatico educato e tranquillo che sapeva comportarsi in pubblico e non si sentiva in dovere di far pompa del suo fascino in tutte le taverne della città sì mi piaceva gli volevo molto bene si portò una mano alla bocca e si morsicò la nocca all'undito poi infilò quella stessa mano nella tasca della pelliccia e ne trasse un'automatica dall'impugnatura bianca la gemella di quella che avevo in tasca e alla fine gli ho voluto bene con questa concluse le andai vicino e le tolsi l'arma di mano fiuta e la canna sì aveva sparato e con questa facevano due non l'avvolgete in un fazzoletto come fanno nei film mi lasciai cadere la rivoltellina nella tasca ancora vuota dove avrebbe potuto raccogliere qualche interessante briciola di tabacco e alcuni semi esotici che nascono solo sul versante sud est del municipio di beverly hills forse avrebbe dato da divertirsi al chimico della polizia per un po' Capitolo 27 Rimasi a osservarla per qualche minuto mordendomi un labbro lei osservava me la sua espressione non era cambiata cominciai a percorrere la stanza con lo sguardo alzai la copertura di tela di uno dei tavoli sotto c'era un tappeto da roulette ma non la ruota sotto il tavolo non c'era nulla provate la poltrona con le magnolie consigliò mavis weld non guardò verso la poltrona così dovetti trovarmela da solo è incredibile quanto tempo mi ci volle era una poltrona di shins a fiorami dallo schienale alto a conchiglia di tipo che tanti anni fa si costruiva appositamente per riparare degli spifferi quando si stava a chini su un fuoco di carbone bituminoso le girai attorno lentamente senza rumore era quasi del tutto rivolta verso il muro tuttavia era ridicolo che non avessi notato il morto mentre tornavo dal bar era rannicchiato in un angolo con la testa rovesciata indietro il suo garofano era bianco e rosso e fresco come se la fioraia gliel'avesse appuntato al bavero un istante prima gli occhi erano semi aperti come sono spesso gli occhi di quel genere fissavano un punto imprecisato in un angolo del soffitto il proiettile era penetrato attraverso il taschino della giacca a doppio petto chi aveva sparato sapeva dove si trovava il cuore gli toccai una guancia ed era ancora calda gli alzai una mano e la lasciai ricadere era completamente inerte posai le dita sulla grossa arteria del collo il sangue non pulsava più solo poche gocce rosse avevano macchiato la giacca mi asciugai le dita nel fazzoletto e rimasi ancora per qualche istante a fissare il piccolo viso tranquillo del morto tutto quel che avevo fatto o non fatto buono o cattivo era stato inutile tornai al divano mi sedetti accanto alla ragazza e mi strinsi le ginocchia fra le mani che cosa vi aspettavate mi chiese mavis aveva ucciso mio fratello vostro fratello non era un angelo non era una buona ragione per ucciderlo qualcuno doveva ucciderlo e al più presto lei sgranò gli occhi non vi siete mai chiesta perché steelgrave non si è mai occupato di me e perché ha lasciato andare voi al van nice invece di andarci personalmente non vi siete mai chiesta perché un individuo con le sue risorse la sua esperienza non ha mai cercato di mettere le mani su quelle foto costasse quel che costasse la ragazza non rispose da quanto tempo sapevate dell'esistenza delle foto domandai da qualche settimana da quasi due mesi ormai ne ricevetti una per posta un paio di giorni dopo dopo il pranzo con steelgrave dopo che stain venne ucciso sì naturalmente pensavate che steelgrave avesse ucciso stain no perché avrei dovuto cioè non l'ho pensato fino a questa sera che cosa accadde dopo che riceveste la foto mio fratello orrin mi telefonò e mi raccontò che aveva perso l'impiego e che era in bolletta aveva bisogno di denaro non mi disse una parola della fotografia non era necessario quella istantanea poteva essere stata presa in una sola occasione come aveva ottenuto il vostro numero orrin il numero di telefono come l'avete avuto voi l'ho comprato ebbene abbozzò un gesto vago con la mano perché non chiamiamo la polizia e non la facciamo finita un momento e poi che cosa accadde arrivarono altre copie della foto una alla settimana le mostrei a lui accennò alla poltrona a fiorami la cosa non gli piacque di orrin non gli dissi nulla ma lui lo scoprì i tipi come lui tendono sempre a scoprire le cose immagino di sì però non scoprì il nascondiglio di orrin altrimenti non avrebbe aspettato tanto quando avete dato l'indirizzo di vostro fratello a steelgrave lei distorse lo sguardo e si affondò le unghie in un braccio oggi disse con voce lontana perché oggi il respiro le si ruppe in gola vi prego non fatemi tante domande inutili non mi tormentate non potete fare nulla per me credevo che poteste quando telefonata dolores ora non è più possibile benissimo dissi ma c'è qualcosa che a quanto sembra non riuscite a capire steelgrave sapeva che la persona che stava dietro quella fotografia chiunque fosse voleva quattrini un mucchio di quattrini sapeva che presto o tardi il ricattatore si sarebbe dovuto scoprire era questo che steelgrave aspettava della foto in sé non gliene importava niente se non per amor vostro l'ha dimostrato osservò la ragazza in tono stanco a suo modo la sua voce si alzò con calma glaciale ha ucciso mio fratello me l'ha detto lui con la sua bocca e in quel momento si è rivelato un gangster che strana gente si incontra hollywood vero me compresa gli volevate bene una volta dissi brutalmente due macchie rosse le si accesero sulle guance non voglio bene a nessuno ribatte ho finito di voler bene alla gente lanciò una breve occhiata alla poltrona fiorata a lui ho smesso di voler bene ieri sera mi ha chiesto di voi che eravate così via gliel'ho detto e gli ho detto che avrei dovuto confessare di essere stata vista all'albergo van nice vicino a quel morto avevate intenzione di dirlo alla polizia volevo dirlo a jules oppenheimer lui avrebbe saputo come risolvere la situazione e se non lui uno dei suoi cani non sorrise nemmeno io sorrisi se oppenheimer non fosse riuscito a sbrogliare le cose sarei stata finita come attrice soggiunse mavis senza interesse adesso sono finite in tutti i sensi trassi di tasca una sigaretta e l'accesi ne offersi una anche a lei ma non la volle non avevo nessuna fretta mi pareva di aver perso il senso del tempo e quasi di ogni altra cosa ero come svuotato correte troppo per me dissi dopo una pausa quando siete andata al van nice non sapevate che still grave era frigna moyer no e allora perché ci siete andata per comprare quelle foto com'è possibile non è chiaro e in questo caso le foto non avrebbero dovuto avere nessun senso per voi si trattava solo di voi e del vostro amico che facevate colazione lei sbatté gli occhi e poi li spalancò al massimo non sto per piangere mi rassicurò vi ho detto che non sapevo però quando lui andò in prigione quella volta dovetti per forza rendermi conto che c'era qualcosa nella sua vita che desiderava tenere nascosto larvatamente avevo capito che si era dedicato a qualche attività illegale ma non pensavo che fosse un assassino dissi già già mi alzai e mi avvicinai di nuovo alla poltrona gli occhi della ragazza mi seguirono lentamente mi chinai su still grave gli tastai la scella sinistra c'era una rivoltella nella fondina a tracolla non la toccai tornai a sedermi di fronte a mavis ci vorrà un sacco di soldi per mettere a posto questo pasticcio annunziai per la prima volta mavis weld sorrise fu un sorriso molto fragile e vago ma pur sempre un sorriso io non ho un sacco di soldi disse quindi la cosa è fuori questione hop neimer ne ha e per lui oggi voi valete dei milioni non correrebbe mai il rischio troppa gente oggigiorno cerca solo un appiglio per nuocere al cinema hop neimer si sobbarcherà la sua perdita senza fiatare e fra sei mesi non se ne ricorderà più avete detto che volevate rivolgervi a lui ho detto che se mi fossi trovata in un ginepraio senza aver fatto nulla di male mi sarei rivolta a lui ma ora ho fatto qualcosa e balù anche per lui rappresentate un grosso investimento io non valgo un fico secco per nessuno lasciate correre marlow siete pieno di buone intenzioni ma io conosco quella gente quindi la responsabilità ricade su di me osservai deve essere per questo che mi avete mandato a chiamare meraviglioso esclamò aggiustate tutto voi tesoro è gratis la sua voce era di nuovo esile priva di echi andai a sedermi accanto a lei sul divano le afferrai il braccio le sfilai la mano di tasca e gliela strinzi era quasi gelata nonostante la pelliccia lei si voltò a guardarmi dritto negli occhi poi scosse lievemente il capo credetemi tesoro non ne vale la pena neanche per venire a letto con me voltai la mano in su e cercai di stenderle le dita erano rigide e resistevano le ha persi una per una poi accarezzai il palmo ditemi perché vi eravate portata dietro la rivoltella la rivoltella non cercate di guadagnare tempo per pensare ditemelo semplicemente avevate intenzione di ucciderlo perché no tesoro credevo di significare qualcosa per lui temo di essere un po vanitosa e invece nessuno significa niente per gli steel grave di questo mondo e nulla significa nulla per le mavis world di questo mondo ormai si staccò bruscamente da me e mi rivolse un sorriso stentato non avrei dovuto darvi quella rivoltella se vi avessi ucciso potrei ancora cavarmela trassi di tasca la rivoltella e gliela porsi lei la prese e si alzò di scatto la canna puntava contro il mio petto la ragazza contraste di nuovo le labbra nel suo piccolo sorriso stanco l'indice era fermo sul grilletto mirate alto consigliai o la cannottiera di maglia di ferro lasciò ricadere la mano lungo il suo fianco e per un istante rimase immobile a fissarmi poi getto l'arma sul divano il copione non mi piace affermò non mi vanno le battute non è adatto alla mia personalità se capite che cosa intendo rise brevemente e si mise a fissare il pavimento la punta della sua scarpina si muoveva avanti indietro sul tappeto abbiamo fatto una bella chiacchierata tesoro il telefono è laggiù in fondo al bar grazie per avermi fatto memoria ricordate il numero di dolores perché proprio dolores quando vide che non le rispondevo finì col dirmelo andai in fondo alla stanza nell'angolo del bar e chiamai fu la stessa trafila dell'altra volta buonasera parla chateau bersi chi desidera la signorina gonzalez prego un momento per cortesia e poi una voce imbronciata che diceva pronto qui parla marlo avevate davvero intenzione di farmi ammazzare arrivai quasi a sentire che le si mozzava il fiato non proprio non si può sentire una cosa simile al telefono ma a volte si crede di potere sono contenta di sentire la vostra voce amico sono molto molto contenta allora avevate intenzione di farmi ammazzare o no io non lo so mi rattrista molto il pensiero che aver potuto nuocervi mi piacete tanto sono un po' nei guai qui lui è una lunga pausa telefono di casa albergo prudenza lui è lì beh in un certo senso c'è e non c'è la sentì davvero respirare questa volta un'aspirazione prolungata quasi un sibilo chi altri celli con voi nessuno solo io e il mio lavoro a maglia voglio farvi una domanda e di importanza vitale ditemi la verità dove avete preso la cosa che mi avete consegnata questa sera ma da lui me l'ha data quando questa sera sul presto perché quanto presto verso le sei mi pare perché ve l'ha data mi ha chiesto di conservarla per lui ne porta sempre una in tasca e perché vi ha chiesto di conservargliela non me l'ha detto amico era fatto così ben di rado dava spiegazioni avete notato qualcosa di insolito nella cosa che vi ha consegnata ma no non ho notato niente invece sì avete notato che ne aveva sparato da poco e che puzzava di polvere bruciata ma io non sì l'avete notato il fatto vi ha lasciata perplessa non vi garbava l'idea di tenervi quell'oggetto così non lo avete tenuto lo avete restituito a lui non vi piace avere arnesi di quel genere per casa comunque vi fu un lungo silenzio alla fine lei disse ma certo ma perché lui voleva che io la tenessi voglio dire se è successo così non vi ha detto il perché ha semplicemente tentato di liberarsi di una pistola pioppandola a voi e voi non ne avete voluto saperne ricordate è una cosa che dovrò dire a qualcuno sì non avrò guai se lo dirò quando mai avete cercato di evitare guai diede una risatina sommessa amico come mi conoscete bene buonanotte mormorai un momento non mi avete detto che cosa è successo non vi ho nemmeno telefonato deposi ricevitore mi voltai mavis weld era in piedi in mezzo alla sala e mi osservava avete qui la vostra macchina le domandai sì filate e poi niente andate a casa non potete cavarvela in questa situazione mormorò siete la mia cliente non posso permettervelo l'ho ucciso io perché dovrei trascinarvi in questo pasticcio non tergiversate e quando ve ne andate prendete la strada posteriore non quella che mi ha fatto fare dolores lei mi guardò dritto negli occhi e ripete con voce vibrante ma io l'ho ucciso non riesco a sentire una sola parola di quello che dite posò i denti sul labbro inferiore e ve le affondò crudelmente se ne stava rigida in piedi e pareva quasi che non respirasse le andai vicino e le toccai la guancia con la punta di un dito premetti forte poi guardai la macchia bianca diventare lentamente rossa se ci tenete a saperlo le mie ragioni non hanno nulla a che vedere con voi le dissi sono in debito con i questurini non ho fatto un gioco pulito questa volta loro lo sanno io lo so sto semplicemente cercando di offrir loro l'occasione di darsi un po di arie come se non se ne procurassero abbastanza da soli osservò mavis poi si voltò di scatto e si allontanò la fissai mentre si dirigeva verso l'arco aspettando che si guardasse indietro se ne andò senza voltarsi dopo molto tempo udì un ronzio poi una specie di tonfo la porta del garage che si alzava un automobile si avviò a grande distanza poi rallentò vi fu una pausa di silenzio poi di nuovo il ronzio il ronzio cessò poi il rombo del motore si perse in lontananza non udivo più nulla ora il silenzio della casa mi avvolgeva come la cappa di pelo intorno alle spalle di mavis weld riportai la bottiglia il bicchiere al bar e scavalca il banco sciacquai il bicchiere nel minuscolo acquaio e riposi la bottiglia sullo scaffale questa volta trovai la serratura e spalancai lo sportello dal lato opposto del telefono tornai da steelgrave trassi di tasca l'automatica che mi aveva dato dolores la ripulì col fazzoletto chiusi la piccola mano inerta del morto intorno al calcio la tenni così per un istante poi la lasciai andare la rivoltella cadde al suolo con un tonfo la posizione aveva un'aria naturale delle impronte digitali non mi preoccupavo certo lui aveva imparato da un pezzo a non lasciarne su nessun tipo di pistola mi rimanevano ancora tre rivoltelle tirai fuori quella che steelgrave teneva nella fondina a tracolla la portai al bar e la deposi sul ripiano sotto il banco avvolta in un asciugamano la mia luger non la toccai rimaneva l'altra automatica dall'impugnatura bianca cercai di stabilire a quale distanza da lui era stato sparato non a bruciapelo ma probabilmente molto da vicino mi piazzai a circa un metro dal morto e sparai due colpi al di sopra della sua spalla i proiettili andarono ad annidarsi tranquillamente nel muro voltai la poltrona in modo che guardasse la stanza poi deposi la minuscola automatica sul telo che copriva uno dei tavoli da roulette tornai da steelgrave tastai il muscolo grande al lato del collo quello che di solito si rigidisce per primo non riuscì a capire se aveva cominciato a indurirsi o no però la pelle era più fredda non avevo tempo da perdere andai al telefono e feci il numero della centrale di polizia di los angeles chiesi al centralinista di passarmi christy french una voce della squadra omicidi venne in linea e mi annunziò che il tenente era andato a casa e amen affermai che si trattava di una chiamata personale che french aspettava mi diedero il suo numero privato con riluttanza non perché fosse proibito ma perché i poliziotti odiano dover dar qualcosa a qualcuno in qualsiasi momento chiamai di nuovo venne una donna all'apparecchio e strillò christy poi venne lui tranquillo e riposato e qui parla marlow che cosa stavate facendo leggevo i giornaletti al mio bambino dovrebbe essere a letto che novità ci sono vi ricordate ieri al van nice quando avete detto che chi avesse fornito una prova contro frigna moyer si sarebbe fatto un amico già mi occorre un amico il tenente non mi parli molto interessato che cosa sapete sul suo conto suppongo che sia la stessa persona still grave troppe ipotesi figlio l'abbiamo messo al fresco perché supponevamo la stessa cosa ma è andata a buca avevate avuto un'informazione segreta ve l'aveva fatta arrivare lui in modo che la sera del lacrimato trapasso di stain voi sapeste dove si trovava state inventandovi tutto o avete prove french mi pareva un po meno placido se un tale esce di prigione con un lascia passare del medico del carcere potete provarlo vi fu una pausa di silenzio udì la voce del ragazzino che si lamentava e una voce di donna che parlava al bambino è successo rispose il tenente a fatica non saprei è una faccenda piuttosto complicata naturalmente lo manderebbero con una scorta è riuscito a corrompere la guardia io penso di sì meglio dormirci sopra c'è altro sono alle steelwood aids in un enorme villa dove si sta allestendo una sala da gioco nonostante il parere contrario degli abitanti della zona ho letto qualcosa in proposito still grave è lì e qui sono solo con lui un altro silenzio il ragazzino strillò mi parve di udire l'eco di uno scapaccione il ragazzino strillò più forte french urlò dietro a qualcuno fatelo venire al telefono mi disse finalmente non siete molto sveglio stasera christy perché chiamerei proprio voi già fece lui che stupido qual è l'indirizzo non lo so ma la villa è in fondo a tower road sullo steelwood aids e il numero telefonico è 95033 centrale di all dale vi aspetto qui il tenente ripete il numero poi disse ad agio questa volta aspettate doveva pur venire la volta buona la comunicazione si interruppe e io deposi ricevitore rifeci il giro della casa accendendo le luci man mano che trovavo gli interruttori e usci dalla porta posteriore che dava sulla gradinata c'era un riflettore nel cortile delle macchine accesi anche quello poi scesi la scala e mi diressi alla macchia di oleandri il cancello della via privata era aperto come prima lo chiusi con violenza agganciai la catena e feci scattare il lucchetto tornai lentamente sui miei passi guardando la luna odorando l'aria notturna ascoltando i grilli e le raganelle sulla facciata c'era un grande parcheggio e un prato tondeggiante pieno di rose ma bisognava sgattaiolare sul retro della casa per potersene andare il luogo era un vicolo cieco a parte il viale che correva lungo la tenuta di un vicino mi domandai chi potesse essere quel vicino molto lontano fra gli alberi scorgevo le luci di una grande casa un pezzo grosso di hollywood probabilmente un asso del bacio bavoso e della dissolvenza pornografica ritornai nella grande sala e tastai la rivoltella che avevo appena sparato era abbastanza fredda quanto al signor steelgrave cominciava ad avere l'aria di voler rimanere morto in definitiva niente sirena ma il rombo di una macchina che saliva la collina finalmente scesi a incontrarla io e il mio magnifico sogno capitolo 28 entrarono come dovevano grossi rudi flemmatici con gli occhi irrequieti guardinghi e pieni di incredulità bel posticino osservò french dov'è il cliente la annunziò bifus senza aspettare la mia risposta attraversarono la stanza senza fretta e si piantarono davanti al cadavere osservandolo con aria solenne piuttosto morto no osservò bifus dando inizio alla commedia french si chinò e raccolse la rivoltella che giaceva al suolo reggendola per la guardia del grilletto col pollice e l'indice poi diede una rapida occhiata da un lato e fece un cenno col mento bifus sollevò l'altra rivoltella dall'impugnatura bianca infilando una matita nella canna le impronte digitali saranno tutte al posto giusto spero disse bifus e annusò l'arma oh sì questo giocattolino si è dato da fare che è del tuo cristi ha sparato dichiarò french e fiuto di nuovo ma non di recente trasse di tasca una torcia elettrica a matita e diresse il fascio di luce nell'interno della canna ore fa a bay city in una casa di wyoming street dissi tirate a indovinare mi chiese french lentamente sì il tenente si avvicinò al tavolo coperto e depose la piccola automatica a una certa distanza dall'altra ci conviene contrassegnarle subito fred sono gemelle firmeremo entrambi le etichette bifus annui si frugò in tasca e pescò un paio di etichette con due spaghi a un campo il genere di cose che i poliziotti si portano sempre dietro french tornò da me e adesso smettiamo di lavorare di fantasia e veniamo a quel che sapete veramente una ragazza che conosco questa sera mi ha telefonato che una mia cliente era quassù minacciata di morte da lui e col mento indica il cadavere sulla poltrona poi è venuta a prendermi e mi ha condotto qui in macchina siamo passati dal posto di blocco ci hanno visti in parecchi dopodiché la ragazza mi ha lasciato qui sul retro della villa ed è tornata a casa sua questa ragazza ha un nome volle sapere french dolores gonzalez casa albergo chateau bercy frankly avenue è un'attrice del cinema oh oh esclamò bifus roteando gli occhi chi sarebbe la vostra cliente la stessa ragazza no un'altra ha un nome non ancora si voltarono a fissarmi coi visi duri tesi la mandibola di french si mosse quasi con uno scatto ai lati del viso gli si profilarono due groppi di muscoli inventate delle regole nuove eh domandò sommessamente bisognerà che ci mettiamo d'accordo sulla questione pubblicità affermai e il procuratore distrettuale dovrebbe essere disposto a collaborare non conoscete bene il procuratore distrettuale marlow mi informò bifus si pappa la pubblicità come io mi pappo i pisellini freschi di giardino non vi possiamo dare nessuna garanzia dichiarò french allora la ragazza non ha un nome abbiamo una dozzina di sistemi per scoprirlo cocco mi informò bifus perché intestardirvi e rendere le cose difficili a tutti niente pubblicità a meno che non vengano formulate accuse specifiche dissi non ve la caverete marlow oh per dio esclamai quest'uomo ha ucciso or in quest portate quella rivoltella alla centrale fate un controllo dei proiettili che avete estratto dal cadavere di quest concedetemi almeno questo prima di costringermi in una posizione impossibile io non vi concederei nemmeno un fiammivro usato replicò french non gli risposi lui mi fissò con odio freddo negli occhi mosse le labbra ad agio e domandò con voce rauca faticosa eravate presente quando gli hanno fatto la pelle no chi c'era lui dichiarai voltandomi a guardare il cadavere di steelgrave e chi altri non vi mentirò promisi ma non vi dirò niente di quel che non vi voglio dire se non alle condizioni che vi ho proposto non so chi c'era quando l'hanno freddato chi c'era qui quando siete arrivato non risposi french voltò il capo lentamente e brontolò a bifus mettegli le manette per di dietro bifus esitò poi trasse dalla tasca posteriore dei calzoni un paio di manette di acciaio e mi venne vicino mettete le mani dietro la schiena ordinò a disagio obbedì lui mi fece scattare i braccialetti ai polsi french si avvicinò lentamente e mi si piantò di fronte aveva gli occhi semi chiusi la pelle tutt'intorno era grigia di fatica adesso farò un discorsetto annunziò e a voi non piacerà non ha perso in bocca french disse le cose stanno così per noi figlio siamo questurini e nessuno ci può vedere è come se non avessimo già abbastanza guai ci capitate anche voi come se non ci prendessimo già abbastanza strapazzate dai grandi uomini che hanno gli uffici di lusso in municipio dal capo di urno dal capo notturno dalla camera di commercio da sua eccellenza il sindaco che ha un ufficio tutto pannelli grande quattro volte le trepidocchissime stanze in cui deve lavorare l'intera squadra omicidi come se non avessimo dovuto sbrogliare 114 omicidi l'anno scorso chiusi in tre stanzucule dove non ci sono nemmeno abbastanza sedie per far sedere tutta la squadra di turno noi passiamo la vita a frugare tra la biancheria sporca ad annusare denti marci andiamo su per una scala buia per arrestare qualche tisicuzzo imbottito di stupefacenti e alle volte non arriviamo fino in cima e le nostre mogli non ci vedono arrivare a cena quella sera e tutte le altre sere non torniamo a casa più e le sere che torniamo siamo così brutalmente stanchi che non riusciamo né a mangiare né a dormire nemmeno a leggere le balle che i giornali stampano sul nostro conto così ce ne stiamo svegli al buio in una casa miserabile in una strada miserabile ascoltiamo gli ubriachi in fondo all'isolato che fan cagnare e si divertono e appena cominciamo ad appisolarci il telefono suona e tutto ricomincia da capo niente di quel che facciamo va bene mai non una volta se otteniamo una confessione l'otteniamo a forza di cazzotti dicono e qualche avvocato dei miei stivali ci chiama gestapo in pieno tribunale ci dà la baia se deponendo facciamo gli errori di grammatica se ne combiniamo una storta ci rimandano in divisa a fare la ronda in sky draw e noi passiamo le belle serate ed estate a tirar fuori gli sbronzi dei fossi a farci urlar dietro dalle puttane a strappare coltelli di mano ai messicani ma tutto questo non basta per la nostra completa felicità ci volete anche voi fece una pausa per riprendere fiato aveva il viso un po' il lustro di sudore si chinò in avanti con la schiena rigida facendo perno sulle anche ci volete anche voi ripete ci vogliono gli imbroglioni con la licenza da investigatore privato che nascondono informazioni procedono sempre per vie traverse e sollevano una quantità di polvere tanto per farcela respirare tutta ci volete anche voi che distruggete le prove e fabbricate delle messiscene che non ingannerebbero neanche un bambino deficiente ve ne avete a male se vi dico che siete una spia uno schifoso e un venduto volete che me ne abbia male domandai french si raddrizzò ne sarei felice affermò felice come una pasqua parte di quel che avete detto è vero concessi non tutto qualche investigatore privato desidera sempre fare il gioco della polizia a volte però è un po' difficile capire chi stabilisce le regole del gioco a volte l'investigatore privato non si fida degli agenti e con ragione a volte si caccia in una grana senza averne l'intenzione deve giocare la partita con le carte che si è trovato in mano di solito preferirebbe ricominciare tutto da capo vorrebbe continuare a guadagnarsi il pane la vostra licenza è scaduta annunziò french da questo momento di questo problema non ci dovremo più preoccupare la mia licenza scadrà quando la commissione che me l'ha concessa dirà che è scaduta non prima continuiamo il lavoro christy intervenne bifus con calma questa faccenda può aspettare sto continuando il lavoro ribatte french a modo mio questo bravo uomo non mi ha ancora risposto a tono e io aspetto proprio che mi risponda a tono una replica tagliente spiritosa non ditemi che siete a corto di frecciate marlow che cosa volete che vi ricca domandai indovinate siete un lupo mannaro questa sera osservai volete mangiarmi in un boccone ma vi occorre una scusa e pretendereste che ve la dessi io potrebbe farmi comodo borbottò lui tra i denti che cosa avreste fatto al mio posto domandai non mi vedo scendere così in basso si sfiorò il labbro superiore con la lingua la mano destra gli pendeva lungo il fianco continuò ad aprire e chiudere il pugno senza accorgersene prendi la calma christy consigliò bifus lascia perdere french non si mosse bifus si avvicinò e si piantò fra me e lui levati di lì fred ordinò french no french strinse il pugno e gli assestò un violento diretto alla mascella bifus arretrò barcollando e mi spinse da parte le ginocchia gli si fecero molli si chinò in avanti tossendo sempre piegato in due scosse il capo lentamente dopo qualche istante si raddrizzò con un verso gutturale si voltò a guardarmi e sorrise è un nuovo genere di terzo grado disse i poliziotti si scazzottano a sangue e l'elemento sospetto sconvolto dallo spettacolo perde le staffe confessa alzò una mano e si tastò l'angolo della mascella stava già gonfiandosi la bocca sorrideva ma gli occhi erano ancora un po vaghi french era rimasto inchiodato al suo posto immobile silenzioso bifus trasse di tasca un pacchetto di sigarette lo scosse per farne uscire una e lo porsi al collega french guardò la sigaretta poi guardò bifus 17 anni di questa vita mormorò anche mia moglie mi odia diede un leggero schiaffo a bifus sulla guancia con la mano aperta bifus continuò a sorridere french domandò eri tu quello che ho picchiato fred nessuno mi ha picchiato christy nessuno che io ricordi libera gli polsi e portalo fuori in macchina ordinò french è in arresto ammanettalo al volante se ti pare necessario benissimo bifus mi girò dietro le manette si apersero andiamo cocco fissai french intensamente lui mi guardò come se fossi stato la tappezzeria i suoi occhi non mi vedevano usci dalla sala e usci dalla casa capitolo 29 non venni mai a sapere il suo nome però era piuttosto piccolo e magro per un poliziotto cosa che doveva essere sia perché si trovava la sia perché quando si era sporto sul tavolo per prendere una carta gli avevo visto sotto l'ascella una fondina a tracolla il calcio di una 38 d'ordinanza della polizia non parlava molto ma quando apriva la bocca aveva una voce simpatica morbida e tranquilla e un sorriso che riscaldava tutta la stanza magnifica disposizione osservai guardandolo al di sopra delle carte stavamo giocando un doppio rosso e nero o meglio lui lo stava giocando io ero là e lo guardavo guardavo le sue mani piccole molto ben fatte molte pulite muoversi lungo il tavolo sfiorare una carta sollevarla delicatamente e deporla in un altro posto giocando sporgeva le labbra e fischiettava senza melodia un fischio discreto e sommesso come quello di una locomotiva giovanissima non ancora del tutto sicura di sé l'uomo sorrise e depose un nove rosso su un dieci nero che cosa fate nelle ore libere domandai suono molto il piano rispose ho uno stanway a coda suono mozart e buck principalmente molti li giudicano noiosi io no magnifica posizione ripetei e spostai una carta non potete credere come siano difficili certi pezzi di mozart soggiunse l'uomo e sembra così semplice quando è suonato bene chi lo suona bene schnabel e rubystein scosse il capo troppo carico troppo emotivo mozart è solo musica non ha bisogno di commento da parte dell'esecutore scommetto che riuscite a mettere molta gente nelle disposizioni migliori per confessare dissi vi piace il vostro lavoro lui spostò una carta e flette leggermente le dita aveva le unghie lucide ma corte si capiva che gli piaceva muovere le mani fare tanti piccoli gesti insignificanti ma morbidi fluenti come le piume del petto d'un cigno erano mani che facevano pensare a cose delicate compiute delicatamente ma non senza forza mozart appunto potevo capirlo erano circa le cinque e mezzo e il cielo dietro gli scuri abbassati si stava facendo più chiaro la scrivania saracinesca nell'angolo era chiusa era la stessa stanza del pomeriggio precedente a un capo della tavola giaceva una tozza matita di legno che qualcuno aveva raccolto dopo che il tenente maglashan di bay city l'aveva scaraventata contro il muro la scrivania dove era stato seduto christy era cosparsa di cenere un vecchio mozzicone di sigaro era in bilico sull'orlo di un portacenere di vetro una falena girava in circolo attorno alla lampada che pendeva per un cordone dal soffitto protetta da uno di quei paralumi di vetro bianco e verde che si usano ancora negli alberghi di campagna stanco domandò all'omino sfinito non dovreste andarvi a cacciare nei pasticci così elaborati non vedo che senso ci sia non c'è senso a sparare un uomo lui sorrise il suo sorriso caldo voi non avete sparato a nessuno che cosa ve lo fa dire il buon senso è la vasta e ricca esperienza che ho acquistato standomene qui a far compagnia alla gente credo che il vostro lavoro vi piaccia veramente osservai è un lavoro notturno mi lascia il tempo di giorno per esercitarmi col piano sono dodici anni che lo faccio ormai ho visto un mucchio di tipi curiosi andare e venire scoperse un altro asso appena in tempo eravamo quasi bloccati ottenete molte confessioni oh io non ricevo le confessioni obiettò solo favorisco un determinato stato d'animo perché mi scoprite il vostro gioco si appoggiò allo schienale della sedia e batte leggermente il bordo del tavolo col bordo di una carta e di nuovo sorrise non scopro nessun gioco ci siamo già fatti un'idea su di voi molto tempo fa e allora perché mi trattengono a questo non volle rispondere diede un'occhiata all'orologio a muro credo che potremo farci mandar su qualcosa da mangiare ora si alzò e andò alla porta aperse per metà il battente parlò sotto voce con qualcuno di fuori poi tornò si mise a sedere e guardò come stavamo a carte inutile osservò ne alziamo altre tre e poi siamo bloccati ci state a cominciare una nuova partita ci sarei stato anche a non cominciare del tutto io non gioco a carte sono per gli scacchi lui mi lanciò una rapida occhiata dal sotto in su perché non l'avete detto anch'io avrei preferito giocare a scacchi per me preferirei a tutto una tazza di caffè nero e amaro come il peccato arriverà da un momento all'altro ma non vi posso promettere il caffè al quale siete abituato oh ma io mangio dove mi capita beh se non ho sparato io al nostro uomo chi gli ha sparato deve essere appunto questo che li irrita un po dovrebbero essere contenti che è andato al creatore probabilmente lo sono affermò il mio compagno ma non apprezzano il modo con cui ce l'hanno mandato personalmente mi è parso un lavoretto pulito meglio così lui mi guardò dal sotto in su in silenzio aveva in mano le carte in un mazzo solo le pareggiò ben bene se le fece scorrere fra le dita a faccia in su e le divise nei due mazzi originari sembrava che le carte fluissero dalle sue mani in un rivolo velocissimo quasi indistinto se fosse così rapido con una pistola cominciai il flusso di carte si interruppe senza che io notassi alcun gesto una rivoltella prese il suo posto lumino la teneva agilmente con disinvoltura sulla mano destra puntandola verso un angolo lontano della stanza poi l'arma sparì e le carte ripresero a correre siete sprecato qui affermai dovreste essere nella città bisca a las vegas lui prese un solo mazzo di carte lo mischiò in un istante lo tagliò e mi servì una scala reale di picche sono più al sicuro con uno stainway rispose la porta si aprì ed entrò una gente in uniforme con un vassoio mangiamo guazzetto di carne affumicata e bevemmo caffè bollente ma leggero ormai era giorno pieno alle otto e un quarto arrivò christy french e mi si piantò vicino col cappello quasi sulla nuca e due pennellate nere sotto gli occhi lo guardai poi guardai l'omino al di là della tavola ma l'omino non c'era più nemmeno le carte c'erano più non c'era più nulla se non una sedia accostata ordinatamente al tavolo e i piatti in cui avevamo mangiato ammonticchiati sul vassoio per un istante provai una sensazione fredda di realtà poi christy french girò attorno al tavolo tirò indietro la sedia con violenza si sedette e appoggiò il mento su una mano tolse il cappello e si passò le dita fra capelli poi mi fissò con gli occhi duri imbronciati ero tornato nel regno della polizia capitolo 30 il procuratore distrettuale vuol vedervi alle nove annunziò french e dopo immagino potrete andarvene a casa sempre che il procuratore non vi incrimini leggermente di qualcosa mi spiace che abbiate dovuto passare la notte su una sedia niente di male avevo bisogno di un po di ginnastica già ritorniamo all'ordinaria amministrazione osservò il tenente fissando con aria tetra i piatti sul vassoio preso la gardie domandai no però è proprio un medico mi guardò dritto negli occhi esercitava cleveland mi secca infinitamente essere così esatto dichiarai che cosa intendete il giovane quest voleva ricattare steelgrave così per puro caso si imbatte nell'unico uomo in tutta bay city che può provare l'identità di steelgrave tutta questa storia è troppo conseguente non avete dimenticato nulla sono abbastanza stanco da dimenticare il mio nome che cosa ho dimenticato anch'io sono stanco morto dichiarò french e proseguì qualcuno deve aver detto a quest chi era steelgrave quando l'istantanea è stata presa non avevano ancora fatto la pelle a moistane così che senso aveva la foto se nessuno sapeva chi era steelgrave la signorina weld lo sapeva immagino obiettai e quest era suo fratello quel che dite non ha molto senso brav'uomo french mi rivolse un sorriso stanco vi pare plausibile che la ragazza abbia aiutato il fratello a ricattare il suo amico non che lei in persona ci rinuncio forse la foto è stata un caso un colpo di fortuna l'altra sorella la mia ex cliente mi ha detto che il ragazzo si divertiva a fotografare la gente di sorpresa il più di sorpresa possibile se fosse vissuto a sufficienza avreste dovuto metterlo al fresco per tentato ricatto per omicidio corresse french con aria indifferente cosa ma glashan l'aveva trovato lo scalpello da ghiaccio solo che a voi non aveva voluto dirlo dovrebbero esserci delle prove più sostanziali ce ne sono ma non vale la pena di scomodarsi closen e filavia marston erano entrambi pregiudicati il ragazzo è morto veniva da una famiglia rispettabile ma gli mancava qualche rotella e si era messo con la gente losca inutile infangare una famiglia solo per provare che la polizia è capace di risolvere un caso siete generoso e steelgrave di quello non mi occupo più french fece l'atto di alzarsi quando qualcuno fa fuori un gangster quanto credete che durino le indagini finché i giorni ne pubblicano i resoconti in prima pagina risposi ma qui c'è di mezzo una questione d'identità no semplicemente no ne siamo sicuri french era in piedi ora si passò le dita tra i capelli per ravviarli sistemò la cravatta e si calcò il cappello in testa poi soggiunse sottovoce a mezza bocca resti tra noi ne siamo sempre stati sicuri solo non avevamo uno straccio di prova grazie non lo dirò a nessuno e che ne è delle pistole il tenente si fermò e fissò il piano del tavolo poi alzò gli occhi piuttosto ad agio e incontrò i miei appartenevano entrambi a steelgrave e per completare l'opera steelgrave aveva tanto di porto d'armi rilasciato dallo sceriffo di un'altra contea non mi chiedete il perché una delle due fece una pausa e contemplò il muro al di sopra della mia testa una delle due ha ucciso quest e la stessa arma ha ucciso stain quale abbozzò un sorrisetto sarebbe un bel disastro se l'esperto di balistica le avesse confuse non avessimo più modo di saperlo aspettò che io dicessi qualcosa ma io non avevo niente da dire allora fece un gesto vago con la mano beh arrivederci non per un fatto personale sapete ma spero che il procuratore distrettuale vi levi la pelle e poi versi sale sulle piaghe si voltò e uscì avrei potuto fare altrettanto invece rimasi seduto a fissare il muro al di là del tavolo come si avesse dimenticato come si faceva ad alzarsi dopo un po la porta si aprì ed entrò la dama arancione tirò giù la saracinesca della sua scrivania levò il cappellino dalla sua chioma impossibile e appese la giacca a un gancio nudo nel muro nudo aperse la finestra al suo fianco tolse la custodia alla macchina da scrivere inserì un foglio nel carrello poi si voltò a guardarmi aspettate qualcuno alloggio qui risposi ci sono rimasto tutta la notte lei mi guardò fisso per un momento siete stato qui anche ieri pomeriggio me ne ricordo tornò a voltarsi verso la macchina e le sue dita cominciarono a volare dalla finestra aperta veniva il ringhio sommesso delle macchine che andavano ad affollare il parcheggio nel cielo c'era un riverbero bianco e quasi niente foschia prometteva di essere una giornata a fosa il telefono trillò sulla scrivania della dama arancione lei parlò sommessamente nel microfono e riappese poi tornò a guardarmi il signor endicott è in ufficio annunziò sapete la strada una volta lavoravo là non per lui però mi hanno licenziato mi guardò con la faccia da palazzo di giustizia che hanno tutti quelli come lei una voce che pareva venire da qualsiasi altra parte fuorché dalla sua bocca disse dategli un pugno sul naso da parte mia le andai vicino e guardai giù verso i capelli arancione c'era molto grigio alle radici chi è stato il muro rispose lei parla sono le voci dei morti passati di qui mentre andavano al diavolo usci dalla stanza in punta di piedi e chiusi la porta sta accompagnando la molla perché non facesse rumore capitolo 31 si passa per due porte a chiusura automatica oltre la porta c'è una combinazione di centraline ufficio informazioni dove siede una donna senza età come se ne vedono nei municipi di tutto il mondo non sono mai state giovani e non saranno mai vecchie non hanno né bellezza né fascino né stile non devono piacere a nessuno sono al sicuro sono civili senza essere mai veramente cortesi intelligenti e informate senza nutrire mai un autentico interesse per nulla sono quel che diventa un essere umano quando baratta la vita per l'esistenza e l'ambizione per la sicurezza oltre il centralino c'è una serie di cubicoli a vetri allineati lungo una parete dell'ampio locale dall'altro lato c'è la sala d'aspetto una fila di sedie di legno che guardano tutte dalla stessa parte verso i cubicoli circa la metà delle sedie era occupata da persone in attesa tutte con l'espressione di chi ha aspettato molto e sa che dovrà aspettare ancora di più per la maggior parte erano male in arnese uno era indivisa da carcerato con una guardia al fianco un ragazzo lungo e sparuto dal viso bianco e dagli occhi vuoti malati e in fondo oltre ai cubicoli c'era una porta con la scritta sewell andycott procuratore distrettuale bussai ed entrai in una stanza d'angolo vasta e ariosa un locale abbastanza simpatico all'antica con le poltrone imbottite di cuoio nero e i ritratti dei procuratori distrettuali e dei governatori passati alle pareti un vento leggero faceva ondeggiare le tende di rete alle quattro finestre un ventilatore su un alto scaffale faceva le fusa e girava lentamente disegnando un languido arco sewell andycott seduto dietro una scrivania scura mi guardò entrare mi indicò una poltrona di fronte a lui e io mi sedetti era alto asciutto e bruno coi capelli neri soffici e le dita lunghe e delicate siete marlow mi domandò con una voce che conservava un'ombra della cantilena del sud non mi parve il caso di rispondere mi limitai ad aspettare siete in un brutto guaio marlow vi sarà molto difficile cavarvela siete stato scoperto a sopprimere delle prove indispensabili per la soluzione di un delitto questo si chiama a far ostruzione alla giustizia potreste venire processato per una cosa simile che prove avrei soppresso domandai andycott prese un istantanea dal piano della scrivania e la studiò accigliato io guardai le altre due persone che erano nella stanza erano sedute su due poltrone fianco a fianco una era mavis weld portava gli occhiali scuri dall'ampia montatura bianca non potevo vederle gli occhi ma mi parve che mi osservasse non sorrise era quasi immobile al suo fianco sedeva un uomo con un divino completo di panno grigio perla e un garofano all'occhiello che aveva le dimensioni di una dalia stava fumando una sigaretta monogrammata e lasciava cadere la cenere sul pavimento ignorando il portacenere a piedistallo al suo fianco lo riconobbi dalle foto che avevo visto sui giornali era lee farrell uno dei più abili avvocati del paese specializzato nel risolvere le grane più spaventevoli aveva i capelli bianchi ma gli occhi giovani e vivaci era abbronzato come se vivesse molto all'aria aperta dava l'impressione che bisognasse pagare mille dollari solo per stringergli la mano handicott si appoggiò all'indietro e tamburellò sul bracciolo della poltrona con le lunghe dita poi si rivolse a mavis weld con cortese deferenza e fino a che punto conoscevate still grave signorina weld intimamente aveva un grande fascino a suo modo non riesco ancora a credere si interruppe e si strinza nelle spalle e siete disposta a salire sul banco dei testimoni a deporre sotto giuramento specificando dove quando è stata presa questa fotografia voltò l'istantanea e gliela mostrò farrell chiese con aria indifferente un istante prego è questa la prova che marlow avrebbe soppressa le domande le faccio io ribatte il procuratore in tono asciutto farrell sorrise beh nel caso che la risposta fosse affermativa a questa foto non è la prova di niente handicott domandò a bassa voce volete rispondere alla mia domanda signorina weld la ragazza parlò tranquillamente con disinvoltura no signora indico non posso giurare dove quando è stata presa questa foto l'hanno fatta mia insaputa basta che guardiate insinuò il procuratore distrettuale è tutto quel che so è quel che apprendo guardandola replicò la ragazza sorrisi farrell mi guardò con una scintilla di malizia negli occhi handicott sorprese il mio sorriso c'è qualcosa che vi diverte mi chiese come se volesse mordermi sono stato in piedi tutta la notte la faccia non mi obbedisce più il procuratore mi lanciò un'occhiata severa e tornò a rivolgersi a mavis weld non vorreste essere più esplicita signorina weld io vengo fotografata continuamente signora indico nei posti più diversi con le persone più disparate io ho pranzato e cenato nel ristorante di alle danze con il signor steelgrave e con numerosi altri uomini non so che cosa desiderate farmi dire farrell intervenne dolcemente se ho ben capito voi vorreste che la signorina weld prestasse testimonianza per conto della procura distrettuale allo scopo di far accettare questa foto come prova in che genere di azione legale questo è affar mio dichiarò handicott laconico qualcuno ucciso steelgrave a rivolverate questa notte potrebbe essere stata una donna potrebbe essere stata anche la signorina weld mi duele dire una cosa simile ma pare che la situazione sia questa mavis weld si guardò le mani torceva un guanto bianco tra le dita ebbene disse farrell immaginiamo un'azione legale in cui questa foto faccia parte delle prove della procura distrettuale sempre che riusciate a farla accettare ma non ci riuscirete la signorina weld non ha modo di farla accettare per voi della foto la signorina sa solo quello che vede quello che tutti possono vedere voi dovreste farla accettare per mezzo di un test che possa giurare come quando e dove è stata presa altrimenti io mi opporrei posto che sostenessi la parte avversa potrei persino presentare dei tecnici per provare che si tratta di un fotomontaggio non stento a crederlo dichiarò handicott seccamente l'unica persona che risponda questi requisiti è l'uomo che ha scattato la fotografia continuò a farle senza fretta e senza calore e a quanto saputo è morto sospetto anzi che sia stato ucciso per questo e questa foto in sé è una prova lampante che un certo giorno steelgrave non si trovava in prigione e perciò non aveva un alibi per l'assassinio di stain dichiarò handicott sarà una prova se e quando potrete farla accertare come tale handicott obiettò farrell o santo cielo non sto cercando di darvi una lezione di diritto conoscete la legge meglio di me non ci pensate più a quella foto non prova niente di niente nessun giornale avrebbe il coraggio di pubblicarla nessun giudice l'accetterebbe come prova perché nessun test degno di fede potrebbe collegarla al caso e se questa è la prova che marlow ha soppressa allora dal punto di vista legale non ha soppresso nessuna prova non avevo intenzione di processare steelgrave per omicidio rispose handicott in tono asciutto però mi piacerebbe sapere chi può averlo ucciso anche la polizia per qualche sua fantastica ragione pare che si interessi della cosa spero che la nostra curiosità non vi offenda nulla mi offende dichiarò farrell per questo sono arrivato dove sono arrivato siete sicuro che steelgrave sia stato assassinato handicott fissò illegale senza parlare farrell aggiunse con la massima disinvoltura ho saputo che sono state trovate due rivoltelle entrambe di proprietà di steelgrave chi ve l'ha detto domandò aspramente handicott e si sporse in avanti accigliato farrell lasciò cadere la sigaretta nel portacenere si strinse nelle spalle perbacco sono cose che si vengono a risapere una di queste rivoltelle ha ucciso quest nonché stain l'altra ha ucciso steelgrave ed è stata sparata molto da vicino anche ammetto però che i tipi come lui di regola non scelgono questa via per uscire di scena ma può succedere senza dubbio convenne handicott gravemente grazie per il suggerimento si dà il caso che sia sbagliato farrell sorrisetta acque il procuratore distrettuale si voltò lentamente verso mavis weld signorina weld questo ufficio l'attuale titolare perlomeno non ritiene giusto procacciarsi pubblicità a spese delle persone per le quali un certo tipo di pubblicità potrebbe essere fatale è mio dovere stabilire se il caso di processare qualcuno per questi delitti e di sostenere l'accusa se le prove lo permettono non è mio dovere rovinarvi la carriera rendendo pubblico il fatto che avete avuto la cattiva fortuna o il cattivo discernimento di legarvi a un uomo che sebbene non fosse mai stato condannato e non fosse neppure stato accusato di un'infrazione alla legge per un certo periodo aveva indubbiamente fatto parte di una banda di fuorilegge non credo che sia stata del tutto sincera con me a proposito della fotografia ma non voglio insistere su questo punto non c'è molto senso a chiedervi se siete stata voi a uccidere steelgrave però vi chiedo molto seriamente se siete a conoscenza di qualcosa che possa servirmi a individuare chi l'ha ucciso farrell intervenne rapidamente conoscenza signorina world non un semplice sospetto la ragazza affrontò endicott con aria decisa no il procuratore distrettuale si alzò e fece un inchino questo è tutto per il momento signorina world grazie per essere venuta farrell e mavis world si alzarono io non mi mossi l'avvocato domandò terrete una conferenza stampa e credo che mi convenga lasciare l'incarico a voi signor farrell siete sempre stato molto abile nel manovrare i giornalisti farrell annui e mosse verso la porta se ne andarono lei non mi guardò nemmeno uscendo ma qualcosa mi sfiorò lievemente il collo forse per caso la sua manica endicott guardò la porta a chiudersi poi si voltò a guardare me farrell rappresenta anche voi mi sono dimenticato di chiederglielo non posso permettermi una spesa simile quindi sono vulnerabile il procuratore sorrise forzatamente prima permetto a quei due di impaniarmi con tutti i trucchi possibili e adesso mi salvo la faccia maltrattandovi e non potrei impedirvelo non siete precisamente molto orgoglioso di come avete condotto le cose vero marlow sono partito col piede sbagliato e dopo ho dovuto barcamenarmi come potevo non credete di avere degli obblighi verso la legge lo crederei se la legge fosse come voi lui si passò le lunghe dita pallide fra i capelli neri arruffati potrei rispondervi molte cose a questo proposito disse ma stringi stringi il senso sarebbe uno solo il cittadino è la legge in questo paese non siamo ancora riusciti a capirlo pensiamo alla legge come un nemico abbiamo la fobia dei questurini ci vorrà molta buona volontà per cambiare questo stato di cose affermai da una parte e dall'altra endicott si chinò in avanti e premette il pulsante di un campanello è vero disse tranquillamente ma bisogna pure che qualcuno cominci grazie per essere venuto mentre me ne andavo da un'altra porta entrò la sua segretaria con un grosso raccoglitore in mano capitolo 32 dopo che mi fu il raso ed ebbi fatto il bis della prima colazione cominciai a sentirmi un po meno simile alla cassetta di trucioli dove la gatta aveva fatto i gattini andai in ufficio apersi la porta e respirai l'aria viziata e l'odore della polvere apersi la finestra e mi riempì i polmoni dell'odore di fritto del caffè vicino mi sedetti alla scrivania e senti il ruvido della polvere sotto le dita mi appoggi allo schienale della poltroncina e mi guardai intorno salve dissi parlavo ai mobili dell'ufficio ai tre stipi verdi dell'archivio al tappeto liso alla poltrona per i clienti di fronte a me alla boccia del lampadario sul soffitto dove giacevano tre falene morte da almeno sei mesi parlavo al vetro smerigliato ai serramenti tetri allo stiloforo sulla scrivania allo stanco stanchissimo telefono parlavo alle scaglie d'alligatore un alligatore che si chiamava marlow investigatore privato della nostra piccola comunità operosa non un cervellone ma ragionevole in fatto di prezzi cominciava a buon mercato e finiva più a buon mercato ancora affondai una mano nell'ultimo cassetto e posai la bottiglia di whisky old forster sul piano della scrivania era ancora piena per un terzo old forster ma di un po chi te l'ha data buon uomo è roba di prima qualità roba di classe troppo per te deve essere stato un cliente ho avuto un cliente una volta e così mi misi a pensare alla ragazzina e forse ho i pensieri più magnetici di quanto non creda il telefono squillò e la strana vocetta precisa mi apostrofò esattamente nel tono della prima volta sono in quella cabina telefonica disse se siete solo vengo su accomodatevi immagino che sarete furioso con me non sono furioso con nessuno sono solo stanco sì che lo siete affermò la vocina computa ma vengo su ugualmente non me ne importa se siete in collera e attaccò il ricevitore tolsi il tappo dalla bottiglia di old forster e annusai il liquore rabbrividi questo definì la questione quando non potevo sentir l'odore del whisky senza rabbrividire bere era fuori questione riposi la bottiglia e andè a girare la chiave della porta di comunicazione poi la sentì arrivare frettolosa lungo il corridoio avrei riconosciuto dovunque coi passetti brevi e contenuti apersi la porta e lei entrò e mi lanciò un'occhiata timida era sparito tutto gli occhiali obliqui la nuova pettinatura il cappellino alla moda il profumo e l'aria di essere tirata a pomice i gioiellini falsi il rossetto sulle labbra tutto non c'era più nulla era tornata esattamente al punto di partenza lo stesso abito fatto marrone la stessa borsa a quadra gli stessi occhiali senza montatura lo stesso sorrisino manierato gretto e provinciale sono io disse torno a casa mi seguì nel mio pensatoio privato si sedette con affettato decoro io mi sedetti come capitava e la fissai tornate a manattan dissi mi meraviglio che ve l'abbiano permesso può darsi che debba venire ancora qui potete affrontare la spesa diede una risatina breve vagamente imbarazzata non mi costerà nulla alzò una mano e sfiorò gli occhiali senza montatura questi mi sembrano estranei ora mi confido gli altri mi piacevano ma il dottor zack smith non li approverebbe assolutamente depose la borsa sulla scrivania tracciò una riga lungo il piano di vetro con la punta di un dito anche questo era come la prima volta non riesco a ricordare se vi ho reso i vostri 20 dollari o no dissi ce li siamo passati avanti e indietro tante volte che ho perso il conto oh me li avete resi grazie sicura non mi sbaglio mai coi soldi state bene non vi hanno picchiato alla polizia no e mi hanno trattato con una durezza infinitamente inferiore al normale lei mostrò un'innocente sorpresa poi le brillarono gli occhi dovete essere terribilmente coraggioso è tutta questione di una affermai presi una matita e ne tastai la punta era molto accuminata ottima per chiunque desiderasse scrivere qualcosa io non desideravo scrivere niente allungai il braccio feci passare la matita nella cinghia della borsa della ragazza e la tirai verso di me non toccate la mia borsetta scatto lei e fece per afferrarla sorrisi e mesi l'oggetto fuori dalla sua portata va bene ma è una borsettina così carina vi somiglia tanto lei si appoggiò allo schienale della poltrona c'era una luce vaga di preoccupazione nei suoi occhi ma le labbra sorridevano davvero mi giudicate carina philip sono un tipo così comune non direi davvero per diana no per me siete una delle ragazze più straordinarie che abbia mai conosciuto afferrai la borsetta per la cinghia e l'appesi a un angolo della scrivania orf may vincolò gli occhi di sopra immediatamente ma si umetto le labbra e continuò a sorridermi scommetto che avete conosciuto una terribile quantità di ragazze perché abbassò gli occhi e di nuovo tracciò una riga sulla scrivania come mai non vi siete sposato pensai a tutte le risposte che le potevo dare pensai a tutte le donne che mi erano piaciute tanto da farmi desiderare il matrimonio no non a tutte ma ad alcune di loro credo di sapere la risposta dichiarai ma a voi parrà stupida e sdolcinata le donne che forse sposerei volentieri beh non ho quel che ci vuole per loro ecco e le altre non è necessario sposarle è sufficiente sedurle sempre che non vi battano in velocità e non siano loro a sedurre voi arrossi fino alle radici dei capelli color topo siete disgustoso quando parlate così e questo vale anche per alcune ragazze per bene continuai non quel che avete detto voi quel che ho detto io nemmeno voi sareste stata una rocca inespugnabile o non parlate così vi prego beh sareste stata proprio così difficile lei fissò il piano della scrivania vorrei che mi diceste che cosa è accaduto a orin disse lentamente sono tutta confusa vi avevo detto che probabilmente aveva perso la testa la prima volta che siete venuta ricordate lei accennò di sì ancora accesa in volto aveva avuto una vita familiare poco normale continuai era un ragazzo pieno di inibizioni e aveva un concetto esagerato della propria importanza saltava agli occhi nelle fotografie che mi avevate dato non voglio farvi una conferenza di psicologia ma orin era il tipo da perdere la trebisonda completamente se appena avesse fatto un passo fuori binario nella vostra famiglia poi tutti sono divorati da una spaventevole sete di denaro tutti meno una mi sorrideva ora pensava che intendessi parlare di lei non avevo niente in contrario vorrei farvi una sola domanda vostro padre era già stato sposato in precedenza accennò di sì questo aiuta a capire molte cose lei la ha avuto un'altra madre raccontatevi qualcosa di più dopo tutto ho fatto una bella quantità di lavoro per voi per il modico prezzo di zero dollari netti siete stato pagato replicò aspramente da lei la e non vi aspettate che la chiami mavis weld non lo farò mai non sapevate che sarei stato pagato ebbene vi fu una lunga pausa durante la quale i suoi occhi andarono ancora a posarsi sulla borsetta ma siete stato pagato e vabbè passiamoci sopra perché non avete voluto dirmi chi era avevo vergogna mamma e dio tutti e due ci vergognavamo orrin no la cosa gli piaceva immensamente orrin vi fu un breve silenzio educato durante il quale lei tornò a guardare la borsetta stava cominciando a incuriosirmi quella borsetta ma orrin abitava qui da un certo tempo immagino che ci si fosse abituato lavorare nel cinema non è una cosa così tremenda ve l'assicuro non si trattava solo di questo sbottò poi affondò un dente nel labbro inferiore negli occhi blu le brillò una luce improvvisa che poi si spense molto lentamente io mi limitai ad avvicinare un altro fiammifero alla pipa ero stanco per mostrare le mie emozioni seppure ne avevo lo so o se non altro l'avevo più o meno indovinato come ha fatto orrin a scoprire una certa cosa sul conto di steelgrave una cosa che la polizia non era riuscita a scoprire non non saprei fece lei lentamente facendosi strada tra le parole con cautela come un gatto che cammina su uno steccato non potrebbe essere stato quel dottore oh sicuro dissi con un sorriso largo e affettuoso lui e orrin avevano fatto amicizia per una ragione o per l'altra avevano un interesse comune per gli strumenti accuminati forse lei si appoggiò all'indietro sulla poltrona il suo visetto era angoloso e tirato ora aveva un'espressione guardinga ecco ora siete di nuovo odioso disse ad ogni piesso spinto vi sentite in dovere di comportarvi così che peccato esclamai e dire che sarei una creatura adorabile se solo fossi capace di lasciarmi stare bella borsetta allunga e la mano presi la borsa e feci scattare la cerniera la ragazza balzò in piedi e fece per agguantarla lasciate stare la mia borsetta la guardai dritto negli occhi volete tornare a casa a manhattan no quest'oggi avete il biglietto e tutto quanto lei mosse le labbra lentamente e tornò a sedersi d'accordo continuai io non ve lo impedisco sono solo curioso di sapere quanto siete riusciti a guadagnare in questa faccenda lei si mise a piangere apersi la borsa e cominciai a frugarvi dentro niente finché non arrivai alla tasca posteriore apersi la cerniera lampo e affondai le dita nello scomparto c'era un pacchetto di banconote nuove là dentro le tirai fuori e le feci scorrere tra le dita dieci fogli da cento tutti nuovi puliti mille dollari netti una sommetta simpatica da portare in viaggio mi appoggiai all'indietro e battei la costo del pacchetto sull'orlo della scrivenia la ragazza non piangeva più ora e mi fissava con gli occhi umidi trassi un fazzoletto dalla sua borsa e glielo gettai lei si asciugò gli occhi di tanto in tanto emetteva un grazioso singhiozzo implorante me l'ha la ragazza spalancò la bocca una lacrima le corse giù per la guancia e vi cadde dentro lasciate perdere dissi gettai il pacchetto di banconote nella borsetta feci scattare di nuovo la cerniera e spinsi la borsa verso di lei immagino che voi e orrin apparteniate a quella categoria di persone che riesce sempre a convincersi che tutto quello che fa è ben fatto lui ha potuto ricattare sua sorella e quando un paio di piccoli malviventi imbroglioni hanno scoperto il suo gioco e l'hanno soppiantato non si è peritato di prenderli a tradimento e di mandargli a creatore con uno scalpello da ghiaccio nella nuca probabilmente questo non gli ha nemmeno guastato il sonno e voi siete capace delle stesse prodezze quei soldi non ve li ha dati leila ve li ha dati still grave perché siete un lurido essere immondo scattò la ragazza siete un miserabile come vi permettete di dirmi certe cose chi ha soffiato alla polizia che la gardie conosceva closen i questurini han creduto che fossi stato io ma io non avevo aperto bocca quindi siete stata voi perché per scoprire il gioco di vostro fratello che non voleva darvi la vostra parte del malloppo perché proprio allora aveva perso la sua arma segreta e aveva dovuto correre a nascondersi mi piacerebbe leggere qualcuna delle lettere che scriveva a casa dovevano essere ben succose mi pare di vederlo sulla breccia che spia sua sorella e le fa la posta aspettando che si metta in posizione favorevole per la sua leica mentre il buon lagardier nel retroscena se ne sta placido in attesa della sua parte di bottino perché mi avete assunto non sapevo niente ribatte la ragazza con calma si asciugò gli occhi ripose il fazzoletto nella borsa e si preparò per andarsene orrin non aveva fatto mai i nomi non sapevo nemmeno che avesse perso le fotografie però sapevo che le aveva fatte e che valevano molto denaro sono venuta qui per assicurarmi assicurarvi di cosa che orrin mi trattasse equamente a volte era terribile avrebbe potuto tenere tutto il denaro per sé perché vi ha telefonato l'altro ieri sera aveva paura il dottore lagardier non era più contento di lui aveva perso le fotografie qualcuno le aveva portate via orrin non sapeva chi ma aveva molta paura le avevo io dissi e le ho ancora sono in quella cassaforte lei si voltò molto lentamente a guardare la cassaforte poi si passò un dito sul labbro con aria perplessa e si voltò di nuovo non vi credo dichiarò e i suoi occhi mi fissavano come quelli di un gatto che tiene d'occhio la tana di un topo che ne dite di fare a mezzo con me quei mille dollari le foto restano a voi lei ci pensò sopra non potrei certo darvi tanto denaro per una cosa che non vi appartiene affermò e sorrise vi prego datemi quelle foto vi prego philip lei la deve riaverle per quanto grano lei aggrottò la fronte con aria addolorata lei la è la mia cliente ora soggiunsi ma farle il doppio gioco potrebbe non essere un cattivo affare se il prezzo è conveniente non credo che le abbiate voi e va bene mi alzai e andai alla cassaforte un istante dopo ero di ritorno con la busta riversai le copie e la negativa sul piano della scrivania dalla mia parte della scrivania lei le guardò e allungò una mano riunii le foto le pareggiai e ne tenni una in modo che potesse vederla quando tornò ad allungare una mano mi ritrassi ma non ci vedo così da lontano protestò avvicinarsi costa danaro non avrei mai pensato che foste un ladro dichiarò lei con dignità non feci commenti e riaccesi la pipa potrei costringervi a consegnarli alla polizia potete provare a un tratto prese a parlare molto rapidamente non posso darvi questo danaro davvero non posso noi ecco mamma io abbiamo ancora molti debiti per via di papà e c'è un'ipoteca sulla casa e che cosa avete venduto a steelgrave per mille dollari le cadde la mascella e per un momento fu brutta poi chiuse la bocca e la strense forte era una faccetta dura chiuse e crudele quella che mi stava davanti avevate una sola cosa da vendere continuai l'indirizzo di orrin per steelgrave questa informazione valeva mille dollari comodamente era una questione di convalidare una certa prova voi non potreste capire steelgrave è andato laggiù e l'ha ucciso vostro fratello e vi ha pagato danaro sonante per l'indirizzo gliel'ha dato l'indirizzo ribatte la ragazza con voce lontana leila mi ha detto di averglielo dato ammisi se fosse necessario leila lo direbbe al mondo di averglielo dato esattamente come griderebbe al mondo di aver ucciso steelgrave se questa fosse l'unica via di uscita leila è una tipica ragazza di hollywood piuttosto facile con una moralità molto dubbia ma quando entrano in gioco il coraggio e la generosità non è seconda a nessuno non è un tipo da scalpello da ghiaccio e nemmeno un tipo da quattrini insanguinati il colore le si ritirò tutto dal viso rimase pallida come il ghiaccio la bocca tremò e lei la strinse forte in un piccolo nodo duro respinse la poltrona e si chinò un poco in avanti per alzarsi quattrini insanguinati ripetei quietamente vostro fratello e voi avete sistemato le cose in modo che potessero accopparlo mille dollari tutti pieni di sangue spero che vi diano tanta felicità la ragazza si alzò e fece di passi indietro poi a un tratto diede una risatina infantile e chi può provarlo chiese quasi strillando chi è vivo per provarlo voi chi siete voi un avvocatuccio da due soldi una nullità scoppiò in una risata alta stridula ma se bastano 20 dollari per comprarvi avevo ancora in mano il mazzetto di fotografie accesi un fiammifero lasciai cadere la negativa nel portacenere la guardai consumarsi in una vampata lei si fermò di botto agghiacciata dall'orrore cominciai a strappare le fotografie strisce sottili e sorrisi alla signorina quest un avvocatuccio da due soldi ripetei beh che cosa vi aspettavate non ho né fratelli né sorelle da vendere così vendo i miei clienti lei rimase immobile rigida a fissarmi con odio terminai di stracciare le foto e diedi fuoco ai frammenti nel portacenere una cosa sola mi dispiace dichiarai non assistere al vostro incontro con la cara vecchia mamma laggiù a manattan kansas il non vedervi a capigliare per decidere in che proporzioni dividervi quei mille dollari senza dubbio sarà uno spettacolo degno di nota mossi i pezzetti di carta col fondo di una matita perché continuassero a bruciare la ragazza si avvicinò lentamente passo passo alla scrivania con gli occhi fissi sul mucchietto di bracci fumanti potrei dirlo alla polizia mormorò potrei dire moltissime cose senz'altro mi crederebbero io potrei dire chi ha ucciso steelgrave affermai potrei perché so chi non l'ha ucciso forse mi crederebbero la testa minuta si alzò di scatto la luce si riflette in un lampo sugli occhiali senza montatura non c'erano occhi dietro le lenti non vi preoccupate dissi non mi costerebbe abbastanza e costerebbe troppo a qualcun altro il telefono squillò e lei trasalì violentemente mi voltai portai ricevitore all'orecchio e dissi pronto amico state bene vi fu come un rumore di fondo mi voltai e vidi la porta chiudersi ero solo in ufficio state bene amico sono stanco sono stato in piedi tutta notte senza contare che la piccola vi ha telefonato la sorellina è stata qui fino a un istante fa ora è in viaggio per manattan col malloppo il malloppo la mancia che le ha dato steelgrave per avergli permesso di assassinare il fratello vi fu una pausa di silenzio poi dolores disse gravemente non potete sapere una cosa simile amico lo so come so che sono seduto alla scrivania col telefono in mano come so che sto ascoltando la vostra voce e con la stessa certezza matematica ma con un buon margine di certezza come so che ha ucciso steelgrave siete un po sciocco a dirmi tutto questo amico non sono perfetta non dovreste fidarvi troppo di me ogni tanto commetto qualche errore da questa volta non è il caso ho bruciato tutte le fotografie avevo cercato di venderle a orfamei ma non mi ha offerto abbastanza volete scherzare amico lungo il filo arrivò la sua risatina argentina tintinnante vi farebbe piacere condurmi a colazione amico può darsi siete a casa vostra sì vi raggiungerò tra poco sarà un piacere immenso per me deposi il ricevitore la commedia era terminata ero seduto in un teatro vuoto il sipario era calato su di esso un po indistinta potevo vedere riproiettarsi l'azione scenica ma già alcuni attori stavano diventando vaghi e materiali la sorellina soprattutto di lì a un paio di giorni non avrei ricordato più che faccia aveva perché in un certo senso era davvero una creatura irreale l'immaginai che se ne tornava manattan kansas dalla cara vecchia mamma con i suoi mille bei dollarini pingui croccanti e nuovi nella borsetta erano state assassinate alcune persone perché lei potesse averli ma ero certo che quel pensiero non l'avrebbe disturbata per molto tempo l'immaginai la mattina che se ne andava in ufficio allo studio del come si chiamava quel tizio ah sì dottor zack smith espolverava la scrivania del principale prima che arrivasse e riordinava le riviste in sala d'aspetto avrebbe portato gli occhiali senza montatura e un abito liscissimo sul viso non avrebbe avuto un'ombra di trucco il suo contegno con i pazienti sarebbe stato di una correttezza estrema il dottor zack smith può ricevervi ora signora chissà chi avrebbe tenuto la porta aperta con un sorrisetto la signora chissà chi le sarebbe passata davanti e il dottor zack smith in camice bianco sarebbe stato seduto dietro la sua scrivania con un'aria incredibilmente dottorale e lo stetoscopio appeso al collo di fronte a lui ci sarebbe stato uno schedario di cartelle anamnesiche e il tacquino per le annotazioni e il ricettario sarebbero stati ordinatamente disposti a portata di mano non c'è nulla che il dottor zack smith non sappia non lo si può ingannare ha tutto sulla punta delle dita quando guarda una paziente conosce già tutte le risposte alle domande che gli rivolgerà per pura questione di forma e quando il signor dottore guardava la sua ricevitrice la signorina orfamei quest vedeva una giovane beneducata e tranquilla vestita con la proprietà consona allo studio di un medico niente unghie scarlatte niente trucco violento niente che potesse urtare i pazienti all'antica una ricevitrice ideale la signorina quest quando gli capitava di pensare a lei il dottor zack smith ci pensava con intima soddisfazione era stato lui a farne quello che era era proprio quello che il dottore aveva ordinato molto probabilmente non aveva ancora tentato di portarla a letto forse nelle cittadine queste cose non si fanno io sono cresciute in una cittadina cambiai posizione guardai l'orologio e tirai fuori la bottiglia di old forester dal cassetto la fiutai aveva un buon odore me ne versai una dose robusta e alzai il bicchiere in controluce ebbene dottor zack smith dissi ad alta voce proprio come se lui fosse stato seduto dall'altro capo della scrivania con un bicchiere in mano io non vi conosco molto bene e voi non mi conoscete affatto di solito io non credo che serva a dar consigli agli estranei ma ho fatto un breve corso intensivo sul tema orfamei quest e contravvengo alla regola se mai quella ragazzina vuole qualcosa una cosa qualsiasi da voi dategliela e alla svelta non menate il camperlaia non vi lagnate della tassa sul reddito e delle spese generali sfoderate il vostro più bel sorriso e sganciate non vi impegolate in una discussione intorno a chi ha diritto di possedere questo o quello tenete di buon umore la ragazzina questo è l'importante buona fortuna a voi dottore e non lasciate in giro bisturi in ufficio bevi metà del mio cicchetto e aspettai che mi riscaldasse quando fece effetto bevi l'altra metà e riposi la bottiglia vuotai la pipa dalla cenere ormai fredda e tornai a riempirla prendendo il tabacco da un recipiente di cuoio che mi era stato regalato per natale da un ammiratore un ammiratore che per strana coincidenza portava il mio stesso nome e cognome quando ebbi riempito la pipa l'accesi con cura prendendome la comoda poi uscì e mi incamminai lungo il corridoio vispo come un inglese di ritorno da una partita di caccia alla tigre capitolo 33 il chateau bercy era un palazzo vecchio rimodernato aveva il tipo di vestibolo che richiede velluti rossi e dorature e ottiene vetro cemento luci diffuse e tavolini triangolari di cristallo e in complesso all'aria di essere stato decorato da un evaso dal manicomio i colori dominanti erano verde bile marrone in piastro di lino grigio marciapiedi e blu sedere di scimmia era riposante come un'unghia incarnita la piccola scrivania all'ingresso era vuota ma lo specchio dietro di essa poteva essere trasparente perciò non tentai di sgattaiolare su per le scale suonai il campanello e un uomo corpulento e molliccio comparve da dietro un muro e mi sorrise con le labbra umide e morbide i denti bianco azzurrastri e gli occhi che lucicavano in maniera innaturale la signorina gonzalez dissi mi chiamo marlow la signorina mi aspetta ma certo sì naturalmente garrì il ciccione agitando le mani come un frullo d'ali sì naturalmente le telefono subito anche la voce pareva un frullo d'ali l'uomo prese il ricevitore del telefono vi gorgogliò dentro e lo mise giù sì signor marlow la signorina gonzalez dice che andiate subito su appartamento 12 quarto piano diede una risattina da scolaretta ma immagino che lo sappiate lo so adesso ribattei o tra parentesi eravate qui nel febbraio scorso nel febbraio scorso nel febbraio oh sì ero qui nel febbraio scorso la sua pronuncia era meticolosa come un manuale di fonetica ricordate la sera in cui hanno fatto fuori stain qui di fronte il sorriso sparì a precipizio siete un ufficiale di polizia la voce era sottile e flebile ora no ma avete i pantaloni aperti se ci tenete a saperlo lui guardò giù inorridito e chiuse la cerniera con le mani che quasi gli tremavano oh grazie balbettò grazie si chinò sopra la piccola scrivania non è successo proprio qui davanti disse non esattamente è stato quasi all'angolo della via abitava qui vero preferirei proprio non parlarne sinceramente preferirei non parlarne tacque e si passò la lingua sul labbro inferiore perché queste domande così tanto per farvi parlare dovete starci più attento amico vi si sente nel fiato divenne tutto rosa fino al collo se insinuate che abbia bevuto solo te risposi e non in infusione mi allontanai lui non ha perse bocca quando arrivai all'ascensore mi volte a guardare era in piedi con le mani piatte sulla scrivania il collo torto indietro per guardarmi anche da quella distanza pareva che tremasse l'ascensore era automatico l'atrio del quarto piano era tappezzato in grigio chiaro ed aveva un tappeto foltissimo accanto alla porta dell'appartamento numero 12 c'era un minuscolo pulsante il campanello tintinnò gentilmente all'interno l'uscio si spalancò immediatamente i begli occhi neri e profondi si posarono su di me e la bocca scarlatta mi sorrise pantaloni neri e camicetta color fiamma come la sera prima amico sussurrò e tese le braccia le afferrai i polsi e le feci unire le palme giocai a scaldamano con lei per qualche istante nei suoi occhi c'era un'espressione languida ma bruciante lasciai andare i polsi chiusi la porta con un gomito e scivolai nella stanza insinuandomi tra lei e il muro fu come la prima volta dovreste assicurare questa roba dissi sfiorandole un seno non era di gomma il capezzolo era duro come un rubino dolores scoppiò in una delle sue risate gioiose avanzai nel locale e mi guardai intorno era grigio perla e azzurro polvere non adatto a lei ma molto grazioso c'era un caminetto finto coi ceppi che nascondevano un radiatore a gas e un certo numero di poltrone tavolini e lampade ma non troppa roba in un angolo c'era un piccolo scaffale di liquori vi piace il mio piccolo nido amico non lo chiamate piccolo nido anche questa è un'espressione da sgualdrina non la guardavo non avevo voglia di guardarla mi sedetti sul divano e mi passai una mano sulla fronte quattro ore di sorno e un paio di cicchetti e sarei di nuovo in grado di parlare a vanvera con voi dissi ora ho appena la forza di parlarvi sul serio ci sono costretto venne a sedersi vicino scossi il capo mettetevi là devo proprio parlarvi sul serio si sedette di fronte a me e mi guardò con quei suoi occhi bruni e gravi ma sì amico tutto quel che volete sono la vostra ragazza o perlomeno sarebbe contenta di diventarlo dove abitavate a cleveland a cleveland parlava con voce morbida tubava quasi vi ho detto di aver vissuto a cleveland avete detto che lui l'avevate conosciuto là ci ripensò un istante poi accennò di sì ero sposata a quel tempo amico che cosa succede allora avete abitato a cleveland sì mormorò come avete conosciuto still grave erano i tempi in cui era di moda conoscere un gangster una forma di snobismo alla rovescia immagino si andava nei locali in cui si diceva che bazzicassero i fuorilegge e se si era fortunate forse una sera gli avete permesso di abbordarvi a noi vivacemente diciamo che io ho abbordato lui era un omino infinitamente simpatico ve l'assicuro e il marito vostro marito intendo o non ve ne ricordate la ragazza sorrise le strade del mondo sono lastricate di mariti scartati verità sacrosanta se ne trovano dovunque persino a bei city non ottenni nulla lei si strinse educatamente nelle spalle non ne dubito forse c'è persino qualche laureato alla sorbonne forse si spreca esercitare una cittadina miserabile e aspetta e spera questa è una coincidenza che sarei disposto ad accettare a un tocco di poesia il sorriso cortese rimase fermo su bel viso di dolores siamo diversi ormai disse siamo mille miglia lontano ed eravamo così uniti un tempo abbassai gli occhi e mi guardai le dita la testa mi doleva non ero nemmeno di 40 per cento di quel che avrei dovuto essere la mia ospite mi porse una scatola di cristallo piena di sigarette io mi servì lei ne infilo una per sé nelle mollette d'oro l'aveva presa da un'altra scatola vorrei provarne una delle vostre dissi ma il tabacco messicano brucia la gola la maggior parte della gente finché tabacco murmurai osservandola attentamente poi mi decisi no avete ragione non mi piacerebbe che cosa significano queste battute d'aspetto mi domandò con aria cauta l'impiegato ricevitore fuma marijuana a noi lentamente l'ho avvertito di stare attento parecchie volte amico dissi che voi non vi servite molto dello spagnolo vero forse non ne sapete molto di spagnolo amico è così frusto che cade in pezzi non vogliamo ricominciare come ieri nel pomeriggio spero disse lentamente no di messicano avete ben poco una dozzina di parole è un modo preciso calcolato di parlare come chi si serve di una lingua che ha dovuto studiare evitate rigorosamente le abbreviazioni ad esempio cose di questo genere non rispose fumava elegantemente la sigaretta e sorrideva sono in un brutto guaio con la polizia continuai a quanto pare la signorina weld ha avuto il buon senso di dire tutto al suo principale jules opnheimer e lui non l'ha lasciata colare a picco le ha procurato lee farrell non credo che alla polizia pensino che mavis weld abbia ucciso steelgrave però pensano che io sappia chi è stato e non mi vogliono più bene e lo sapete davvero amico ve l'ho detto al telefono che lo sapevo mi guardò dritto in faccia per un lungo istante ero presente la sua voce aveva un tono composto e grave per una volta tanto è stato molto curioso davvero la piccola aveva voglia di visitare una casa da gioco non aveva mai visto niente di simile e i giornali ne avevano parlato abitava qui con voi non nel mio appartamento amico in una stanza che avevo preso per lei non c'è da meravigliarsi che non abbia voluto dirmi dove stava osservai comunque immagino che non abbiate avuto tempo per insegnarle il mestiere corrugò lievemente la fronte abbozzò un gesto vago con la sigaretta bruna guarda il fumo scrivere una parola misteriosa nell'aria immobile vi prego come vi dicevo la piccola desiderava andare in quella casa così io ho telefonato e lui ha detto che andassimo pure quando siamo arrivate lui era ubriaco non l'avevo mai visto prima in quello stato si è messo a ridere ha passato un braccio intorno alla vita della piccola orfemei e le ha detto che aveva guadagnato bene i suoi quattrini poi ha aggiunto che aveva qualcosa da darle e ha tirato fuori di tasca un portafogli avvolto in pezzo di stoffa quando la piccola l'ha svolto ha visto che c'era un buco nel centro del portafogli e il buco era sporco di sangue questo non è stato carino dichiarai non lo definirei nemmeno caratteristico voi non lo conoscevate giusto continuate la piccola orfemei ha preso il portafogli e l'ha fissato un po' poi si è messa a fissare steelgrave con un faccino bianco e immobile ha ringraziato ha aperto la borsa per riporre il portafogli o almeno io credevo è stato molto curioso una cannonata dichiarai mi avrebbe fatto restare col fiato sospeso ma invece ha tirato fuori una rivoltella dalla borsa era una rivoltella che lui aveva regalato a mavis mi pare era uguale a so benissimo com'era dichiarai ci ho giocato un po' poi la piccola si è voltata di scatto e l'ho affreddato con un colpo solo è stato molto drammatico si portò la sigaretta a bruna la bocca e mi sorrise un sorriso strano distante come se stesse pensando a una cosa lontana e voi le avete fatto confessare tutto a mavis weld dissi la ragazza annui mavis non avrebbe creduto a voi immagino non volevo correre rischi non siete stata voi a dare mille dollari al famei vero cara per farle raccontare quella storia è una ragazzina disposta a molte cose per mille dollari non desidero rispondere a certe insinuazioni replicò dolores scondignità no quindi ieri sera quando mi avete trascinato lassù di gran carriera sapeva già che lui era morto e che non c'era niente da temere ragion per cui tutta quella scena con la rivoltella era soltanto una scena non mi piace dover recitare la parte del destino sussurrò la situazione era intricata e io sapevo che in un modo o nell'altro ne avreste tirato fuori mavis nessuno ci sarebbe riuscito all'infuori di voi mavis era decisa ad addossarsi tutta la colpa avrei bisogno di un cicchetto borbottai sono sfinito balzò in piedi e si diresse al mobile bar poco dopo ritornò con due enormi bicchieri di whisky e acqua me ne porse uno e mi osservò sopra l'orlo del suo mentre assaggiavo il liquore era magnifico ne bevi qualche sorso lei si lasciò cadere di nuovo sulla sua poltrona e prese le mollette d'oro l'ho cacciata via ripresi finalmente sto parlando di mavis mi aveva detto che l'aveva ucciso aveva in tasca la pistola la gemella di quella che avevate data a me probabilmente non vi eravate accorta che la vostra aveva sparato me ne intendo pochissimo di armi rispose sommessamente sicuro ho contato i proiettili e posto che all'inizio il caricatore fosse stato pieno mancavano due colpi quest era stato ucciso con due colpi di automatica calibro 32 lo stesso calibro avevo raccolto i bossoli nel salottino laggiù laggiù dove amico stava cominciando a darmi sui nervi troppi amico assolutamente troppi naturalmente non potevo essere certo che si trattasse della stessa arma ma mi è parso che valesse la pena tentare se non altro per confondere un po le cose e dare un minimo di possibilità di cavarsela a mevis così l'ho appioppata al morto e ho deposto la sua rivoltella sotto il banco del bar la sua era una 38 nera molto più in carattere anche su un'impugnatura ruvida si possono lasciare tracce ma con un calcio di avorio si è quasi certi di lasciare una bella serie di impronte sul lato sinistro steelgrave non avrebbe mai portato un'arma di quel genere i suoi occhi erano tondi vuoti e perplessi temo di non riuscire a seguirvi bisbigliò e se steelgrave avesse ucciso qualcuno l'avrebbe ucciso del tutto e si sarebbe assicurato che fosse morto il ragazzo si è rialzato ed è andato un po in giro nei suoi occhi brillò un lampo e subito si spense mi piacerebbe poter dire che ha parlato un po continuai ma non l'ha fatto aveva i polmoni pieni di sangue è morto ai miei piedi laggiù ma laggiù dove non mi avete detto dove è accaduta questa devo proprio beve qualche sorso di liquore depose il bicchiere sorridendo eravate presente quando orfe me gli ha dato l'indirizzo le rammentai oh sì naturalmente si era ripresa bene subito e con eleganza ma il suo sorriso pareva un poco più stanco solo che lui non c'è andato la sua sigaretta si fermò a mezz'aria questo fu tutto poi la sigaretta riprese lentamente la via verso le labbra dolores aspirò il fumo con eleganza sapete qual è stato il guaio fin dal principio io mi sono sempre rifiutato di credere alle cose che mi parevano troppo chiare e lampanti steelgrave era frigna moyer questo è un dato di fatto no sicuro e lo si può provare ebbene steelgrave ha cambiato vita e le cose gli vanno bene poi compare stain e comincia a tormentarlo perché vuole una fetta della torta sto tirando a indovinare ma le cose devono essere andate più o meno così benissimo stain deve sparire dalla circolazione steelgrave non vuole uccidere nessuno e per la storia non è mai stato accusato di aver ucciso nessuno la polizia di cleveland si è rifiutata di venire a prenderselo non ci sono denunzie pendenti non c'è mistero a parte il fatto che un tempo steelgrave aveva fatto parte di una gang con un compito ignoto ma ora steelgrave deve liberarsi di stain così si fa mettere al fresco poi esce prezzolando il dottore del carcere ammazza stain e ritorna subito in cella tanto sa benissimo che quando la notizia del delitto diverrà di dominio pubblico le persone che l'hanno lasciato uscire di prigione si precipiteranno a distruggere tutte le eventuali prove della sua uscita perché sicuramente arriverà la polizia e comincerà a far domande molto naturale amico la studiai cercando segni di resa ma non ne vidi fin qui tutto bene ma dobbiamo pure far credito di un po di cervello a questo figliolo perché ha lasciato che lo tenessero in galera per dieci giorni risposta numero uno per crearsi un alibi risposta numero due perché sapeva che presto tardi il fatto che lui era frigna moyer sarebbe venuto a galla quindi perché non dar tempo alla polizia di prendere tutte le informazioni che credeva e farla finita una volta per sempre almeno dopo ogni volta che qualcuno avesse fatto la pelle a un gangster nella zona e questurini non sarebbero precipitati ad arrestarlo cercando di affibbiare la colpa a lui e questa ipotesi vi piace amico sì considerate le cose dal mio punto di vista perché il nostro uomo sarebbe dovuto andare a fare colazione in un locale pubblico proprio il giorno in cui era uscito di prigione per saldare il conto a stain e se così fosse stato come mai il giovane quest era capitato da quelle parti per fare l'istantanea stain non era stato ancora ucciso quindi la foto non costituiva la prova di niente mi piace che la gente abbia fortuna ma questo si chiama avere una fortuna sfacciata e inoltre anche se steelgrave non si fosse accorto di essere stato fotografato sapeva chi era il giovanotto quest aveva continuato a chiedere quattrine alla sorella da quando aveva perso l'impiego e forse anche da prima steelgrave possedeva la chiave dell'appartamento di mavis doveva pur sapere qualcosa del fratello della sua ragazza e tutto questo ci porta a una sola conclusione cioè che quella sera in particolare steelgrave non avrebbe sparato a stain per nessuna ragione al mondo anche se ne avesse avuta l'intenzione e ora è il mio turno devo chiedervi chi l'ha fatto disse lei educatamente l'ha fatto una persona che conosceva stain e poteva avvicinarlo una persona che aveva saputo subito che quella foto era stata presa e conosceva l'identità di steelgrave sapeva che mavis weld era sul punto di diventare una stella di prima grandezza e si rendeva conto che la relazione di mavis con steelgrave era pericolosa per la ragazza ma lo sarebbe stata mille volte di più se si fosse potuto far apparire steelgrave colpevole dell'assassinio di stain questa persona conosceva quest perché l'aveva incontrato in casa di mavis weld e l'aveva sedotto e quest era un ragazzo al quale un certo trattamento era destinato a fargli perdere del tutto il lume della ragione questa persona sapeva che le due rivoltelline dall'impugnatura ad osso erano registrate a nome di steelgrave quantunque lui le avesse comprate per regalarle a due ragazze perché se steelgrave fosse andato in giro armato la pistola non sarebbe stata registrata e non sarebbe stato possibile provare che gli apparteneva questa persona sapeva basta la sua voce era una pugnalata ma non tradiva paura e nemmeno ira tacete immediatamente prego non voglio tollerarvi un momento di più andatevene subito mi alzai lei si appoggiò all'indietro e vidi che una vena le pulsava in gola era bruna era squisita era mortale e nulla avrebbe mai potuto toccarla nemmeno la legge perché avete ucciso quest le chiesi si alzò e mi venne vicina di nuovo sorridendo per due ragioni amico era completamente pazzo e avrebbe finito con l'uccidermi e l'altra ragione è che nulla di tutto questo assolutamente nulla l'ho fatto per denaro è stato per amore fui per riderle in faccia ma non lo feci dolores parlava con estrema gravità mi pareva di essere fuori da questo mondo non importa quanti amanti può avere una donna continuò con voce sommessa ce n'è sempre uno che non può perdere che non si può cedere a un'altra quell'uomo era still grave per me la fissai nei begli occhi bruni vi credo dissi dopo un lungo istante baciate mio amico ma per dio io devo avere uomini amico ma l'uomo che amavo è morto l'ho ucciso io l'uomo che non potevo dividere avete aspettato molto tempo so essere paziente finché c'è speranza oh quante storie lei sorrise un sorriso spontaneo bellissimo perfettamente naturale e voi non potete farmi niente per tutto questo tesoro a meno che non vogliate distruggere mavis weld completamente irrimediabilmente ieri sera ha dimostrato di essere pronta a distruggersi con le proprie mani se non recitava mi lanciò un'occhiata penetrante scoppiò a ridere vi ho fatto male siete innamorato di lei sarebbe piuttosto sciocco dissi lentamente potrei star bene seduto al buio al suo fianco con le mani in mano ma fino a quando tra un po sarà presa in un turbine di splendore illusorio di abiti costosi di discorsi vuoti di irrealità e di sesso promiscuo non sarà più una persona reale diventerà un viso su uno schermo una voce da colonna sonora io voglio qualcosa di più mi incamminai verso la porta senza voltarle completamente le spalle ma non mi aspettavo una revolverata pensavo che in fondo dolores mi preferisse così come stavo con le mani legate senza la minima possibilità di fare qualcosa mi voltai a guardarla mentre aprivo la porta snella bruna bella e sorridente tutta sesso è completamente al di là delle leggi morali di questo mondo o di qualsiasi mondo che io potessi immaginare non era un tipo che si dimenticava oh no uscì quietamente la sua voce sommessa mi seguì mentre accostavo il battente qui rido mi sei piaciuto tanto che peccato chiusi la porta capitolo 34 mentre l'ascensore si apriva nel vestibolo a pian terreno scorsi un uomo in attesa era alto e sottile e teneva il cappello con l'ala abbassata sugli occhi era una giornata calda ma l'uomo portava un leggero soprabito col bavero alzato teneva il mento affondato nel petto dottor lagardier sussurrai mi lanciò un'occhiata senza riconoscermi poi entrò nell'ascensore la cabina si avviò verso l'alto andai alla piccola scrivania all'altro capo del vestibolo e suonai aspramente il campanello apparve il grassone molliccio e mi fissò con un sorriso penoso sulle labbra flaccide voglio telefonare vesco l'apparecchio da sotto la scrivania chiamai il 7911 centrale madison una voce disse polizia era la volante casa albergo chateau bercy frankly avenue angolo girard street un certo dottor vincent lagardier ricercato dai tenenti french e bifus per un caso di omicidio è salito in questo momento all'appartamento 12 al quarto piano qui parla marlow e investigatore privato franklin angolo girard aspettateci dove siete per favore siete armato si trattenetelo se cerca di andarsene deposi ricevitori mi asciugai la bocca il ceccione effemminato si puntellava la scrivania livido intorno agli occhi arrivarono in fretta ma non abbastanza forse avrei dovuto fermarlo forse avevo avuto il presentimento di quello che stava per fare e gliel'avevo permesso deliberatamente a volte quando sono giù di giri cerco di ragionarci sopra ma dopo un po mi si ingarbugliano le idee tutto quel maledetto caso era stato così mai una volta avevo potuto fare la cosa più ovvia e naturale senza dovermi fermare all'ambiccarmi il cervello cercando di immaginare quanto male avrei fatto a qualcuno cui dovevo qualcosa quando sfondarono la porta lagardier era seduto sul divano e teneva la testa di lei stretta contro il cuore aveva gli occhi di un cieco e la bocca coperta di bava sanguigna si era quasi mozzato la lingua sotto il seno sinistro della ragazza premuta forte contro la camicetta color fiamma c'era l'impugnatura ad un pugnale che avevo già visto un'impugnatura a forma di donna nuda gli occhi della signorina dolores gonzalez erano semi aperti e sulle labbra vagava l'ombra di un sorriso di sfida il sorriso di ipocrate disse il dottorino che era venuto con l'ambulanza e sospirò a lei sta bene lanciò un'occhiata al dottor lagardier che a giudicare dal suo viso non vedeva e non sentiva nulla qualcuno ha perso un sogno commentò il dottorino e si chinò a chiudere gli occhi di dolores a chiudere gli occhi di dolores gonzalez e le dottorino e si piuere gli occhi di dolore peragare una fischia a chiudere il sorriso di sospirò a lei